La melodia delle parole presenta Madame Bovary di Gustave Flaubert Parte prima Capitolo 1 Stavamo facendo i compiti quando entrò il preside, seguito da un nuovo in abito borghese e da un bidello che trascinava un pesante banco. Quelli che dormivano si svegliarono e tutti si alzarono in piedi, come sorpresi nel proprio lavoro. Il preside ci fece segno di sederci, poi rivolgendosi all'assistente. Signor Roger, gli disse sottovoce, vi affido questo allievo, entra in seconda media. Se il profitto e la condotta saranno meritevoli, passerà fra i grandi, come vorrebbe la sua età. Rimasto nell'angolo, dietro la porta, tanto che lo si scorgeva appena, il nuovo era un ragazzo di campagna, di una quindicina d'anni circa, più alto di tutti noi. Aveva i capelli con la frangia, come un chiarichetto di paese, l'aria compita e molto impacciata. Per quanto non fosse di spalle larghe, la casacca di panno verde e bottoni neri doveva dargli fastidio al giro manica e lasciava intravedere, dallo spacco dei risvolti, due polsi arrossati abituati a stare nudi. Le gambe, in calze blu, sbucavano da pantaloni giallognoli tenuti troppo tesi dalle bretelle. Calzava scarpe pesanti, chiodate, ma lucidate. Cominciamo a ripetere le lezioni. Lui ascoltò tutto orecchi, attento come fosse una predica in chiesa, senza osare nemmeno incrociare le gambe, né appoggiarsi sul gomito. Alle due, quando suonò la campanella, l'insegnante fu costretto ad avvertirlo che doveva mettersi in fila con noi. Avevamo l'abitudine, entrando in classe, di buttare a terra i berretti, per avere poi le mani più libere. Si doveva, fin dalla soglia della porta, lanciarli sotto il sedile in modo da farli sbattere contro il muro, provocando un gran polverone. Questa era la regola. Ma, sia che non avesse notato la manovra o che non avesse osato adottarla, il nuovo, a preghiera già finita, teneva ancora il berretto sulle ginocchia. Era uno di quei copricapi di natura composita, in cui confluiscono elementi del colbacco, del ciopsca, della bombetta, del berretto di lontra, della cuffia di cotone. E, insomma, una di quelle povere cose la cui muta bruttezza possiede una qualche profondità espressiva, come il volto di un idiota. Ovoidale, rinforzato da stecche di balena, cominciava con tre salsicciotti circolari. Si sangue di velluto e di pelo di coniglio. Seguiva una specie di sacchetto che finiva in un poligono foderato di cartone, ricoperto da un complicato ricamo in passamaneria e da cui pendeva, all'estremità di un lungo, esilissimo cordone, un intreccio di fili d'oro a mo' di nappa. Era nuovo, la visiera luccicava. «Alzatevi», disse il professore. Si alzò. Il berretto gli cade a terra. Tutti si misero a ridere. Lui si chinò per riprenderlo. Un vicino lo fece di nuovo cadere con una gomitata. Lui lo raccattò ancora una volta. «Mettete via una buona volta quell'elmetto», disse il professore, che era uomo di spirito. Scoppiò una risata generale che disorientò il povero ragazzo, il quale non sapeva più se doveva tenere il berretto in mano, lasciarlo a terra o metterselo in testa. Si sedette e se lo posò sulle ginocchia. «Alzatevi», riprese il professore. «E ditemi come vi chiamate». Il nuovo articolò con voce farfugliante un nome inintelligibile. «Ripetete». Stesso farfugliare di sillabe, coperto dagli schiamazzi della classe. «Più forte!», gridò l'insegnante più forte. Allora il nuovo, prendendo una decisione estrema, spalancò una bocca smisurata e, come per chiamare qualcuno, gridò a squarciagola «Sciarbovary!». Di colpo si scatenò un putiferio, che salì increscendo con esplosioni di voci stridule. Chi gridava, chi ululava, chi pestava i piedi, chi ripeteva «Sciarbovary!», «Sciarbovary!». Poi si prolungò in note isolate, placandosi a fatica e riprendendo improvviso, a tratti, all'altezza di un banco da dove ripartiva ancora qua e là, come un petardo non del tutto spento, qualche risatina soffocata. Sotto il fioccare delle punizioni, però, a poco a poco in classe si ristabilì l'ordine e il professore, riuscito ad afferrare il nome di Charles Bovary, dopo esserselo fatto dettare, sillabare e rileggere, ordinò subito al poveraccio di andarsi a sedere nel banco degli asini, ai piedi della cattedra. Lui fece per obbedire, ma prima di muoversi esitò. «Che cercate?», chiese il professore. «Il mio per...», fece timidamente il nuovo, gettando occhiate inquiete attorno a sé. «Cinquecento versi a tutta la classe!», pronunciato con voce furiosa, mise fine come il cuo sego a un nuovo uragano. «Volete star calmi?», continuava il professore sdegnato, asciugandosi la fronte col fazzoletto che aveva estratto dal tocco. «In quanto a voi, quello nuovo, sì, mi copierete venti volte il verbo «ridiculus sum».». Poi era bonito. «Lo ritroverete, il berretto? Nessuno ve l'ha rubato?». Tornò la calma. Le teste si curvarono sui fogli, e il nuovo tenne per due ore un contegno esemplare, sebbene di tanto in tanto gli piombasse sulla faccia qualche pallottola di carta fiondata da un pennino. Ma lui si asciugava con la mano e rimaneva immobile, con gli occhi bassi. La sera, al momento di fare i compiti, tirò fuori dal banco le mezze maniche, mise in ordine le sue cose, rigò accuratamente i suoi fogli. Lo vedemmo lavorare con diligenza, cercare tutti i vocaboli nel dizionario e impegnarsi al massimo. Fu forse grazie alla buona volontà dimostrata che evitò di essere retrocesso nella classe inferiore, dato che, pur conoscendo passabilmente la grammatica, mancava totalmente di eleganza nell'esprimersi. Era stato avviato al latino dal curato del villaggio, giacché i genitori, per risparmiare, lo avevano mandato in collegio il più tardi possibile. Il padre, Charles Denis Bartolomé Bovary, già aiuto chirurgo, coinvolto verso il 1812 in certi traffici di costrizione e costretto intorno a quell'epoca a lasciare il servizio, aveva sfruttato le sue doti per afferrare al volo una dote di 60.000 franchi, che gli si offriva nella persona della figlia di un commerciante di maglieria, innamoratasi della sua prestanza. Bell'uomo, panfarone, pronto a far scattare gli speroni, provvisto di favoriti che andavano a raggiungere i baffi, con le dita sempre ornate di anelli e vestito a colori vistosi, aveva l'aspetto di un bravaccio e il facile brio di un commesso viaggiatore. Una volta sposato, campò due o tre anni sulla fortuna della moglie, mangiando bene, alzandosi tardi, fumando in grandi pipe di porcellana, rientrando a casa solo dopo il teatro e frequentando i caffè. Il suocero morì e lasciò poca roba. Lui ne fu indignato e si lanciò nell'industria. Vi perse un bel po' di denaro, poi si ritirò in campagna, con l'intenzione di farla fruttare. Ma poiché non si intendeva di colture più che di cotoni, montava i cavalli invece di mandarli al lavoro nei campi. Beveva il sidro imbottigliato invece di venderlo in barili. Si mangiava il miglior pollame del cortile e ingrassava gli stivali da caccia con il lardo dei maiali. Non tardò a rendersi conto che era meglio piantarla con le speculazioni. Per 200 franchi all'anno trovò dunque da affittare, in un paese al confine tra la regione del Co e la Picardia, una sorta di abitazione, per metà fattoria e per metà casa padronale. E avvilito, rosso dai rimpianti e dall'invidia, prendendosela con il cielo, andò a rinchiudersi là, che aveva appena 45 anni. Disgustato dall'umanità, diceva, è deciso a vivere in pace. La moglie in passato era stata pazza di lui, lo aveva amato con un servilismo illimitato, che aveva finito con l'allontanarlo ancora di più. In altri tempi vivace, espansiva e adorante, nell'invecchiare, come il vino che svanendo diventa aceto, era diventata di umore difficile, piagnucolosa, irritabile. Aveva sofferto così tanto, senza un lamento all'inizio, quando lo vedeva correre dietro a tutte le sgualdrine del paese e quando mille luoghi malfamati glielo restituivano la sera, satollo e con il fiato da ubriaco. Poi era scattata la molla dell'orgoglio, da quel momento non aveva più aperto bocca e aveva inghiottito la rabbia in un muto stoicismo, conservato fino alla morte. Era sempre in movimento, sempre indaffarata. Andava dagli avvocati, dal magistrato, teneva a mente ogni scadenza di cambiale, otteneva rinvii e in casa stirava, cuciva, lavava, sorvegliava i dipendenti, saldava i conti, mentre il signore, incurante di tutto, costantemente intorpidito in una sonnolenza musona da cui si svegliava solo per dir le cose sgradevoli, se ne stava a fumare accanto al camino, sputando nelle braci. Quando nacque un figlio, si dovette metterlo a balia. Tornato a casa, il marmocchio fu viziato come un principe. La madre lo nutriva a marmellate, il padre lo lasciava andare in giro scalzo e, per atteggiarsi a filosofo, diceva anche che poteva starsene nudo, come un cucciolo di animale. Contrariamente alle tendenze materne, coltivava un certo ideale virile dell'infanzia, in base al quale tentava di formare il figlio, pretendendo che venisse educato in maniera rude, spartana, per assicurargli una costituzione robusta. Lo mandava a dormire al freddo, gli insegnava a bere grandi sorsate di rum e a insultare le processioni. Ma il piccolo, di indole pacifica, rispondeva male ai suoi sforzi. La madre se lo portava sempre appresso, gli ritagliava le figurine, gli raccontava le favole, si intratteneva con lui in monologhi senza fine, colmi di amenità malinconiche e di garrule moine. Nell'isolamento della sua vita riversò su quella testolina tutte le sue vanità disperse, infrante. Sognava per lui una brillante posizione. Già lo vedeva grande, bello, spiritoso, affermato ingegnere o magistrato. Gli insegnò a leggere e persino, su un vecchio pianoforte che avevano, a cantare due o tre brevi romanze. Ma di tutto questo, Bovary, poco interessato alla cultura, diceva che era fatica sprecata. Avrebbero mai avuto la possibilità di mantenerlo nelle scuole pubbliche, di acquistargli una carica o un'impresa commerciale. Del resto, con un po' di faccia tosta, uno sfonda sempre in società. La signora Bovary si mordeva le labbra e il bambino vagabondava per il paese. Seguiva i contadini e scagliava zolle di terra contro i corvi che si alzavano in volo. Mangiava more lungo i fossati, teneva a bada i tacchini con una pertica, rivoltava il fieno, correva per i boschi. Giocava a campana sotto il portico della chiesa quando pioveva e nei giorni di grande festa supplicava lo scaccino di fargli suonare le campane, per potersi appendere con tutto il peso alla grossa fune e sentirsi trascinato in volo. Crebbe così come una quercia. Si fece mani robuste e un bel colorito. A dodici anni la madre ottenne di fargli intraprendere gli studi, l'incarico toccò al curato. Ma le lezioni erano così brevi e sporadiche che non potevano fruttare granché. Venivano impartite nei ritagli di tempo, in sacrestia, in piedi, in fretta e furia, tra un battesimo e un funerale. Oppure il curato mandava a chiamare l'allievo dopo l'Angelus, quando non doveva uscire. Salivano in camera, si sistemavano, moscerini e falene svolazzavano intorno alla candela. Faceva caldo, il ragazzo si addormentava. E il brav'uomo, appisolatosi con le mani sulla pancia, non tardava a ronfare a bocca aperta. Altre volte, se capitava che il curato, tornando dall'aver portato il viatico a qualche malato dei dintorni, scorgesse Charles vagabondare per i campi. Lo chiamava, gli faceva una ramanzina e approfittava dell'occasione per fargli coniugare i verbi ai piedi di un albero. L'interrompeva la pioggia o qualche conoscenza di passaggio. Comunque, il curato era sempre contento di lui, diceva anzi che il giovanotto aveva molta memoria. Charles non poteva certo fermarsi lì. La signora Bovary fu molto decisa. Preso da scrupoli, o magari da stanchezza, il signor Bovary cedette senza opporre resistenza. Decisero di aspettare ancora un anno finché il ragazzo avesse fatto la prima comunione. Passarono altri sei mesi e l'anno dopo Charles fu finalmente mandato al collegio di Rouen, dove il padre l'accompagnò di persona, verso la fine di ottobre, all'epoca della fiera di Saint-Romain. Oggi nessuno di noi potrebbe ricordare qualcosa di lui. Era un ragazzo dal temperamento tranquillo, che a ricreazione giocava, in aula studiava, in classe stava attento, in dormitorio dormiva bene, in refettorio mangiava altrettanto bene. Si occupava di lui un grossista in chincaglieria della Ryuganteri, che lo portava fuori una volta al mese. La domestica, quando chiudeva bottega, lo mandava a spasso sul porto a guardare le barche e lo riportava in collegio non più tardi delle sette, prima di cena. La sera di ogni giovedì il ragazzo scriveva una lunga lettera alla madre, con l'inchiostro rosso e tre bolli di ceralacca. Poi ripassava gli appunti di storia, o leggeva una vecchia edizione della Narcasis lasciata in giro da qualcuno. Durante la passeggiata faceva conversazione con il domestico, che era di campagna come lui. A forza di applicarsi ce la fece a stare nella media della classe, una volta ottenne perfino una menzione onorevole in storia naturale. Ma finita la quarta ginnasio, i genitori lo ritirarono dal collegio per fargli studiare medicina, convinti che potesse arrivare da solo fino al diploma. La madre scelse per lui una camera al quarto piano, sull'odoro Beck, presso un tintore di sua conoscenza. Trovò un accordo per la pensione, si procurò dei mobili, un tavolo e due seggiole. Fece portare da casa un vecchio letto di ciliegio e comprò anche una stufetta di ghisa, con la provvista di legna necessaria a scaldare il suo povero bambino. Poi, in capo ad una settimana, se ne andò con mille raccomandazioni di comportarsi bene, ora che doveva badare a se stesso. Il programma dei corsi, che lesse nella bacheca, lo sordì. Corso di anatomia, corso di patologia, corso di fisiologia, corso di farmacia, corsi di chimica e di botanica, e clinica e terapeutica, senza contare l'igiene e la materia medica. Tutti nomi di cui ignorava l'etimologia e che erano come altrettante porte di santuari avvolte da anguste tenebre. Non ci capì nulla. Ce la metteva tutta ad ascoltare, ma proprio non afferrava. Eppure lavorava, aveva bei quaderni rilegati, seguiva tutti i corsi, non perdeva un solo giro di visite, faceva il suo bravo dovere quotidiano come un cavallo da maneggio che gira in tondo ad occhi bendati, ignaro del compito che svolge. Per fare economia, ogni settimana sua madre gli mandava con il corriere un pezzo di vitella arrosto e con quello desinava il giorno, al rientro dall'ospedale, battendo i piedi contro la parete. Poi bisognava correre a lezione, all'anfiteatro anatomico, all'ospizio, e tornare a casa rifacendo tutte quelle strade. La sera, dopo la magra cena della pensione, risaliva in camera e si rimetteva al lavoro, con i vestiti bagnati che gli fumavano addosso di fronte alla stufa rovente. Nelle belle sere d'estate, all'ora in cui le strade tiepide sono vuote, quando le fantesche giocano a volano sulla soglia di casa, apriva la finestra e poggiava i gomiti sul davanzale. Il fiume, che fa di questo quartiere di Rouen una sorta di piccola Venezia plebea, scorreva in basso sotto di lui, giallo, viola o blu fra i ponti e le balaustre. Qualche operaio, accoccolato sulle sponde, si lavava le braccia nell'acqua. Superti che issate in cima agli abbaini, ma tasse di cotone asciugavano all'aria. Di fronte, oltre i tetti, si stendeva un cielo aperto e puro, con il sole rosso del tramonto. Come si doveva star bene laggiù! Che freschetto sotto i faggi! E apriva le narici per aspirare i buoni odori della campagna, che non arrivavano fino a lui. Dimagri si allungò, e il viso prese una sorta di espressione dolente che lo rese quasi interessante. Per naturale indolenza, finì con l'abbandonare tutti i buoni propositi. Una volta saltò la visita in corsia, il giorno dopo la lezione, finché, crogiolandosi nella pigrizia, a poco a poco smise di frequentare. Prese a bazzicare le sale da gioco, la sua passione era il domino. Chiudersi ogni sera in un lurido locale pubblico per battere su tavoli di marmo quelle tavolette d'osso punteggiate di nero, gli sembrava un prezioso segno di libertà, che lo innalzava nella stima di se stesso. Era come un'iniziazione alla vita mondana l'accesso ai piaceri proibiti. Entrando, posava la mano sul pomo della porta con gioia quasi sensuale. A quel punto, molte cose che erano rimaste compresse si dilatarono. Imparò a memoria certi stornelli di benvenuto, si entusiasmò per Beranger, divenne esperto nella preparazione del punch e finalmente conobbe l'amore. Con una preparazione di questo genere, l'esame di ufficiale sanitario fu un fiasco totale. E la sera stessa lo aspettavano a casa per festeggiare il successo. Partì a piedi e si fermò all'entrata del paese. Qui mandò a chiamare la madre e le raccontò tutto. Lei si scusò, dando la colpa alla nequizia degli esaminatori, e lo rinfrancò assicurandolo che avrebbe sistemato ogni cosa. Soltanto cinque anni dopo, il signor Bovary seppe la verità. Era acqua passata e l'accettò, non potendo d'altra parte neanche ipotizzare che un uomo uscito dal suo seme fosse uno stolto. Così Charles si rimise al lavoro e preparò assiduamente le materie d'esame, imparando a memoria tutte le possibili domande. Fu promosso con voti discreti. Che bel giorno per sua madre, fu dato un gran pranzo. Dove sarebbe andato ad esercitare? A Tost, dove c'era solo un vecchio medico. Da tempo la signora Bovary stava aspettando al varco la sua morte e il poveraccio non aveva ancora tirato le cuoia che Charles si era insediato nella casa di fronte, assumendone la successione. Ma non bastava aver allevato il figlio, avergli fatto studiare la medicina e scoperto Tost per esercitarla. Gli ci voleva una moglie. E gliene trovò una, la vedova di un ufficiale giudiziario di Dieppe, che aveva 45 anni e 1200 franchi di rendita. Per quanto brutta, secca come un uscio e fiorita di foruncoli come una primavera, la signora Dubuc non mancava certo di partiti fra cui scegliere. Per raggiungere il suo scopo, la signora Bovary fu costretta ad eliminarli uno per uno e riuscì persino a sventare con grande abilità le manovre di un salumiere sostenuto dai preti. Nel matrimonio Charles aveva visto profilarsi una condizione migliore, immaginando che sarebbe stato più libero e che avrebbe disposto della propria persona e del proprio denaro. Ma fu sua moglie a prendere il comando. A cospetto della gente lui doveva dire questo, non dire quello, mangiare di magro il venerdì, vestirsi come diceva lei e incalzare su suo ordine i pazienti che non pagavano. Lei apriva le sue lettere, spiava le sue mosse e quando lui visitava orrigliava attraverso il tramezzo se si trattava di donne. Aveva bisogno della cioccolata tutte le mattine e di attenzione a non finire. Si lamentava ininterrottamente dei suoi nervi, dei suoi polmoni, dei suoi umori. Il suono dei passi la faceva star male, se uno usciva non tollerava la solitudine, se tornava era senza dubbio per vederla morire. La sera, quando Charles rincasava, tirava fuori dalle lenzuola le sue lunghe braccia magre, gli cingeva il collo e, dopo averlo fatto sedere sul letto, si metteva a parlargli delle sue pene. Lui la trascurava, amava un'altra. Gliel'avevano pur detto che sarebbe stata infelice e finiva col chiedergli un qualche sciroppo per la sua salute e un po' più di amore. Capitolo 2 Una notte, verso le undici, furono svegliati dagli zoccoli di un cavallo, che si fermò proprio davanti alla porta. La domestica aprì la finestrella della soffitta e scambiò qualche frase con una persona rimasta giù in strada. Veniva in cerca del medico, aveva una lettera. Nastasì scese le scale tutta infreddolita e andò ad aprire la serratura e i catenacci, uno dopo l'altro. L'uomo lasciò il cavallo e, seguendo la domestica, entrò immediatamente dietro di lei. Estrasse dal berretto di lana a nappe grigie una lettera avvolta in un panno e la presentò con riguardo a Charles, che per leggerla si appoggiò col gomito sul cuscino. Nastasì, vicino al letto, reggeva il lume. La signora, per pudore, stava voltata verso la parete e mostrava la schiena. La lettera, chiusa da un piccolo sigillo di cera azzurra, supplicava il signor Bovary di recarsi immediatamente alla fattoria dei Bertot, per sistemare una gamba rotta. Ora, da Tosta ai Bertot, ci sono sei buone leghe di sentiero, passando per Longville e Saint-Victor. Era notte fonda. La signora Bovary temeva qualche incidente per il marito, così fu deciso che lo stalliere sarebbe andato avanti. Charles sarebbe partito tre ore dopo, al sorgere della luna. Gli avrebbero mandato incontro un ragazzo a mostrargli la strada della fattoria e aprirgli la staccionata. Verso le quattro di mattina, Charles, ben avvolto nel suo mantello, si mise in viaggio per i Bertot. Ancora intorpidito dal tepore del sonno, si faceva cullare dal pacifico trotto dell'animale. Quando questo si impuntava davanti a certe buche irte di spine che si aprivano lungo i solchi, Charles, svegliandosi di soprassalto, si rammentava di colpo della gamba rotta e cercava di riportare alla mente tutte le fratture che conosceva. La pioggia era cessata, cominciava a far giorno, e sui rami spogli dei meli c'erano uccelli immobili, con le piumette gonfie al vento freddo del mattino. Piatta, la campagna si stendeva a perdita d'occhio, e i ciuffi d'alberi attorno alle fattorie facevano ad ampi intervalli macchie di un nero violaceo su quella grande superficie grigia che si perdeva all'orizzonte nel cielo cupo. Di tanto in tanto, Charles apriva gli occhi. Ben presto, per sanchezza mentale e sonnolenza, entrava in una sorta di soppore in cui le recenti intime sensazioni si confondevano con i ricordi. Cosicché si percepiva doppio, al tempo stesso prudente e sposato, sdraiato sul suo letto come poco prima e nell'atto di attraversare una corsia come un tempo. L'odore caldo dei cataplasmi si confondeva, nella sua testa, col verde odore della rugiada. Sentiva cigolare le molle di ferro dei lettini e sua moglie dormire. Passando da Vassonville scorse, sull'argine di un fossato, un ragazzetto seduto sull'erba. «Siete il medico?» chiese il ragazzo. Alla risposta di Charles prese in mano gli zoccoli e lo precedette di corsa. Strada facendo, l'ufficiale sanitario capì dai discorsi della sua guida che il signor Ruol doveva essere, tra gli agricoltori, uno dei più facoltosi. Si era rotto la gamba la sera precedente, tornando dall'aver fatto la Befana a casa di un vicino. La moglie era morta da due anni. Con lui stava solo la signorina, che lo aiutava a mandare avanti la casa. Le cunette si fecero più profonde. Ci si avvicinava ai Bertot. Il ragazzino, infilandosi allora in un buco della siepe, scomparve per riapparire in fondo ad una corte e aprire il cancelletto. Il cavallo scivolava sull'erba bagnata. Charles si chinava per passare sotto i rami. I cani da guida, nel canile, abbaiavano dando strattoni alla catena. Nell'entrare ai Bertot il cavallo prese paura e scartò bruscamente. La fattoria aveva un bell'aspetto. Nelle scuderie si vedevano, al di là delle porte aperte, grossi cavalli da tiro che mangiavano beati in rastrelliere nuovissime. Lungo i fabbricati si stendeva a un'ampia concimaia fumante, dove, tra i polli e i tacchini, becchettavano cinque o sei pavoni, lusso delle corti del Co. L'ovile era lungo, il fienile alto, a muri lisci come un uovo. Sotto il capannone stavano due grandi carretti e quattro aratri, forniti di fruste, collari, finimenti al completo, con sbruffi di lana azzurri impolverati dal fine pulviscolo che cadeva dai granai. La corte era in pendenza, con alberi distanziati simmetricamente e vicino allo stagno risuonava l'allegro schiamazzare di un branco d'ocche. Una giovane, con indosso un abito di merino celeste ornato di tre balze, venne sulla soglia di casa per accogliere il signor Bovary e lo fece entrare in cucina dove ardeva un gran fuoco. Tutti intorno bolliva la colazione dei contadini, in recipienti di varia grandezza. Indumenti umidi erano stesi ad asciugare all'interno del camino. La paletta, le molle e la punta del soffietto, il tutto di proporzioni colossali, brillavano come acciaio ben lucidato, mentre lungo le pareti era allineata un'intera batteria da cucina su cui si rifletteva in eguale la fiamma chiara del focolare, frammista ai primi bagliori del sole che attraversavano i vetri. Charles salì al primo piano per visitare il malato. Lo trovò a letto, che sudava sotto le coperte, il berretto di cotone gettato lontano. Era un ometto tozzo di cinquant'anni, dalla pelle chiara, gli occhi azzurri, stempiato, con gli orecchini. Di fianco, su una seggiola, teneva una grande caraffa d'acquavite e se ne versava di tanto in tanto per farsi coraggio. Ma non appena vide il medico, la sua agitazione si calmò e invece di bestemmiare, come faceva da dodici ore, si calmò. Cominciò a gemere flebilmente. La frattura era semplice, senza alcuna sorta di complicazione. Charles non avrebbe osato sperare in niente di più facile. Quindi, ricordando il comportamento dei suoi maestri a letto dei feriti, confortò il paziente con ogni sorta di buone parole, carezze del chirurgo che sono come l'olio con cui si ungono i bisturi. Per fare delle stecche fu mandato qualcuno a prendere nella rimessa un fascio di assicelle. Charles ne scelse una, la spezzò e la levigò con un frammento di vetro, mentre la domestica strappava dei lenzuoli per farne bende, e la signorina Emma si adoperava a cucire dei cuscinetti. Le ci volle un po' di tempo per trovare il suo astuccio da lavoro. Il padre si spazientì, lei non rispose, ma nel cucire si pungeva le dita, che poi si portava alle labbra per succhiarle. Charles fu sorpreso dal bianco delle sue unghie. Erano brillanti, appuntite, più terze degli avori di Dieppe e tagliate a mandorla. Eppure la mano non era bella, non abbastanza pallida forse, e un po' secca alle falangi. Era anche troppo lunga e priva di flessuosa morbidezza nei contorni. Di veramente bello aveva gli occhi, per quanto castani, sembravano neri per effetto delle ciglia, e lo sguardo arrivava dritto con candido ardire. Terminata la fasciatura, il medico fu inviato dallo stesso signor Ruol a mangiare un boccone prima di andarsene. Charles scese nella sala, al pianterreno. Due coperti, con bicchieri d'argento, erano preparati su un tavolinetto, ai piedi di un grande letto a baldacchino, con un copriletto di indiana stampata a figure moresche. Si respirava un odore di iris e di biancheria umida, proveniente da un grande armadio di quercia posto di fronte alla porta. Per terra, negli angoli, stavano allineati, ritti, alcuni sacchi di grano. Erano le eccedenze del vicino granaio, al quale portavano tre gradini di pietra. Per abbellire l'ambiente, appesa a un chiodo in mezzo al muro il cui colore verde si scrostava sotto il salnitro, c'era una testa di minerva disegnata a carboncino, con una cornice dorata, e in basso la scritta, a caratteri gotici, al mio caro papà. Parlarono dapprima del malato, poi del tempo che faceva, del gran freddo, dei lupi che la notte scorrazzavano per i campi. Per la signorina Rouault non era proprio un divertimento la vita di campagna, soprattutto ora che aveva quasi tutto il peso della fattoria. Faceva freschino in sala, lei batteva i denti mangiando, e questo le scopriva un po' le labbra carnose, che soleva mordicchiare nei momenti di silenzio. Il collo emergeva da un bavero bianco, piatto. I capelli, a bande nere, che sembravano fatte ciascuna di un sol pezzo tanto erano lisce, erano separati a metà della testa da una sottile scriminatura, che affondava lievemente seguendo la curva del cranio, e lasciando appena intravedere l'estremità dell'orecchio. Confluivano in un abbondante chignon, con un moto ondulato verso le tempie, che il medico di campagna notò allora per la prima volta nella sua vita. Gli zigomi erano rosa, portava, come un uomo, infilato fra i due bottoni del corsetto, un occhialetto di tartaruga. Quando, dopo essere salito ad accomiatarsi dal vecchio Rouault, Charles rientrò nella sala prima di andarsene, la trovò in piedi, con la fronte appoggiata alla finestra, a guardare il giardino, dove i sostegni dei fagioli erano stati rovesciati dal vento. Si volse. «Cercate qualcosa?» chiese. «Il mio frustino, per favore», rispose lui. E si mise a frugare sul letto, dietro le porte, sotto le seggiole. Era caduto a terra, tra i sacchi e la parete. Fu la signorina Emma a vederlo, si chinò sui sacchi di grano. Charles, per galanteria, si precipitò, e allungando il braccio nello stesso gesto, sentì che il suo petto sfiorava la schiena della giovane, curva sotto di lui. Lei si raddrizzò rossa in volto e lo guardò al di sopra della spalla, porgendogli il nerbo di bue. Anziché tornare ai Bertù tre giorni dopo, come aveva promesso, vi ritornò l'indomani, poi regolarmente due volte alla settimana, senza contare le visite non annunciate che faceva di tanto in tanto, come per caso. Ad ogni modo, tutto andò bene. La guarigione procedette secondo norma, e quando, dopo 46 giorni, fu visto il vecchio Rouault che cercava di camminare da solo nell'Aia, cominciarono a considerare Bovary un uomo di grandi capacità. Il vecchio Rouault diceva che non lo avrebbero curato meglio i più famosi dottori di Vto o perfino di Rouen, in quanto a Charles non cercò nemmeno di chiederselo perché veniva ai Bertù con piacere. Se ci avesse pensato, avrebbe indubbiamente attribuito il proprio zelo alla gravità del caso, o forse al guadagno che se ne riprometteva. Ma era proprio per questa ragione che le visite alla fattoria rappresentavano, fra le banali occupazioni della sua vita, una deliziosa eccezione. In quei giorni si alzava di buon'ora, partiva al galoppo, incitava l'animale, poi saltava giù ad asciugarsi i piedi sull'erba, e infilava i guanti neri prima di entrare. Gli piaceva vedersi arrivare nella corte, sentire la sbarra ruotare contro la sua spalla, e il gallo cantare sul muro, i garzoni venirgli incontro. Gli piacevano il fienile e le stalle, gli piaceva il vecchio Rouault, che gli batteva sulla mano chiamandolo il suo salvatore. Gli piacevano gli zoccoletti della signorina Emma, che risuonavano sulle piastrelle terse della cucina. I tacchi la facevano più alta, e quando gli camminava davanti, le solette di legno, alzandosi di scatto, schioccavano con un rumore secco contro la pelle dello stivaletto. Lo riaccompagnava sempre fino al primo gradino della scala esterna. Se non gli avevano ancora portato il cavallo, si fermava con lui. Si erano già salutati, non parlavano più. L'aria mossa l'avvolgeva, scompigliando i riccioli ribelli sulla nuca, o facendo svolazzare sul fianco i lacci del grembiule, che si attorcigliavano come banderuole. Una volta, al tempo del disgelo, la scorza degli alberi sgocciolava nella corte, la neve si scioglieva sui tetti degli edifici. Lei era sulla soglia. Andò a prendere l'ombrellino, lo aprì. L'ombrellino, di seta cangiante, filtrando la luce del sole, illuminava di fluttuanti riflessi la pelle bianca del viso. Là sotto, lei sorrideva a quel tepido calore, e si udivano le gocce d'acqua cadere, una ad una, sulla seta tesa. I primi tempi che Charles frequentava i Bertot, la signora Bovary non mancava di informarsi sul malato, e aveva persino scelto una bella pagina bianca per il signor Rouault, sul suo registro a partita doppia. Ma quando venne a sapere che aveva una figlia, chiese subito informazioni, e apprese che la signorina Rouault, cresciuta in convento dalle Orsoline, aveva ricevuto, come suol dirsi, un'ottima educazione, che insomma conosceva la danza, la geografia, il disegno, che sapeva ricamare e suonare il piano. Era troppo. Allora è per questo, diceva fra sé, che ha l'aria così raggiante quando va a trovarla, per questo che si mette il panciotto nuovo al rischio di sciuparlo con la pioggia. Ah, quella donna, quella donna! E istintivamente la detestò. Dapprima si sfogò con allusioni. Charles non le capì. Poi con riflessioni incidentali che lui non raccoglieva per timore di scene pur rascose. Infine, con domande a bruciapelo a cui lui non sapeva come rispondere. Perché mai tornava a Ibertù, dato che il signor Rouault era guarito, e quelli non avevano ancora pagato il conto? Ah, perché laggiù c'era una certa persona, una che sapeva parlare, incantare e fare la spiritosa. Ecco che cosa gli piaceva. Aveva bisogno di signorine di città, lui. E continuava. La figlia del vecchio Rouault, una signorina di città. Ma via! Il nonno era un pecoraio e hanno un cugino che ha rischiato il tribunale per una rissa. Non è proprio il caso di darsi tante arie e di presentarsi in chiesa alla domenica vestita di seta, come una contessa. Lui, poi, un poveraccio, che senza il raccolto di colza dell'anno prima non avrebbe saputo come pagare gli arretrati. Per stanchezza, Charles smise di recarsi a Ibertù. Dopo una gran quantità di singhiozzi e baci, Eloise, in un'incontenibile esplosione d'amore, gli aveva fatto giurare, con la mano sul messale, di non andarci più. Quindi obbedì, ma la forza del suo desiderio, protestò contro il servilismo del suo comportamento e, per una specie di ingenua ipocrisia, considerò che quel divieto di vederla equivaleva a un diritto ad amarla. E poi, la vedova era ossuta, aveva i denti da cavallo, portava in ogni stagione uno scialletto nero la cui punta le scendeva fra le scapole. Il suo corpo legnoso era inguainato in vestiti streminziti, troppo corti, che scoprivano le caviglie, con le stringhe delle scarpe troppo larghe incrociate su calze grigie. La madre di Charles veniva a trovarli ogni tanto, ma dopo qualche giorno pareva che la nuora l'avesse tirata dalla sua parte, e così, come due coltelli affilati, si mettevano a scarnificarlo con le loro riflessioni e osservazioni. Sbagliava a mangiare tanto? Perché offrire sempre da bere al primo venuto? Che fissazione quella di non volersi mettere la maglia di flanella! Accadde che all'inizio della primavera, un notaio di Ingoville, depositario dei fondi della vedova di Ubuc, prese in largo portandosi via tutto il denaro del suo studio. Eloise, è vero, possedeva ancora, oltre alla quota di un'imbarcazione stimata a 6.000 franchi, la casa di Rieu Saint-François. Eppure, di tutta quella fortuna tanto strombazzata, in famiglia non era apparso niente, se non qualche mobile e un po' di biancheria. Fu necessario andare a un chiarimento. La casa di Dieppe si scoprì tarlata dalle ipoteche fino alle fondamenta. Quanto fosse stato depositato dal notaio lo sapeva solo Dio, e la quota della barca risultò non superiore ai mille scudi. Aveva dunque mentito la brava signora? Nella sua esasperazione, Bovary padre, nell'atto di fracassare una seggiola contro il pavimento, accusò la moglie di aver fatto l'infelicità del figlio, legandolo a un simile ronzino, i cui finimenti valevano ancor meno della pelle. Vennero a tost, ci furono spiegazioni, ci furono scenate. Eloise, in lacrime, gettandosi fra le braccia del marito, lo scongiurò di difenderla dai genitori. Charles voleva prendere le sue difese, loro si arrabbiarono e se ne andarono. Ma il colpo aveva lasciato il segno? Otto giorni dopo, mentre stendeva la biancheria nel cortile, lei ebbe uno sbocco di sangue, e l'indomani, mentre Charles le voltava le spalle per tirare la tenda della finestra, disse «Ah, Dio mio!», emisse un sospiro e perse i sensi. Era morta. Quale non fu lo stupore? Quando al cimitero fu tutto finito, Charles rincasò, non trovò nessuno al pian terreno, salì al primo piano, in camera, vide il vestito di lei ancora appeso ai piedi dell'alcova. Allora, accasciato sullo scrittoio, sprofondò fino a sera in una dolorosa fantasticheria. Lei lo aveva amato dopo tutto. Capitolo 3 Una mattina il vecchio Ruo venne a portare a Charles il compenso per la gamba curata. 75 franchi in pezzi da 40 e una tacchinella. Aveva saputo della disgrazia e lo consolò come potè. «So che cosa significa», diceva battendogli sulla spalla. «Ci sono passato anch'io. Quando persi la mia bene amata, andavo nei campi per starmene solo. Mi lasciavo cadere ai piedi di un albero, piangevo, invocavo il buon Dio, gli dicevo cose senza senso. Avrei voluto essere come le talpe che vedevo attaccate ai rami col ventre brulicante di vermi. Crepato, insomma. E quando pensavo che altri, in quel momento, se ne stavano abbracciati alle loro mogliettine, davo gran colpi di bastone per terra. Ero come pazzo, non mangiavo più. La sola idea di andare al caffè mi rivoltava. Non ci crederete». Ebbene, pian piano, un giorno dopo l'altro, primavera dopo inverno e autunno sopra estate, un filino per volta, una briciola per volta, tutto è passato. Finito, scomparso, mandato giù, si fa per dire. Perché nel profondo rimane sempre qualcosa, come dire, un peso, cui sul petto. Ma dato che questo è il destino di tutti noi, non si deve nemmeno lasciarsi andare e voler morire perché qualcuno è morto. Bisogna scuotersi, signor Bovary. Passerà. Venite a trovarci, mia figlia pensa a voi ogni tanto, sapete, e dice che la dimenticate. Presto sarà primavera, vi faremo sparare su qualche coniglio selvatico per distrarvi un po'. Charles seguì il consiglio. Tornò ai Bertot. Ritrovò tutto come il giorno prima, cioè come cinque mesi prima. I peri erano già in fiore e il buon ruo, ormai ristabilito, andava e veniva, il che rendeva la fattoria più animata. Convinto che fosse suo dovere prodigare al medico le maggiori gentilezze possibili, data la sua condizione luttuosa, lo pregò di non togliersi il cappello, gli parlò a bassa voce come a un malato e arrivò a fingere di arrabbiarsi perché non gli avevano preparato da mangiare qualcosa di più leggero, come delle coppette di crema o delle perecotte. Raccontò qualche storiella. Charles si sorprese a ridere, ma di colpo gli tornò in mente la moglie e si rabbuiò. Fu servito il caffè, non ci pensò più. Ci pensò sempre meno, via via che si abituava a vivere solo. Il piacere nuovo dell'indipendenza ben presto gli rese più sopportabile la solitudine. Ora poteva variare le ore dei pasti, rincasare o uscire senza dover dare spiegazioni, e quando era molto stanco, stendersi sul letto allargando braccia e gambe. Così si prese cura di sé, si coccolò, e accettò le consolazioni che gli venivano offerte. D'altra parte, la morte della moglie non gli aveva reso un cattivo servizio nella professione, perché per un mese la gente aveva ripetuto «Che disgrazia, quel povero giovane!». Il suo nome era circolato, la clientela era aumentata, e poi andava a Iberto quando voleva. Era colto da una speranza imprecisa, da una vaga felicità. Allo specchio, spazzolandosi i favoriti, si trovava il viso più piacevole. Un giorno arrivò verso le tre, erano tutti nei campi. Entrò in cucina, ma non vide subito Emma. Le persiane erano chiuse. Attraverso le fessure, il sole stendeva sul pavimento lunghe e sottili strisce di luce che andavano ad infrangersi contro gli spigoli dei mobili e serpeggiavano sul soffitto. Le mosche, sul tavolo, salivano lungo i bicchieri già usati e ronzavano annegando nei resti di sidro. La luce che scendeva dal camino, addolcendo la fuligine della piastra, tingeva di azzurrino la cenere fredda. Tra la finestra e il camino, Emma era intenta a cucire. Non aveva scialle, sulle spalle nude si vedeva qualche goccia di sudore. Secondo le usanze campagnole, gli offrì qualcosa da bere. Lui rifiutò, le insistette e alla fine, ridendo, gli propose di farle compagnia con un bicchierino di liquore. Così andò a prendere nell'armadio una bottiglia di curacao, tirò fuori due bicchierini, ne riempì uno fino all'orlo, versò solo un goccio nell'altro e dopo aver brindato, lo portò alla bocca. Poiché era quasi vuoto, per berlo si arcuava all'indietro, e col capo riverso, le labbra sporgenti, il collo teso, rideva di non sentire nulla, mentre la punta della lingua, passando tra i denti perlati, dava le catine al fondo del bicchiere. Tornò a sedersi e riprese il lavoro. Una calza di cotone bianco da rammendare. Lavorando, teneva la fronte china. Non parlava. Neppure Charles. L'aria, che filtrava da sotto la porta, portava un po' di polvere sull'impiantito. Lui la guardava scorrere e sentiva soltanto un pulsare dentro la testa, insieme al verso di una gallina che aveva fatto l'uovo in qualche lontano cortile. Ogni tanto Emma si rinfrescava le guance appoggiandovi il palmo della mano, che poi raffreddava sul pomo di ferro dei grandi alari. Si lamentò di certi malesseri che avvertiva dall'inizio della stagione. Chiese se il mare le avrebbe fatto bene. Si mise a parlare del convento. Charles del suo collegio. Le parole venivano facili. Salirono in camera di lei. Gli fece vedere i suoi vecchi quaderni di musica, i libri avuti in premio, e abbandonate in fondo all'armadio le coroncine di foglie di quercia. Gli parlò anche di sua madre, del cimitero, e gli mostrò persino l'aiuola in giardino dove coglieva i fiori, ogni primo venerdì del mese, per andare a metterli sulla tomba. Ma quel loro giardiniere non sapeva far niente. Com'era difficile avere un buon servizio. A lei sarebbe piaciuto, almeno per l'inverno, abitare in città. Anche se le belle giornate, troppo lunghe, rendevano la campagna ancora più noiosa durante l'estate. E a seconda di quello che diceva, la voce era chiara, squillante, oppure improvvisamente illanguidita. Si caricava di modulazioni che sfociavano quasi in mormorii quando parlava a se stessa, a momenti allegra, sgranando coi suoi occhi ingenui. Poi, a palpebre socchiuse, lo sguardo affogato nella noia, il pensiero errante. La sera, nel tornare a casa, Charles richiamò alla mente ad una ad una tutte le frasi che lei aveva pronunciato, sforzandosi di ricordarle, di completarne il senso, per ricostruire quella parte di esistenza che aveva vissuta quando lui non la conosceva ancora. Ma mai riuscì ad immaginarla diversa da come l'aveva vista la prima volta, o da come l'aveva appena lasciata. Poi si chiese che cosa ne sarebbe stato di lei, se si sarebbe sposata, e con chi. Ahimè, il vecchio Ruo era tanto ricco, e lei così bella. Ma il volto di Emma tornava sempre a imporsi davanti ai suoi occhi, e qualcosa di monotono gli ronzava all'orecchio, come il brusio di una trottola. Eppure, se ti sposassi, se ti sposassi… Quella notte non dormì, sentiva un nodo alla gola, aveva sete. Si alzò per andare a bere alla brocca e aprì la finestra. Il cielo era stellato, soffiava un vento caldo, i cani abbaiavano lontano. Volse il capo dalla parte dei Bertot. Pensando che dopo tutto non rischiava nulla, Charles si ripromise di fare la domanda di matrimonio quando si fosse presentata l'occasione. Ma ogni volta che si presentava, la paura di non trovare le parole adatte gli serrava le labbra. Al vecchio Ruo non sarebbe dispiaciuto che qualcuno lo liberasse della figlia, che non gli era poi tanto utile in casa. Dentro di sé la scusava, trovando che era troppo istruita per occuparsi dei campi, un mestiere maledetto dal cielo, dato che non faceva diventare milionari. Lungi dall'aver fatto fortuna, il bravo uomo ogni anno era in passivo, perché pur essendo imbattibile nelle contrattazioni, dove prendeva gusto alle mille astuzie del mestiere, non era proprio portato per il vero e proprio lavoro dei campi, né per la gestione interna della fattoria. Stava volentieri con le mani in mano e non risparmiava su quel che riguardava la sua vita, perché voleva mangiare bene, stare al caldo, dormire comodo. Gli piacevano il sidro robusto, i cosciotti al sangue, un abbondante goccetto nel caffè. Consumava i pasti in cucina, solo, davanti al fuoco, su un tavolino che gli portavano già apparecchiato come a teatro. Non appena si accorse che Charles, accanto a sua figlia, aveva le guance rosse, il che significava che un giorno o l'altro l'avrebbe chiesta in sposa, cominciò dunque a rimuginare sulla faccenda. Lo trovava proprio un po' striminzito e non era proprio il genero che si era augurato, ma dicevano che fosse una persona per bene, parsimonioso, molto istruito, uno che non avrebbe probabilmente fatto storie sulla dote. Ora, poiché il vecchio ruo era costretto a vendere ventidue acri della sua roba, doveva un bel po' di soldi al muratore, ancora più al sellaio, e c'era anche l'albero del frantoio da cambiare. Se me la chiede, si disse, gliela do. Per San Michele, Charles era venuto a passare tre giorni ai Berdoux. L'ultima giornata era trascorsa come quelle precedenti, rinviando di quarto d'ora in quarto d'ora. Il vecchio ruo lo riaccompagnò. Camminavano per un sentiero infossato, stavano per lasciarsi. Era il momento. Charles si dette tempo fino all'angolo della siepe e finalmente, quando l'ebbero superata... Padron ruo, mormorò, avrei qualcosa da dirvi. Si fermarono. Charles taceva. Allora, vi decidete, magari so già tutto, disse il vecchio ruo ridendo Bonario. Papà ruo, papà ruo, balbettò Charles. Quanto a me non chiedo di meglio, proseguì il contadino. Comunque, per quanto la piccola sia indubbiamente della mia stessa idea, bisogna sentire che cosa ne pensa, perciò andatevene, io torno a casa. Ascoltatemi bene, se sì, non sarà necessario che torniate dentro, per via della gente, e del resto lei si emozionerebbe troppo. Ma per non farvi stare in pena, spalancherò la persiana della finestra fin contro il muro. Potrete vederla da dietro, sporgendovi sulla siepe. E si allontanò. Charles legò il cavallo a un albero, raggiunse di corsa il sentiero, aspettò. Dopo la prima mezz'ora, contò diciannove minuti sull'orologio. Poi, all'improvviso, un rumore contro il muro, lo sbattere della persiana. Il fermo vibrava ancora. L'indomani alle nove era già alla fattoria. Emma arrossì quando lui entrò, pur sforzandosi di sorridere, tanto per darsi un contegno. Il vecchio Ruo abbracciò il futuro genero. Decisero di rinviare ogni discorso sulle questioni di interessi. D'altra parte c'era tempo, già che il matrimonio non poteva decentemente essere celebrato prima della fine del lutto di Charles, cioè verso la primavera dell'anno dopo. L'inverno trascorse in questa attesa. La signorina Ruo si occupò del corredo. Una parte fu ordinata a Ruo, e lei personalmente si confezionò camice e cuffiette da notte, copiando dei figurini di moda che si era fatta prestare. Durante le visite di Charles alla fattoria, si parlava dei preparativi delle nozze, ci si chiedeva in quali locali organizzare il pranzo, si fantasticava sulla quantità di portate che sarebbero state necessarie e sui primi piatti. Emma, invece, avrebbe voluto sposarsi a mezzanotte, con le fiaccole, ma il vecchio Ruo non capì neanche di cosa parlasse. Ci fu dunque una festa di nozze, a cui parteciparono 43 persone. Si passarono 16 ore a tavola, si ricominciò il giorno dopo e si continuò ancora per qualche giorno. Capitolo 4 I commensali arrivarono di buon'ora in veicoli d'ogni genere, carrette a un cavallo, giardiniere a due ruote, vecchi calessi scoperti e barrocci col tendone di cuoio. E i giovani dai paesi più vicini, in carretti su cui stavano in piedi, in fila, con le mani appoggiate ai bordi per non cadere, sbattuti dai duri scossoni del trotto. Arrivò gente da un raggio di dieci leghe, da Goderville, da Normanville e da Cani. Era stato invitato il parentado al completo delle due famiglie, si era fatta pace con gli amici con cui c'erano stati screzi, erano stati recuperati conoscenti persi di vista da anni. Ogni tanto, echeggiavano schiocchi di frusta dietro la siepe, veniva immediatamente aperto il cancelletto, entrava un calesse. Galopando fino all'inizio della gradinata, si fermava di botto e faceva scendere la gente, che si riversava da ogni parte, strofinandosi le ginocchia e stirandosi le braccia. Le signore, tutte in cappello, portavano abiti da città, catene d'orologio d'oro, mantelline incrociate alla cintura o scialletti colorati fissi sul dorso con una spilla, che dietro lasciavano il collo scoperto. I ragazzini, vestiti come i loro papà, sembravano a disagio nell'abito nuovo. Molti inaugurarono quel giorno il primo paio di stivali della loro vita. Accanto a loro, muta nell'abito bianco della prima comunione, allungato per la circostanza, stava qualche ragazzotta di 14 o 16 anni, probabilmente la cugina o sorella maggiore, rubiconda, attonita, con i capelli impomatati al profumo di rosa e una gran paura di sporcarsi i guanti. Siccome gli stallieri non bastavano per staccare tutti i cavalli, i signori si rimboccavano le maniche e si arrangiavano da soli. A seconda del rango sociale, portavano la marsina, la redingote, la giacca, la giubba, le marsine buone che la famiglia teneva da conto e che uscivano dall'armadio soltanto per le grandi occasioni. Redingote a larghe falde svolazzanti al vento, col collo alto e tasche ampie come borse, giacche di panno pesante, in genere accompagnate da un berretto con un bordino di rame alla visiera, giubbe cortissime, con due bottoni sul dorso accostati come due occhi, e i lembi che sembravano tagliati d'un sol pezzo dall'ascia di un carpentiere. Altri ancora, ma questi erano ovviamente destinati a sedersi all'estremità della tavola, portavano una blusa da cerimonia, vale a dire col colletto piatto sulle spalle, tutta a piegoline sul di dietro e la vita segnata molto bassa da una cintura cucita. Gli sparati bombati come corazze. E tutti bentosati, orecchie al vento, rasature accurate. Anzi, qualcuno, alzatosi prima dell'alba, si era fatto la barba senza vederci bene e aveva sotto il naso sfregi trasversali, o lungo la mascella, sbucciature larghe come scudi da tre franchi, che l'aria pungente del viaggio aveva infiammato, marmorizzando a chiazze rosa quei faccioni candidi e raggianti. Dato che il municipio si trovava a mezza lega dalla fattoria, andarono a piedi, e così fecero al ritorno, dopo la cerimonia in chiesa. Il corteo, inizialmente compatto come un'unica sciarpa variopinta che ondeggiava per i campi, lungo lo stretto sentiero serpeggiante in mezzo al grano verde, ben presto si sfilacciò e si divise in diversi gruppi che si attardavano a chiacchierare. In testa stava il musicante con il violino addobbato di nastri sul riccio. Venivano poi gli sposi, i parenti, gli amici alla rinfusa, e i bambini rimanevano indietro e si divertivano non visti a strappare i chicchi degli steli d'avena o a giocare tra loro. L'abito di Emma, troppo lungo, strascicava un po' a terra. Di tanto in tanto lei si fermava per tirarlo su, e quindi, delicatamente, con le dita agguantate, toglieva le erbacce miste a spini di cardo, mentre Charles aspettava in palato che avesse finito. Il vecchio ruo, con in testa un cappello di seta nuovo e con i polsini della marsina lunghi sulle mani fino alle unghie, dava il braccio alla signora Bovary madre. In quanto al signor Bovary padre, che in fondo disprezzava tutta quella gente, si era messo una semplice redingote con una sola fila di bottoni, di taglio militare, e sfornava galanterie da taverna ad una bionda contadinotta, la quale annuiva, arrossiva, non sapeva che cosa rispondere. Gli altri invitati parlavano delle loro faccende o si facevano qualche scherzo dietro le spalle, tanto per eccitarsi e predisporsi all'allegria, e tendendo l'orecchio si sentiva lo strimpellare ininterrotto del musicante, che continuava a suonare per i campi. Quando si accorgeva che gli altri rimanevano indietro, si fermava a riprendere fiato, ungeva ben bene l'archetto con la colofonia, in modo che le corde stridessero meglio, e poi si rimetteva a camminare, volta a volta abbassando e alzando l'impugnatura del violino per darsi il tempo. Il rumore dello strumento faceva voler via gli uccellini tutti intorno. La tavola era stata preparata sotto la rimessa. C'erano quattro portate di lombata di manzo, sei fricassè di pollo, bocconcini di vitello, tre cosciotti di montone, e al centro un bel maialino di latte arrosto, con intorno quattro sanguinacci all'acetosella. Agli angoli troneggiavano caraffe di acquavite. Il sidro dolce imbottigliato schiumava attorno ai tappi, e tutti i bicchieri erano già stati riempiti di vino fino al bordo. Vassoiate di crema gialla, che tremolavano al minimo urto della tavola, esibivano, disegnate sulla liscia superficie in arabeschi di confettini, le iniziali degli sposi novelli. Per le torte e i torroni erano andati a prendere un pasticciere di Yves Tho. Essendo al suo debutto nel paese, questi aveva curato bene le cose, e al momento del dessert portò di persona una torta a più piani, che fu accolta da esclamazioni. Alla base, per cominciare, stava un cubo di cartone azzurro, raffigurante un tempio con portici, colonnati e statuette di stucco tutto intorno, in nicchie costellate di stelle di carta dorata. Poi, al secondo piano, sorgeva un torrione di savoiardi, contornato da minute fortificazioni di canditi, mandorle, uvetta, spicchi di arancia. E infine, sulla piattaforma superiore, che era un prato verde disseminato di rocce, con laghi di marmellata e barchette di gusci di nocciole, si poteva ammirare un amorino che si dondolava su un'altalena di cioccolata, i cui due sostegni culminavano in due veri boccioli di rosa, a mo' di palline. Fino a sera durò il banchetto. Quando erano troppo stanchi di stare seduti, andavano a fare due passi nelle corti o una partita a turacciolo nel fienile. Poi tornavano a tavola. Qualcuno, verso la fine, si addormentò russando. Ma al momento del caffè tutto si rianimò. Furono allora intonate canzoni, si fecero gare di bravura, sollevamento pesi e sfide a braccio di ferro. Ci si cimentava a hissare calessi sulle spalle, si facevano battute, si sbaciucchiavano le signore. La sera, al momento di partire, i cavalli rimpinzati di avena fino al gozzo penarono, per entrare nelle stanghe. Scalciavano, si impennavano, i finimenti si spezzavano, i padroni bestemmiavano o ridevano. E tutta la notte, al chiaro di luna, per le strade del paese fu un galoppare scatenato di carriaggi che sobbalzavano nei canali di scolo, volavano sui mucchi di sassi, si inerpicavano sulle scarpate, con donne che si sporgevano dalla portiera per afferrare le redini. Chi rimase ai Bertò passò la notte a bere in cucina. I bambini si erano addormentati sotto le panche. La sposa aveva supplicato il padre che le venissero risparmiati gli scherzi d'uso. Ciò nonostante, un loro cugino pescivendolo, che come regalo di nozze aveva appunto portato un paio di sogliole, si accingeva a sputare acqua attraverso il buco della serratura, quando sopraggiunse il vecchio ruo appena in tempo per impedirglielo. Egli spiegò che la posizione autorevole di suo genero non permetteva simili impertinenze. Il cugino, però, cedette malvolentieri a tali ragioni. Dentro di sé accusò il vecchio ruo di essere spocchioso e andò a raggiungere in un angolo quattro o cinque invitati, i quali, avendo per caso ricevuto più volte a tavola i peggiori bocconi, trovavano anche loro che l'accoglienza lasciava desiderare, mormoravano sul conto del loro ospite e gli auguravano fra i denti di andare in malora. La signora Bovary madre non aveva aperto bocca per tutta la giornata. Non era stata consultata né sulla toilette della nuora né sull'organizzazione del banchetto. Si ritirò di buon'ora. Il marito, invece di seguirla, mandò a comprare dei sigari a Saint-Victor e fumò fino all'alba, bevendo grog al kirch, un miscuglio sconosciuto al resto della compagnia, il che fece crescere ancora la considerazione in cui era tenuto. Charles non era un tipo spiritoso e durante le nozze non aveva proprio brillato. Reagì banalmente alle battute di spirito, ai giochi di parole, ai doppi sensi, ai complimenti e alle malizie che tutti si sentivano in dovere di rivolgergli fin dalla minestra. L'indomani mattina, invece, sembrava un altro. Si sarebbe detto che fosse lui la vergine del giorno prima, mentre la sposa non lasciava trapelare alcun segno che potesse far indovinare qualcosa. Neanche i più maliziosi sapevano che dire e quando passava vicino a loro la osservavano con un'attenzione esagerata. Charles, invece, non dissimulava niente. La chiamava moglie mia, le dava del tu, chiedeva di lei a tutti, la cercava ovunque e spesso la trascinava per le corti, dove lo si scorgeva da lontano, tra gli alberi, cingerle la vita e camminare semichino su di lei, sgualcendole con la testa la pettorina della camicetta. Due giorni dopo le nozze, gli sposi se ne andarono. Charles non poteva sentarsi di più, per via dei pazienti. Il vecchio ruoli fece portare col suo calesse e li accompagnò di persona fino a Vassonville. Arrivati là, abbracciò la figlia un'ultima volta, scese a terra e riprese la strada di casa. Quando ebbe fatto un centinaio di passi, si fermò e nel vedere il calesse che si allontanava, con le ruote che girando alzavano la polvere, tirò un gran sospiro. Poi rammentò le sue nozze, il tempo andato, la prima gravidanza di sua moglie. Anche lui era tutto allegro il giorno in cui l'aveva portata via dalla casa del padre, in sella, trottando sulla neve. Già, perché era quasi Natale e la campagna era tutta bianca. Con un braccio lei si teneva a lui, all'altro aveva appeso il cesto di vimini. Il vento agitava le lunghe trine della cuffia tipica del Co, che di tanto in tanto le sfioravano la bocca. E quando lui voltava la testa, vedeva vicino a sé, oltre la spalla, il suo visetto roseo, che sorrideva silenzioso sotto la spilla d'oro della cuffia. Per scaldarsi le dita, ogni tanto lei gliele metteva sotto la giacca. Com'era lontano tutto questo? Il loro figlio oggi avrebbe avuto trent'anni. Dette un'occhiata alle sue spalle e non vide niente sulla strada. Si sentì triste come una casa svuotata di mobili, e dato che i ricordi teneri si mischiavano ai pensieri cupi nella sua mente oscurata dai fumi della bisboccia, a un tratto ebbe voglia di andare a fare un giro dalle parti della chiesa. Però, temendo che quella vista lo rendesse ancora più triste, se ne tornò dritto a casa. I coniugi bovari arrivarono a tosto verso le sei. I vicini si affacciarono alle finestre per vedere la nuova moglie del loro medico. La vecchia domestica venne a presentarsi, le dette il benvenuto, si scusò perché la cena non era pronta, e invitò la signora a dare intanto un'occhiata della casa. Capitolo 5 La facciata di mattoni era a filo della via, o meglio, della strada maestra. Dietro la porta erano appesi una mantella, un paio di briglie, un berretto di pelle nera, e per terra, in un angolo, c'erano un paio di gambali ancora coperti di fango rappreso. A destra c'era la sala, cioè l'ambiente in cui si mangiava e ci si intratteneva. Una carta da parati giallo canarino, decorata in alto da una ghirlanda di fiori sbiaditi, cedeva un po' dappertutto. Lungo le finestre scendevano incrociandosi dalle tende di calicò bianco, bordate di rosso. E sulla stretta cornice del camino splendeva una pendola con la testa di Ippocrate, fra due candelieri d'argento placato, sotto globi ovali. Dall'altra parte del corridoio si trovava lo studio di Charles, una stanzetta di sei passi circa, con un tavolo, tre seggiole e una poltrona da scrittoio. I volumi del Dictionnaire de Sciences Medical, intonsi, ma la cui rilegatura aveva sofferto nella successione di vendite attraverso cui erano passati, costituivano pressoché il solo arredo dei sei piani di una libreria in legno d'abete. L'odore degli intingoli penetrava attraverso la parete durante le visite, così come dalla cucina si sentivano i malati tossire nello studio e snocciolare tutta la loro storia. Veniva poi, con un affaccio diretto sulla corte, dove si trovava la scuderia, uno stanzone fatiscente, dotato di forno adibito a legnaia, dispensa, ripostiglio, pieno di ferri vecchi, di botti vuote, di arnesi agricoli in disuso, con una quantità di altre cose polverose di cui non era possibile indovinare la funzione. Il giardino, più lungo che largo, si estendeva tra due muri di argilla coperti da una spalliera di albicocche, fino ad una siepe di pruno che lo separava dai campi. Nel mezzo stava una meridiana d'ardesia, su un piedistallo in muratura. Quattro aiuole con qualche rachitica rosa di macchia bordavano simmetricamente il riquadro delle coltivazioni serie, quello delle piante utili. E in fondo, sotto la betaia, un prete di gesso leggeva il breviario. Emma salì al piano delle camere. La prima non era immobiliata, ma la seconda, che era la camera degli sposi, aveva un letto di mogano in un'arcova con le cortine rosse. Una scatola incrostata di conchiglie costituiva l'ornamento del cassettone, e sullo scrittoio, vicino alla finestra, c'era in una caraffa un mazzolino di fiori d'arancio, tenuto insieme da nastri di seta bianca. Era un mazzolino da sposa. Il mazzolino dell'altra. Lo guardò. Charles se ne accorse, lo prese e andò a portarlo in soffitta. Mentre sedutasi su una poltrona, intanto intorno a lei venivano sistemate le sue cose, Emma pensava al proprio mazzolino da sposa, chiuso in una scatola di cartone, e fantasticava sulla fine che avrebbe fatto se per caso fosse toccato a lei morire. Occupò i primi giorni a pensare ai cambiamenti da fare in casa. Tolse il globi ai candelari, fece mettere una nuova carta da parati, imbiancare la scala e installare panchine in giardino, tutto attorno alla meridiana. Chiese anche come fare per avere una vasca con lo zampillo e i pesci. E poi suo marito, sapendo che le piaceva far passeggiate in carrozza, trovò un boc d'occasione che, con fanali nuovi e parafanghi di cuoio impunturato, risultò quasi assomigliare a un tilbury. Lui era dunque felice e senza alcuna preoccupazione al mondo. Un pranzetto a due, una passeggiata la sera sulla strada maestra, un gesto della mano sui suoi capelli a bande, la vista del suo cappello di paglia appeso alla maniglia di una finestra e molte altre cose di cui Charles non aveva mai sospettato che potessero essere piacevoli, gli procuravano ora un'incessante felicità. A letto, la mattina, con la testa accanto a quella di lei sul cuscino, guardava la luce del sole a carezzare la peluria delle sue guance bionde, semi nascoste dalla cascata di trine della cuffia. Visti così da vicino, i suoi occhi gli sembravano ancora più grandi, soprattutto quando lei, al risveglio, cominciava a sbattere le palpebre, neri nell'ombra ed in un azzurro scuro alla luce, sembravano avere strati sovrapposti di colore, più scuri in fondo e sempre più chiari via via che si avvicinava allo smalto dell'iride. Lo sguardo di lui si perdeva in quelle profondità, in cui si rispecchiava in miniatura fino alle spalle, il fazzoletto intorno alla testa e la parte superiore della camicia semi aperta. Si alzava, lei si metteva alla finestra per vederlo andare via e restava appoggiata al davanzale, tra due vasi di gerani, con indosso la vestaglia che l'avvolgeva morbidamente. In strada, Charles si allacciava gli speroni sul paracarro e lei continuava a parlargli dall'alto, mentre con la bocca strappava e soffiava verso di lui uno stelo di fiore o un filo d'erba, che volteggiando, planando, disegnando semicerchi nell'aria come un uccello, andava ad impigliarsi, prima di finire a terra, nel crine arruffato della vecchia giumenta bianca, immobile davanti alla porta. Charles, a cavallo, le mandava un bacio. Lei rispondeva con un gesto, chiudeva la finestra. Lui andava via. E allora, sulla strada maestra che si snodava senza fine nella polvere, per sentieri dove l'erba gli saliva fino al ginocchio, con il sole sulle spalle e l'aria del mattino nelle narici, il cuore colmo delle ebrezze notturne, la mente tranquilla, la carne sazia, se ne andava ruminando la sua felicità. Come uno, che è finito il pranzo, continua a masticare il sapore dei tartufi che sta digerendo. Che cosa aveva avuto di buono dalla vita fino a quel momento? Gli anni del collegio, forse, quando se ne stava rinchiuso tra quelle alte pareti, solo in mezzo ai compagni più ricchi o più bravi di lui a scuola, che ridevano del suo accento, che lo prendevano in giro per il suo abbigliamento e le cui madri venivano in parlatorio con i manicotti pieni di dolcetti. O forse dopo, quando studiava medicina e non aveva mai la borsa abbastanza piena da poter invitare al ballo una qualche graziosa operaia che potesse diventare la sua amante? Poi aveva vissuto per quattordici mesi con la vedova, che a letto aveva i piedi di marmo. Ma ora era sua per sempre, quella donna bella e adorata. L'universo per lui non andava oltre il cerchio di seta della sua sottogonna, si rimproverava di non amarla, aveva voglia di rivederla, tornava di corsa da lei, saliva le scale con il cuore in gola. Emma, in camera, era intenta alla toilette mattutina, lui arrivava a passi felpati, la baciava sulla spalla, lei lanciava un grido. Non poteva trattenersi dal toccare di continuo il pettine, gli anelli, lo scialle di lei. Talvolta le stampava grandi baci sulle guance, oppure le dava tanti bacetti in fila lungo il braccio nudo, dalla punta delle dita fino alla spalla. E lei lo respingeva, tra sorridente e seccata, come si fa con un bambino che vi sta continuamente addosso. Prima di sposarsi, Emma aveva creduto di amarlo, ma la gioia che avrebbe dovuto essere prodotta da questo amore non era venuta. Si doveva essere sbagliata, pensava, e cercava di capire che cosa si intendesse esattamente dire nella vita con le parole felicità, passione ed ebrezza, che le erano apparse così belle nei libri. Capitolo 6 Aveva letto Paul e Virginie, e aveva fantasticato sulla casetta di bambù, sul negro domingo e il cane fidel, ma soprattutto sulla dolce amicizia di qualche fratellino buono, che va a coglierti frutti rossi su alberi più alti dei campanili, o che corre a piedi nudi sulla sabbia portandoti un nido d'uccello. A 13 anni, il padre l'accompagnò in città, per metterla in convento. Si fermarono in un alberghetto del quartiere Saint-Gervais, dove servirono loro la cena in piatti dipinti che raffiguravano la storia di Mademoiselle de la Vallée. Le didascalie, qua e là interrotte dai graffi dei coltelli, glorificavano tutta la religione, i sentimenti delicati e i fasti della corte. I primi tempi in convento, lungi dall'annoiarsi, apprezzò la compagnia delle monache, che, per divertirla, la portavano nella cappella, alla quale si accedeva dal refettorio attraverso un lungo corridoio. Giocava pochissimo durante la ricreazione, seguiva bene il catechismo ed era sempre lei a rispondere al vicario quando le domande erano difficili. Vivendo senza mai uscire dalla calda atmosfera delle aule e in mezzo a quelle donne dall'incarnato bianco che portavano rosari con la croce di rame, si intorpidì pian piano nell'anguore mistico che esala dai profumi dell'altare, dal fresco delle acquasantiere e dall'alone dei ceri. Invece di seguire la messa, guardava nel libro le immagini pie bordate d'azzurro e le piacevano la pecorella malata, il sacro cuore trafitto da frecce accuminate o il povero Gesù che cade sotto il peso della croce. Tentò, per mortificarsi, di restare una giornata intera senza mangiare. Si affannava a escogitare qualche voto da adempiere. Quando si confessava inventava piccoli peccati per poter indugiare in ginocchio nell'ombra con le mani giunte, il viso contro la grata sotto il bisbiglio del prete. I termini di paragone come fidanzato, sposo, amante celeste e nozze eterne che punteggiavano le prediche le suscitavano in fondo all'anima inattese dolcezze. La sera, prima della preghiera, si faceva in aula una lettura religiosa. Durante la settimana, qualche riassunto di storia santa o le conferenze dell'abate Frassinus. E la domenica, per svagarsi, passi del génie du cristianisme. Come ascoltò le prime volte quel sonoro lamento dalle malinconie romantiche riecheggiare in ogni angolo della terra e dell'eternità. Se avesse trascorso l'infanzia nel retrobottega di un quartiere di negozianti, si sarebbe forse aperta agli slanci lirici della natura, che di solito arrivano unicamente attraverso la traduzione degli scrittori. Ma conosceva troppo bene la campagna, belati di greggi, latticini, aratri, le erano familiari. Abituata agli spettacoli sereni, si indirizzava piuttosto verso quelli perigliosi. Il mare le piaceva solo per le sue tempeste e il verde solo se occhieggiante fra le rovine. Aveva bisogno di ricavare dalle cose un qualche profitto personale e rifiutava come inutile tutto ciò di cui il suo cuore non potesse fare immediato consumo, per via di quel suo temperamento più sentimentale che artistico, alla ricerca di emozioni e non di paesaggi. Frequentava il convento, per otto giorni ogni mese, una vecchia signorina che si occupava della biancheria. Protetta dall'arcivescolare, Covado, in quanto discendente da un'antica famiglia di gentiluomini, andati in rovina sotto la rivoluzione, in refettorio sedeva alla tavola delle suore e dopo pranzo si fermava a chiacchierare un po' con loro prima di tornare al lavoro. Spesso le educande riuscivano a sgattaiolare dall'aula per venire a trovarla. Sapeva a memoria canzoni galanti del secolo passato, che cantava sotto voce, continuando a cucire. Raccontava storie, portava notizie, faceva commissioni in città e alle grandi prestava di nascosto qualche romanzo che aveva sempre con sé, nelle tasche del grembiule, e di cui la brava signorina stessa divorava lunghi capitoli negli intervalli del lavoro. Era tutto un mondo di amori, amanti, innamorate, damme perseguitate che svenivano in padiglioni solitari, postiglioni uccisi ad ogni stazione di posta, cavalli sfiancati ad ogni pagina, boschi tenebrosi, fremiti, giuramenti, singhiozzi, lacrime e baci, barchette al chiar di luna, usignoli nei boschi, gentiluomini coraggiosi come leoni, dolci come agnelli, virtuosi che più non si può, sempre agghindati e lacrimosi come fontane. Così, per sei mesi, a quindici anni, Emma immerse dunque le mani nella polvere di vecchi gabinetti di lettura. Più tardi, con Walter Scott, si infiammò per le vicende storiche, sognò forzieri, sale d'armi e menestrelli. Avrebbe voluto vivere in qualche antico maniero, come quelle castellane dal lungo corsetto, che sotto le ogive tribolate passavano i loro giorni con il gomito sul davanzale e il mento nella mano, in attesa di vedere, dal fondo della campagna, arrivare al galoppo, su un cavallo nero, un cavaliere dal bianco cimiero. In quel periodo ebbe il culto di Maria Stuarda ed entusiastiche venerazioni per donne illustri o sfortunate. Giovanna d'Arco, Eloisa, Agnès Sorel, la bella Ferronière e Clément Cisor. Spiccavano per lei come comete nella tenebrosa immensità della storia, su cui si stagliavano, qua e là, ma più in ombra e senza alcun rapporto fra di loro, San Luigi con la sua quercia, Baiardo Morente, qualche efferratezza di Luigi XI, un po' di San Bartolomeo, il pennacchio del Bearnese, e sempre il ricordo dei piatti dipinti in cui si glorificava Luigi XIV. A lezione di musica, le romanze che cantava non parlavano che di angioletti dalle ali d'oro, di madonne, di lagune, di gondolieri, inoffensive composizioni, che attraverso sdolcinature di stile e note incaute le facevano intravedere l'attraente fantasmagoria delle realtà sentimentali. Alcune delle sue compagne portavano in convento i keepsake ricevuti in dono. Bisognava nasconderli, non era facile, venivano letti nel dormitorio. Nel maneggiare delicatamente le belle rilegature di seta, Emma fissava lo sguardo affascinato sul nome degli autori sconosciuti, il più delle volte Conti o Visconti, che avevano a posto la loro firma in calce a ciascun testo. Fremeva tutta, mentre con un soffio sollevava la carta velina delle incisioni, che si piegavano all'insù prima di ricadere lentamente sulla pagina. Ed ecco apparire, dietro la balaustra di un balcone, un giovane dal corto mantello, che stringeva fra le braccia una fanciulla di bianco vestita, con una scarsella alla cintura, oppure anonimi volti di dame inglesi con i riccioli biondi, occhieggianti da sotto l'ampio cappello di paglia. Alcune, adagiate in carrozza, attraversavano un parco dove un levriero faceva salti davanti alla pariglia guidata al trotto da due piccoli cocchieri in brache bianche. Altre, sognanti su un sofà accanto a un biglietto sgualcito, contemplavano la luna, dallo spiraglio di una finestra velata in parte da un drappeggio nero. Le ingenue, una lacrima sulla gota, sbaciucchiavano una tortora attraverso le sbarre di una gabbia gotica, oppure, sorridenti, con la testa reclinata sulla spalla, sfogliavano una margherita con dita appuntite e ricurve come scarpini alla polacca. E non mancavate voi, sultani dalle lunghe pipe, riversi sotto il pergolato fra le braccia delle baiadere, giaurri, scimitarre, berretti greci, e soprattutto voi, sbiaditi paesaggi delle contrate di tirambiche, che usate a manirci insieme palme, abeti, tigri a destra, un leone a sinistra, minareti tartari all'orizzonte, rovine romane in primo piano, e poi ancora cammelli accovacciati. Il tutto incorniciato da una ben curata foresta vergine e con un gran raggio di sole a perpendicolo tremolante nell'acqua, su cui spicca, qua e là, come bianca scheggia su uno sfondo di grigio acciaio, qualche cigno che nuota. E la lampada ad olio, appesa alla parete sulla testa di Emma, illuminava tutte queste scene del mondo che le sfilavano davanti una dopo l'altra nel silenzio del dormitorio e al rumore lontano di qualche tardiva carrozza ancora in circolazione sui boulevard. Quando morì sua madre, i primi giorni pianse molto. Si fece fare un medaglione con i capelli della defunta e in una lettera spedita ai Bertot, colma di tristi pensieri sulla vita, chiedeva di venire a suo tempo sepolta nella stessa tomba. Il brav'uomo pensò che fosse malata e andò a trovarla. Dentro di sé, Emma fu contenta di sentirsi approdata di colpo a quel raro ideale delle esistenze pallide, cui non pervengono mai i cuori mediocre. Così si lasciò scivolare nei meandri lamartiniani, ascoltò le arpe sui laghi, ogni canto di cigno morente, il cadere delle foglie, le vergini pure che salgono in cielo e la voce dell'Eterno che risuona per le valli. Tutto questo le venne annoia, non voleva ammetterlo. Continuò per abitudine, poi per vanità, e alla fine fu sorpresa di sentirsi calma, senza più tristezza nel cuore che rughe sulla fronte. Le buone monache, che avevano tanto sperato nella sua vocazione, si accorsero con gran stupore che la signorina Ruo sembrava sottrarsi alle loro premure. D'altra parte, le avevano prodigato una tale quantità di funzioni, ritiri, novene, sermoni, le avevano così tanto predicato il rispetto dovuto ai santi e ai martiri, e dato tanti buoni consigli per la modestia del corpo e la salvezza dell'anima, che lei fece come i cavalli cui si tirano troppo energicamente le briglie. Si fermò di botto, e il morso le uscì dai denti. Quel suo spirito concreto, pur negli entusiasmi, che aveva amato la chiesa per i fiori, la musica per le parole delle romanze e la letteratura per le sue esaltanti passioni, insorse di fronte ai misteri della fede, proprio come si ribellava sempre più alla disciplina, a cui la sua natura recalcitrava. Quando il padre la ritirò dal collegio, nessuno si dolse di vederla andar via. La madre superiore trovava anzi che negli ultimi tempi non mostrava abbastanza rispetto per la comunità. Tornata a casa, Emma trovò dapprima piacere a dare ordini ai domestici, poi si disgustò della campagna e rimpianse il convento. Quando Charles arrivò a Iberto la prima volta, riteneva di essere profondamente disillusa, di non aver più niente da imparare, di non dover sentire più nulla. Ma l'ansia di un nuovo stato, o forse l'eccitazione causata dalla presenza di quell'uomo, bastarono a farle credere di possedere, al fine, quella meravigliosa passione che sino ad allora aveva planato, come un grande uccello dalle piume rosa, nello splendore dei cieli poetici. E adesso non riusciva a credere che la calma in cui viveva fosse la felicità tanto sognata. Capitolo 7 Pensava talvolta che quelli erano tuttavia i giorni più belli della sua vita. La luna di miele, come si suol dire. Per assaporarne la dolcezza avrebbero dovuto, indubbiamente, andarsene verso quei paesi dal nome sonoro dove i primi giorni di matrimonio hanno ben altre voluttà. Indirigenze con tendine di seta azzurra ci si inerpica per strade scoscese, mentre il postiglione canta una canzone a cui fanno eco, sulla montagna, le campanelle delle capre e il sordo fruscio della cascata. Al tramonto si respira il profumo dei limoni in riva ai golfi. Poi, la sera, dalle terrazze delle ville, soli e con le dita intrecciate, si guardano le stelle mentre si fanno progetti. Le sembrava che certi luoghi della terra dovessero produrre felicità come piante proprie di un determinato ambiente, inadatte a qualsiasi altro posto. Perché mai non poteva affacciarsi al balcone di baite svizzere o relegare la sua tristezza in un cottage scozzese con un marito in velluto nero a lunghe falde, stivali flosci, cappello a punta e polsini? Forse le avrebbe fatto piacere confidarsi con qualcuno su tutte queste cose, ma come esprimere quell'inafferrabile malessere che muta d'aspetto con le nuvole che turbina come il vento. Le mancavano le parole, e l'occasione, e l'ardire. Eppure, se Charles avesse voluto, se avesse sospettato, se lo sguardo di lui una sola volta fosse venuto incontro al suo pensiero, un'improvvisa ricchezza le pareva si sarebbe staccata dal suo cuore, come cadono i frutti maturi al minimo tocco della mano. Ma più la loro intimità si faceva stretta, più si accentuava la distanza interiore che glielo rendeva estraneo. La conversazione di Charles era piatta come un marciapiede, e fatta dei più tristi luoghi comuni, incapace di suscitare emozioni, riso o fantasie. Non gli era mai venuta la curiosità, diceva, di andare a vedere a teatro le compagnie di Parigi, ai tempi in cui abitava a Rouen. Non sapeva né nuotare, né tirare di scherma o usare la pistola, e una volta non seppe neppure spiegarle un termine di equitazione che lei aveva incontrato in un romanzo. Eppure un uomo non doveva forse conoscere tutto, eccellere in molteplici attività, iniziare la donna agli slanci della passione, alle raffinatezze della vita, ad ogni mistero. Ma non insegnava nulla lui, non sapeva nulla, non desiderava nulla. La credeva felice, e lei gliene voleva, per quella sua calma imperturbabile, per quella sua placida autusità, per quella stessa felicità che gli dava. Ogni tanto si metteva a disegnare, e per Charles era un gran divertimento starle accanto ai piedi a osservare la china sul suo album, che strezzava gli occhi per vedere meglio il lavoro, o arrotolava fra le dita palline di midolla di pane. In quanto al piano, più le sue dita correvano veloci, più lui andava in estasi. Picchiava sui tasti con sicurezza, e andava in su e in giù per tutta la tastiera senza interrompersi. Così scosso da lei, il vecchio strumento scordato, se la finestra era aperta, si faceva sentire sino in fondo al paese, e spesso l'aiutante dell'ufficiale giudiziario che passava per strada, a capo scoperto e in ciabatte, si fermava ad ascoltarla con la sua carta in mano. D'altro canto, Emma sapeva governare la casa. Mandava la parcella ai malati, in lettere così ben congegnate da non sembrare fatture. Quando la domenica aveva qualche vicino a pranzo, trovava il modo di offrire un piatto ricercato, si impegnava a disporre su foglie di vite le piramidi di prugna a regina Claudia, serviva le marmellate rovesciando il vasetto sul piatto, e si proponeva anche di comprare qualche sciacquabocca per il dessert. Tutto questo aumentava la considerazione in cui era tenuto Bovary. Charles finiva con lo stimarsi di più, per il fatto di avere una moglie simile. Mostrava con orgoglio, in sala, due piccoli schizzi di lei a matita, che aveva fatto mettere in cornici molto ampie e appeso contro la carta da parati, con lunghi cordoni verdi. All'uscita dalla messa lo si vedeva sulla porta di casa con indosso delle belle pantofole ricamate. Rincasava tardi, alle dieci, talvolta a mezzanotte. Poi voleva cenare, e dato che la domestica dormiva già, era Emma a metterlo a tavola. Si toglieva la giacca per stare più comodo, elencava tutte le persone che aveva incontrato, tutti i paesi in cui era stato, le ricette che aveva prescritto, e, soddisfatto di sé, mangiava i resti dello stracotto, toglieva la crosta al formaggio, sgranocchiava una mela, si scolava una caraffa, poi se ne andava a letto, si coricava a supino e si metteva a russare. Avendo avuto a lungo l'abitudine della cuffia di cotone, non riusciva a tener fermo il fular sulle orecchie. Così la mattina i capelli gli cascavano scompigliati sul viso, tutti bianchi di piume del guanciale, i cui lacci durante la notte si scioglievano. Portava sempre degli stivaloni con due spesse pieghe al collo del piede, in direzione della caviglia, mentre il resto della tomaia continuava dritto, come teso da un piede di legno. Diceva che andava bene, anche troppo per la campagna. La madre approvava queste economie, veniva infatti a trovarlo come un tempo, quando da lei c'era stata qualche burrasca un po' violenta. Però la signora Bovary madre sembrava prevenuta contro la nuora. Trovava che aveva un tenore di vita troppo alto rispetto ai loro mezzi. Legna, zucchero e candele andavano via come in un castello. E la quantità di braccia che si bruciava in cucina sarebbe bastata per venticinque portate. Le sistemava la biancheria nell'armadio e le insegnava a tener d'occhio il macellaio quando portava la carne. Emma assorbiva le lezioni, la signora Bovary le prodigava, e per tutta la giornata era uno scambio di figliola mia e mamma carissima, accompagnate da un lieve fremere di labbra, poiché ognuna lanciava parole dolci con voce vibrante di collera. Al tempo della signora Dubuc, la vecchia si considerava ancora la preferita, ma ora l'amore di Charles per Emma le sembrava un tradimento delle sue tenerezze, un'invasione su qualcosa che le apparteneva, e osservava la felicità del figlio in un mesto silenzio, come una persona caduta in miseria guarda, attraverso i vetri, degli estranei seduti ora alla sua tavola. Emma le faceva tornare alla mente, quasi un lontano ricordo, le sue pene e i suoi sacrifici, e paragonandoli alle sventatezze di lei, arrivava alla conclusione che non aveva senso adorarla in maniera così esclusiva. Charles non sapeva che cosa rispondere, rispettava sua madre e amava infinitamente sua moglie, considerava infallibile il giudizio dell'una, però trovava l'altra irreprensibile. Dopo che la signora Bovary se n'era andata, cercava di azzardare timidamente, e negli stessi termini, una o due delle più banali osservazioni che aveva sentito fare a sua madre. Emma gli provava in due parole che si sbagliava e lo rispediva ai suoi malati. Tuttavia, seguendo quelle che credeva giuste teorie, ritenne di doversi considerare innamorata. Al chiero di luna, in giardino, recitava tutti i versi appassionati che sapeva a memoria, e gli cantava sospirando malinconici adagi. Ma dopo si ritrovava calma come prima, e Charles non appariva né più innamorato né più turbato. Dopo aver tentato in vano di far sprizzare qualche scintilla dal suo cuore, ed è il resto incapace di capire qualcosa che non provava, come di credere a tutto ciò che non si manifestava nelle forme previste, si convinse facilmente che la passione di Charles non aveva più niente di straordinario. Le sue espansioni si erano fatte regolari, la bracciava e baciava ad ore fisse. Era un'abitudine fra le altre, come un dessert già programmato dopo la monotonia del pranzo. Un guardiacaccia che Bovary aveva guarito da una polmonite aveva fatto dono a madame di una piccola levriera italiana. Lei la prendeva con sé nelle passeggiate, perché ogni tanto usciva, per stare qualche momento sola e non aver più sotto gli occhi quell'eterno giardino con la strada polverosa. Andava sino alla fageta di Bunville, vicino al padiglione abbandonato che fa angolo dalla parte dei campi. Vi crescono nel fossato, tra l'erba, alte canne dalle foglie taglienti. Cominciava col guardarsi intorno, per vedere se niente era cambiato dall'ultima volta che c'era stata. Ritrovava al loro posto le digitali e i rafani selvatici, i ciuffi di ortica attorno alle grosse pietre e le macchie di lichene lungo le tre finestre, le cui imposte sempre chiuse marcivano sgretolandosi sulle barre di ferro arrugginito. I suoi pensieri, dapprima senza meta, vagabondavano a caso, come la levriera, che correva intorno nei campi, abbaiava alle farfalle gialle, dava la caccia ai musaragni o mordichiava i papaveri a limitare di una chiazza di grano. Poi le sue idee a poco a poco si fissavano, e seduta sull'erba che tormentava con la punta del parasole, Emma si ripeteva, «Perché, Dio mio, mi sono sposata?». Si chiedeva se non sarebbe stato possibile, per diverse combinazioni del caso, incontrare un altro uomo, e cercava di immaginare quali avrebbero potuto essere quegli eventi che non c'erano stati, quella vita diversa, quel marito che non conosceva. Non tutti assomigliavano a lui, infatti. Avrebbe potuto essere bello, spiritoso, distinto, attraente, come erano senza dubbio quelli sposati dalle sue vecchie compagne di convento. Chissà che cosa stavano facendo. In città, in mezzo al rumore delle strade, al brussio dei teatri e alle luci del ballo, conducevano esistenze in cui il cuore si dilata, i sensi sbocciano. Per lei, invece, la vita era fredda come una soffitta con la finestrella esposta a nord, e la noia, ragno silenzioso, tesseva la sua tela nell'ombra in ogni angolo del suo cuore. Rammentava i giorni delle premiazioni, quando saliva sul palco per andare a ricevere le coroncine. Con le trecce, il vestito bianco e le scarpine scollate di raso nero aveva un'aria aggraziata, e i signori, quando tornava al suo posto, si chinavano per farle i complimenti. Il cortile era pieno di calessi, la salutavano attraverso le portiere, il maestro di musica passava agitando la mano con la custodia del violino. Come tutto questo era lontano, come era lontano. Chiamava Giali, la prendeva fra le ginocchia, le passava le dita sulla testolina fusolata e le diceva, via, diamo un bacio alla padroncina, tu che non conosci la sofferenza. Poi, osservando l'espressione malinconica dell'agile animale che sbadigliava pigramente, si inteneriva, e paragonandolo a se stessa, gli parlava a voce alta come a una persona afflitta che deve essere consolata. Arrivavano ogni tanto folate di vento, brezze marine che, spazzando tutto il pianoro del Co, portavano fin laggiù nei campi una frescura salata. I giunchi si bilavano rasoterra e le foglie dei faggi stormivano in un brivido improvviso, mentre le cime, ondeggiando senza tregua, ne prolungavano il vasto mormorio. Emma si stringeva addosso lo scialle e si alzava. Nel viale, una luce verde riflessa dal fogliame illuminava lo strato di muschio che frusciava sotto i piedi. Il sole tramontava, il cielo era rosso tra i rami e i tronchi tutti uguali degli alberi piantati in fila sembravano uno scuro colonnato che si stagliava su uno sfondo d'oro. Uno sgomento la afferrava, chiamava Giali, tornava veloce a tost per la strada maestra, si abbandonava in una poltrona e per tutta la serata non apriva bocca. Ma verso la fine di settembre, nella sua vita intervenne qualcosa di straordinario. Fu invitata a Boviessar dal marchese d'Andervillier. Segretario di Stato sotto la restaurazione, il marchese, che cercava di rientrare nella vita politica, preparava da tempo la sua candidatura alla Camera dei Deputati. D'inverno faceva abbondanti e numerose distribuzioni di legna e al Consiglio Generale reclamava con energia sempre nuove strade per la sua circoscrizione. Aveva avuto, nei giorni della canicola, un ascesso in bocca, da cui Charles l'aveva liberato come per miracolo, con un preciso colpo di bisturi. Il faccendiere spedito a Tost per pagare l'operazione raccontò la sera di aver visto nel giardino del medico delle splendide ciliegie. Ora, i ciliegi non venivano su bene alla Boviessar, il signor marchese chiese a Bovary qualche talea, si sentì in dovere di ringraziare personalmente, vide Emma, trovò che aveva una bella figurina e che non salutava come una contadina, cosicché al castello ritennero che invitare la giovane coppia non fosse né eccessiva condiscendenza né leggerezza. Un mercoledì alle tre i coniugi Bovary, saliti sul loro boc, partirono per la Bobeessar, con un grosso baule attaccato dietro e una cappelliera sistemata davanti. Charles teneva anche uno scatolone fra le gambe. Arrivarono al calar della notte, nel momento in cui venivano accesi i lampioni nel parco per far luce alle carrozze. Capitolo 8 Il castello, una costruzione moderna all'italiana, con due ali aggettanti e tre scalinate, si estendeva in fondo a un immenso prato, dove qualche mucca pascolava tra macchie di alberi ad alto fusto, mentre ciuffi d'arbusti, rododendri, siringhe, palloni di maggio, chiazzavano di verde il percorso sinuoso del vialetto coperto di sabbia. Sotto un ponte scorreva un ruscello, attraverso la bruma si distinguevano delle costruzioni dal tetto di paglia, sparpagliate nella distesa d'erba racchiusa da due collinette boscose in dolce pendio. E dietro, fra gli alberi, stavano su due file parallele le rimesse e le scuderie, residui ben conservati dell'antico castello demolito. Il boc di Charles si fermò di fronte alla scalinata centrale. Accorsero dei domestici, il marchese venne loro incontro e, offrendo il braccio alla moglie del medico, la introdusse nell'atrio. Era l'astricato di marmo, altissimo, e il rumore dei passi, unitamente a quello delle voci, rimbombava come in una chiesa. Di fronte si ergeva una scala diritta, a sinistra una galleria, affacciata sul giardino, conduceva alla sala da biliardo, dove, fin dalla porta, si udivano carambolare le palle d'avorio. Mentre la traversava per andare nel salone, Emma vide attorno al tavolo verde degli uomini dal contegno severo, col mento poggiato su grandi cravate, tutti decorati, che, sorridendo silenziosi, puntavano la stecca. Sulla parete rivestita di legno scuro, grandi cornici dorate portavano sotto il bordo inferiore nomi incisi a lettere nere. L'essai, Jean-Antoine d'Andervillier di Verbonville, conte della Vaux-Bessart e barone della Fresne, ucciso in battaglia a Cutras il 20 ottobre 1587. E su un altro, Jean-Antoine Henri Guy d'Anderville della Vaux-Bessart, ammiraglio di Francia e cavaliere dell'Ordine di San Michele, ferito in combattimento alla Aug-San-Va il 29 maggio 1692, morto alla Vaux-Bessart il 23 gennaio 1693. I nomi che seguivano erano appena distinguibili, perché la luce delle lampade, diretta sul tappeto del biliardo, lasciava vagare un'ombra sull'ambiente. Questa scuriva le tele orizzontalmente, frangendosi contro di esse in lame sottili, lungo le screpolature della vernice, e da tutti quei gran riquadri neri incorniciati d'oro, spuntavano qua e là parti più chiare del dipinto, una fronte pallida, due occhi che ti fissavano, cipria di parrucche in anellate che ricadeva sulla spalla di giacche rosse, o la fibbia di una giarrettiera alla sommità di un polpaccio bentornito. Il marchese aprì la porta del salone, una delle signore si alzò, la marchesa stessa. Venne incontro ad Emma e la fece sedere vicino a lei, su un divanetto, dove si mise a parlare amichevolmente, come se la conoscesse da tempo. Era una donna più o meno sulla quarantina, con belle spalle, naso arcuato, voce strascicata, e quella sera portava sui capelli castani un semplice fischù che cadeva sulla nuca a triangolo. Al suo fianco stava una giovane bionda, su una seggiola dallo schienale alto, e alcuni uomini che portavano un fiorellino all'occhiello della marsina conversavano con le signore facendo cerchio intorno al camino. Alle sette fu servita la cena. Gli uomini, più numerosi, si sedettero alla prima tavola nell'atrio e le signore alla seconda, nella sala da pranzo, con il marchese e la marchesa. Entrando, Emma si sentì avviluppare da un'aria calda, in cui si mischiava il profumo dei fiori e della biancheria fine, l'aroma della carne e l'odore dei tartufi. Dai candelabri le candele proiettavano la loro fiamma su campane d'argento, i cristalli sfaccettati e opagizzati dal vapore si rimandavano palli di raggi. Mazzi di fiori erano allineati lungo tutta la tavola, e nei piatti a larghi bordi i tovaglioli, sistemati come mitri e da vescovo, racchiudevano ognuno un panino di forma ovale, nello spacco fra le due pieghe. Dai vassoi spuntavano le zampe rosse degli astici, giganteschi frutti erano sistemati sul mucchio in ceste svasate. Le quaglie erano ancora piumate, l'aria era piena di vapori, e in calze di seta, calzoni corti, cravatta bianca, jabot, severo come un giudice, il maggiordomo, porgendo oltre la spalla dei commensali i vassoi con i pezzi già tagliati, faceva saltare nel piatto con un colpo di cucchiaio il boccone prescelto. Sulla grande stufa di porcellana rifinita in rame, una statua di donna drappeggiata fino al mento guardava immobile la sala piena di gente. Madame Bovary notò che molte signore non avevano deposto, secondo l'uso, i guanti nel loro bicchiere. Intanto a capotavola, solo fra tutte quelle donne, chino sul piatto pieno e col tovagliolo annodato dietro al collo come un bambino, un vecchio mangiava facendo gocciare la salsa dalle labbra. Aveva gli occhi striati di sangue e portava un codino avvolto in un nastro nero. Era il suocero del marchese, il vecchio duca di Laverdier, già favorito dal conte d'Artrua ai tempi delle partite di caccia nel Vadreuil, nelle tenute del marchese di Conflam, e che si diceva fosse stato l'amante della regina Maria Antonietta, fra De Quagny e De Lausun. Aveva condotto una vita scandalosa da debosciato, tutta duelli scommesse donne rapite, aveva dilapidato i suoi averi e messo in ansia l'intera famiglia. Un domestico alle sue spalle gli diceva ad alta voce, nell'orecchio, i nomi dei piatti che lui balbettando indicava col dito. Gli occhi di Emma tornavano irresistibilmente, senza sosta, su questo vecchio dalle labbra cascanti, come su qualcosa di straordinario e di augusto. Aveva vissuto a corte e dormito nel letto delle regine. Venne servito lo champagne ghiacciato. Emma fu percorsa da un brivido lungo tutto il corpo, nel sentire quel freddo in bocca. Non aveva mai visto melagrane né mangiato ananas. Lo stesso zucchero in polvere le parve più bianco e più fine che altrove. Poi le signore salirono in camera a prepararsi per il ballo. Emma curò la sua toilette con la meticolosità di un'attrice al debutto. Si accongiò i capelli seguendo le raccomandazioni del parrucchiere, e indossò il vestito di crespo di lana che stava disteso sul letto. I pantaloni di Charles gli stavano stretti sulla pancia. «I sottopiedi mi daranno noi a ballare?» disse. «Ballare?» esclamò Emma. «Sì. Ma hai perso la testa. Tutti ti prenderebbero in giro. Stai al suo posto. Del resto è più dignitoso per un medico», aggiunse. Charles tacque. Andava su e giù in attesa che Emma fosse pronta. La vedeva da dietro, nello specchio, fra due candelabri. Gli occhi neri sembravano ancora più neri. Le due bande di capelli, dolcemente bombate verso le orecchie, brillavano di riflessi blu. Una rosa nello chignon tremava sul suo stelo flessuoso, con finte gocce d'acqua in cima alle foglie. Aveva un vestito zafferano chiaro, ravvivato da tre mazzetti di rose pompon fra miste di verde. Charles si avvicinò e la baciò sulla spalla. «Lasciami», disse lei. «Mi sciuppi il vestito». Si udirono un ritornello di violino e suoni di corno. Emma scese la scala, cercando di non correre. Erano iniziate le quadriglie, arrivava gente, c'era Ressa. Si mise vicino alla porta, su un divanetto. Al termine della contraddanza, lo spazio rimase a disposizione di un gruppo di uomini che conversavano in piedi, e dei domestici in livrea che portavano grandi vassoi. Lungo la fila delle signore sedute si agitavano ventagli dipinti, i mazzetti di fiori nascondevano a metà il sorriso dei botti, e i flaconi dal tappo d'oro passavano per mani socchiuse, con guanti bianchi, stretti al polso, che disegnavano la forma delle unghie. Le guarnizioni di merletto, le spille di diamanti, i braccialetti a medaglie, fremevano sui corsetti, scintillavano sui petti, tintinnavano sulle braccia nude. Sulle capigliature, lisce sulla fronte e annodate alla nuca, non ti scordar di me, gelsomini, fiori di melograno, spighe o fiordalisi erano sistemati, a forma di coroncine, grappoli o rami. Immobili al loro posto, madri dal volto arcigno portavano turbanti rossi. Emma sentì il cuore che le batteva, quando, con un cavaliere che la teneva per la punta delle dita, andò a mettersi in riga e stette in attesa del primo accordo. Ma l'emozione svanì velocemente, e cullandosi al ritmo dell'orchestra, scivolava in avanti, con lievi movimenti del collo. Le sbocciava un sorriso sulle labbra a certe eleganti fioriture del violino, che talvolta suonava solo, quando gli altri strumenti tacevano. Si udiva dalla sala accanto il tintinio dei Luigi d'oro rovesciati sul tappeto dei tavoli. Poi ricominciava tutto insieme. La cornetta lanciava uno squillo sonoro, i piedi si muovevano a tempo, le gonne si gonfiavano e frusciavano, le mani si cercavano, si lasciavano, gli stessi occhi che si erano abbassati di fronte ai tuoi tornavano a fissarti. Tra la folla si distinguevano per una certaria di famiglia, nonostante la varietà di generazione, abbigliamento o fisionomia, alcuni uomini, una quindicina, tra i venticinque e i quarant'anni, sparsi fra i ballerini o intenti a conversare sulla soglia delle porte. I loro abiti, di miglior fattura, sembravano di un tessuto più morbido e i loro capelli, raccolti in boccoli verso le tempie, sembravano lustrati con pomate più fini. Avevano l'incarnato della ricchezza, quella pelle bianca che risalta il pallore delle porcellane, ai riflessi del raso, alla lucentezza dei mobili di lusso e che una sobria dieta di vivande squisite mantiene sana. Il collo si muoveva a suo agio su cravate basse, i lunghi favoriti scendevano fino ai risvolti dei colletti, portavano alle labbra a fazzoletti con grandi iniziali ricamate da cui emanava un odore soave. Quelli che cominciavano ad invecchiare avevano l'aria giovanile, mentre qualcosa di maturo velava il volto dei giovani. Negli sguardi indifferenti alleggiava la calma delle passioni quotidianamente soddisfatte e attraverso i modi pacati si percepiva quella particolare brutalità che viene dal dominio di cose non troppo difficili, un esercizio per la forza e un divertimento per la vanità, come avere a che fare con cavalli di razza e frequentare donne perdute. A tre passi da Emma, un cavaliere in marsina blu parlava dell'Italia con una giovane signora pallida che indossava una pariur di perle. Decantavano l'imponenza delle colonne di San Pietro, Tivoli, il Vesuvio, Castellammare e le Cascine, le Rose di Genova, il Colosseo al Chiaro di Luna. Con l'altro orecchio Emma ascoltava una conversazione piena di termini che non conosceva. Stavano tutti attorno a un giovane che la settimana prima aveva battuto Miss Arabelle e Romulus e vinto duemila Luigi saltando un fossato in Inghilterra. Uno si lamentava dei suoi purosangue che ingrassavano, un altro degli errori di stampa che avevano storpiato il nome del suo cavallo. L'aria nel salone era greve, la luce delle lampade fiocca. Gli invitati rifluivano verso la sala del biliardo. Un domestico salì su una seggiola e rupe due vetri. Al rumore del vetro infranto Madame Bovary volse la testa e scorse in giardino contro le finestre i volti di contadini intenti a guardare. Allora le tornarono alla mente i vertu. Rivide la fattoria, lo stagno fangoso, suo padre in blusa sotto i meli e rivide se stessa, come era un tempo, quando scremava col dito le ciotole di latte nella stalla. Ma al fulgore del presente, la sua vita passata fino ad allora così netta, svaniva del tutto e lei quasi dubitava di averla vissuta. Ora era lì e intorno al ballo non c'era altro che ombra, un'ombra che si stendeva su tutto il resto. In quel momento stava mangiando un gelato al maraschino che teneva con la mano sinistra in una conchiglia d'argento dorato e socchiudeva gli occhi con il cucchiaino fra i denti. Accanto a lei una signora fece cadere il ventaglio. Passava un ballerino. Sarebbe così gentile, disse la signora, da raccattarmi il ventaglio che è finito dietro questo divano. Il signore si chinò e mentre faceva il gesto di allungare il braccio, Emma vide che la mano della giovane gettava nel suo cappello qualcosa di bianco, piegato a triangolo. Raccolto il ventaglio, il signore glielo porse rispettosamente. Lei ringraziò con un cenno del capo e portò al volto il mazzolino di fiori. Dopo la cena, nella quale abbondarono vini spagnoli e vini del reno, zuppe di crostacei e latte di mandorle, padding alla trafalgar e ogni sorta di carni fredde affogate in gelatine tremolanti nei vassoi, le carrozze, una dopo l'altra, cominciarono ad andarsene. Scostando un po' la tenda di mussola si vedeva scivolare nell'ombra la luce dei fanali. I divani si svuotarono, rimaneva ancora qualche giocatore, i musicisti si rinfrescavano la punta delle dita sulla lingua. Charles era semi-addormentato, la schiena appoggiata contro una porta. Alle tre del mattino ebbe inizio il cotillon. Emma non sapeva ballare il waltzer. Tutti ballavano il waltzer, anche la signorina d'Andervillier e la marchesa. Erano rimasti solo gli ospiti del castello, una dozzina di persone circa. Uno dei ballerini, chiamato familiarmente Visconte, il cui gilet molto sciallato sembrava dipinto sul torace, venne però ad invitare per la seconda volta Madame Bovary, assicurando lei che l'avrebbe guidata lui e che se la sarebbe cavata benissimo. Cominciarono lentamente, poi andarono sempre più veloci. Giravano, tutto girava intorno a loro, le lampade, i mobili, i rivestimenti delle pareti e il pavimento, come un disco su un perno. Quando passavano davanti al vano di una porta, il vestito di Emma, in basso, si arricciava contro i pantaloni di lui. Le loro gambe si intrecciavano, lui abbassava lo sguardo su di lei, lei alzava gli occhi verso di lui, un senso di torpore la volgeva, si fermò. Ricominciarono e trascinandola in un movimento più rapido, il Visconte scomparve con lei in fondo alla galleria, dove lei, trafelata, rischiò di cadere e per un attimo appoggiò la testa sul petto di lui. Poi, sempre volteggiando, ma più lentamente, lui la riportò al suo posto. Emma si lasciò andare contro la parete e si portò una mano sugli occhi. Quando li riaprì, in mezzo al salone, una signora seduta su uno sgabello aveva di fronte a sé tre ballerini in ginocchio. Scelse il Visconte e il violino riattaccò. Li guardavano tutti, passavano e tornavano, lei col busto immobile e il mento abbassato, lui sempre nella stessa posa, il busto leggermente indietro, il gomito morbidamente piegato, la bocca in avanti. Lei sì, che sapeva ballare il waltzer. Continuarono a lungo e fiaccarono tutti gli altri. La conversazione durò ancora un po' e dopo la buonanotte, o meglio il buongiorno, gli ospiti del castello andarono a dormire. Charles si trascinava per le scale, le ginocchia gli facevano Giacomo Giacomo. Aveva passato cinque ore di seguito in piedi davanti ai tavoli a veder giocare a Whist senza capirci niente. Perciò tirò un gran respiro di sollievo quando si tolse gli stivali. Emma si buttò uno sciale sulle spalle, aprì la finestra e si mise al davanzale. La notte era buia, cadeva qualche goccia di pioggia. Aspirò il vento umido che le rinfrescava le palpebre. Nelle orecchie le ronzava ancora la musica del ballo e si sforzava di tenersi sveglia, per prolungare l'illusione di quella vita lussuosa che tra breve avrebbe dovuto abbandonare. Spuntò l'alba. Indugiò con lo sguardo sulle finestre del castello, cercando di indovinare quali fossero le camere delle persone che le erano rimaste impresse il giorno prima. Avrebbe voluto sapere tutto delle loro esistenze, penetrarvi, confondervisi. Ma batteva i denti per il freddo. Si spogliò e si rannicchiò tra le lenzuola contro Charles che dormiva. A colazione erano in molti. Tutto durò dieci minuti, non furono serviti alcolici, cosa che stupì il medico. Poi la signorina d'Andervillier raccolse in un cestino dei pezzi di brioche per portarli ai cigni del laghetto e andarono tutti a fare un giro nella serra, dove bizzarre piante irsute erano sistemate a piramide sotto vasi pensili, che simili a nidi di serpente troppo pieni lasciavano traboccare lunghi cordoni verdi intrecciati. L'aranciera, che stava in fondo, conduceva sempre al coperto fino alle dipendenze del castello. Il marchese, per divertire la giovane signora, la condusse a visitare le scuderie. Al di sopra delle rastrelliere a forma di canestro, piastre di ceramica indicavano il nome dei cavalli a lettere nere. Ogni animale si agitava nel suo stallo quando gli si passava accanto, schioccando la lingua. L'impiantito della selleria brillava come il pavimento di un 8. Al centro erano appesi a due colonne girevoli i finimenti delle carrozze, mentre i morsi, i frustini, gli arcioni e i barbazzali stavano allineati lungo il muro. Intanto Charles andò a farsi preparare il boc. Glielo portarono davanti alla scalinata e dopo averci stipato tutti i pacchetti e aver presentato gli omaggi al marchese e alla marchesa, i coniugi bovary si misero in viaggio per toast. Silenziosa, Emma guardava girare le ruote. Charles, proteso sul sedile, guidava a braccia spalancate e il cavallino trottava all'ambio fra le stanghe troppo larghe. Le redini allentate gli sbattevano sulla groppa impregnandosi di schiuma e il baule, fermato sul retro del boc, batteva grandi colpi cadenzati contro la scocca. Si trovavano sulle alture di Tiburville, quando all'improvviso alcuni cavalieri passarono ridendo davanti a loro col sigaro in bocca. Emma, credete di riconoscere il visconte, si voltò, ma riuscì solo a intravedere all'orizzonte il movimento delle teste che scendevano e salivano, seguendo la diversa cadenza del trotto o del galoppo. Un quarto di lega più oltre fu necessario fermarsi per accomodare, con un po' di corda, la braca che si era rotta. Ma Charles, nel dare un'ultima occhiata ai finimenti, vide qualcosa per terra, tra le gambe del cavallo, e raccolse un portasigari bordato di seta verde e con un blasone al centro, come la portiera di una carrozza. «Ci sono anche due sigari», disse. «Andranno bene per stasera dopo cena». «Ma perché? Fumi?» «Qualche volta, quando capita». Se lo mise in tasca e frustò il cavallino. Quando arrivarono a casa, la cena non era pronta. Madame si arrabbiò. Nastasie rispose con impertinenza. «Andatevene», disse Emma. «Non vi consento, siete licenziata». Per cena c'era una minestra di cipolle, con un pezzo di vitella all'acetosa. Charles, seduto di fronte ad Emma, disse fregandosi le mani con aria felice. «Fa piacere ritrovarsi a casa». Si sentiva Anastasie piangere. Lui voleva bene a quella povera ragazza. Un tempo gli aveva fatto compagnia per tante sere, quando, rimasto vedovo, non sapeva che fare. Era la sua prima paziente, la più vecchia conoscenza del paese. «L'hai licenziata per davvero?» disse alla fine. «Sì, chi me lo impedisce?» ribatte lei. Poi si riscaldarono in cucina mentre veniva preparata la camera. Charles si mise a fumare. Fumava sporgendo le labbra, sputacchiando di continuo, buttando la testa indietro ad ogni tiro. «Ti farà male», disse lei sprezzante. Lui posò il sigaro e corse a buttar giù un bicchiere d'acqua fresca alla pompa. Emma, afferrato il portasigari, lo gettò veloce nell'armadio. Fu lunga la giornata l'indomani. Passeggiò nel giardinetto, su e giù per gli stessi vialetti, fermandosi davanti alle aiuole, di fronte alla spalliera di alberi da frutta, davanti al prete di gesso, osservando stupita tutte quelle cose d'altri tempi che conosceva così bene. Come le sembrava lontano il ballo? Chi mai introduceva tanta distanza tra la mattina davantieri e la sera di oggi? Il viaggio alla Vaubessar aveva prodotto un buco nella sua vita, come quei grandi crepacci che, in montagna, il temporale talvolta scava in una sola notte. Ma si rassegnò, ripose devotamente nel cassettone il suo bel vestito e anche le scarpine di raso, la cui suola si era ingiallita a contatto con la cera del pavimento. Anche il suo cuore era così. Al contatto con la ricchezza, vi si era steso sopra qualcosa che non sarebbe stato più possibile cancellare. Il ricordo del ballo diventò dunque per lei un'occupazione. Ogni mercoledì si diceva svegliandosi «Ah, otto giorni fa! Quindici giorni fa! Tre settimane fa ero là!» E a poco a poco le visionomie le si confusero nel ricordo. Dimenticò l'aria delle contraddanze, non vide più con la stessa chiarezza le livree e gli ambienti. Qualche dettaglio andò perduto, ma rimase il rimpianto. Capitolo 9 Spesso, quando Charles era fuori, andava a prendere il portasigari di seta verde nell'armadio dove l'aveva lasciato, fra le pieghe della biancheria. Lo guardava, lo apriva e ne annusava persino l'odore della fodera, un misto di verbena e di tabacco. A chi apparteneva? Al Visconte. Forse era un regalo della sua amante. Era stato ricamato su qualche telaio di palissandro un gingillo facile da sottrarre allo sguardo altrui, che aveva occupato molte ore e su cui si erano chinati i morbidi riccioli della donna pensosa e intenta al lavoro. Un alito d'amore era passato per le maglie della trama, ogni punto aveva fissato una speranza o un ricordo, e tutti quei fili di seta intrecciati rappresentavano la continuità di un'unica silenziosa passione. Poi il Visconte, un mattino, l'aveva preso con sé. Di che cosa avevano parlato quando era posato su uno di quei caminetti dal bordo largo, tra vasi di fiori e pendole pompadour. Lei era a Toast, lui a Parigi, ora laggiù. Come era questa Parigi? Che nome straordinario! Se lo ripeteva a bassa voce, per puro piacere. Le risuonava nell'orecchio come la campana di una cattedrale. Le scintillava davanti agli occhi fin sull'etichetta delle creme di bellezza. Di notte, quando i grossisti di pesce passavano col carro sotto le sue finestre, cantando la Mariolenne, si svegliava. E seguendo il rumore delle ruote ferrate, che all'uscita del paese si smorzava ben presto sulla strada sterrata, «domani loro ci saranno», si diceva. E li seguiva con la mente, mentre salivano e scendevano per le colline, attraversavano i villaggi, filavano sulla strada maestra al chiarore delle stelle. In capo a una distanza indefinita c'era sempre un luogo confuso dove il suo sogno si spegneva. Si comprò una pianta di Parigi e con la punta del dito disegnava sulla carta veri e propri percorsi attraverso la capitale. Risaliva i boulevard soffermandosi ad ogni angolo, tra le linee delle strade, davanti ai quadrati bianchi raffiguranti le case. Con gli occhi stanchi, alla fine, chiudeva le palpebre e vedeva nelle tenebre torcersi al vento le fiammelle dei lampioni a gas, mentre i predellini di vetture scattavano fragorosamente davanti ai portici dei teatri. Si abbonò alla Corbeille, rivista femminile e al Sylph des Salons. Divorava, senza saltare una virgola, tutte le cronache delle prime teatrali, delle corse e dei ricevimenti. Si interessava al debutto di una cantante, all'inaugurazione di un negozio. Conosceva le ultime tendenze della moda, l'indirizzo dei buoni sarti, i giorni del Bois de Boulogne e quelli dell'opera. Studiò in Eugène Suè le descrizioni di arredi, laisse Balzac e Georges Sand, cercandovi immaginari appagamenti alle proprie bramosie. Persino a tavola si portava il libro e lo sfogliava mentre Charles mangiava e le parlava. Il ricordo del Visconte tornava sempre nelle sue letture. Stabiliva degli accostamenti tra lui e i personaggi della finzione, ma il cerchio di cui era il centro si allargava poco a poco attorno a lui e quella sorta di aureola che portava, allontanandosi dal suo viso, si diffuse più lontano, per illuminare altri sogni. Parigi, più vasta dell'oceano, balenava davanti agli occhi di Emma in un'atmosfera dorata. La vita formicolante che si agitava in quel tumulto vi era però divisa in parti, classificata in quadri distinti. Emma ne scorgeva solo due o tre che le nascondevano tutti gli altri e rappresentavano da soli l'umanità al completo. Il mondo degli ambasciatori avanzava su pavimenti lucenti, in saloni tappezzati di specchi, attorno a tavoli ovali ricoperti di un tappeto di velluto a frange d'oro. Questo era il luogo di abiti con lo strascico, di grandi misteri, di angosce dissimulate sotto il sorriso. Veniva poi la società delle duchesse, là tutti erano pallidi, si alzavano alle quattro, le donne angeliche, avevano l'orlo della sottoveste rifinito a punto inglese e gli uomini, talenti misconosciuti sotto l'aspetto futile, sfinivano i loro cavalli in cacce e galoppate. Passavano la stagione estiva a Baden-Baden e verso la quarantina finivano con lo sposare un'ereditiera. Nelle salette riservate dei ristoranti, dove si cena dopo mezzanotte, rideva, al lume delle candele, la folla variegata degli uomini di lettere e delle attrici. Erano costoro prodighi come re, colmi di ambizioni ideali e di deliri fantastici. La loro era un'esistenza al di sopra delle altre, tra cielo e terra, sempre tempestosa, qualcosa di sublime. In quanto al resto dell'umanità, era persa, priva di un luogo preciso e come inesistente. Del resto, più le cose le stavano vicine, più il suo pensiero se ne distoglieva. Tutto quanto la torneava, campagna noiosa, stupidi piccoli borghesi, mediocrità dell'esistenza, le sembrava un'eccezione nel mondo, un accidente in cui si trovava imprigionata, mentre fuori si stendeva a perdita d'occhio l'immenso paese della felicità e delle passioni. Confondeva nel suo desiderio le sensualità del lusso con le gioie del cuore, l'eleganza delle abitudini con le delicatezze del sentimento. L'amore non richiedeva, forse, come le piante indiane, terreni ben preparati, una temperatura particolare. I sospiri al chiaro di luna, i lunghi abbracci, le lacrime che scivolavano su mani abbandonate, ogni febbre della carne ed ogni languore della tenerezza erano indissociabili dal balcone di grandi castelli pieni di delizie, da un salottino con cortine di seta e uno spesso tappeto, giardiniere fiorite, un letto rialzato su una pedana, così come dallo scintillio delle pietre preziose e dai galloni delle livree. Il garzone della posta, che ogni mattina veniva a strigliare la giumenta, attraversava l'andito con i suoi grossi zoccoli, la casacca era lacera, i piedi nudi nelle ciabatte. Era questo il groom in brache corte di cui ci si doveva accontentare. Finito il lavoro, non tornava più per tutta la giornata, perché Charles, al suo rientro, sistemava da solo il cavallo nella scuderia, toglieva la sella e passava la cavezza, mentre la domestica portava un fascio di paglia e lo buttava come veniva nella mangiatoia. Per sostituire Anastasie, che alla fine lasciò toast versando torrenti di lacrime, Emma presi al suo servizio una ragazza di 14 anni, orfana e dall'aspetto dolce. Le vietò le cuffie di cotone, le insegnò che doveva usare la terza persona nel rivolgersi a qualcuno, a portare il bicchier d'acqua su un piattino, a bussare prima di entrare, a stirare e inamidare, ad aiutarla vestirsi, nell'intento di farne la sua cameriera personale. La nuova domestica obbediva senza fiatare, per non essere licenziata, e dato che madame lasciava normalmente la chiave nella credenza, Felicité, ogni sera, si faceva una piccola provvista di zucchero che mangiava tutta sola, a letto, dopo aver detto le preghiere. Talvolta il pomeriggio andava a fare due chiacchiere con i postiglioni, madame se ne stava su, nelle sue stanze. Indossava una vestaglia molto scollata che lasciava vedere, tra i risvolti sciallati del corsetto, una blusa plissettata con tre bottoni d'oro. La cintura era un cordoncino a grosse nappe e le pantofoline color granata avevano un ciuffo di larghi nastri annodati sulla caviglia. Si era comprata un servizio da scrivania, carta da lettere, un portapenne e buste, sebbene non avesse nessuno a cui scrivere. Dava una spolveratina allo scaffale, si guardava allo specchio, prendeva un libro e poi, sognando fra le righe, lo lasciava cadere sulle ginocchia. Aveva voglia di viaggiare o di tornare a vivere in convento. Desiderava al tempo stesso morire e vivere a Parigi. Sotto la neve e la pioggia Charles cavalcava per strade secondarie. Mangiava frittate al tavolo di una fattoria, infilava il braccio dentro letti umidi, riceveva in pieno viso il getto caldo dei salassi. Ascoltava rantoli, esaminava bacinelle, rimboccava una gran quantità di biancheria sporca. Ma ogni sera trovava un caminetto fiammeggiante, la tavola apparecchiata, un arredo accogliente e una donna vestita con eleganza, affascinante e profumata, da non sapere neanche da dove venisse quell'odore o se non fosse la pelle a profumare la camicia. Lo incantava con mille pensieri delicati, ora un nuovo modo di sistemare i dischetti di carta attorno alle candele, una balza cambiata al vestito o il nome straordinario di un piatto semplicissimo e che alla domestica non era riuscito, ma che Charles divorava con piacere fino all'ultima briciola. Vide a Rouen delle signore che portavano all'orologio un mazzetto di ciondoli, si comprò dei ciondoli. Vole sul caminetto due grandi vasi di vetro azzurro e qualche tempo dopo un astuccio da lavoro d'avorio col ditale d'argento dorato. Meno capiva queste ricercatezze, più Charles ne subiva la seduzione. Aggiungevano qualcosa al piacere dei sensi e alla dolcezza del focolare. Era come una polvere d'oro cosparsa sul modesto sentiero della sua vita. Stava bene, aveva un bel aspetto e un'ottima reputazione. I contadini gli erano affezionati perché non si dava delle arie. Accarezzava i bambini, non andava all'osteria ed altronde ispirava fiducia per la sua moralità. Era particolarmente bravo con i catarri e le malattie di petto. Nel timore di uccidere la sua clientela, Charles infatti si limitava a ordinare delle pozioni calmanti. Ogni tanto un emetico, un pediluvio o le sanguisughe. Non che la chirurgia gli facesse paura. Infligeva senza remore salassi da cavallo e nell'estrazione dei denti aveva un polso micidiale. E poi, per tenersi al corrente, fece un abbonamento alla Rouge Medical, un nuovo giornale di cui aveva ricevuto il prospetto. Lo leggiucchiava dopo cena, ma il tepore della stanza, unito alla digestione, faceva sì che in capo a cinque minuti si addormentava. E se ne stava là, col mento sulle mani e i capelli sparsi come una criniera, fino alla base della lampada. Emma lo guardava scotendo le spalle. Ma perché non aveva, almeno per marito, uno di quegli uomini dall'ardore taciturno, che passano la notte sui libri e a 60 anni, quando viene l'età dei reumatismi, portano una spilla a forma di croce sull'abito scuro di pessima fattura. Avrebbe voluto che quel nome di Bovary, che era il suo, fosse illustre, esposto nelle vetrine dei librai, ricorrente sui giornali, conosciuto in tutta la Francia. Ma Charles non aveva ambizione. Un medico di Ifto, con cui di recente si era trovato a consulto, l'aveva più o meno umiliato, al letto stesso del malato, in presenza di tutti i parenti. Quando Charles, la sera, le raccontò l'episodio, Emma si infuriò contro il collega. Charles si intenerì, la baciò in fronte con una lacrima. Ma lei era esasperata dalla vergogna, aveva voglia di picchiarlo. Andò a spalancare la finestra del corridoio e respirò profondamente l'aria fresca per calmarsi. «Che poveretto, che poveretto!» diceva a voce bassa, mordendosi le labbra. Del resto, lui la irritava sempre di più. Con l'età prendeva maniere volgari. Al dessert agliuzzava il tappo delle bottiglie vuote. Dopo mangiato, si passava la lingua sui denti. Nel buttar giù la minestra, faceva un gorgoglio ad ogni cucchiaiata. E poiché cominciava a ingrassare, per il gonfiore degli zigomi, gli occhi, già piccoli, sembravano andar su verso le tempie. Emma ogni tanto gli ricacciava dentro al gilet il bordo rosso della maglia, gli risistemava la cravatta o gli buttava via i guanti stinti che lui si apprestava a infilare. E non lo faceva, come Charles credeva, per lui. Era per sé stessa, per espansione di egoismo, irritazione di nervi. Ogni tanto gli parlava anche delle cose che aveva letto, un passo di un romanzo, una nuova commedia o l'aneddoto del bel mondo raccontato nelle cronache mondane. Perché in fondo Charles era una presenza, un orecchio sempre aperto, un'approvazione sempre pronta. E lei faceva confidenze persino alla piccola levriera. Ne avrebbe fatti ai ceppi del cammino e al bilanciere della pendola. In fondo all'anima, però, aspettava un evento. Come i marinai in difficoltà, percorreva con occhi disperati la solitudine della sua vita, cercando in lontananza una qualche vela bianca nelle brume dell'orizzonte. Non sapeva quale sarebbe stato quel caso, il vento che l'avrebbe sospinto fino a lei, verso quale riva l'avrebbe portata, se fosse scialuppa o vascello a tre ponti, carico di angosce o colmo di felicità fino alle murate. Ma ogni mattina, al risveglio, l'aspettava per quel giorno e ascoltava ogni rumore, si alzava di soprassalto, si stupiva che non venisse. Poi, al tramonto, sempre più triste, desiderava che fosse già domani. Tornò la primavera. Ai primi caldi, quando fiorirono i peri, ebbe delle crisi di soffocamento. Fin dall'inizio di luglio contò sulle dita quante settimane le mancavano per arrivare a ottobre, pensando che forse il marchese d'Anderviglier avrebbe dato ancora un ballo alla Vobessar. Ma tutto settembre trascorse senza lettere né visite. Dopo la pena di questa delusione, il suo cuore si ritrovò di nuovo vuoto, e la serie monotona delle giornate ricominciò. Ormai si sarebbero susseguite così una dopo l'altra, sempre uguali, infinite e senza recare nulla. Le altre esistenze, per quanto piatte, avevano almeno l'opportunità di un evento. Un incidente talvolta provocava infinite peripezie e lo scenario cambiava. Ma a lei non succedeva niente. Dio aveva voluto così. L'avvenire era un corridoio buio che terminava con una porta sbarrata. Abbandonò la musica. Perché suonare? Chi l'avrebbe ascoltata? Dato che non avrebbe mai potuto, con un abito di velluto a maniche corte, su un pianoforte di Erard, in concerto, mentre con le dita leggere percuoteva i tasti d'avorio, sentirsi avvolgere come da una brezza, da un mormorio estatico, non valeva la pena di annoiarsi a studiare. Lasciò nell'armadio le cartelle da disegno e il ricamo. A che pro? Cucire la innervosiva. Ho letto tutto, si diceva. E se ne stava ad arroventare le molle del focolare o a guardare la pioggia che veniva giù. Come era triste la domenica quando suonavano i vespri. Con ebete attenzione ascoltava battere uno ad uno i rintocchi stonati della campana. Un gatto andava mollemente sui tetti, inarcando la schiena ai palli di raggi del sole. Il vento, sulla strada maestra, sollevava scie di polvere. Talvolta, in lontananza, un cane abbaiava, e la campana, a intervalli uguali, ripeteva la sua musica monotona che si perdeva per i campi. Intanto la gente usciva dalla chiesa, le donne con gli zoccoli tirati a lucido, i contadini con la blusa nuova, i bambini che saltellavano davanti a capo scoperto, tornavano tutti a casa. E fino a buio cinque o sei uomini, sempre gli stessi, restavano a giocare a tappo di fronte al portone della locanda. L'inverno fu freddo. Le finestre, ogni mattina, erano coperte di brina, e la luce, che filtrava Biancastra come attraverso vetri smerigliati, rimaneva talvolta la stessa per tutta la giornata. Già alle quattro di sera bisognava accendere il lume. Nei giorni in cui faceva bel tempo, Emma scendeva in giardino. La rugiada aveva lasciato trine d'argento sui cavoli, con lunghi fili chiari che andavano dall'uno all'altro. Non si sentivano uccellini, tutto sembrava dormire, la spalliera rivestita di paglia e la vite come un grande serpente malato sorretto dal muro sul quale, avvicinandosi, si vedevano strisciare i millepiedi. Tra le abetaie, vicino alla siepe, il prete in tricorno, che leggeva il breviario, aveva perso il piede destro, e il gesso, che col gelo si screpolava, aveva prodotto delle galle bianche sul suo viso. Risaliva poi in casa, chiudeva la porta, riattizzava il fuoco, e spostata dal calore del camino, sentiva piombarle addosso una noia mortale. Sarebbe scesa volentieri a parlare con la domestica, ma una sorta di pudore la tratteneva. Tutti i giorni, alla stessa ora, il maestro con in testa il berretto di seta nera apriva le imposte di casa e passava la guardia campestre con la sciabola sulla blusa. Sera e mattina i cavalli di posta attraversavano la strada a tre a tre per andare ad abbeverarsi allo stagno. Di tanto in tanto la porta di un'osteria faceva risuonare il suo campanello e quando tirava vento si sentivano cigolare sulle guide le catinelle di rame del parrucchiere, che servivano da insegna al negozio. Era decorato da una vecchia stampa di mode incollata alla vetrina e un busto di donna di cera dai capelli gialli. Anche lui, il parrucchiere, si lamentava della sua vocazione stroncata, del suo avvenire perduto e sognando qualche negozio in una grande città, come a Rouen per esempio, sul porto vicino al teatro. Se ne stava tutto il giorno a passeggiare su e giù, tra il municipio e la chiesa, cupo in attesa della clientela. Quando Madame Bovary alzava gli occhi, lo vedeva sempre lì, come una sentinela di guardia, con quel suo berretto greco sull'orecchio e la giacca di lasting. Durante il pomeriggio ogni tanto si profilava una testa maschile dietro i vetri della sala, un volto abbronzato con favoriti neri, un largo e dolce sorriso sui denti bianchi. Subito dopo cominciava un waltzer e sull'organetto, in un salottino, ballerini alti un dito, donne in turbante rosa, giacchette tirolesi, scimmie in marsina, signori in calzoni corti, volteggiavano e volteggiavano, fra le poltrone, i divani, le mensole, moltiplicandosi in pezzetti di specchio raccordati agli angoli da una retina di carta dorata. L'uomo girava la manovella, guardando a destra, a sinistra e verso le finestre. Di tanto in tanto lanciava contro il paracarro un lungo getto di saliva scura e intanto sollevava col ginocchio lo strumento, la cui dura bretella gli indolenziva la spalla. E, ora dolente e strascicata, ora allegra e incalzante, la musica della scatola usciva ronzando attraverso una tenda di taffetta rosa, sotto una lamina traforata di rame arabescato. Erano motivi che si suonavano altrove, a teatro, che si cantavano nei salotti, che si danzavano la sera sotto i lampadari accesi, e chi del mondo che arrivavano fino ad Emma. Sarabande a non finire le attraversavano la testa e, come una baia d'era sui fiori di un tappeto, il pensiero saltellava con le note, si lasciava andare di sogno in sogno, di tristezza in tristezza. Ricevuta l'elemosina nel berretto, l'uomo ripiegava una vecchia coperta di lana blu, si metteva l'organetto sulle spalle e si allontanava a passi pesanti. Lei lo guardava allontanarsi. Ma era soprattutto alle ore dei pasti che sentiva di non poterne più, in quella saletta a pian terreno, con la stufa che fumava, la porta che strideva, le pareti che trasudavano, il pavimento umido. Le sembrava che tutta l'amarezza dell'esistenza le venisse servita nel piatto e, al vapore del bollito, salivano dal fondo della sua anima, come altre zaffate di squallore. Charles era lento nel mangiare, lei sgranocchiava qualche nocciolina oppure, appoggiata al gomito, si divertiva con la punta del coltello a rigare la tela cerata. Ormai trascurava la casa e, quando la signora Bovary madre venne a passare a tosto una parte della quaresima, si stupì molto del cambiamento. Infatti, lei un tempo così attenta e scrupolosa, se ne stava ora per giornate intere senza vestirsi, portava calze di cotone grigio, si faceva lume con la candela. Ripeteva che bisognava fare economie perché non erano ricchi, aggiungendo di essere contentissima, felicissima, che tosta le piaceva molto e altre cose del genere che chiudevano la bocca alla suocera. Del resto, Emma non sembrava più disposta a seguire i suoi consigli. Una volta che la signora Bovary madre si era spinta a sostenere che i padroni dovevano sorvegliare la religiosità dei loro domestici, aveva risposto con uno sguardo così furioso e con un sorriso talmente gelido che la brava donna non ci provò più. Emma diventava difficile, capricciosa. Si ordinava pietanze speciali, non le toccava, un giorno beveva solo latte puro e l'indomani tazze di tè a dozzine. Spesso si ostinava a non uscire, poi si sentiva soffocare, apriva le finestre, indossava un vestito leggero. Dopo aver maltrattato la domestica, le faceva dei regali o la mandava a far due passi dalle vicine, così come talvolta buttava ai poveri tutte le monete che aveva in borsa, sebbene non fosse tenera né facilmente accessibile ai sentimenti altrui. Come la maggior parte delle persone di origine contadina, che conservano sempre nell'animo qualcosa delle callose mani paterne. Verso la fine di febbraio, il vecchio Ruo, in ricordo della sua guarigione, portò di persona al genero una splendida tacchinella e si fermò tre giorni a tosto. Poiché Charles era dai suoi malati, fu Emma a tenergli compagnia. Lui fumò in camera, sputò sugli alari, disse la sua su vitelli, vacche, volatili e coniglio comunale, cosicché, quando se ne andò, lei richiuse la porta con un senso di sollievo che la sorprese. Del resto non nascondeva più il suo disprezzo verso tutto e tutti, e ogni tanto si metteva ad esprimere strane opinioni, criticando quanto gli altri approvavano e approvando cose perverse o immorali, il che faceva sgranare gli occhi al marito. Sarebbe durato per sempre quell'avvilimento? Non ne sarebbe mai venuta fuori? Eppure non era da meno di tutte quelle che vivevano felici? Alla VBSR aveva visto duchesse dalla vita meno sottile e dai modi di fare più ordinari, e malediceva l'ingiustizia di Dio. Appoggiava la testa contro le pareti per piangere, invidiava le esistenze tumultuose, le notti in maschera, i piaceri sfacciati con tutti gli sconvolgimenti alle ignoti che certamente dovevano provocare. Aveva pallori e palpitazioni. Charles le prescrisse valeriana ai bagni di camfora. Ogni attenzione sembrava innervosirla ancora di più. Certi giorni si abbandonava ad una loquacità febbrile. A tali esaltazioni succedevano di colpo stati di torpore, durante i quali se ne stava senza parlare, immobile. Per rianimarsi si spargeva allora sulle braccia un flacone di acqua di colonia. Poiché si lamentava continuamente di toast, Charles ipotizzò che la causa della malattia fosse magari qualche influenza locale e convintosi di questa idea pensò seriamente di andare a stabilirsi altrove. Da quel momento lei beve aceto per dimagrire, contrasse una tossetta secca e perse completamente l'appetito. A Charles costava abbandonare toast dopo quattro anni di permanenza e nel momento in cui cominciava a farsi una posizione. Però, se era necessario, la portò a Rouen a farla visitare dal suo vecchio maestro. Era una malattia nervosa, bisognava farle cambiare aria. Dopo essersi guardato in giro, Charles venne a sapere che c'era, nel distretto di Neufchatel, un grosso paese, chiamato Yonville-Labai, il cui medico, un rifugiato polacco, se l'era filata la settimana prima. Allora scrisse al farmacista del luogo per sapere che popolazione c'era, a che distanza si trovava il collega più vicino, quanto guadagnava all'anno il suo predecessore, eccetera. E trovate soddisfacenti le risposte, si decise a traslocare verso primavera, qualora la salute di Emma non fosse migliorata. Un giorno, che in previsione della partenza, lei riordinava un cassetto, si punse le dita con qualcosa. Era un filo di ferro del suo mazzolino da sposa. I fiori d'arancio erano gialli di polvere, e i nastri di seta rifiniti d'argento si sfilacciavano ai bordi. Lo buttò nel fuoco. Bruciò più velocemente dalla paglia secca. Poi fu come un cespo rosso sulla cenere, che si consumava pian piano. Lo guardò bruciare. Le piccole bacche di cartone scoppiettavano, i fili d'ottone si torcevano, il fiocco fondeva, e le corolle di carta, tutte aggrinzite, svolazzanti lungo la lastra come farfalle nere, finirono con lo sparire nella cappa del camino. Quando lasciarono Tost, nel mese di marzo, Madame Bovary era incinta. Parte seconda. Capitolo 1 Yonville-Abbè, così chiamato per via di un'antica abbazia di cappuccini, di cui non esistono più neanche le rovine, è un borgo a otto leghe da ruo, fra la strada di Abbeville e quella di Bovée, al fondo di una valle bagnata dalla Rueul, un fiumiciatolo che si getta nell'Andel dopo aver fatto girare, poco prima della foce, tre mulini, e dove c'è qualche trota che i ragazzi, la domenica, si divertono a pescare con la lenza. Si lascia la strada maestra alla Boissière e si prosegue direttamente fino in cima al Colle des Lues, da dove si scopre la vallata. Il fiume che la traversa ne fa come due regioni dalla fisionomia distinta. Tutta la parte a sinistra è a pascolo, quella a destra è coltivata. I prati si allungano sotto un cordone di basse colline, prima di congiungersi, sul versante posteriore, ai pascoli della zona del Bre, mentre dal lato orientale la piana, in dolce pendio, va ad allargarsi e dispiega a perdita d'occhio i suoi biondi appezzamenti di grano. L'acqua che corre lungo l'erba separa con una riga bianca il colore dei prati da quello dei solchi, e così la campagna assomiglia ad un grande mantello spiegato, con un colletto di velluto rifinito da un nastro d'argento. Arrivando ci si trova davanti, all'estremo orizzonte, le querce del Bosco d'Argueil, con i dirupi del Colle Saint-Jean, segnati dall'alto in basso da lunghe righe rosse, diseguali. Sono le tracce delle piogge e quei toni color mattone, che spiccano a striscioline sul grigio della montagna, provengono da una gran quantità di sorgenti ferruginose, che sull'altro versante scorrono nella regione contigua. Siamo ai confini fra Normandia, Picardia e Ilde-France, con trada ibrida dove la parlata è senza accento, così come il paesaggio è senza carattere. È qui che si fanno i peggiori formaggi di Neufchatel di tutto il circondario, e d'altra parte coltivare costa caro, perché occorre molto concime per ingrassare queste terre friabili, tutte sabbia e ciottoli. Fino al 1835 non esisteva una strada praticabile per Yonville. Poi è stata costruita una carrozzabile vicinale che collega la strada d'Abeville a quella di Amiens, e che serve talvolta ai carrettieri che da Rouen vanno nelle fiandre. Comunque Yonville d'Abeville non ha fatto grandi passi avanti, malgrado questi nuovi sbocchi. Anziché migliorare le coltivazioni, i suoi abitanti si ostinano ancora con i foraggi, per quanto deprezzati, e il pigro borgo, scostandosi dalla pianura, ha continuato ad espandersi spontaneamente verso il fiume. Lo si scorge da lontano, tutto allungato sulla sponda, come un guardiano di mucche che faccia la siesta in riva all'acqua. Ai piedi del colle, dopo il ponte, comincia un argine piantato a giovani pioppi tremuli, che conduce direttamente fino alle prime casse del paese. Queste sono circondate da siepi, in mezzo a corti piene di edifici sparsi, frantoi, rimesse per carri e distillerie, disseminate sotto folti alberi, ai cui rami stanno a pese scale, pertiche o falci. I tetti di paglia, simili a berretti di pelo calati sugli occhi, scendono fino ad un terzo, circa, delle basse finestre dai grossi vetri bombati, che al centro formano una sorta di nudo, come fondi di bottiglia. Sul muro a calce, attraversato in diagonale da travi di legno nero, si arrampica qua e là qualche pero striminzito, e i pianterreni hanno sulla porta un piccolo steccato girevole per difenderli dai pulcini, che vengono a becchettare sulla soglia briciole di pane imbevute di sidro. Le corti si fanno via via sempre più ravvicinate, le siepi scompaiono. Un fascio di felci dondola sotto una finestra, appeso ad un manico di scopa. Ecco la fucina ad un maniscalco e poi un carradore con due o tre carrette nuove che ingombrano la strada. Più oltre, attraverso una grata, appare una casa bianca, al di là di un cerchio erboso abbellito da un amorino col dito sulle labbra. Alle estremità della scalinata stanno due vasi di ghisa. Sulla porta brillano delle targhe. È la casa del notaio, è la più bella del paese. La chiesa si trova dall'altro lato della strada, venti passi più avanti all'ingresso della piazza. Il piccolo cimitero che la circonda, cinto da un muretto ad altezza duomo, è talmente pieno di tombe che per terra le vecchie pietre fanno un lastricato continuo, in cui l'erba ha disegnato spontaneamente dei riquadri verdi regolari. La chiesa è stata riedificata negli ultimi anni del regno di Carlo X. La volta in legno comincia a imputridire dall'alto e presenta, qua e là, nella tinta azzurra, qualche concavità nera. Al di sopra della porta, dove dovrebbe stare l'organo, c'è una tribuna per gli uomini, con una sala a chiocciola che rimbomba sotto gli zoccoli. La luce del giorno, proveniente dalle vetrate ed un sol pezzo, illumina obliquamente le panche, allineate a perpendicolo dei muri, rivestite qua e là da stuoi e fermate con i chiodi, sotto le quali è scritto a grosse lettere panca del signor tal dei tali. Un po' più avanti, nel punto in cui la navata si restringe, il confessionale fronteggia una statuetta della Vergine vestita di raso, acconciata con un velo di tulle cosparso di stelle d'argento. Ecco i pomelli rosso-porpora come un idolo delle isole sandwich. Chiude infine la prospettiva, in fondo, una copia della Sacra Famiglia, dono del Ministero degli Interni, che domina l'altare maggiore fra quattro candelabri. Gli stalli del coro, in legno da bete, sono rimasti grezzi. Il mercato, cioè un tetto di tegole sostenuto da una ventina di pali, occupa da solo la metà della piazza principale di Ionville. Il municipio, costruito su disegno di un architetto di Parigi, è una sorta di tempio greco che fa angolo accanto alla casa del farmacista. Al pian terreno ha tre colonne ioniche e al primo piano un loggiato con archi a tutto sesto, mentre il timpano è occupato da un gallo celtico, che con una zampa appoggia sulla Costituzione, mentre con l'altra regge la bilancia della giustizia. Ma ciò che attira maggiormente lo sguardo è, di fronte alla locanda del Lyon d'Or, la farmacia del signor Homet. Soprattutto la sera, quando la lampada è accesa e i grandi barattoli di vetro rossi e verdi che abbelliscono la vetrina, proiettano lontano, sul selciato, due chiazze di colore, e come in mezzo ai fuochi di Bengala, si intravede l'ombra del farmacista appoggiato al banco. La casa è tappezzata dall'alto al basso, da iscrizioni in corsivo, tondo, stampatello. Acque di Vichy, di Seltz e di Barenger, sciroppi depurativi, medicina raspai, rocaù arabo, pastiglie d'arsè, pasta al regno, bende, bagni, cioccolata della salute, ecc. E l'insegna, che occupa tutta la larghezza della vetrina, porta a lettere dorate. Homet, farmacista. Poi, in fondo al negozio, dietro alle grandi bilance fissate sul bancone, si staglia la parola laboratorio, al di sopra di una porta a vetri, che, a metà altezza, ripete ancora una volta, Homet, a lettere d'oro, su fondo nero. Non c'è poi nient'altro da vedere a Yonville. La strada, l'unica, lunga un tiro di schioppo e fiancheggiata da negozi, finisce bruscamente alla svolta della via maestra. Lasciandola sulla destra e costeggiando il colle Saint-Jean, si arriva subito al cimitero. Ai tempi del colera, per ingrandirlo, è stato abbattuto un lembo di muro e sono stati comprati tre acri di terra contigui, ma tutta questa parte nuova è pressoché disabitata, dal momento che le tombe, come in passato, continuano ad ammucchiarsi verso la porta. Il guardiano, che è anche becchino e sagrestano, traendo così un doppio guadagno dai cadaveri della parrocchia, ha approfittato del terreno vuoto per seminarci le patate. Di anno in anno, però, il suo campicello si restringe e, quando capita un'epidemia, non sa se rallegrarsi dei decessi o affliggersi per le sepolture. «Vi nutrite di morti, l'estibudua», gli disse un giorno il curato. Quelle macabre parole lo fecero riflettere, lo frenarono per un po' di tempo, ma tutt'oggi continua a coltivare i suoi tuberi e sostiene anzi sfacciatamente che crescono spontanei. Dall'epoca degli avvenimenti che ci accingiamo a raccontare, niente, infatti, è cambiato a Ionville. Il tricolore di latta ruota sempre in cima al campanile della chiesa. Il negozio del merciaio sventola ancora le sue due banderuole di cotonina. I feti del farmacista, come i mucchietti di miccia bianca, marciscono sempre più nell'alcol melmoso. E sopra al portone della locanda, il vecchio leone d'oro, scolorito dalle piogge, mostra sempre ai passanti i suoi piccioli da barboncino. La sera in cui i coniugi bovarii dovevano arrivare a Ionville, la vedova Lefrançois, padrona della locanda, era così indaffarata che grondava sudore nel rimescolare le pentole. L'indomani era giorno di mercato in paese. C'era da tagliare la carne e viscerare i polli, fare la minestra e preparare il caffè. E in più aveva il pranzo dei pensionanti e quello del medico, di sua moglie e della loro domestica. Il biliardo risuonava di scoppi di risa. Tre mugnai, nella saletta, reclamavano l'acquavite. La legna ardeva, la brace scoppiettava e su un lungo tavolo di cucina, tra i quarti di montone crudo, si ergevano pile di piatti che traballavano alle scosse del tagliere su cui venivano tritati gli spinaci. Dal cortile giungeva lo schiamazzare dei polli che la serva inseguiva per tirar loro il collo. Un uomo in pantofole di pelle verde, un po' segnato dal vaiolo e con in capo un berretto di velluto a napine dorate, si scaldava la schiena al camino. Il suo volto non esprimeva altro che soddisfazione di sé. Sembrava prendere la vita con la stessa aria calma del cardellino sospeso sopra la sua testa, in una gabbietta di vimini. Era il farmacista. Artemis, gridava la padrona della locanda, spezza un po' di fascine e riempi le caraffe. Porta l'acquavite, spicciati. Se almeno sapessi che cosa servire come dessera la compagnia in arrivo. Bontà divina, i facchini del trasloco ricominciano a far baccano nel biliardo. È il loro carro che è rimasto sotto il portone. Lirondelle è capace di sfondarlo quando arriva. Chiama Polit che lo metta dentro. Dire che da stamattina signoromè hanno fatto una quindicina di partite e bevuto otto litri di sidro. Mi strapperanno il tappeto, continuava, guardandoli da lontano, con la schiumaiola in mano. Non sarebbe un gran danno, rispose omè. Lo potrete sempre ricomprare. Un altro biliardo? Esclamò la vedova. Visto che questo non regge più signorale François, ve lo ripeto, vi sbagliate. Sbagliate proprio. E poi gli intenditori oggigiorno vogliono buche strette e stecche pesanti. Non si gioca più a boccette, è tutto cambiato. Bisogna andare al passo con i tempi. Guardate Tellier piuttosto. Lo stessa si fece rossa di rabbia. Il farmacista aggiunse. Il biliardo di Tellier, avete un bel dire, è più carino del vostro. E l'idea, per esempio, di mettere su una lotteria patriottica per la Polonia e le alluvionati di Lione? Non saranno gli straccioni come lui a farci paura? Interruppe lo stessa, alzando le robuste spalle. Via, via, signor omè. Finché il Lyon d'Or vivrà, la gente ci verrà. Noi ce l'abbiamo il fieno in cascina, mentre una di queste mattine lo vedrete il caffè français chiuso e con un bel avviso sulle imposte. Cambiare il mio biliardo? Continuava parlando a se stessa, che è così comodo per piegarci il bucato e sul quale, nella stagione di caccia, ho messo a dormire fino a sei clienti. Ma quel lumacone di Ver che non si vede. Lo aspettate per la cena dei vostri ospiti? Chiese il farmacista. Aspettarlo? E come si fa col signor Binet? Alle sei in punto lo vedrete comparire, perché lui non ha eguali in quanto a puntualità. Che nessuno gli tocchi il suo posto nella saletta. Si farebbe uccidere piuttosto che andare a cena da qualche altra parte. E' schifiltoso com'è? E' così difficile sul sidro? Non è come il signor Leon. Lui qualche volta arriva alle sette, anche alle sette e mezza, non guarda neppure quel che mangia. Che bravo ragazzo! Non alza mai la voce. Il fatto è che c'è una bella differenza tra chi ha ricevuto un'educazione e un ex-gendarme diventato esattore. Suonarono le sei. Entrò Binet. Era vestito con una redingote blu, ben aderente al corpo magro, e il berretto di pelle, con le patte legate da cordicelle sulla sommità del capo, lasciava vedere, sotto la visiera rialzata, una fronte calva incavata dall'abitudine al casco. Portava un gilet di panno nero, colletto di crine, pantaloni grigi e, in ogni stagione, stivali ben lucidati, che avevano due rigonfiamenti paralleli causati dagli alluci sporgenti. Non un pelo oltrepassava il giro della sua barba bionda, che, contornando la mascella, incorniciava come il bordo di un'aiuola il lungo volto spento dagli occhi piccoli e dal naso arcuato. Abile in qualsiasi gioco di carte, buon cacciatore e provvisto di una bella calligrafia, aveva a casa un tornio con cui si divertiva a tornire i portatovaglioli, e ne riempiva la casa con la gelosia di un artista e l'egoismo di un borghese. Si diresse verso la saletta, ma prima bisognaò farne uscire i tre mugnai. E per tutto il tempo che prese l'apparecchiatura, Binet restò silenzioso al suo posto, accanto alla stufa. Poi chiuse la porta e si tolse il berretto, come faceva sempre. «Non sono certo le buone maniere a consumargli la lingua», disse il farmacista, non appena solo con lo stessa. «Non parla mai più di così», rispose lei. «La settimana scorsa sono venuti due rappresentanti di stoffe, gente piena di spirito, che la sera raccontava un sacco di storielle, da scoppiare dalle risate. Beh, lui se ne stava là, come una sardina, senza aprir bocca». «Sì», fece il farmacista. «Nessuna immaginazione, mai una battuta, niente di ciò che distingue un uomo socievole». «Eppure si dice che abbia delle capacità», obiettò lo stessa. «Capacità», replicò Omi. «Lui, capacità, forse nel suo campo», aggiunse in tono più calmo. E riprese. «Ah, che un commerciante con grosse relazioni, un giure consulto, un medico, un farmacista, siano talmente assorbiti da diventare stravaganti e persino scorbutici, posso capirlo? Se ne raccontano di aneddoti nella storia. Ma almeno loro pensano a qualcosa. Prendete me, per esempio. Quante volte mi è successo di cercare la penna sullo scrittoio per fare un'etichetta e scoprire alla fine che me l'ero messa dietro l'orecchio». Intanto la signora Lefrançois si era piazzata sulla soglia per vedere se arrivava l'irondelle. Trasalì. Un uomo vestito di nero entrò ad un tratto in cucina. Si intravedeva, agli ultimi bagliori del crepuscolo, che aveva una faccia rubiconda e una figura atletica. «In che posso servirvi, signor curato?» chiese lo stessa, mentre prendeva sul camino uno dei candelabri di rame, disposti tutti in fila con le loro candele. «Volete prendere qualcosa? Un dito di cassis? Un bicchiere di vino?» Il sacerdote rifiutò con grande cortesia. Veniva a cercare l'ombrello, dimenticato qualche giorno prima al convento di Arnemont. E, dopo aver pregato la signora Lefrançois di farglielo riportare in serata alla canonica, uscì per andare in chiesa, dove suonava l'Angelus. Non appena si perse il rumore dei suoi passi sulla piazza, il farmacista trovò molto sconveniente la condotta del curato. Il rifiuto di accettare qualcosa da bere gli sembrava un'ipocrisia delle più odiose. I preti gozzovigliavano tutti di nascosto e cercavano di ripristinare i tempi della decima. Lo stessa prese le difese del suo curato. «Guardate che ne potrebbe spezzare sul ginocchio quattro come voi. L'anno scorso ha aiutato i nostri uomini a riporre la paglia. Ne portava anche sei fasci per volta tanto è forte». «Ma bene», disse il farmacista, «mandate pure le vostre figlie a confessarsi da energumeni con un simile temperamento. Io, se fossi il governo, vorrei che i preti fossero salassati una volta al mese». «Sì, signora Lefrançois, tutti i mesi, una flebotomia generale, nell'interesse delle forze dell'ordine e del buon costume». «Tacete, insomma, signor Omè. Siete un empio. Non avete religione?» Il farmacista rispose. «Ho una religione, la mia religione, e ne ho anche più di tutti loro, con le loro smancerie e ciarlatanerie. Io, invece, adoro Dio, credo nell'essere supremo, in un creatore, qualunque esso sia, poco importa, che ci ha messi qua giù per adempiere ai nostri doveri di cittadini e di padri di famiglia. Ma non ho bisogno di andare in una chiesa a baciare vassoi d'argento e a ingrassare di tasca mia un mucchio di buffoni che mangiano meglio di noi. Perché Dio lo si può onorare anche in un bosco, in un campo, o magari contemplando la volta celeste, come gli antichi. Il mio Dio è il Dio di Socrate, di Franklin, di Voltaire e di Beranger. Sono per la Profession du Foy du Vicar Savoyard e gli Immortali Principi dell'89. Perciò non ammetto quel fantoccio di un Dio che passeggia per il giardino col bastone in mano, ospita gli amici nel ventre delle balene, muore lanciando un grido e resuscita in capo a tre giorni, cose assurde in se stesse e del tutto incompatibili, del resto, con le leggi della fisica. Il che ci dimostra, fra l'altro, che i preti hanno sempre marcito in una turpe ignoranza, in cui si sforzano di trascinare anche i popoli. Tacque, cercando con lo sguardo un pubblico attorno a sé. Già che è tutto infervorato, il farmacista per un momento si era creduto in pieno consiglio comunale. Ma lo stessa non ascoltava più, tendeva l'orecchio a un rullio lontano. Si distinse il rumore di una vettura, misto ad uno sbattere di ferraglie allentate, che urtavano contro il selciato. E l'irondelle, finalmente, si fermò davanti alla porta. Era un cassone giallo, sostenuto da due grandi ruote, che, salendo fino all'altezza del telone, impedivano ai viaggiatori di vedere la strada, e inzaccheravano loro le spalle. I vetri dei finestrini, piccoli e stretti, tremavano nelle intelaiature quando gli sportelli erano chiusi, e conservavano, qua e là, tracce di fango schizzate sul vecchio strato di polvere, che neanche le piogge dei temporali lavavano del tutto. Era attaccata a tre cavalli, il primo a balestra, e nelle discese, sobbalzando, toccava terra col fondo. Sulla piazza accorsero alcuni paesanni di Yonville. Parlavano tutti insieme, chiedevano notizie, spiegazioni e canestri. Iver non sapeva a chi rispondere. Era lui che faceva in città le commissioni del paese. Andava per negozi, riportava rotoli di cuoio al calzolaio, ferrame al fabbro, un barile di aringhe per la padrona, capellini dalla modista, posticci dal parrucchiere, e lungo la strada del ritorno distribuiva i pacchetti, che buttava oltre il recinto delle corti, ritto a cassetta, gridando a squarciagola mentre i cavalli andavano da soli. Il ritardo era dovuto a un incidente. La levriera di Madame Bovary era fuggita per i campi. Avevano fischiato Iver era anche tornato mezza lega indietro, credendo ogni momento di intravederla, ma avevano dovuto riprendere il cammino. Emma aveva pianto, si era adirata, aveva accusato Charles di questa disgrazia. L'heureux, un commerciante di stoffe, che si trovava con lei nella vettura, aveva cercato di consolarla con mille esempi di cani smarriti che avevano riconosciuto il padrone dopo lunghi anni. Se ne citava uno, diceva, che era tornato da Costantinopoli a Parigi. Un altro aveva fatto 50 leghe in linea d'aria e attraversato quattro fiumi a nuoto. E anche suo padre aveva posseduto un barboncino, che dopo dodici anni di assenza gli era improvvisamente saltato addosso, una sera per strada, mentre andava a desinare in città. Capitolo 2 Scesse per prima Emma, poi Felicité, il signor l'heureux, una balia, e si dovette svegliare Charles, nel suo cantuccio, dove era sprofondato nel sonno, non appena aveva cominciato a far buio. O me si presentò, forse i suoi omaggi alla signora, i suoi saluti al signore, disse che sarebbe stato felice di poter rendere loro un qualche servigio, e aggiunse con aria cordiale, che aveva osato invitarsi a cena, tanto più che la sua signora era assente. Giunta in cucina, Madame Bovary si avvicinò al camino. Con la punta delle dita prese il vestito all'altezza del ginocchio, e, sollevatolo fino alle caviglie, porse alla fiamma, al di sopra del cosciotto d'agnello che girava, il piede calzato di uno stivaletto nero. Il fuoco la illuminava tutta, penetrando con una luce cruda la trama del vestito, la porosità della pelle bianca, e persino le palpebre che di tanto in tanto sbattevano. Un gran riverbero rosso passava su di lei, mosso dal soffio di vento che proveniva dalla porta semiaperta. Dall'altra parte del camino, un giovane dai capelli biondi la guardava in silenzio. Poiché si annoiava molto a Yonville, dove era praticante presso il notaio Gouilloman, spesso il signor Léon Dupuis, che era il secondo cliente fisso del Lyon d'Or, rinviava il momento della cena, nella speranza che arrivasse alla locanda qualche viaggiatore con cui far conversazione durante la serata. Nei giorni in cui il lavoro finiva presto, non sapendo che fare, gli toccava essere puntuale, e subire, dalla minestra al formaggio, la compagnia di Binet. Accettò dunque con gioia alla proposta dello stesso di cenare con i nuovi venuti, e passarono tutti nella sala grande, dove pomposamente la signora Lefrançois aveva fatto apparecchiare per quattro. Homè chiese il permesso di non togliersi il berretto greco, temendo una rimite. Poi, rivolgendosi alla sua vicina, la signora sarà magari un po' stanca, si viene sballottolati tremendamente nella nostra hirondelle. «Vero», rispose Emma, «ma gli spostamenti mi divertono sempre, mi piace cambiare posto». «E' così uggioso», sospirò il giovane, «vivere inchiodati agli stessi luoghi». «Se foste come me», disse Charles, «costretto a star sempre a cavallo». «Veramente», riprese Leon, rivolgendosi a Madame Bovary. «Niente di più piacevole, mi sembra, potendo», aggiunse. «Dal resto», diceva lo speziale, «l'esercito della medicina non è molto faticoso da queste parti, perché lo stato delle strade permette di utilizzare il calesse, e in genere si è ben pagati. Gli agricoltori sono persone agiate. Sotto il profilo medico, a parte i casi ordinari di enterite, bronchiti, affezioni biliari, ecc., abbiamo ogni tanto qualche febbre intermittente, nel periodo della mietitura. Ma insomma, cose poco gravi. Niente di speciale da segnalare, salvo parecchie scrofole, dovute certamente alle deplorevoli condizioni igieniche delle abitazioni contadine. Ah, ne troverà di pregiudizi da combattere, signor Bovary. Ottusità ben radicate, contro cui cozzerà quotidianamente tutto l'impegno della sua scienza. Eh sì, ricorrono ancora alle novene, alle reliquie, al prete, invece di andare, come è naturale, dal medico o dal farmacista. Eppure, a dire il vero, il clima non è malvagio, e il comune annovera persino qualche novantenne. Il termometro, ho fatto i rilievi, d'inverno scende fino a 4 gradi, e nella stagione calda tocca tutt'al più i 25-30 gradi. Il che ci dà 24 reammure al massimo, oppure 54 Fahrenheit, misura inglese, non di più. E infatti da un lato ci ripara dai venti del nord il bosco di Argueil, dall'altro dai venti dell'ovest il colle Saint-Jean. E tuttavia la calura, che per il vaporacqueo sprigionato dal fiume, è la notevole presenza di bestiame nei prati, il quale esala, come voi sapete, molta ammoniaca, cioè azoto, idrogeno e ossigeno. No, soltanto azoto e idrogeno. E pompando l'humus dal terreno, mischiando tutte queste diverse emanazioni, componendole per così dire in un fascio, e combinandosi spontaneamente con l'elettricità diffusa nell'atmosfera, quando ce n'è, potrebbe alla lunga, come ai tropici, generare miasmi insalubri. Questa calura, dicevo, si trova per l'appunto ad essere temperata, sul lato da cui proviene o piuttosto da cui proverrebbe, cioè dal lato sud, dai venti del sud-est, i quali, rinfrescati dal passaggio sulla Senna, ci arrivano talvolta improvvisi come brezze della Russia. «C'è almeno qualche passeggiata nei dintorni?» continuava Madame Bovary, parlando al giovanotto. «Oh, pochissime», rispose lui. «C'è un posto chiamato il Pascolo, in cima al colle, al margine del bosco. Talvolta ci vado la domenica e mi fermo un po' con un libro a guardare il tramonto. Trovo che niente è incantevole quanto i tramonti», riprese lei, «ma soprattutto in riva al mare». «Oh, adoro il mare», disse Léon. «E poi non vi sembra», replicò Madame Bovary, «che la mente vaghi più libera su quella distesa illimitata e che la contemplazione elevi l'animo e ispiri pensieri d'infinito, d'ideale?» «Succede la stessa cosa con i paesaggi di montagna», riprese Léon. «Un mio cugino l'anno scorso ha viaggiato in Svizzera e mi diceva che è impossibile immaginarsi la poesia dei laghi, l'incanto delle cascate, l'effetto maestoso dei ghiacciai. Si vedono pini di un'altezza incredibile, di traverso ai torrenti, capanne a picco sui precipizi e giù, a mille piedi sotto di voi, intere vallate, quando si squarciano le nubi. Spettacoli simili devono entusiasmare, predisporre alla preghiera, all'estasi. E non mi sorprende più quel celebre musicista che, per accendere maggiormente la sua immaginazione, aveva l'abitudine di andare a suonare il pianoforte davanti a qualche paesaggio imponente. «Siete musicista?» chiese Emma. «No, ma la musica mi piace molto», rispose lui. «Oh, non gli date retta, Madame Bovary!» interruppe Omè, chino sul piatto. «Eppura modestia!» «Come, carissimo, l'altro giorno in camera cantavate il lunch guardian che era una meraviglia. Mi sentivo dal laboratorio, un vero professionista». Léon abitava infatti dal farmacista, in una cameretta al secondo piano che dava sulla piazza. Arrossì al complimento del suo padrone di casa, il quale si era già voltato verso il medico e gli elencava uno per uno gli abitanti principali di Yonville. Raccontava aneddoti, dava informazioni. «La fortuna del notaio era incalcolabile e c'era la ditta Tuvash che creava parecchi problemi». Emma riprese. «E quale musica preferite?» «O la musica tedesca, quella che invita a sognare?» «Conoscete gli italiani?» «Non ancora, ma li vedrò l'anno prossimo, quando andrò a vivere a Parigi per finire gli studi». «Come avevo l'onore di far presente a vostro marito, a proposito di quel povero Yanoda che ha preso la fuga», disse il farmacista. «Grazie alle sue follie vi troverete a godere di una delle case più confortevoli di Yonville». Intanto, la cosa più comoda per un medico è una porta sul vialetto, che permette di entrare e uscire senza essere visti. E inoltre è fornita di tutto ciò che può far comodo ad una famiglia. Lavanderia, cucina con dispensa, salone, frutteto, eccetera. Era uno che sapeva vivere, senza badare a spese. In fondo al giardino, vicino al corso d'acqua, si era fatto costruire un pergolato per berci la birra d'estate. E se a madame piace il giardinaggio, potrà…» «Mia moglie non se ne occupa, granché», disse Charles. «Nonostante i miei consigli di fare un po' di moto, preferisce starsene in camera a leggere». «E' come me», intervenne Yon. «Cosa c'è di meglio, davvero, che starsene la sera accanto al fuoco con un libro, mentre il vento scuote i vetri e la lampada arde?» «N'è vero», disse lei, fissandolo con quei suoi grandi occhi neri spalancati. «Non si pensa a nulla», continuava lui. «Passano le ore, senza muoversi si percorrono paesi che par di vedere, e il pensiero, intrecciandosi alla finzione, si perde nei particolari o segue il filo delle avventure. Ci si confonde con i personaggi, sembra di palpitare con loro». «È vero, è vero», diceva lei. «Vi è successo qualche volta», continuò Leone, «di ritrovare in un libro un'idea vaga già avuta, un'immagine confusa che torna da lontano, e come l'espressione compiuta del vostro sentire più libero». «Mi è capitato», rispose lei. «È per questo che amo soprattutto i poeti, trovo i versi più dolci della prosa, e fanno piangere meglio». «Però alla lunga stancano», riprese Emma. «Io ora adoro invece le storie che si leggono tutte d'un fiato, e che fanno paura. detesto gli eroi banali e i sentimenti moderati, come sono in natura». Infatti, osservò il giovane, «quelle opere non toccano il cuore, e perciò si discostano, mi sembra, dal vero fine dell'arte. È così dolce, nel disincanto della vita, poter riandare col pensiero a nobili caratteri, affetti puri e visioni di felicità. Per me che vivo qui, lontano dal mondo, è la sola distrazione. Ma a Yonville si trova così poco!» «Proprio come a Toast», riprese Emma. Perciò ero sempre abbonata ad una biblioteca circolante. «Se volete farmi l'onore di servirvene», disse il farmacista, che aveva colto le ultime parole. «Metto a vostra disposizione una biblioteca che conta i migliori autori. Voltaire, Rousseau, De Lille, Walter Scott, l'Eco des Feuilletons, ecc. E inoltre ricevo diversi periodici, tra cui tutti i giorni il Fanal de Rouen, avendo il privilegio di esserne il corrispondente per le circoscrizioni di Bouchy, Forges, Neufchatel, Yonville ed intorni. Erano a tavola da due ore e mezzo, perché la domestica Artemis, strascicando svogliatamente sulle mattonelle le ciabatte di Cimosa, portava i piatti uno a uno, si dimenticava di tutto, non capiva nulla e continuava a lasciare socchiusa la porta del biliardo, che sbatteva contro la parete con la punta del chiavistello. Senza accorgersene, Léon, nel parlare, aveva appoggiato i piedi su una traversa della seggiola di Madame Bovary. Lei aveva una cravattina di seta azzurra, che teneva rigido come una gorgera un colletto di Battista pieghettato, e a seconda dei movimenti del capo, la parte inferiore del viso affondava nella biancheria o ne emergeva suavemente. Così, l'uno vicino all'altra, mentre Charles e il farmacista discorrevano, entrarono in una di quelle vaghe conversazioni in cui certe frasi casuali riportano sempre al centro fisso di una simpatia reciproca. Spettacoli di Parigi, titoli di romanzi, nuove quadriglie, e il mondo che non conoscevano. Toast, dove aveva vissuto lei, Yonville, dove si trovavano. Tutto passarono in rassegna, di tutto parlarono, sino al termine della cena. Una volta servito il caffè, Felicité andò a preparare la camera nella nuova casa, e poco dopo i commensali si alzarono. La signora Lefrançoise era addormentata accanto al fuoco, ormai spento, mentre lo stalliere, con una lanterna in mano, aspettava i signori Bovary per accompagnarli a casa. I suoi capelli rossi erano intrecciati a fili di paglia, zoppicava dalla gamba sinistra, prese nell'altra mano l'ombrello del curato e si misero in moto. Il borgo era addormentato, i pilastri del mercato allungavano grandi ombre, la terra era tutta grigia, come in una notte d'estate. Ma dato che la casa del medico si trovava a 50 passi dalla locanda, dovettero salutarsi quasi subito, e la compagnia si sciolse. Fin dal vestibolo, Emma sentì piombarle addosso, come biancheria umida, il freddo dell'intonaco. I muri erano nuovi e gli scalini di legno scricchiolarono. In camera, al primo piano, una luce latiginosa passava attraverso le finestre prive di tende. Si intravedevano cime di alberi, e in lontananza i prati, semi affogati nella nebbia, che fumavano al chiaro di luna lungo il corso del fiume. In mezzo alla stanza stavano alla rinfusa cassetti di comò, bottiglie, aste per tende, bastoni dorati, e poi i materassi su seggiole e bacinelle sul pavimento, il tutto lasciato là per trascuratezza dai due uomini incaricati del trasloco. Era la quarta volta che dormiva in un luogo sconosciuto. La prima era stato il giorno del suo ingresso in convento. La seconda, quello del suo arrivo a Tost. La terza alla Vobbeisar. La quarta era questa, ed ogni volta era stato come inaugurare una fase nuova della sua vita. Non credeva che le cose potessero ripresentarsi identiche in posti diversi, e poiché la parte vissuta era stata cattiva, quella che le restava da consumare sarebbe stata, forse, migliore. Capitolo 3 L'indomani, al risveglio, Emma scorse il praticante del notaio sulla piazza. Lei era in vestaglia. Lui sollevò la testa e la salutò. Con un rapido cenno del capo, lei richiusse la finestra. Per tutta la giornata, Leon aspettò che arrivassero le sei di sera, ma quando entrò nella locanda non trovò altri che il signor Binet al suo tavolo. La cena della sera prima era per lui un evento importante. Mai, fino a quel momento, aveva conversato per due ore di seguito con una signora. Come aveva potuto esporle, e con tale linguaggio, una quantità di cose che prima non avrebbe detto così bene. Normalmente era timido, e manteneva quel certo riservo fatto al tempo stesso di pudore e di simulazione. A Yonville trovavano che aveva buone maniere. Ascoltava i ragionamenti delle persone mature, e in politica non sembrava per nulla fanatico, cosa non di poco conto per un giovanotto. E poi aveva talento, dipingeva all'acquerello, sapeva leggere la chiave di violino, e dopo cena si occupava volentieri di letteratura quando non giocava a carte. Ome lo teneva in considerazione per i suoi studi. La signora Ome gli era affezionata per la sua disponibilità, perché spesso accompagnava ai giardini i piccoli Ome, dei marmocchi sempre impiastricciati, maleducatissimi e piuttosto linfatici come la madre. Per occuparsi di loro avevano, oltre alla bambinaia, Justine, aspirante farmacista, un biscugino di Ome, accolto in casa per carità, che al tempo stesso fungeva da domestico. Lo speziale si mostrò il migliore dei vicini. Dette a Madame Bovary ogni informazione sui fornitori, fece venire apposta il suo negoziante di sidro, fece personalmente gli assaggi e sorvegliò che in cantina il fusto fosse sistemato bene. Suggerì anche come procurarsi una provvista di burro a buon mercato e concluse un accordo con Siboudois, il sacrestano, che oltre alle funzioni sacerdotali e mortuarie, curava i principali giardini di Yonville, a ore o per tutto l'anno, a seconda delle preferenze. Non era soltanto il bisogno di occuparsi degli altri, che spingeva il farmacista a tanta ossequiosa cordialità. Sotto c'era un piano. Aveva infranto la legge del 19 eventoso dell'anno 11, articolo 1, che vieta l'esercizio della medicina a chi sia sprovvisto di diploma. Cosicché, a seguito di oscure denunce, Ome era stato convocato a Rouen dal procuratore del re, nel suo studio privato. Il magistrato l'aveva ricevuto in piedi, con la toga, l'ermellino sulle spalle e il tocco in testa. Era mattina, prima dell'udienza. Nel corridoio si sentivano passare i pesanti stivali delle guardie e come uno stridore in lontananza di grosse serrature che venivano chiuse. Al farmacista ronzarono le orecchie, tanto da fargli pensare che sarebbe piombato a terra con un colpo apoplettico. Intravide segrete nei sotterranei, la famiglia in lacrime, la farmacia venduta, tutti i suoi barattoli dispersi, e per rimettersi fu costretto ad entrare in un caffè a prendere un bicchiere di rum con acqua di seltz. Poco per volta il ricordo di quella munizione sbiadì, e lui continuava a fornire consulti anodini nel retrobottega, come un tempo. Ma il sindaco ce l'aveva con lui. Alcuni colleghi erano gelosi, doveva diffidare di tutti. Farsi amico Bovary con qualche gentilezza significava conquistarne la gratitudine e impedire che più tardi parlasse se si fosse accorto di qualcosa. Così tutte le mattine Ome gli portava il giornale e spesso, nel pomeriggio, lasciava un momento alla farmacia per andare a far conversazione con l'ufficiale sanitario. Charles era triste. I clienti non arrivavano. Se ne stava seduto senza parlare, per ore ed ore. Si ritirava nel suo studio a sonnecchiare o guardava sua moglie che cuciva. Per distrarsi si impegnò in casa in lavori di fatica, cercando persino di imbiancare il solaio con un rimasuglio di colore lasciato lì dagli imbianchini. Ma le questioni di denaro lo preoccupavano. Ne aveva speso tanto per le ristrutturazioni a Tost, per i vestiti di Madame e per il trasloco, che l'intera dote, più di 3.000 scudi, in due anni era svanita. E poi, quante cose danneggiate o smarrite nel viaggio da Tost a Yonville, senza contare il prete di Gesso, che è caduto dal carro a un sobbalzo troppo forte, si era infranto in mille pezzi sul selciato di Quincampois. Venne a distrarlo una preoccupazione migliore, vale a dire, la gravidanza della moglie. Via via che la scadenza si avvicinava, lui l'amava di più. Era un altro legame carnale che si veniva a creare, e come il sentimento costante di un'unione più complessa. Quando scorgeva da lontano la sua pigra andatura e le movenze sinuose delle anche prive di busto, quando, avendola di fronte, la contemplava a suo agio, mentre seduta, si lasciava andare in poltrona con pose in languidite, allora la sua felicità era incontenibile. Si alzava, l'abbracciava, le sfiorava il viso con le mani, la chiamava mammina, voleva farla ballare, e tra il riso e il pianto sfornava tutte le affettuosità e le sciocchezze che gli passavano per la testa. L'idea di aver generato lo deliziava. Non gli mancava niente ora, conosceva a fondo l'esistenza umana e vi si accomodava come a tavola, serenamente. Emma sentì dapprima un grande stupore, poi la prese la voglia di partorire, per capire che cosa volesse dire essere madre. Però, non potendo fare le spese che voleva, avere una culla a barchetta con tendine di sete rosa e cuffiette ricamate, in un processo di scoramento rinunciò ad occuparsi del corredino e l'ordinò in blocco a un'operaia del paese, senza scegliere né discutere niente. Non si svagò dunque con quei preparativi che solleticano la tenerezza delle madri, e forse al suo affetto materno mancò qualcosa fin dall'origine. Tuttavia, siccome Charles ad ogni pasto parlava del marmocchio, presto cominciò a pensarci in maniera più continua. Sperava che fosse un maschio, sarebbe stato forte e Bruno, lo avrebbe chiamato Georges, e questa idea di avere un maschio era come una speranza di rivalsa su tutte le impotenze del suo passato. Un uomo almeno è libero, può conoscere passioni e paesi, vincere gli ostacoli, assaporare le felicità più remote. Mentre una donna è continuamente frenata, inerte e flessibile al tempo stesso, ha contro di lei le mollezze della carne e le servitù della legge. La sua volontà, come la veletta del cappello tenuta da un nastrino, palpita ad ogni vento. C'è sempre qualche desiderio che trasporta, qualche convenzione che trattiene. Partorì una domenica, verso le sei, al sorgere del sole. È femmina, disse Charles. Lei voltò la testa e svenne. Accorse quasi subito la signora Omea ad abbracciarla, così come la Lefrançois de Lyon d'Or. Il farmacista, da persona discreta, si limitò a mandarle intanto i suoi rallegramenti attraverso la porta socchiusa. Vole vedere la bambina e la trovò conformata a dovere. Durante la convalescenza, Emma fu molto presa dalla ricerca di un nome per sua figlia. Passò prima in rivista a tutti quelli a desinenza italiana, come Clara, Luisa, Amanda, Atala. Le piaceva abbastanza Gelsuinde, ancor più Yuselt o Leocadie. Charles desiderava chiamare la bambina come sua madre. Emma vi si opponeva. Fu percorso il calendario da cima a fondo e la consultazione fu estesa agli estranei. Il signor León, diceva il farmacista, con cui ne parlavo l'altro giorno, si stupisce che non scegliate Emma Deline, quanto mai alla moda in questo momento. Ma la signora Bovary Madre andò in escandescenze su questo nome di peccatrice. Quanto a Omea, prediligeva tutti quelli che ricordavano un grand'uomo, un fatto illustre o una concezione generosa, ed è seguendo questa logica che aveva battezzato i suoi bambini. Così Napoleone rappresentava la gloria, e Franklin la libertà. Irma, forse, era una concessione al romanticismo. Atali, invece, un omaggio al capolavoro immortale del teatro francese. Già che le sue convinzioni filosofiche non gli impedivano gli entusiasmi artistici, il pensatore in lui non soffocava l'uomo sensibile. Sapeva distinguere, valutare, ciò che era immaginazione e ciò che era fanatismo. Di quella tragedia, per esempio, viassimava le idee, ma ammirava lo stile. Esecrava la concezione, ma applaudiva ad ogni dettaglio. Si esasperava contro i personaggi, ma si entusiasmava ai loro discorsi. Quando leggeva i passi famosi, si sentiva trascinato. Ma quando pensava che i bigotti ne traevano profitto per i loro interessi, era desolato, e nella confusione di sentimenti in cui si impantanava, avrebbe voluto al tempo stesso poter incoronare Racine con le sue mani e discutere con lui per un buon quarto d'ora. Alla fine, Emma si ricordò che al castello della Vobeissar aveva sentito il marchese chiamare Bert una giovane donna. Da quell'istante il nome fu trovato, e poiché il vecchio rouo non poteva venire, fu pregato ome di fare da padrino. Come doni, portò tutti i prodotti del suo negozio, e cioè sei scatole di pasticche dolci, un intero barattolo di racaù, tre cofanetti di pasta all'altea e anche dei bastoncini di zucchero candito che aveva ritrovato in uno scaffale. La sera della cerimonia ci fu una grande cena. C'era il curato, l'atmosfera si riscaldò. Ome, al momento dei liquori, intonò il Dieu des bon gens. Léon cantò una barcarola e la signora Bovary madre, che era la madrina, una romanza dai tempi dell'impero. Infine, Bovary padre volle che venisse portata giù la bambina e si mise a battezzarla con un bicchiere di champagne che le versava dall'alto sulla testa. Questa irrisione al primo dei sacramenti indignò l'abate Bournisien. Il vecchio Bovary rispose con una citazione della Guerre des Dieux. Il curato decise di andarsene. Le signore supplicavano. Si interpose Ome e riuscirono a far sedere di nuovo il sacerdote, che riprese tranquillamente dal piatto la tazzina di caffè lasciata a metà. Bovary padre rimase ancora un mese a Yonville, conquistandone gli abitanti con uno splendido copricapo da gendarme, con galloni d'argento, che metteva la mattina per andare in piazza a fumare la pipa. Avendo inoltre l'abitudine di bere molta acquavite, spesso mandava la domestica al Lyon d'Or a comprargliene una bottiglia, che faceva mettere sul conto del figlio, e per profumare i suoi fazzoletti da collo consumò tutta la provvista di acqua di colonia della nuora. Costei non disprezzava affatto la sua compagnia. Lui aveva girato il mondo. Parlava di Berlino, di Vienna, di Strasburgo, di quando era ufficiale, delle amanti che aveva avuto, dei grandi pranzi che aveva fatto. Poi si mostrava cortese, e talvolta, per le scale o in giardino, arrivava persino a cingerle la vita e sclamando «Stai attento, Charles!». Allora mamma Bovary si preoccupò per la felicità del figlio, e temendo che il marito, alla lunga, avesse un'influenza immorale sulle idee della giovane donna, si affrettò ad accelerare la partenza. Magari aveva inquietudini più serie. Bovary era tipo da non rispettare nulla. Un giorno Emma fu presa dall'improvviso bisogno di vedere la bambina, che era stata messa a balia dalla moglie del falegname. E senza guardare sull'almanacco se le sei settimane della Vergine fossero scadute, si avviò verso la casa dei Rolè, che si trovava all'estremità del paese, ai piedi del colle, fra la strada maestra e i prati. Era mezzogiorno, le case avevano le imposte chiuse, e i tetti d'ardesia, che brillavano sotto la luce cruda del cielo azzurro, sembravano sprigionare scintille dalla punta dei comignoli. Soffiava un vento pesante. Emma faceva fatica a camminare. I ciottoli del marciapiede le facevano male. Esitò se tornare a casa o entrare a sedersi da qualche parte. In quel momento, Léon uscì da una porta vicina, con un fascio di carte sotto braccio. Venne a salutarla e si mise all'ombra sotto il tendone grigio, davanti al negozio di L'Oreux. Madame Bovary disse che andava a vedere la bambina, ma che cominciava a sentirsi stanca. «Se...», intervenne Léon, e non lo so continuare. «Ha qualche impegno?», chiese lei. E alla risposta del giovane lo pregò di accompagnarla. La sera stessa la cosa fu risaputa in tutta Yonville, e la signora Tuvash, moglie del sindaco, dichiarò di fronte alla domestica che Madame Bovary si comprometteva. Per arrivare dalla balia si doveva, alla fine della strada, girare a sinistra come per raggiungere il cimitero, e seguire, tra casette e corti, un sentierino costeggiato da ligustri. Erano in fiore, e così le veroniche, le roselline di macchia, le ortiche e i rovi sottili che spuntavano dai cespugli. Dai buchi delle siepi si scorgeva, nelle aie, qualche maialino su un letamaio, o delle mucche impastoiate che strofinavano le corna contro il tronco degli alberi. Camminavano ad agio, fianco a fianco. Lei si appoggiava su di lui, e lui tratteneva il passo, misurandolo su quello di Emma. Davanti a loro volteggiava uno sciame di mosche, ronzanti nell'aria calda. Riconobbero la casa da un vecchio noce che le faceva ombra. Era bassa e coperta di tegole scure. All'esterno, sotto la finestrella del granaio, era appesa una coroncina di cipolle. Alcune fascine, ritte contro il recinto di pruni, delimitavano un riquadro di lattughe, cespi di lavanda e piselli in fiore arrampicati su canne. Rigagnoli d'acqua sporca serpeggiavano fra l'erba, e tutt'intorno stavano stracci indefiniti, calze fatte a mano, una camiciola di indiana rossa e un gran lenzuolo di tela grezza dispiegato sulla siepe. Al cigolio del cancelletto comparve la balia, tenendo in braccio un bambino che poppava. Con l'altra mano, trascinava un povero gracile marmocchio dal viso scrofoloso, figlio di un merciaio di Rouen, che i genitori, troppo presi dagli affari, tenevano in campagna. «Accomodatevi», disse. «La piccola sta dormendo». La camera al piano terra, l'unica della casa, aveva in fondo, contro il muro, un ampio letto privo di cortine, mentre la madia occupava il lato della finestra, un vetro della quale era aggiustato con un disco di carta azzurra. Nell'angolo dietro la porta, sotto la pietra del lavatoio, stava un paio di scarponi dai chiodi luccicanti, accanto ad una bottiglia piena d'olio, con una penna infilata nel collo. Bucciato sul cammino polveroso, tra pietre focaie e mozziconi di candela e pezzetti di esca, un almanacco Macchio-Lainsberg. E infine il gran lusso della camera era rappresentato da una fama che soffiava nelle trombe, figura indubbiamente ritagliata da qualche prospetto pubblicitario di profumeria, fissata al muro con sé chiudi da zoccoli. La bambina dormiva in una culla di vimini, per terra. Emma la sollevò, avvolta nella coperta, e si mise a cantare dolcemente, dondolandosi. Leon andava su e giù per la camera. Gli sembrava strano vedere quella bella signora vestita di nanchino in mezzo a tutta quella miseria. Madame Ovarie arrossì. Lui distolse lo sguardo, pensando che avesse fatto trasparire una qualche impertinenza. Poi lei rimise a letto la piccola, che le aveva appena vomitato sul colletto di Trina. La balia accorse a pulirla, assicurando che non ne sarebbe rimasta traccia. Ne fa ben altre, diceva. Non faccio che pulirla in continuazione. Perciò, se aveste la compiacenza di dar disposizione a Camus, il doghiere, di farmi prendere un po' di sapone quando mi serve, sarebbe più comodo anche per voi, non dovrei disturbarvi. D'accordo, d'accordo, disse Emma. Arrivederci, mamma Role. E uscì, asciugandosi i piedi sulla soglia. La buona donna l'accompagnò sino in fondo alla corte, continuando a parlare della fatica che le costava alzarsi di notte. Sono così sfinita alle volte che mi addormento sulla seggiola. Mi dovreste dare almeno una mezza libra di caffè macinato. Mi durerebbe un mese e lo prenderei la mattina, col latte. Dopo aver subito i suoi ringraziamenti, Madame Bovary se ne andò. Aveva fatto pochi passi sul sentiero quando un rumore di zoccoli la fece voltare. Era la balia. Che c'è? Allora la contadina, tirandola in disparte dietro un olmo, si mise a parlarle del marito, che col suo mestiere e i sei franchi all'anno che il capitano... Venite alla conclusione, disse Emma. Beh, riprese la balia, sospirando tra una parola e l'altra. Ho paura che si rattristi a vedermi prendere il caffè da sola. Sapete come sono gli uomini. Ma se vi ho detto che l'avrete, ripeteva Emma. Che ve lo darò. Non insistete. Ahimè, mia povera cara signora, il fatto è che in seguito a certe ferite lui soffre di terribili crampi al petto. Dice anche che il sidro l'indebolisce. Volete sbrigarvi, Mamma Rolet? Allora, riprese questa facendo una riverenza. Se non fosse chiedervi troppo, sinchinò ancora una volta. Quando vorrete? E lo sguardo supplicava. Un boccale di acquavite, disse alla fine. E ci strofinerò i piedi di vostra figlia, che li atteneri come il burro. Liberatasi dalla balia, Emma riprese il braccio di Leon. Per un po' camminò veloce, poi rallentò, e il suo sguardo, che lasciava vagare di fronte a sé, incontrò la spalla del giovane e il colletto di velluto nero della redingote. I capelli castani ricadevano lisci e ben pettinati. Fu colpita dalle sue unghie, che erano più lunghe di come si portavano a Yonville. Una delle grandi occupazioni del giovane consisteva nel curarle, e a questo scopo conservava nello scrittoio un temperino speciale. Tornarono a Yonville seguendo la riva. Nella stagione calda, l'argine, più ampio, scopriva fino alla base i muri dei giardini, che avevano una scala di pochi gradini per scendere al fiume. L'acqua scorreva silenziosa, rapida e fredda alla vista, sotto la spinta della corrente. Grandi steli sottili si piegavano a fasci e si spandevano nella sua limpidezza come verdi capigliature abbandonate. Ogni tanto, sulla punta dei giunchi o sulle foglie delle ninfee, camminava o si posava un insetto dalle zampe sottili. Un raggio di sole attraversava le bollicine azzurre delle onde che si susseguivano infrangendosi. Vecchi salici spogli riflettevano nell'acqua la scorza grigia, e al di là, tutti intorno, i prati sembravano deserti. Era l'ora di pranzo nelle fattorie, e la giovane donna e il suo compagno, camminando, udivano soltanto la cadenza dei loro passi sul sentiero, le parole che si scambiavano, e il fruscio del vestito di Emma, che sfiorava il terreno accompagnando i suoi passi. I muri dei giardini, muniti di cocci di bottiglia, erano caldi come le vetrate di una serra. Tra i mattoni erano spuntati rafani selvatici, e con l'orlo dell'ombrellino aperto, Madame Bovary, passando, faceva sgranare in polvere gialla la loro fioritura appassita. A volte qualche ramo pendente di caprifoglio e di clematide, impigliandosi alle frange, indugiava sulla seta. Parlarono di una compagnia di ballerini spagnoli attesa di lì a poco al teatro di Rouen. «Ci andrete?» chiese lei. «Se posso», rispose lui. Non avevano nient'altro da dirsi, eppure i loro sguardi esprimevano una conversazione più seria, e mentre si sforzavano di trovare qualche frase banale, si sentivano entrambi pervasi da un identico languore. Era come un mormorio dell'anima, profondo, continuo, che sovrastava quello delle voci. Stupefatti da tanta soave novità, non pensavano a raccontarsene la sensazione o a scoprirne la causa. Le felicità future, come le sponde dei tropici, proiettano sull'immensità che le precede le loro mollezze natali, una brezza profumata, e ci si assopisce inebriati, senza neanche preoccuparsi dell'orizzonte che non si scorge. A un certo punto, dove passava il bestiame, il terreno affondava. Dovettero camminare su grosse pietre verdi sparse nel fango. Spesso lei si fermava un momento per guardare dove posare lo stivaletto, e, malsicura sulla pietra traballante, con i gomiti sollevati, il corpo piegato, lo sguardo indeciso, rideva per la paura di cadere nelle pozzanghere. Arrivati davanti al giardino, Madame Bovary spinse il cancelletto, salì i gradini di corsa e scomparve. Leon tornò allo studio, il notaio non c'era. Dette un'occhiata agli incartamenti, poi temperò una penna, alla fine prese il cappello e se ne andò. Andò al pascolo, in cima al colle d'arguei, ai margini del bosco, si sdraiò per terra sotto gli abeti e guardò il cielo attraverso le dita. «Come mi annoio», diceva tra sé. «Come mi annoio». Si commiserava per il fatto di vivere in quel villaggio, con omè per amico e il notaio Guillauman per capo. Cosui, tutto preso dagli affari, portava occhiali a stanghette d'oro e favoriti rossi sulla cravatta bianca. Non capiva nulla delle raffinatezze dello spirito, nonostante affettasse uno stile rigido e inglese che i primi tempi aveva impressionato il suo praticante. Quanto alla moglie del farmacista, era la migliore sposa della Normandia, mite come un agnellino, attaccata ai figli, al padre e alla madre, ai cugini, compassionevole per i mali altrui, permissiva nella conduzione della casa, contraria al busto, ma così lenta nel muoversi, così noiosa da ascoltare, d'aspetto così banale e di conversazione così limitata, che non aveva mai pensato, benché lei avesse trent'anni e lui venti, dormissero porta a porta e lui le parlasse ogni giorno, che potesse essere una donna per qualcuno, né che possedesse del suo sesso qualcosa che non fosse il vestito. Chi altri c'era? Binet, qualche bottegaio, due o tre osti, il curato e poi il signor Tuvash, il sindaco con i due figli, gente facoltosa, scorbutica, ottusa, che coltivava personalmente la terra e faceva baldoria in famiglia, bigotta peraltro e di compagnia assolutamente insopportabile. Ma sullo sfondo di tutti quei volti umani si stagliava isolato il viso di Emma, e tuttavia più lontano, perché sentiva tra loro due come l'esistenza di vaghe abissi. All'inizio era andato più volte a casa sua in compagnia del farmacista, Charles non era sembrato troppo accogliente e Leon non sapeva che fare, tra la paura di essere indiscreto e il desiderio di un'intimità che considerava quasi impossibile. Capitolo 4 Ai primi freddi, Emma lasciò la sua camera per vivere nella sala, una stanza lunga con il soffitto basso. Un fitto polipaio allargava i rami contro lo specchio sopra il caminetto. Seduta in poltrona, vicino alla finestra, guardava passare sul marciapiede la gente del paese. Leon andava due volte al giorno dallo studio a Lyon d'Or. Emma lo sentiva arrivare da lontano, si chinava ad ascoltare e il giovane scivolava dietro la tenda, vestito sempre allo stesso modo senza voltare la testa. Ma quando al crepuscolo, abbandonato il ricamo avviato, se ne stava col mento appoggiato sulla mano sinistra, spesso trasaliva all'apparizione di quell'ombra che passava improvvisa. Si alzava e ordinava di apparecchiare la tavola. Durante la cena arrivava Ome. Col berretto greco in mano, entrava in punta di piedi per non disturbare nessuno, ripetendo sempre la stessa frase. Buonasera a tutta la compagnia. Poi, dopo aver preso posto di fronte alla tavola, tra i due coniugi, chiedeva notizie dei malati a Bovary, e questi lo consultava sugli eventuali onorari. Dopo parlavano di quello che c'era sul giornale. A quell'ora Ome lo sapeva pressoché a memoria, e lo riportava integralmente, con i commenti del giornalista e tutte le storie delle catastrofi individuali verificatesi in Francia o all'estero. Ma via via che l'argomento si esauriva, cominciava a buttarla qualche osservazione sulle pietanze che vedeva. Talvolta anzi, sollevandosi sulla seggiola, indicava cortesemente a Madame il boccone più tenero, o, rivolgendosi alla domestica, le dava consigli per la preparazione del ragù e l'igiene dei condimenti. Parlava di aromi e condimenti, succhi e gelatine, lasciando tutti a bocca aperta. Del resto, con la testa più colma di ricette di quanto la sua farmacia non lo fosse di barattoli, Ome eccelleva nel fare una quantità di confetture, aceti e liquori dolci. Così conosceva le ultime novità in fatto di cucine economiche, e insieme l'arte di conservare i formaggi e di curare i vini che rischiavano di andare in aceto. Alle otto, Justine veniva a chiamarlo per chiudere la farmacia. Ome gli lanciava uno sguardo ironico, soprattutto se Felicité era nella stanza, perché si era accorto che il suo apprendista frequentava volentieri la casa del medico. Questo giovanotto, diceva, comincia ad avere dei grilli per la testa, e credo, il diavolo mi porti, che si sia innamorato della vostra domestica. Ma un difetto più grave gli rimproverava, l'abitudine di star continuamente ad ascoltare le conversazioni. La domenica, per esempio, era impossibile farlo uscire dal salotto dove la signora Ome l'aveva chiamato per portar via i bambini che si addormentavano sulle poltrone, tirando giù con la schiena le fodere di calicò, troppo larghe. Non veniva molta gente a queste serate del farmacista, perché la sua maldicenza e le sue opinioni politiche avevano allontanato a poco a poco diverse persone rispettabili. Il praticante del notaio non mancava mai, e non appena sentiva il campanello, correva incontro a Madame Bovary, le prendeva lo scialle e sistemava sotto il bancone della farmacia le grosse pantofole di panno che lei metteva sopra le scarpe quando nevicava. Si cominciava con qualche partita a 31, poi Ome giocava a pinnacolo con Emma. Leon, dietro di lei, le dava consigli. In piedi e con le mani sullo schienale della sedia guardava i denti del pettine che affondavano nello chignon. Ad ogni mossa che faceva per buttare le carte, il vestito le saliva sulla destra. Dai capelli annodati scendeva sulle spalle un'ombra scura che, sfumando gradualmente, finiva con lo svanire. Il vestito poi ricadeva ai due lati della seggiola, a sbuffi, ricco di pieghe, e si allargava fino a sfiorare il pavimento. Quando gli capitava di sentire la suola del suo stivale posarvisi sopra, Leon si ritraeva, come se avesse pestato qualcuno. Terminata la partita a carte, lo speziale e il medico giocavano a domino, ed Emma, cambiando posto, si appoggiava al tavolo a sfogliare l'illustration. Aveva portato con sé il suo giornale di mode. Leon le si metteva accanto, guardando insieme le figure, e si aspettavano in fondo alla pagina. Spesso lei lo pregava di leggere dei versi. Leon li declamava con voce strascicata, che si adoperava a rendere evanescente nei passi d'amore. Ma il rumore delle tavolette del domino li disturbava. Ome era bravo, batteva Charles a forza di doppi sei. Poi, finite le tre mani, si sistemavano comodamente davanti al camino e non tardavano ad addormentarsi. Il fuoco moriva nella cenere. La teiera era vuota. Leon leggeva ancora. Emma lo ascoltava, girando meccanicamente il paralume della lampada. Sulla cui stoffa erano dipinti Pierrot in carrozza, ed equilibriste con il bilanciere. Leon si fermava, indicando con un cenno il suo uditorio addormentato. Allora si mettevano a parlare a bassa voce, e la conversazione sembrava più piacevole perché non udita da altri. Così si stabilì fra di loro una sorta di intesa, uno scambio continuo di libri e di romanze. Bovary, poco geloso, non vi faceva caso. Per la sua festa ebbe in dono una bella testa frenologica, tutta stampigliata di cifre fino al torace e dipinta di celeste. Una premura del praticante. Ne aveva molte altre, fino al punto di fargli le commissioni a Rouen. E poiché l'opera di un romanziere aveva creato la moda delle piante grasse, Leon ne comprava per madame, portandole sulle ginocchia nelle rondelle e pungendosi le dita con le loro spine. Lei fece sistemare alla finestra un piano con ringhiera per tenerci i vasi. Anche il praticante ebbe il suo giardinetto pensile. Ognuno intravedeva l'altro intento a curare i fiori alla finestra. Tra le finestre del paese ce n'era una occupata ancora più spesso. Infatti la domenica, da mattina a sera, ed ogni pomeriggio, se il tempo era buono, all'abbaino di un solaio era possibile vedere il magro profilo di Binet, chino sul tornio, il cui continuo ronzio si faceva sentire fino a Lyon d'Or. Una sera, rientrando, Leon trovò nella sua stanza un tappetino di velluto e lana a fogliami su fondo chiaro. Chiamò la signora Ome. Ome, Justine, i bambini, la cuoca. Ne parlò al suo capo. Tutti volero vedere il tappeto. Come mai la moglie del medico faceva doni così generosi al praticante del notaio? Trovarono la cosa strana e pensarono che evidentemente doveva essere la sua amica. Lui lo faceva credere, tanto decantava senza posa il suo fascino e il suo spirito, al punto che Binet una volta gli rispose seccamente. Ma che me ne importa, non è mica gente che frequento. Si tormentava a escogitare un modo per farle la dichiarazione. E sempre esitante, fra la paura di non piacerle e la vergogna di essere così pusillanime, piangeva di sconforto e di desiderio. Poi prendeva decisioni energiche, scriveva lettere che stracciava, rimandava ad altri momenti che poi procrastinava. Spesso si metteva in cammino con l'intenzione di osare il tutto per tutto, ma abbandonava tale proposito all'istante in presenza di Emma. E quando Charles, sopraggiungendo, lo invitava a salire sul suo calesse per andare con lui a trovare qualche malato nei dintorni, accettava subito, salutava Madame e se ne andava. Suo marito non era in fondo qualcosa di lei? In quanto a Emma, non se lo chiedeva se lo amava. L'amore, riteneva, doveva arrivare di colpo, con schianti effolgorazioni. Uragano celeste che si abbatte sulla vita, la sconvolge, ghermisce le volontà come foglie e precipita il cuore negli abissi. Non sapeva che sulle terrazze delle case la pioggia produce allagamenti quando le grondaie sono intasate, e avrebbe continuato a sentirsi al sicuro se all'improvviso non avesse scoperto una crepa nel muro. Capitolo 5 Accadde una domenica di febbraio in un pomeriggio di neve. Erano andati tutti, i coniugi Bovary, Omé e Léon, a vedere una filanda di lino che stavano impiantando nella valle, ad una mezza lega da Ionville. Lo speziale aveva portato con sé Napoleone e Atali per far fare loro un po' di moto. Li accompagnava Justine con gli ombrelli in spalla. Eppure niente era meno attraente di quella attrazione. Un grande spiazzo di terreno abbandonato, dove stavano accatastate in disordine, tra mucchi di sabbia e di sassi, ruote d'ingranaggi già arrugginite, circondava un lungo edificio quadrangolare punteggiato da una gran quantità di finestrelle. La costruzione non era terminata e attraverso le putrelle della copertura si vedeva il cielo. Attaccato alla trave del pinnacolo, un fascio di paglia, frammista a spighe, faceva sventolare i suoi nastri tricolori. Omé parlava, spiegava alla compagnia la futura importanza di quella fabbrica, saggiava la resistenza degli impiantiti, lo spessore dei muri, e rimpiangeva molto di non avere con sé un regolo metrico, come quello che possedeva Binet per suo uso privato. Emma, che gli dava il braccio, si appoggiava appena alla sua spalla e guardava il disco del sole irradiare lontano, nella caligine, il suo abbagliante pallore. Ma voltò la testa. C'era Charles. Aveva il berretto calcato sugli occhi e il tremito delle grosse labbra aggiungeva al suo viso un che di ebete. Persino la schiena, quella sua schiena pacciosa, era irritante a vedersi, e sulla redingote Emma vedeva esibita tutta la piattezza del personaggio. Mentre lei osservava il marito, assaporando nella sua irritazione una sorta di depravata volutà, Leon avanzò di un passo. Il freddo che ne accentuava il pallore sembrava diffondere sul suo viso un languore più dolce. Fra la cravatta e il collo, il colletto della camicia, un po' allentato, lasciava intravedere la pelle. La punta di un orecchio spuntava da una ciocca di capelli e i grandi occhi azzurri, rivolti verso le nuvole, sembrarono ad Emma più limpidi e più belli dei laghi di montagna in cui si specchia il cielo. «Desgraziato!» urlò ad un trattolo speziale. Corse verso il figlio, che era entrato in un mucchio di calce nell'intento di tingersi le scarpe di bianco. Ai rimproveri che gli piovevano addosso, Napoleon cominciò a cacciare urla, mentre Justine gli asciugava le scarpe con un po' di paglia impastata di terra. Ma ci sarebbe voluto un coltello. Charles mise a disposizione il suo. «Ah!» si disse lei. «Porta un coltello in tasca come un contadino!» Scendeva la brina e se ne tornarono a Yonville. Quella sera Madame Bovary non andò dai vicini, e una volta uscito Charles, non appena si sentì sola, il confronto ricominciò con una nitidezza di sensazioni quasi immediata, e con quella profondità di prospettiva che il ricordo conferisce agli oggetti. Guardando dal letto il chiarore del fuoco che ardeva, vedeva ancora, come laggiù, Léon in piedi, che con una mano faceva incurvare la canna da passeggio e con l'altra teneva Atali che succhiava tranquillamente un pezzetto di ghiaccio. Lo trovava incantevole. Non riusciva a staccarsene. Ricordò altri suoi atteggiamenti in giorni diversi, certe frasi pronunciate, il suono della sua voce, tutta la sua persona, e ripeteva, sporgendo le labbra come per un bacio. Sì, incantevole. Amerà qualcuno? Si chiese. Chi? Ma certo, me. D'un tratto le apparvero chiare tutte le prove, e il cuore le sobbalzò. La fiamma del caminetto faceva ondeggiare sul soffitto un gaio bagliore. Si voltò sulla schiena, stirando le braccia. Cominciò allora l'eterno lamento. Oh, se il cielo avesse voluto! Perché no? Chi lo impediva? Quando Charles rincassò, a mezzanotte, finse di svegliarsi, e poiché lui, nel togliersi il vestito, fece rumore, lamentò un'emicrania. Poi chiese con aria indifferente come era andata la serata. «Leon», disse lui, «è salito in camera presto». Non poté trattenere un sorriso, e si addormentò con l'animo colmo di un nuovo incanto. L'indomani, a sera inoltrata, ricevette la visita di L'Oreux, negoziante di mode. Uomo abile, quel bottegaio? Guascone per nascita, ma diventato normanno, univa la facondia meridionale alla vedutezza degli abitanti della regione del Co. La sua faccia grassa, molle e senza barba, sembrava tinta con un decotto di liquirizia chiara, e i suoi capelli bianchi rendevano ancora più vivace lo scintillio deciso degli occhietti neri. Tutti ignoravano che cosa avesse fatto in passato. Il venditore ambulante, dicevano gli uni, il banchiere arrutò, secondo altri. Quel che è certo è che faceva a mente calcoli talmente complicati da intimidire lo stesso Binet. Compito fino all'ossequio, stava sempre con la schiena un po' piegata, nella posizione di chi saluti o inviti qualcuno. Dopo aver lasciato alla porta il cappello listato di nero, appoggiò sul tavolo uno scatolone verde e cominciò molto cerimoniosamente a ramaricarsi con madame di non essere ancora riuscito ad ottenere la sua fiducia. Certo, una povera bottega come la sua non era fatta per attirare una signora elegante e sottolineò l'aggettivo, ma non aveva che da ordinare e lui si incaricava di fornirle quel che desiderava, sia in fatto di accessori che di biancheria, di maglieria o di mode. Infatti andava regolarmente in città quattro volte al mese. Era in contatto con le ditte più importanti. Si poteva chiedere di lui ai Trois Frères, alla Barbe d'Or o al Grand Sauvage. Lo conoscevano tutti come le loro tasche. Così oggi, di passaggio, veniva a mostrare a madame svariati articoli, di cui per caso disponeva, grazie ad una rarissima occasione, ed estrasse dalla scatola una mezza dozzina di colletti ricamati. Madame Bovary li esaminò. «Non mi serve nulla», disse. Allora Leroux mise delicatamente in mostra tre sciarpe algerine, diversi pacchetti di aghi inglesi, un paio di pantofole di paglia e infine quattro portauova traforati, opera di Ergastolani. Poi, con le mani sul tavolo, il collo proteso, piegato in due, seguiva a bocca aperta lo sguardo di Emma, che percorreva indeciso la merce. Ogni tanto, come per scacciare la polvere, dava col dorso della mano un colpetto alla seta delle sciarpe, piegate in tutta la loro lunghezza, e queste fremevano con un fruscio leggero, facendo scintillare come stelline, alla luce verdastra del crepuscolo, le pagliuzze d'oro della stoffa. «Quanto costano?» «Una miseria», rispose lui. «Una miseria? Ma c'è tempo, quando vorrà, non siamo mica ebrei». Lei riflette qualche istante, poi finì con ringraziare di nuovo Leroux, che replicò imperturbabile. «Va bene, prima o poi ci intenderemo, ho sempre trovato un accordo con le signore, fuorché con la mia, naturalmente». Emma sorrise. «Questo per dirvi», riprese lui con aria bonaria dopo la battuta. «Che il denaro non mi preoccupa, potrei darvene io se fosse necessario». Lei ebbe un gesto di sorpresa. «Ah», fece lui con intenzione, sottovoce. «Non dovrei andare lontano per trovarvelo, potete stare tranquilla». E si mise a chiedere notizie del vecchio Tellier, il padrone del café français, che in quel momento Bovary aveva in cura. «Ma che cosa ha il vecchio Tellier? Ha una tosse che fa tremare tutta la casa, e temo che presto gli servirà un cappotto di abete più che una camiciola di flanella? Certo che ne ha fatto di bagordi da giovane, era uno di quelli che non conoscevano regole, si è distrutto con l'acquavite. Però dispiace vedersene andare una persona che si conosce». E nel richiudere lo scatolone, parlava della clientela del medico. «Forse queste malattie dipendono dal tempo?» disse guardando i vetri con viso accigliato. «Nemmeno io mi sento del tutto a posto. Anzi, uno di questi giorni dovrò farmi vedere dal signor Bovary per un dolore alla schiena. Allora, arrivederci, Madame Bovary, a vostra disposizione, servitore umilissimo». E richiusse delicatamente la porta. Emma si fece servire la cena in camera su un vassoio, accanto al fuoco. Ci mise molto a mangiare, le sembrò tutto buono. «Come sono stata brava», si diceva ripensando alle sciarpe. Udì dei passi per le scale. Era Leon. Si alzò e afferrò uno strofinaccio da orlare, il primo di una pila preparata sul cassettone. Sembrava molto occupata quando lui fece il suo ingresso. La conversazione languì, perché Madame Bovary la lasciava continuamente cadere e lui se ne stava tutto impacciato. Seduto su una sedia bassa accanto al caminetto, rigirava fra le dita l'astuccio d'avorio. Lei faceva un punto dietro l'altro o con l'unghia increspava ogni tanto le pieghe della tela. Non parlava e lui taceva, catturato dal suo silenzio come lo sarebbe stato dalle sue parole. «Povero ragazzo», pensava Emma. «Che cos'è che non le piace di me?», si chiedeva lui. Leon finì comunque col dire che uno di quei giorni doveva andare a Rouen per una pratica dello studio. «Il vostro abbonamento musicale è scaduto, devo rinnovarlo?» «No», rispose lei. «Perché?» «Perché?» e stringendo le labbra, tirò lentamente una lunga gugliata di filo grigio. Quel lavoro, innervosiva Leon, le scorticava la punta delle dita. Pensò ad una frase galante, ma non si arrischiò. «Allora ci rinunciate?», riprese. «A che cosa?», scattò lei. «Alla musica?» «Ah, mio Dio, sì! Ho già da occuparmi della casa, da acudire mio marito, un sacco di cose, insomma, tutti i doveri che vengono prima!» Guardò la pendola. Charles era in ritardo. Allora si mostrò preoccupata. Ripetè due o tre volte. «È così buono!» Il praticante del notaio era affezionato a Bovary, ma tutta quella tenerezza nei suoi riguardi lo stupì sgradevolmente. Ciò non di meno continuò a tesserne le lodi, come facevano tutti, diceva, soprattutto il farmacista. «Ah, è un bravo uomo!», continuò Emma. «Sicuramente», aggiunse lui. E si mise a parlare della signora Aume, la cui sciatteria nel vestire era normalmente motivo di scherno. «Ma che importa?», interruppe Emma. «Una buona madre di famiglia non perde tempo a curare l'eleganza!» Poi ripiombò nel silenzio. La stessa cosa si ripetè nei giorni successivi. I suoi discorsi, le sue maniere, tutto cambiò. La videro prendersi a cuore la casa, tornare regolarmente in chiesa e trattare con maggiore severità la cameriera. Tolse Bert da Balia. Quando venivano visite, Felicitè la portava in salotto, e Madame Bovary la spogliava per mostrarla agli ospiti. Dichiarava di adorare i bambini. Erano la sua consolazione, la sua gioia, la sua pazzia. E accompagnava le sue carezze con effusioni liriche, che a chiunque non fosse di Yonville avrebbero ricordato la sachette di Notre-Dame de Paris. Al suo rientro, Charles trovava le pantofole in caldo vicino al fuoco. Ora ai suoi gilet non mancava più la fodera, né alle sue camicie e i bottoni, ed era un vero piacere vedere nell'armadio tutti i berretti di cotone conservati in pile uguali. Emma non era più riluttante, come nel passato, a passeggiare in giardino. Acconsentiva a tutto quello che lui proponeva, anche se non indovinava i voleri a cui si sottometteva senza batter ciglio. E quando Leon lo vedeva, accanto al fuoco, dopo cena, con le mani sulla pancia, i piedi sugli alari, le gote rosse per la digestione, gli occhi umidi di felicità, con la bambina carponi sul tappeto e quella donna dalla vita sottile che veniva a dargli un bacio in fronte piegandosi sullo schienale della poltrona. «Sono pazzo», si diceva. «Come arrivare fino a lei?». Gli apparve dunque così virtuosa e inaccessibile che ogni speranza, anche la più vaga, lo abbandonò. Ma proprio per questa rinuncia la collocava in una posizione eccezionale. La spogliò delle attrattive carnali, da cui si sentiva escluso, e salì sempre più nel suo cuore, fino a distaccarsene alla maniera magnifica di un'apoteosi che si invola. Era uno di quei sentimenti puri che non disturbano la normalità quotidiana, che si coltivano perché sono rari, e la cui perdita rattristerebbe più di quanto non ne rallegra il possesso. Emma smagrì, le sue guance si facero pallide, il suo volto si affilò. Con quelle bande corvine, i suoi occhi, il naso dritto, l'incedere da uccello e ormai sempre silenziosa, non sembrava attraversare l'esistenza sfiorandola appena e portare in fronte l'incerta impronta di una qualche sublime predestinazione. Era così triste e calma, al tempo stesso così dolce e riservata, che vicino a lei ci si sentiva presi da un fascino glaciale, come si rabbrividisce in chiesa al profumo dei fiori unito al freddo del marmo. Neanche gli altri si sottraevano a questa seduzione. Il farmacista diceva, è una donna dalle grandi risorse, che non sarebbe fuori posto in una sottoprefettura. Le paesane ammiravano la sua parsimonia, i pazienti la sua cortesia, i poveri la sua carità. Ma era piena di bramusie, di rabbia, di odio. Quel vestito dalle pieghe piatte nascondeva un cuore sconvolto e quelle labbra così pudiche non ne raccontavano il tormento. Era innamorata di Leon e cercava la solitudine per deliziarsi con più agio dell'immagine di lui. La vista della sua persona turbava la volutà di quella meditazione. Emma palpitava al suono dei suoi passi. Poi, in sua presenza, l'emozione cadeva, lasciandole solo un immenso stupore che finiva in tristezza. Quando se ne andava disperato, Leon non sapeva che lei si alzava subito dopo di lui per vederlo in strada. Si preoccupava per le sue faccende, spiava il suo viso, inventò tutta una storia per avere il pretesto di vedere la sua camera. Le sembrava che la moglie del farmacista avesse una gran fortuna a dormire sotto lo stesso tetto, e i suoi pensieri ricadevano sempre su quella casa, come i piccioni del Leon d'Or, che in quelle grondaie andavano a intingere le zampine rosa e le ali bianche. Ma più Emma si accorgeva del suo amore, più lo soffocava, perché non si manifestasse, e per contenerlo. Avrebbe voluto che Leon lo scoprisse, e fantasticava su circostanze e catastrofi che potessero agevolare tale scoperta. La tratteneva senza dubbio la pigrizia, o la paura, e anche il pudore. Pensava che l'avrebbe allontanato troppo, che era troppo tardi, che tutto era perduto. Poi l'orgoglio, la gioia di dirsi «sono virtuosa» e di guardarsi allo specchio assumendo pose rassegnate, la consolava un po' del sacrificio che credeva di fare. Allora gli appetiti della carne, la bramosia del denaro e le malinconie della passione, tutto si confuse in un'unica sofferenza. E anziché distoglierne la mente, vi si attaccava ancora di più, esaltandosi al dolore e inseguendone ovunque le occasioni. Si innervosiva per un piatto mal servito o una porta non chiusa bene. Gemeva per i velluti che non aveva, per la felicità che le mancava, per i sogni troppo grandiosi, per la casa troppo angusta. Trovava esasperante che Charles avesse l'aria di non sospettare il suo supplizio. La convinzione del marito di renderla felice le sembrava un insulto idiota e la sua sicurezza ingratitudine. Per chi era così brava allora? Non era forse lui l'ostacolo ad ogni felicità? La causa di ogni miseria? E per così dire l'ardiglione accuminato di quella complicata cinghia che la stringeva da tutte le parti? Rovesciò dunque su di lui il vespaio di odio prodotto dalle sue sofferenze, ed ogni sforzo per contenerlo non faceva che aumentarlo. Perché quella pena inutile si aggiungeva agli altri motivi di disperazione e contribuiva ancora di più ad allontanarla da lui. Anche la propria remissività le suscitava ribellione. La mediocrità domestica la spingeva a fantasie lussuose, la tenerezza coniugale a desideri adulterini. Avrebbe voluto che Charles la picchiasse, per poterlo detestare a buon diritto e vendicarsi. Talvolta si stupiva delle atroci congetture che le accadeva di formulare, e doveva continuare a sorridere, sentirsi ripetere che era felice, far finta di esserlo, lasciarlo credere. Eppure era anche disgustata da questa ipocrisia. Era presa dalla tentazione di fuggire da qualche parte con León, via lontano, alla ricerca di un nuovo destino. Ma subito nel suo animo si spalancava un indistinto, oscuro abisso. Del resto non mi ama più. Pensava. Che mi succederà? Quale aiuto posso aspettarmi? Quale conforto? Quale sollievo? E rimaneva senza forze, senza fiato, inerte, singhiozzando con voce strozzata, mentre le lacrime le rigavano il volto. Perché non parlarne con il signore? Le domandava la domestica, quando entrava durante quelle crisi. Sono i nervi, rispondeva Emma. Non gli dir nulla, gli daresti una pena. Ah, sì, riprendeva Felicité. Siete proprio come la Guerin, la figlia del vecchio Guerin, il pescatore del pollè, quella che ho conosciuto a Dieppe prima di venire qui. Era così triste, così triste, che a vederla ritta sulla soglia di casa faceva l'effetto di un drappo funebre teso davanti alla porta. Il suo male, a quel che pareva, era una specie di nebbia nella testa. I medici non potevano farci niente, e neanche il prete. Quando le prendeva troppo forte se ne andava tutta sola in riva al mare, così che l'ufficiale della dogana, facendo il suo giro, la trovava spesso distesa bocconi sui ciottoli a piangere. Poi, dopo il matrimonio le è passata, dicono. Ma a me, replicava Emma, è dopo il matrimonio che è cominciata. Capitolo 6 Una sera, che la finestra era aperta, e seduta sul davanzale era stata a guardare l'estibudoa, lo scaccino, che portava il bosso, sentì ad un tratto suonare l'angelus. Era l'inizio di aprile, quando le primule sono in fiore, un vento tiepido scorre sulle aiuole vangate, e i giardini, simili a donne, sembrano acconciarsi per le feste d'estate. Attraverso le travi del pergolato e oltre, tutto intorno, si vedeva il fiume disegnare sull'erba dei prati sinuosità vagabonde. La bruma della sera filtrava tra i pioppi spogli, sfumando nei contorni con una tinta violacea, più pallida e trasparente di un tulle gettato sui rami. In lontananza pascolavano le mandrie, non sudivano né i loro passi né i loro mugiti, e la campana, che continuava a suonare, prolungava nell'aria il suo serafico lamento. A quei rintocchi ripetuti, il pensiero di Emma si perdeva in vecchi ricordi di gioventù e di collegio. Le tornarono in mente i grandi candelabri, che sull'altare sovrastavano i vasi pieni di fiori, e il tabernacolo a colonnine. Avrebbe voluto, come un tempo, confondersi ancora nella lunga fila di veli bianchi, punteggiata qua e là dalle rigide cuffie delle suore, chine sugli inginocchiatoi. La domenica, ammessa, quando alzava la testa, scorgeva il dolce volto della vergine, fra le volute azzurrognole dell'incenso che saliva. Allora fu afferrata dalla commozione, si sentì molle, tutta abbandonata come una piuma d'uccello che volteggia nella tempesta, e senza rendersene conto si incamminò verso la chiesa, disposta a qualsiasi pratica religiosa, purché la sua anima vi si piegasse, e sparisse in essa la sua esistenza intera. Sulla piazza incontrò l'estibudoa che tornava. Per non sprecare tempo, preferiva infatti interrompere il lavoro e poi riprenderlo, sicché suonava l'Angelus quando gli tornava più comodo. Del resto, così anticipato, lo scampanio avvertiva i ragazzini che era l'ora del catechismo. Tra quelli già arrivati, alcuni giocavano alle biglie sulle pietre del cimitero. Altri, a cavalcioni sul muro, scalciavano falciando con gli zoccoli le ortiche che spuntavano alte tra il piccolo recinto e le ultime tombe. Era la sola macchia verde. Per il resto, tutto un lastricato perennemente coperto da un sottile strato di polvere, malgrado la granata della sacrestia. I bambini, in ciabatte, ci correvano sopra come su un pavimento fatto apposta per loro, e si udivano le loro grida attraverso i rintocchi della campana, che rallentavano insieme alle oscillazioni della grossa corda, pendente dall'alto del campanile, sino a toccare terra. Passavano rondini lanciando flebili strida, tagliavano l'aria con la lama del loro volo e rientravano veloci nei nidi gialli sotto le tegole spioventi. In fondo alla chiesa ardeva un lume, o meglio, un lucignolo da notte in un bicchiere sospeso. Da lontano, la sua luce pareva una chiazza biancastra tremolante sull'olio. Un lungo raggio di sole attraversava l'intera navata e rendeva ancora più scuri gli angoli e le cappelle laterali. «Dov'è il curato?» chiese Madame Bovary ad un ragazzetto, che si divertiva a scuotere il saliscendi nel foro troppo largo. «Ora arriva», rispose lui. Infatti si sentì cigolare la porta del presbiterio, e apparve l'abate bournisian. I bambini scapparono disordinatamente in chiesa. «Queste birbe!» mormorò il sacerdote. «Sempre gli stessi». E raccattando un catechismo a brandelli che aveva urtato col piede. «Non rispettano niente». Ma non appena vide Madame Bovary. «Vogliate scusarmi?» disse. «Non vi avevo riconosciuta». Si infilò in tasca il catechismo e si fermò, continuando a far dondolare tra due dita la pesante chiave della sacrestia. Il bagliore del sole al tramonto, che lo colpiva in pieno viso, schiariva il tessuto lucido della tonaca, logora ai gomiti e sfilacciata al fondo. Macchiedunto e di tabacco seguivano sull'ampio torace la fila dei bottoncini e si infittivano allontanandosi dal colletto, sul quale riposavano le abbondanti pieghe della sua pelle rossa, disseminata di piccole chiazze gialle che si perdevano tra i peli ispidi della barba grigiastra. Aveva appena cenato e respirava rumorosamente. «Come va?» aggiunse. «Male», rispose Emma. «Sto male». «Beh, anch'io», aggiunse il sacerdote. «Questi primi caldi buttano giù, non è così? Che volete? Siamo nati per soffrire, come dice San Paolo. Ma il signor Bovary che ne pensa?» «Lui», fece Emma, con gesto di disprezzo. «Ma come?», replicò il brav'uomo tutto stupito. «Non vi prescrive qualcosa?» «Ah», disse lei, «non è delle medicine terrene che avrei bisogno». Ma il curato ogni tanto sbirciava nella chiesa, dove i ragazzini inginocchiati si spintonavano spalla a spalla e cadevano come una fila di carte. «Vorrei sapere», riprese lei. «Aspetta un po'. «Ribudè», gridò il sacerdote con tono arrabbiato. «Che ti do una tirata d'orecchie, ragazzaccio!» Poi rivolgendosi ad Emma. «È il figlio di Boudè, il carpentiere. I genitori sono gente che sta bene e gli fanno fare tutto quel che vuole. Eppure, se volesse, imparerebbe presto, perché ne ha di capacità. Ed io talvolta, per scherzo, lo chiamo appunto Ribudè, come il colle che si prende per andare a Marom. E dico anche, il piccolo Ribudè. Ah, il piccolo Ribudè. L'altro giorno ho fatto questo gioco di parole con Monsignore, che ha riso, si è degnato di ridere. E il signor Bovary come sta?» Lei sembrava non sentirlo. Lui continuò. «Sempre molto occupato, naturalmente, perché lui ed io siamo senza dubbio le due persone più indaffarate della parrocchia. Ma lui è il medico dei corpi», aggiunse con una grassa risata. «Ed io quello delle anime». Lei fissò sul prete due occhi supplichevoli. «Sì», disse. «Voi soccorrete ogni miseria». «Ah, non me ne parlate. Non più tardi di stamattina sono dovuto andare nel Badiouville per una mucca che aveva l'enfiatura. Credevano che avesse il malocchio. Tutte le loro mucche non so come, ma scusate un momento. Longue mare Boudet. Buoni a nulla. Volete smetterla?» E con un balzo fu in chiesa. I ragazzini si stavano accalcando intorno al grande leggio. Si arrampicavano sullo sgabello del cantore, aprivano il messale, mentre altri, chiotti chiotti, stavano per invadere anche il confessionale, quando all'improvviso il curato distribuì su tutti una gragnola di schiaffi. Afferrandoli per il bavero della giacca, li sollevava da terra e li rimetteva in ginocchio sul pavimento del coro, con forza, come se avesse voluto inchiodarceli. «Eh sì», disse non appena tornato da Emma, spiegando l'ampio fazzoletto di cotonina e infilandosi una cocca tra i denti. «Gli agricoltori meritano proprio compassione». «Anche altri», replicò lei. «Certamente, gli operai delle città, per esempio». «Non è a loro...» «Scusate, ma tra loro ho conosciuto madri di famiglia, donne virtuose, vi garantisco, vere sante, a cui mancava persino il pane». «E allora quelle...» riprese Emma, e parlando le tremavano gli angoli della bocca. «Quelle, signor curato, che il pane ce l'hanno, ma non hanno...» «Legna per l'inverno», disse il prete. «Non è questo che conta». «Come non è questo? Mi sembra che quando c'è un bel calduccio, di che nutrirsi? Perché, insomma...» «Mio Dio, mio Dio!», lei sospirava. «Non vi sentite bene?», fece il prete, andandole incontro con aria preoccupata. «E' la digestione, vero? Dovete tornare a casa, bere una tazza di tè, vi darà forza, oppure un bicchiere di acqua fresca con lo zucchero». «Perché?» E aveva l'aria di chi si risveglia da un sogno. «Vi passavate la mano sulla fronte, ho pensato aveste un malore». Poi ripensandoci. «Ma mi chiedevate qualcosa? Che cos'era? Non ricordo più». «Io?» «Niente, niente», ripeteva Emma, e il suo sguardo, dopo aver vagato tutto intorno, si abbassò lentamente sul vecchio in abito talare. Si squadrarono l'un l'altro, faccia a faccia, senza parlare. «Allora, mia cara signora», disse lui alla fine. «Vogliate scusarmi, ma il dovere innanzitutto, sapete com'è? Devo occuparmi di questi discolacci. Le prime comunioni sono alle porte, e ci coglieranno di sorpresa anche questa volta, temo. Perciò, a partire dall'ascensione, ogni mercoledì li tengo recta un'ora di più. Poveri ragazzi, non è mai troppo presto per avviarli sulla via del Signore, come del resto lui stesso ci ha raccomandato di fare per bocca del suo divino figlio. «Auguri, signora, i miei rispetti a vostro marito». Ed entrò in chiesa, genuflettendosi sulla porta. Emma lo vide sparire tra la doppia fila di banchi, con il passo pesante, la testa reclinata sulla spalla e le mani semi chiuse scostate dal corpo. Poi si girò meccanicamente su se stessa, come una statua su un perno, e riprese la strada di casa. Ma le arrivavano ancora all'orecchio il vocione del curato e le voci squillanti dei ragazzi che ripetevano «sei cristiano?» «Sì, sono cristiano». Che cos'è un cristiano? Uno che, essendo battezzato, battezzato, battezzato. Salì i gradini della scala di casa, tenendosi alla ringhiera, e quando fu in camera, si lasciò cadere su una poltrona. Una luce biancastra fluttuava dai vetri, spegnendosi lentamente. Il mobilio, tutto al suo posto, sembrava diventato più immobile e svanire nell'ombra come in un oceano di tenebra. Il caminetto era spento, la pendola continuava a battere, ed Emma era vagamente sbalordita per quella calma delle cose, mentre in lei c'era tanta agitazione. Ma tra la finestra e il tavolino da lavoro, la piccola Bert traballava sulle scarpette di maglia e cercava di avvicinarsi alla mamma per afferrare i nastri penduli del suo grembiule. «Lasciami!» disse, scostandola con la mano. Dopo un po' la bambina tornò e si avvicinò ancora di più. Appoggiando le braccia sulle sue ginocchia, alzava verso di lei i grandi occhi azzurri, mentre un filo di limpida saliva colava dalle sue labbra sulla seta del grembiule. «Lasciami!» ripetè molto irritata la giovane donna. La sua espressione spaventò la bambina, che si mise a strillare. «Insomma, lasciami stare!» fece lei respingendola col gomito. Bert andò a cadere ai piedi del cassettone, contro il piolo di rame. Si fece un taglio sulla guancia, uscì il sangue. Madame Bovary si precipitò a rialzarla, strappò il cordone del campanello, chiamò la domestica con tutto il fiato che aveva in gola e cominciava a maledire se stessa quando comparve Charles. Era l'ora di cena e lui rincasava. «Guarda, caro!» gli disse Emma con voce tranquilla. «La piccola, giocando, è caduta e si è ferita». Charles la rassicurò, non era grave, e andò a cercare un impiastro. Madame Bovary non scese in sala, volle rimanere sola a sorvegliare la bambina. E mentre la contemplava dormiente, quanto restava d'inquietudine, gradualmente svanì. E alla fine decise che era proprio sciocca e proprio buona ad agitarsi per così poco. Effettivamente Bert non si inghiuzzava più. Ora il suo respiro sollevava appena le coperte di cotone. Grosse lacrime si erano fermate nell'angolo delle palpebre semichiuse, che lasciavano intravedere fra le ciglia due pupille spente, incavate. Il cerotto, sulla guancia, tirava obliquamente la pelle tesa. «E' strano», pensava Emma. «Quanto è brutta questa bambina!» Quando, alle undici di sera, Charles tornò dalla farmacia, dove era andato dopo cena a restituire l'impiastro avanzato, trovò la moglie in piedi accanto alla culla. «Se ti dico che non è niente», disse baciandola in fronte. «Non ti tormentare, povero amore mio, finirai con l'ammalarti». Si era trattenuto un bel po' dallo speziale. Per quanto non si fosse mostrato troppo agitato, Ome si era sforzato di rincuorarlo, di tirarlo su di morale. Così avevano parlato dei diversi pericoli che minacciavano l'infanzia e della sventatezza dei domestici. Ne sapeva qualcosa la signora Ome, che recava ancora sul petto i segni di una palettata di braccia rovesciata, tanti anni prima, nello scollo della sua blusa da una cuoca. Perciò, da bravi genitori, prendevano un sacco di precauzioni. I coltelli non erano mai affilati, né i pavimenti tenuti a cera. C'erano griglie di ferro alle finestre e pesanti sbarre agli stipiti delle porte. Per quanto indipendenti, i piccoli Ome non potevano muoversi senza che qualcuno li seguisse per sorvegliarli. Al minimo raffreddore, il padre li ingozzava di espettoranti e, fin oltre i quattro anni, avevano, inesorabilmente, la testa protetta da cercini imbottiti. È vero che si trattava di una mania della signora Ome. Il marito, in cuor suo, se ne rammaricava, temendo le possibili conseguenze di tale compressione sugli organi dell'intelletto. E gli succedeva persino di dire, vuoi farli diventare dei caraibici o dei botokudos? Intanto, Charles aveva tentato più volte di interrompere la conversazione. Dovrei parlarvi di qualcosa. Aveva bisbigliato all'orecchio del praticante del notaio, che iniziò a salire le scale precedendolo. È possibile che sospetti qualcosa? Si chiedeva Leon. Sentiva il cuore battergli in gola e si perdeva in congetture. Ma infine, Charles, dopo aver chiuso la porta, lo pregò di informarsi a Rouen sui prezzi di un bel daguerrotipo. Era un'affettuosa sorpresa che preparava alla moglie, una delicata attenzione, il proprio ritratto in abito da cerimonia. Ma prima voleva sapere a che cosa andava incontro. Pensava di non disturbare Leon, visto che andava in città più o meno tutte le settimane. Perché mai? Ome sospettava qualche storia da giovane scapolo, una tresca. Ma si ingannava. Leon non perdeva tempo in amorazzi, era più triste che mai, e la signora Lefrançois se ne accorgeva dalla quantità di cibo che ora lasciava nel piatto. Per saperne di più, interrogò l'esattore. Con tono burbero, Vinè rispose che lui non era pagato per fare il poliziotto. Però il suo compagno gli sembrava molto strano. Stesso, infatti, Leon si lasciava andare sulla seggiola, allargando le braccia, e si lamentava confusamente dell'esistenza. «Non vi prendete abbastanza distrazioni», diceva l'esattore. «E quali? Io al vostro posto prenderei un tornio». «Ma non so usarlo», rispose il giovane. «È vero», faceva l'altro, accarezzandosi la mascella con aria di compatimento e di soddisfazione insieme. Leon era stanco di amare senza alcun risultato. Inoltre cominciava a sentire quell'abbattimento che la ripetizione della stessa vita produce quando nessun interesse la guida e nessuna speranza la sorregge. Era così annoiato da Yonville e dai suoi abitanti che la vista di certe persone, di certe case, lo esasperava. E il farmacista, per quanto fosse un brav'uomo, gli diventava decisamente insopportabile. Tuttavia, la prospettiva di una nuova situazione lo spaventava almeno quando lo allettava. Questa apprensione si tramutò presto in impazienza e allora Parigi gli fece balenare, in lontananza, la fanfara dei suoi balli in maschera, con le risa delle sue sartine. Poiché doveva terminare là gli studi di legge, perché non partire? Chi glielo impediva? E dentro di sé cominciò a fare i preparativi, decise quali sarebbero state le sue occupazioni. Si ammobiliò mentalmente una stanza. Vi avrebbe condotto una vita da artista. Vi avrebbe preso lezioni di chitarra. Avrebbe avuto una veste da camera, un basco, pantofole di velluto turchino. E già, ammirava due fioretti incrociati sul caminetto, con sopra un teschio e la chitarra. La sola difficoltà era il consenso di sua madre. Eppure niente sembrava più ragionevole. Anche il notaio lo incoraggiava a frequentare un altro studio, in cui sviluppare le sue capacità. Così, scegliendo una via di mezzo, Léon cercò un posto di secondo praticante a Rouen. E non lo trovò. Scrisse allora alla madre una lunga lettera particolareggiata, in cui esponeva le ragioni di un immediato trasferimento a Parigi. Lei ha consentì. Non si affrettò. Ogni giorno, per un mese, Iver trasportò per lui, da Yonville a Rouen, da Rouen a Yonville, bauli, valigie, pacchi. E dopo aver rinnovato il guardaroba, cambiato l'imbottitura alle tre poltrone, comprato una provvista di fular, in breve, fatto più preparativi che per un viaggio intorno al mondo, Léon continuò a rinviare di settimana in settimana, finché non ricevette una seconda lettera della madre che lo sollecitava a partire, visto che voleva superare l'esame prima delle vacanze. Quando arrivò il momento del commiato, la signora Aumé pianse. Justine si inghiossava. Aumé, da uomo forte, nascose la sua commozione. Vole portare personalmente il cappotto dell'amico fino al cancello del notaio, il quale accompagnava Léon a Rouen con la sua carrozza. Quest'ultimo aveva appena il tempo di salutare Bovary. In cima alle scale fu costretto a fermarsi, senza fiato. Al suo ingresso, Madame Bovary si alzò di scatto. «Sono ancora io», disse Léon. «Ne ero certa». Si morse le labbra e un fiotto di sangue le corse sotto la pelle, che si colorò tutta di rosa, dalla radice dei capelli fino al bordo del colletto. Restava in piedi, le spalle appoggiate contro la parete. Il signor Bovary riprese lui. «È fuori!» e ripetè. «È fuori!» Rimasero in silenzio. Si guardarono e i loro pensieri, confusi in un'identica angoscia, si stringevano forte, come due petti palpitanti. «Mi piacerebbe molto abbracciare Bert», disse Léon. Emma scese qualche scalino e chiamò Felicité. Lui dette una rapida occhiata in giro, percorrendo le pareti, gli scaffali, il caminetto, come per penetrare tutto, portarsi tutto con sé. Ma lei ritornò e la cameriera condusse Bert, che faceva dondolare un mulino a vento capovolto attaccato ad una cordicella. Léon la baciò sul collo, a più riprese. «Addio, povera piccola! Addio, bambina carissima! Addio!» e la restituì alla madre. «Porta la via», disse lei. Rimasero soli. Madame Bovary, di spalle, aveva appoggiato il viso contro il vetro della finestra. Léon teneva il berretto in mano e lo batteva piano contro la coscia. «Sta per piovere», disse Emma. «Ho un soprabito», rispose lui. «Ah!» Lei si voltò, con il mento abbassato e la fronte protesa. La luce vi scivolava come sul marmo fino all'arco delle sopracciglia, senza che si potesse indovinare che cosa Emma guardava all'orizzonte, né che cosa le passava nel fondo dell'anima. «Allora, addio!» sospirò lui. Lei sollevò il capo con movimento brusco. «Sì, addio, andate!» Si avvicinarono l'uno all'altra. Lui tese la mano, lei esitò. «Così, all'inglese!» fece lei, abbandonandogli la sua e sforzandosi di ridere. Léon la sentì tra le dita, la sostanza di tutto il suo essere gli sembrava confluire in quella palma umida. Poi aprì la mano, i loro occhi si incontrarono ancora e scomparve. Quando fu sotto il porticato, si fermò e si nascose dietro una colonna per contemplare un'ultima volta quella casa bianca con le sue quattro persiane verdi. Credette di scorgere un'ombra dietro la finestra, in camera, ma la tenda, sciogliendosi dal gancio come se nessuno la toccasse, fece oscillare le sue lunghe pieghe oblique che di colpo si distesero e rimase dritta, più immobile di un muro di gesso. Léon si mise a correre. Vide da lontano, sulla strada, il calesse del notaio e accanto un uomo ingrembiule che teneva il cavallo. Ome e il notaio Guillaumain facevano conversazione. Era atteso. «Un abbraccio», disse lo speziale con le lacrime agli occhi. «Ecco il cappotto, mio caro amico, attento a non prendere freddo. Abbiate cura di voi, niente strapazzi». «Andiamo, Léon, in carrozza», disse il notaio. Ome si chinò sul parafango e con voce spezzata dai singhiozzi lasciò cadere queste due tristi parole. «Buon viaggio». «Arrivederci», rispose il notaio Guillaumain. «Via, molla le redini». Partirono e Ome se ne ritornò a casa. Madame Bovary aveva aperto la finestra sul giardino e guardava le nuvole. Si addensavano ad occidente, dalla parte di Rouen, e correvano veloci in volute nere, attraverso cui filtravano le grandi strisce di sole, come frecce d'oro di un trofeo sospeso, mentre il resto vuoto del cielo aveva un biancore di porcellana. Ma una ventata fece piegare i pioppi ed un tratto veneggiò la pioggia, scrosciava sulle foglie verdi. Poi ricomparve il sole, le galline cantarono, i passerotti svolazzavano nei cespugli umidi e le pozze sulla sabbia, scolando, trascinavano i fiori rosa di una caccia. «Quanto deve essere già lontano», pensò. Ome arrivò come al solito alle sei e mezza, mentre cenavano. «Ebbene», disse sedendosi, «lo abbiamo imbarcato, il nostro giovanotto?» «Così pare», rispose Bovary, poi voltandosi sulla sedia. «Novità a casa?» «Non un granché, solo che mia moglie nel pomeriggio era un po' commossa. Sa come sono le donne, basta un nulla a turbarle. La mia, poi! E sarebbe sbagliato prendersela per questo, perché la loro organizzazione nervosa è molto più instabile della nostra. «Quel povero Leon», diceva Charles. «Come vivrà a Parigi? Si abituerà?» Madame Bovary sospirò. «Ma via», fece il farmacista, facendo schioccare la lingua. «I convegni galanti in trattoria, i balli mascherati, lo champagne. Non si farà mancare nulla di tutto questo, ve lo assicuro». «Non credo che si lasci fuorviare», obiettò Bovary. «Neppure io?» replicò subito Ome. «Anche se dovrà pur seguire gli altri, per non passare da Gesuita. Non immaginate che vita fanno quegli scapestrati nel quartiere latino, con le attrici. Del resto, gli studenti sono molto ben visti a Parigi. Basta che conoscano appena l'arte di piacere e vengono ricevuti negli ambienti migliori. E capita pure che delle signore del Fabourg Saint-Germain se ne innamorino. Il che offre occasioni per fare in seguito ottimi matrimoni. «Però», disse il medico, «temo per lui laggiù». «Avete ragione», interruppe lo speziale. «E' l'altra faccia della medaglia. E si è continuamente costretti a stare con la mano sul borsellino. Siete in un giardino pubblico, mettiamo. Si presenta un tizio, ben messo, magari decorato, che potrebbe essere preso per un diplomatico. Vi rivolge la parola, fate conversazione, si insinua, vi offre una presa di tabacco o vi raccatta il cappello. Poi si fa sempre più amicizia, vi porta al caffè, vi invita nella sua casa di campagna, vi fa balenare, tra un bicchiere e l'altro, ogni genere di conoscenze. E tre volte su quattro è solo per grattarvi il portafoglio o trascinarvi in avventure pericolose». «È vero», rispose Charles. «Ma io pensavo soprattutto alle malattie, alla febbre tifoidea, per esempio, che colpisce gli studenti di provincia. Emma trasalì. E per il cambiamento di dieta, continuò il farmacista, e per i suoi effetti perturbanti sull'equilibrio generale. E l'acqua di Parigi, poi? La cucina dei ristoranti? Tutti quei cibi speziati finiscono per riscaldare il sangue e che che se ne dica non valgono un buon lesso. Personalmente, ho sempre preferito la cucina casalinga e più sana. Perciò, quando studiavo farmacia a Rouen, stavo a pensione, mangiavo con i professori. E continuò così a esporre opinioni generali e simpatie personali, fino al momento in cui venne a cercarlo Justine per un latte di gallina da preparare. «Mai un attimo di respiro», esclamò. «Sempre alla catena. Non posso allontanarmi un istante. Sempre a sudare sangue e acqua, come un cavallo da tiro. Che vita da cani!» Poi sulla soglia. «A proposito», disse, «sapete la notizia?» «Quale?» «È molto probabile», riprese Ome, sollevando le sopracciglia e prendendo un'espressione grave. «Che i comizi agricoli della Senna Inferiore quest'anno si tengano a Yonville della Baye. Almeno, gira la voce. Stamani il giornale faceva qualche accenno. Per il nostro circondario sarebbe della massima importanza. Ma ne riparleremo più tardi. Ci vedo, grazie. Justine alla lanterna». «Ci vedo, grazie. Justine alla lanterna». Capitolo 7 L'indomani fu per Emma una giornata funerea. Tutto le sembrò immerso in una cupa atmosfera, che fluttuava vagamente sulla superficie delle cose. E il dolore si inabissava nel suo animo con dolci ululati, come fa il vento d'inverno nei castelli abbandonati. Era il fantasticare su ciò che non tornerà più, la stanchezza che assale dopo ogni fatto compiuto. Quel dolore, insomma, causato dal venir meno di ogni movimento abituale, dal brusco arresto di una prolungata vibrazione. Come al ritorno dalla Vobeissar, con quelle quadriglie che le turbinavano nella testa, provava una cupa malinconia, una torpida disperazione. Leon riappariva, più grande, più bello, più soave, più indistinto. Benché separato da lei, non l'aveva abbandonata. Stava lì, e i muri dalla casa sembravano i custodissero l'ombra. Non riusciva a distogliere lo sguardo da quel tappeto su cui lui aveva camminato, da quelle sedie vuote su cui lui si era seduto. Il fiume continuava a scorrere, e lentamente sospingeva i suoi brevi flutti lungo la riva scivolosa. Vi avevano passeggiato insieme tante volte, allo stesso mormorio delle onde, sui ciottoli coperti di muschio. Quante belle giornate di sole avevano goduto, quanti bei pomeriggi, tutti soli, all'ombra, in fondo al giardino. Lui leggeva ad alta voce, a capo scoperto, seduto su uno sgabello di legni secchi. Il vento fresco del prato faceva tremolare le pagine del libro e i nasturzi del pergolato. Ah, se n'era andato. Lui, unico incanto della sua vita, unica speranza di felicità. Com'è che non l'aveva colta, quella gioia, nel momento in cui si presentava. Perché mai non l'aveva trattenuto con tutte e due le mani, in ginocchio, quando lui aveva deciso di andarsene? E si maledisse di non avere amato Leon. E ve siete delle sue labbra? La prese la voglia di correre a raggiungerlo, di gettarsi fra le sue braccia e dirgli, eccomi, sono tua. Ma alla sola idea delle difficoltà dell'impresa, Emma non sapeva più che fare, e rafforzati dal rimpianto, i suoi desideri si facevano più imperiosi. Da quel momento, il ricordo di Leon fu come il centro della sua noia. Vi crepitava più forte di un falò sulla neve, nella steppa russa, abbandonato dai viandanti. Emma vi si precipitava, vi si ranicchiava accanto, attizzava delicatamente quel focolaio sul punto di spegnersi. Andava cercando intorno a sé qualsiasi cosa potesse ravvivarlo. E le riminescenze più remote, come le occasioni più immediate, ciò che provava come ciò che immaginava, i desideri voluttuosi che si disperdevano come i progetti di felicità, che si schiantavano al vento, al pari di rami morti, la sterile virtù, l'esperanza infrante, lo strame domestico. Tutto raccattava, tutto prendeva, tutto utilizzava per riscaldare la propria tristezza. E tuttavia le fiamme si placarono. Vuoi che la provvista si esaurisse spontaneamente? Vuoi che l'accumulo fosse eccessivo? L'amore a poco a poco si spense, per assenza. Il rimpianto fu soffocato dall'abitudine, e quel bagliore d'incendio che imporporava il suo pallido cielo si coprì d'ombra, dileguando a poco a poco. Nel sopore della coscienza arrivò a scambiare la ripugnanza verso suo marito per slancio verso l'amato. Le scottature dell'odio per tepore della tenerezza. Ma continuando l'uragano a imperversare, poiché la passione si consumò fino alle ceneri e non le venne alcun soccorso, non apparve alcuna luce, fu notte completa da ogni parte, e si ritrovò smarrita nel freddo che la invadeva. Ricominciarono così i brutti giorni di Toast. Ora si considerava ancora più infelice, perché aveva l'esperienza del dolore e insieme la certezza che non sarebbe mai finito. Una donna che si era imposta a così grandi sacrifici poteva pur concedersi qualche capriccio. Si comprò un inginocchiatoio gotico e spese in un mese 14 franchi di limoni per pulirsi le unghie. Scrisse a Rouen per farsi mandare un vestito di cashmere azzurro. Scelse la più bella tra le sciarpe di l'heureux. La portava annodata intorno alla vita sopra la vestaglia, e in quello strano abbigliamento se ne stava distesa su un sofà, a imposte chiuse, con un libro in mano. Cambiava spesso pettinatura. Si acconciava alla cinese, a morbidi riccioli, con le trecce. Si fece la scriminatura laterale e arrotolò in dentro i capelli come un uomo. Decise di imparare l'italiano. Acquistò dei dizionari, una grammatica, una provvista di carta bianca. Tentò letture impegnative, storia, filosofia. La notte, a volte, Charles si svegliava di soprassalto, credendo che venissero a chiamarlo per un malato. Vengo, balbettava. E invece era il rumore di un fiammifero strofinato da Emma per riaccendere il lume. Ma ai libri toccava la stessa sorte riservata ai ricami. Appena incominciati, si accumulavano nell'armadio. Li prendeva, li abbandonava, passava ad altri. Aveva delle crisi che avrebbero potuto portarla facilmente a qualche stravaganza. Un giorno sostenne col marito che sarebbe stata in grado di bere mezzo bicchiere d'acquavite. E poiché Charles fu tanto sciocco da sfidarla, mandò giù l'acquavite fino all'ultima goccia. Nonostante la sua aria svaporata, era questo l'attributo che le davano le paesane di Yonville. Emma non sembrava certo allegra, e di solito aveva agli angoli della bocca quella contrazione fissa che segna la faccia delle vecchie zitelle e degli ambiziosi delusi. Era tutta pallida, bianca come un lenzuolo. La pelle del naso era tesa verso le narici, gli occhi fissi in uno sguardo vuoto. Per essersi scoperta tre capelli grigi sulle tempie, cominciò a parlare di vecchiaia. Spesso le prendevano dei mancamenti. Un giorno sputò persino sangue, e poiché Charles si prodigava e lasciava trasparire la sua preoccupazione, bah, rispose, che importa. Charles andò a rifugiarsi nel suo studio. Scoppiò a piangere, con i gomiti sul tavolo, seduto nella sua poltrona, sotto la testa frenologica. Allora scrisse alla madre, pregandola di venire. Ebbero lunghe confabulazioni a proposito di Emma. Che è partito prendere? Che fare dal momento che rifiutava ogni cura? Sai di che cosa avrebbe bisogno tua moglie? Ripeteva mamma Bovary. Di cose da fare, lavori manuali. Se fosse costretta, come tante altre, a guadagnarsi il pane, non avrebbe tutti questi vapori, che le provengono dalle idee che si ficca in testa e dalla mancanza di occupazioni. Eppure fa tante cose, diceva Charles. Ah sì? Fa? Ma che cosa? Legge romanzi? Libracci? Opere contrarie alla religione, in cui si sbeffeggiano i preti con ragionamenti ispirati a Voltaire. Tutto questo però porta lontano, povero ragazzo mio. E chi non ha religione finisce sempre male. Fu dunque deciso che avrebbero impedito ad Emma di leggere romanzi. L'impresa non sembrava per niente facile, ma ci avrebbe pensato la brava donna. Passando da Rouen, sarebbe andata di persona alla biblioteca circolante e avrebbe comunicato che Emma disdiceva l'abbonamento. Non avrebbero avuto il diritto di ricorrere alla polizia se il libraio avesse insistito nel suo mestiere di avvelenatore. I saluti tra suocera e nuora furono freddi. Durante le tre settimane che avevano passato insieme non avevano scambiato quattro parole, a parte qualche informazione e qualche formula di cortesia quando si incontravano a tavola o al momento di coricarsi. La signora Bovary madre partì un mercoledì, giorno di mercato a Yonville. Sin dal mattino la piazza era in gombra di una fila di carretti, che rivoltati e con le stanghe in aria erano schierati lungo le case, dalla chiesa fino alla locanda. Sull'altro lato erano installati dei tendoni di tela, sotto ai quali si vendevano pezze di cotone, coperte e calze di lana, cavezze per cavalli e rotoli di nastri azzurri, le cui estremità svolazzavano al vento. Per terra era sciorinata una rozza chincaglieria, tra piramidi di uova e cestini di formaggi traboccanti di paglia appiccicosa, e accanto alle macchine agricole, galline che chiocciavano nelle loro gabbie basse, infilando la testa tra le sbarre. La folla, tutta accalcata nello stesso punto, senza volerne sapere di muoversi, ogni tanto rischiava di mandare in frantumi la vetrina della farmacia. Di mercoledì il negozio era strapieno, non per acquisti di medicinali, bensì per consulti, tant'era la fama di Messerome nei villaggi circostanti. La sua imperturbabile sicumera aveva conquistato i contadini. Lo consideravano un medico più bravo di tutti i medici. Emma, se ne stava alla finestra, vi si metteva spesso. La finestra in provincia sostituisce il teatro e la passeggiata, e si divertiva ad osservare quella ressa di zotici, quando scorse un signore in reddingote di velluto verde. Portava guanti gialli, sebbene calzasse robusti gambali, e si dirigeva verso la casa del medico, seguito da un contadino che camminava a meditabondo, a testa bassa. «Posso vedere il signor Bovary?» chiese a Justine, che chiacchierava sull'uscio con felicité. E scambiandolo per il domestico della famiglia. «Ditegli che c'è il signor Rodolphe Boulanger, de la Houchette». Non era tanto per vanità territoriale che il nuovo venuto aveva aggiunto al proprio nome la particella «de», quanto per presentarsi meglio. La Houchette, infatti, era una tenuta nei pressi di Yonville, di cui lui aveva da poco acquistato il castello, con due fattorie che dirigeva personalmente, senza peraltro darsi troppo da fare. Viveva da scapolo, e si diceva che avesse almeno 15.000 franchi di rendita. Charles entrò nella stanza. Il signor Boulanger gli presentò il suo uomo, che voleva un salasso perché si sentiva formiche per tutto il corpo. «Servirà a depurarmi?» obiettava ad ogni osservazione. Bovary cominciò dunque col portare una benda e un catino, e pregò Justine di tenerglielo. Poi, rivolgendosi al contadino già livido. «Non abbiate paura, bravuomo!» «No, no!» rispose l'altro. «Fate pure!» E con aria spavalda tese un bel braccio robusto. All'affondare del bisturi il sangue schizzò fino ad imbrattare lo specchio. «Avicina il recipiente!» esclamò Charles. «Smiccia!» diceva il contadino. «Zampilla come una fontana! Che sangue rosso che ho! Buon segno, vero?» A volte, riprese l'ufficiale sanitario. Non si sente nulla all'inizio, poi sopravviene la sincope, specialmente in individui di così forte costituzione. A tali parole il contadino lasciò cadere un astuccio, che si rigirava tra le dita. Sobalzò, facendo scricchiolare lo schienale della sedia. Il cappello cade a terra. «Ne ero certo!» disse Bovary, premendo la vena con un dito. Il catino cominciava a tremare fra le mani di Justine. Gli si piegarono le ginocchia. Diventò pallido. «Moglie, moglie mia!» chiamò Charles. Lei scese precipitosamente le scale. «L'aceto!» gridava lui. «Dio mio, due insieme!» e nell'agitazione non riusciva ad applicare la garza. «Non è niente!» diceva tutto tranquillo il signor Boulanger, mentre prendeva Justine tra le braccia. Lo mise a sedere sul tavolo, con la schiena appoggiata alla parete. Madame Bovary cominciò a sciogliergli la cravatta. I lacci della camicia erano annodati. Per qualche minuto lei dovette armeggiare con le dita leggere intorno al collo del giovanotto. Poi versò un po' d'aceto sul fazzoletto di Battista, gli bagnò le tempie con lievi tocchi e vi soffiava sopra delicatamente. Il carrettiere si svegliò. La sincopi di Justine, invece, durava ancora, e le sue pupille sparivano nella pallida sclerotica come fiori azzurri nel latte. «Bisognerebbe non fargli vedere il sangue», disse Charles. Madame Bovary prese il catino. Nel movimento che fece per metterlo sotto il tavolo, chinandosi, il suo vestito, un vestito estivo a quattro balze, giallo, con la vita bassa e la gonna ampia, le si allargò tutt'intorno sul pavimento. E poiché Emma, Kina, vacillava un po' allargando le braccia, le curve della stoffa seguivano le inflessioni del busto. Poi andò a prendere una caraffa d'acqua e vi stava facendo sciogliere delle zollette di zucchero quando arrivò il farmacista. In tutto quel puttiferio la cameriera era corsa a chiamarlo, vedendo che l'apprendista aveva riaperto gli occhi o me riprese fiato. Poi si mise a girargli intorno, guardandolo dall'alto in basso. «Scemo», diceva. «Sei proprio uno scemotto. Letteralmente scemo. Sai che gran cosa, in fin dei conti, una flebotomia. E dire che sei un pezzo di ragazzo che non ha paura di nulla. Uno scoiattolo capace di arrampicarsi ad altezze vertiginose per bacchiare le noci». «Ah, sì, parla, vantati. È questa la tua vocazione per la farmacia. Non sai che puoi trovarti in circostanze serie, davanti ad un tribunale, per illuminare la coscienza dei magistrati. È lì sì che bisogna mantenere il sangue freddo e ragionare, mostrarsi uomini se non si vuol passare da imbecilli». Giustine non rispondeva. Lo speziale continuava. «Chi ti ha chiesto di venire qui? Stai sempre a infastidire il signor Bovary e la signora. E poi lo sai che il mercoledì la tua presenza mi è indispensabile. In questo momento ci sono venti persone in bottega. Ho lasciato tutto per correre da te. Allora, via, fila. Aspetta e bada ai barattoli». Quando Giustine, dopo essersi riassettato, se ne fu andato, si parlò per un po' di svenimenti. Madame Bovary non ne aveva mai avuti. «E' straordinario per una signora», disse il signor Boulanger. «Viceversa ci sono persone davvero delicate. Una volta in un duello ho visto un testimone perdere conoscenza al solo sentir caricare le pistole». «A me», disse lo speziale, «la vista del sangue altrui non fa né caldo né freddo. Invece la semplice idea di veder scorrere il mio basterebbe a farmi svenire, al solo pensiero». A questo punto il signor Boulanger congedò il suo domestico, raccomandandogli di starsene tranquillo ora che si era tolta la voglia del salasso. «Una voglia che mi ha procurato il piacere di far la vostra conoscenza», aggiunse. E parlando, guardava Emma. Poi lasciò tre franchi su un angolo del tavolo, salutò distrattamente e se ne andò. Arrivò presto sull'altra sponda del fiume. Era quella la strada per tornare alla Houchette. Ed Emma lo vide nei prati, che camminava sotto i pioppi e rallentava ogni tanto come per riflettere. «E' proprio carina», si diceva. «E' molto carina la moglie del medico. Bei denti, occhi neri, un piedino civettuolo, un'aria da parigina. Ma da dove diavolo salta fuori? Dove mai l'avrà trovata quel bestione?» Rodolphe Boulanger aveva 34 anni. Era di temperamento rude e di intelligenza fina, e avendole molto frequentate, di donne se ne intendeva. Quella gli era piaciuta, e quindi ci pensava. A lei e al marito. «Mi sembra decisamente scemo. E lei ne ha abbastanza. Alle unghie sporche e una barba di tre giorni». Mentre trotterella dai suoi malati, lei rimane a rammendargli i calzini. Si annoia, ne sono certo. Vorrebbe abitare in città, ballare la polca tutte le sere. Povera piccola, ha bisogno d'amore come una carpa d'acqua su un tavolo di cucina. Con due o tre paroline dolci, quella ti adorerebbe? Non c'è dubbio. Sarebbe una delizia, un incanto. Sì, ma dopo… come sbarazzarsene? Allora i fastidi amorosi, intravisti in prospettiva, gli fecero pensare, per contrasto, alla sua amante. Era un'attrice di Rouen, che lui manteneva, e dopo essersi soffermato su questa immagine, di cui si sentiva, al solo ricordo, un po' stufo, pensò. «Ah, Madame Bovary è molto più bella di lei, più fresca soprattutto. Virginie comincia proprio ad essere troppo in carne, ed è così fastidiosa con la sua allegria eccessiva. E poi, con quella mania dei gamberetti?» La campagna era deserta, e Rodolphe non sentiva intorno a sé che il fruscio cadenzato dell'erba contro gli stivali, e il canto dei grilli nascosti lontano sotto la avena. Rivedeva Emma nella sala, vestita come l'aveva vista poco prima, e la svestiva. «L'avrò!» esclamò, schiacciando con il bastone una zolla ai suoi piedi, e prese subito ad esaminare il lato strategico dell'impresa. Si domandava «Dove incontrarsi? E come? Ci sarà sempre il marmocchio tra i piedi, e la domestica, i vicini, il marito, e seccature di ogni genere. Ma...» si disse. «Sarà una gran perdita di tempo». Poi riattaccò. «Però ha degli occhi che ti penetrano il cuore, come succhielli. E quell'incarnato pallido. Io le adoro, le donne pallide?» In cima al colle d'Argueil, la sua decisione era presa. «Devo solo cercare le occasioni. Bene, passerò da loro ogni tanto. Manderò un po' di selvaggina, qualche pollo. Se necessario, mi farò fare un salasso. Diventeremo amici, li inviterò a casa». «Ah, perbacco!» aggiunse. «Tra poco ci saranno i comizi. Ci andrà. La vedrò lì. Vediamo di cominciare. E con audacia è sempre il modo più sicuro». Capitolo 8 Arrivarono finalmente i famosi comizi. Fin dal mattino dell'evento, tutti, in paese, erano sulla porta, a parlare dei preparativi. Erano state appese ghirlande di edera sul frontone del municipio. Nel prato era stata addrizzata una tenda per il festino. E in mezzo alla piazza, proprio davanti alla chiesa, una specie di bombarda doveva annunciare l'arrivo del prefetto e il nome degli agricoltori premiati. La Guardia Nazionale di Bouchy, a Yonville non ce n'era, era venuta ad aggiungersi al corpo dei pompieri, di cui Binet era il comandante. Quel giorno portava un colletto ancora più alto del solito, e, stretto nella divisa, aveva il busto talmente rigido e immobile che tutta la vitalità della sua persona pareva essergli scesa nelle gambe, scattanti a ritmo con un'unica mossa, a passi decisi. Siccome c'era rivalità fra l'esattore e il colonnello, ognuno dei due, per mostrare la propria bravura, faceva fare manovre separate ai propri uomini. Perciò si vedevano passare e ripassare, alternandosi, spalline rosse e pettorali neri. In continuazione, senza sosta. Non si era mai visto un così pomposo spiegamento. Molti paesani avevano ripulito la casa fin dal giorno prima. Dalle finestre socchiuse, pendevano bandiere tricolori. Le osterie erano tutte gremite. E con quel bel tempo, le cuffie inamidate, le croci d'oro e gli scialli variopinti sembravano più candidi della neve. Sfavillavano al chiarore del sole, ravvivavano con le loro screziature la cupa monotonia delle redingote nere e dei camiciotti azzurri. Nello scendere da cavallo, le fattoresse dei dintorni si sfilavano la grossa spilla che tratteneva alla vita il vestito rimboccato, per timore di macchiarsi. I mariti, invece, per non sciupare il cappello vi avevano messo sopra il fazzoletto, di cui tenevano una cocca fra i denti. La folla affluiva sulla via principale dalle due estremità del paese. Si riversava dai viottoli, dai viali, dalle case, ed ogni tanto si sentiva ricadere il martello delle porte alle spalle di paesane che uscivano in guanti di filo, per andare a vedere la festa. Ciò che soprattutto destava ammirazione erano due grandi alberi, coperti di lampioncini, posti a fianco della tribuna su cui dovevano insediarsi le autorità. Contro le quattro colonne del municipio c'erano inoltre quattro specie di pertiche, ognuna delle quali portava un piccolo stendardo di tela verdognola, con iscrizioni a lettere d'oro. Su uno si leggeva «al commercio», su un altro «all'agricoltura», sul terzo «all'industria» e sul quarto «alle arti». Ma il giubilio che illuminava tutte quelle facce sembrava incupire la signora Lefrançois, la locandiera. In piedi sugli scalini della cucina, borbottava fra sé e sé. Che idiozia! Che idiozia quella baracca di tela! Credono forse che il prefetto sarà contento di mangiare sotto una tenda, come un saltimbanco? E quella roba là in mezzo? Lo chiamano fare gli interessi del paese. Era proprio il caso di far venire apposta un cantiniere da Neufchatel. E per chi, poi? Per dei vaccari, per dei pezzenti. Passò lo speziale. Era in marsina, pantaloni di nanchino, scarpe di castoro, e, in via del tutto eccezionale, portava il cappello, un cappello a mezza tuba. «Servo vostro», disse. «Scusate, ma ho fretta». E alla grassa vedova che gli chiese dove stava andando. «Vi pare strano, vero? Io, che me ne sto rintanato nel mio laboratorio come il topo nel formaggio». «Quale formaggio?», fece la locandiera. «Nulla, nulla», ripreseo me. «Volevo soltanto dire, signora Lefrançoise, che di solito me ne sto tappato in casa. Però oggi, data la circostanza, bisognerà pure che…» «Ah, ci andate», fece lei, con tono sprezzante. «Sì, certo che ci vado». Rispose il farmacista stupito. «Non faccio forse parte della commissione consultiva». La Lefrançoise l'osservò per qualche istante e alla fine gli rispose, con un sorriso. «Allora è un'altra faccenda. Ma che centrate voi con l'agricoltura? Ve ne intendete?» «Certo che me ne intendo, dato che sono farmacista, vale a dire chimico. E la chimica, cara la mia signora, ha per oggetto la conoscenza dell'azione reciproca e molecolare di tutti i corpi che sono in natura, dal che si ricava che l'agricoltura rientra nel suo ambito. E infatti, composizione dei concimi, fermentazione dei liquidi, analisi dei gas e influsso dei miasmi. «Che cos'è tutto questo? Ve lo domando. Se non pura e semplice chimica!» La locandiera non rispose, e Ome continuò. «Credete forse che per essere agronomi sia necessario aver lavorato personalmente la terra o ingrassato il pollame? Qualche occorre è conoscere la costituzione delle sostanze di cui si tratta, i giacimenti geologici, l'azione dell'atmosfera, la qualità dei terreni, dei minerali, delle acque, la densità dei diversi corpi e la loro capillarità. E che so, occorre possedere a fondo tutti i principi dell'igiene per dirigere e valutare la costruzione dei fabbricati, il regime degli animali, l'alimentazione dei dipendenti. Occorre inoltre, cara signora Lefrançois, essere esperti di botanica, saper distinguere una pianta dall'altra. Capite? Quelle salutari da quelle dannose, quelle improduttive da quelle nutritive. Se sia opportuno sradicarle da una parte e riseminarle da un'altra, moltiplicarne alcune e distruggerne altre. Occorre insomma tenersi al corrente della scienza, con libri e riviste, star sempre allerta per segnalare i miglioramenti. La locandiera non lasciava con gli occhi la porta del café français, e il farmacista proseguì. Volesse Dio che i nostri agricoltori fossero dei chimici, o che almeno ascoltassero un po' di più i suggerimenti della scienza. Io, per esempio, ho scritto recentemente un importante opuscolo, una memoria di oltre 72 pagine, intitolata «Del sidro, della sua fabbricazione e dei suoi effetti», seguito da qualche riflessione nuova a questo soggetto. E l'ho mandato alla Società Agronomica di Rouen, il che mi ha procurato l'onore di venire accolto tra i suoi membri, sezione agricoltura, classe pomologia. Beh, se avessero dato il lavoro alle stampe... Ma lo speziale si fermò, tanto la signora Lefrançois sembrava preoccupata. «Ma guardateli», diceva. «Roba da matti, una bettola simile». E scrollando le spalle, fino a tirare sul petto le maglie del golf, mostrava con entrambe le mani l'osteria del rivale, in quel momento echeggiante di canzoni. «Del resto non ne ha per molto», aggiunse. «In meno di otto giorni sarà tutto finito». Omesso balzò stupito. Lei scese i tre gradini e gli bisbigliò all'orecchio. «Come? Non lo sapete. In settimana ci sarà il sequestro. È l'eroe che lo obbliga a vendere. Lo ha assassinato con le cambiali». «Che spaventosa catastrofe!», esclamò il farmacista, che aveva sempre espressioni adeguate ad ogni circostanza possibile e immaginabile. Lo stessa si mise allora a raccontargli tutta la storia, di cui era venuta a conoscenza attraverso Theodore, il domestico del signor Gouilloman. Nonostante non sopportasse Tellier, ce l'aveva soprattutto con l'orecchio. Era un imbroglione, una serpe. «Eccolo», disse. «Ella, sotto i portici del mercato, sta salutando Madame Bovary, che ha un cappello verde. E lei è a braccetto del signor Boulanger. Madame Bovary, fece o me. Corro a porgerle i miei omaggi. Forse le farà piacere avere un posto nel recinto, sotto il peristilio». E senza prestar più ascolto alla Lefrançois, che lo richiamava per continuare il racconto, il farmacista si allontanò a passi rapidi, sorriso sulle labbra e garretti tesi, distribuendo un'infinità di saluti a destra e a manca, e riempendo lo spazio con le ampie falde della marsina, fluttuanti al vento dietro di lui. Rodolphe, che l'aveva intravisto da lontano, aveva affrettato il passo, ma Madame Bovary si ritrovò senza fiato. Allora lui rallentò e, sorridendo, le disse con tono brusco. «Era per evitare quell'impiccione, lo speziale, sapete». Lei gli dette di gomito. «Che mai vorrà dire?», si chiese lui. E l'osservò con la coda dell'occhio, sempre continuando a camminare. Il profilo di lei era così disteso che non lasciava trasparire niente. Si stagliava in piena luce nell'ovale del cappello, guarnito di nastri pallidi, simili a foglie di giunco. Gli occhi, dalle lunghe ciglia ricurve, guardavano avanti, e per quanto spalancati, sembravano un po' stirati dagli zigomi, per via del sangue che pulsava dolcemente sotto la pelle sottile. Una sfumatura rosa le attraversava il setto nasale. Teneva la testa leggermente reclinata sulla spalla. Tra le labbra era visibile l'orlo madre perlace o dei denti bianchi. «Mi sta prendendo in giro?», pensava Rodolphe. Quel gesto di Emma, invece, voleva essere solo un avvertimento, perché vicino a loro c'era il signor Lorreux, il quale ogni tanto diceva qualche parola per attaccare discorso. «Che magnifica giornata! Sono tutti fuori! Vento di levante!». Madame Bovary, come anche Rodolphe, non gli rispondeva. Ma ad ogni loro minima mossa, quello si avvicinava dicendo «Prego!» e si portava la mano al cappello. Quando furono davanti alla casa del maniscalco, anziché proseguire la strada fino al dazio, Rodolphe bruscamente prese un biottolo, trascinando Madame Bovary ed esclamando «Arrivederci, signor Lorreux, a presto!» «Come l'avete congedato!», disse lei ridendo. «Perché permettere che gli altri siano così invadenti, dato che oggi ho la fortuna di essere in vostra compagnia!» Emma arrossì. Lui non finì la frase. Parlò del bel tempo e del piacere di camminare sull'erba. Cominciavano a spuntare le margherite. «Che belle pratoline!», disse lui. «E tante da poter fornire un oracolo a tutte le innamorate del paese!» Poi aggiunse. «Se ne cogliessi una anch'io, che ne pensate? Siete innamorato?», fece lei con un colpetto di tosse. «Eh, chissà», rispose Rodolphe. Il prato cominciava a riempirsi e le massaie ti urtavano con i loro grandi ombrelli, i loro cesti, i loro marmocchi. Spesso c'era da far passare una lunga fila di contadine, servette in calze blu, scarpe basse, anelli d'argento, che odoravano di latte quando gli si passava accanto. Camminavano tenendosi per mano e occupavano così tutta la lunghezza del prato, dal filare di pioppi sino alla tenda del banchetto. Ma era arrivato il momento dell'esame e i coltivatori entravano uno dopo l'altro in una specie di ipodromo, formato da una lunga corda sorretta da bastoni. Dentro c'erano le bestie, con il muso girato verso la fune e le groppe diseguali allineate alla rinfusa. I maiali, assopiti, affondavano il grugno per terra. Qualche vitello mugiva, qualche pecora belava, le mucche, col garretto piegato, stavano ventre all'aria sull'erba e, ruminando lentamente, sbattevano le pesanti palpebre sotto i nugoli di moscerini che ronzavano intorno. Carrettieri a braccia nude trattenevano per la cavezza stalloni, che, impennati, nitrivano a piene froge verso le giumente. Quelle se ne stavano tranquille, la testa distesa e la criniera spiovente, mentre i puledri riposavano alla loro ombra, o talvolta si accostavano a poppare. E sulla lunga ondulazione di tutti quei corpi ammassati si vedeva alzarsi nel vento, come un flutto, qualche bianca criniera, o spuntare corna a guzze e teste di uomini in corsa. In disparte, fuori dal recinto, un centinaio di passi più in là, c'era un gran toro nero, con la museruola e un anello di ferro infilato nelle froge, immobile, come fosse di bronzo. Lo teneva per la corda un bambino cencioso. Intanto, tra le due file, avanzavano solennemente alcuni signori, che esaminavano ogni bestia, e poi si consultavano sotto voce. Uno di loro, che sembrava il più autorevole, camminando prendeva appunti su un tacuino. Era il presidente della giuria, il signor de Roseret, della Panville. Non appena vide Rodolphe, si diresse immediatamente verso di lui, e gli disse con un sorriso affabile. «Come, signor Boulanger, ci abbandonate!» Rodolphe assicurò che li avrebbe raggiunti subito. Ma quando il presidente si fu allontanato... «Eh no!» aggiunse. «Non ci vado proprio. La vostra compagnia è ben preferibile alla sua». E pur beffandosi dei comizi, Rodolphe, per circolare più comodamente, mostrava alla guardia il suo tessierino azzurro, ed ogni tanto si fermava persino davanti a qualche bel capo, che Madame Bovary, da parte sua, degnava a malapena di uno sguardo. Lui se ne rese conto, e allora cominciò a scherzare sull'abbigliamento delle signore di Yonville. Poi si scusò per la trasandatezza del suo, il quale aveva quell'incoerenza di cose banali e ricercate, in cui la gente, di solito, crede di intravedere la rivelazione di un'esistenza eccentrica, le sfrenatezze del sentimento, le tirannie dell'arte, e sempre un certo disprezzo delle convenzioni sociali, il che o seduce o irrita. Così la camicia di Battista dai polsini pieghettati si gonfiava al vento nell'apertura del gilet, che era di rozza tela grigia, e i pantaloni a righe larghe lasciavano vedere alle caviglie stivaletti di nanchino, rinforzati di pelle lucida. Erano talmente lustri che l'erba vi si specchiava. Con quegli stivaletti pestava lo sterco di cavallo, una mano nella tasca della giacca e il cappello di paglia sulle ventitré. D'altra parte, aggiunse, quando si vive in campagna, tutta fatica sprecata, disse Emma. Proprio così, assenti Rodolf, pensare che non una di queste brave persone è in grado di riconoscere un vestito di buon taglio. Si misero a parlare della mediocrità provinciale, di come soffocava le esistenze, delle illusioni che vi si perdevano. E così, diceva Rodolf, sprofondo in una tristezza, voi, fece lei stupita. Ed io che vi credevo tanto allegro. Ah, sì, in apparenza, perché quando mi trovo tra la gente so mettermi sul viso una maschera beffarda. Però quante volte, alla vista di un cimitero, al chiaro di luna, mi sono chiesto se non farei meglio a raggiungere quelli che ci dormono. Oh, e i vostri amici? Disse lei. Non ci pensate. I miei amici? Quali? O forse amici io? Chi si preoccupa per me? E accompagnò queste ultime parole con una sorta di sibilo tra le labbra. Ma furono costretti a scostarsi l'uno dall'altra per via di una grande catasta di sedie che un tizio portava dietro di loro. Era talmente sovraccarico che di lui si intravedevano appena la punta degli zoccoli e l'estremità delle braccia protese. Si trattava di Lestiboudois, il becchino, che trasportava tra la folla le sedie della chiesa. Ricco d'inventiva, per tutto quanto riguardasse i suoi interessi, aveva scoperto questo modo per ricavare qualche vantaggio dai comizi. E la sua trovata funzionava, al punto che non sapeva più a chi dar retta. Infatti, i paesani, accaldati, si disputavano quei sedili la cui paglia odorava ancora d'incenso, e si appoggiavano con una certa venerazione ai grossi schienali imbrattati di cera di candela. Madame Bovary ripresa il braccio di Rodolphe. Lui continuò, come parlando fra sé. «Sì, mi sono mancate tante cose. Sempre solo. Ah, se avessi avuto uno scopo nella vita. Se avessi incontrato un affetto. Se avessi trovato qualcuno. Oh, avrei speso tutta l'energia di cui sono capace. Avrei superato, spezzato, ogni irresistenza». «Eppure», disse Emma, «non mi sembrate proprio da compatire». «Ah, trovate», fece Rodolphe. «In fin dei conti», continuò lei, «siete libero?». Esitò. «Ricco». «Non prendetevi gioco di me», lui replicò. Lei gli stava giurando che non ne aveva la minima intenzione, quando echeggiò un colpo di cannone. Fu subito un parapiglia in direzione del paese. Era un falso allarme. Il prefetto non si faceva ancora vedere. I membri della giuria erano seriamente imbarazzati, non sapendo se aprire la seduta o continuare ad aspettare. Finalmente, in fondo alla piazza, apparve un gran landò da noleggio, trascinato da due smilzi cavalli che un cocchiere in cappello bianco frustava tutto spiano. Biene ebbe appena il tempo di gridare all'armi e il colonnello di imitarlo. Corsero tutti verso i fasci di fucili, a precipizio. Qualcuno dimenticò persino il colletto, ma l'equipaggio prefettizio parve indovinare queste difficoltà e la coppia di roze, dondolandosi sul tirante, arrivò a piccolo trotto davanti al peristilio del municipio, proprio nel momento in cui guardia nazionale e pompieri si schieravano, al rullo del tamburo e segnando il passo. «Segnare il passo!» urlò Biene. «Alt!» urlò il colonnello. «Per fila sinistra!» E dopo un presentarm in cui il ticchettio degli anelli delle bandoliere, propagandosi, risuonò come un paiolo di rame che ruzzolasse per le scale, tutti i fucili ricaddero a terra. Allora si vide scendere dalla carrozza un signore in marsina corta a ricami d'argento, stempiato, con un ciuffo sull'occipite, di colorito spento ed all'aria più che benevola. Gli occhi, molto grandi e protetti da palpebre spesse, erano socchiusi per osservare la folla, mentre alzava il naso affilato e contraeva in un sorriso la bocca sfuggente. Riconove il sindaco dalla sciarpa e lo informò che il prefetto non era potuto venire. Lui era un semplice consigliere di prefettura e aggiunse qualche parola di scusa. Tuvash rispose altrettanto cortesemente. L'altro si dichiarò confuso e restavano così faccia a faccia, le fronti quasi a sfiorarsi, con intorno tutti i membri della giuria, il consiglio municipale, i notabili, la guardia nazionale e la folla. Il consigliere, fremendo sul petto il piccolo tricorno nero, reiterava i saluti, mentre Tuvash, piegato come un arco, sorrideva a sua volta, balbettava, cercava le parole, insisteva sulla sua devozione alla monarchia e sull'onore fatto a Yonville. Hippolyte, il ragazzo dell'albergo, venne a prendere le briglie dalle mani del cocchiere e zoppicando sul piede torto li condusse sotto il portico del Lyon Doho, dove si ammassava una gran quantità di contadini per contemplare la carrozza. Rullò il tamburo, tuonò la bombarda e i signori, tutti in fila, salirono a prendere posto sulla tribuna, in poltrone di velluto rosso prestate dalla signora Tuvash. Si assomigliavano tutti. Le facce chiare e flaccide, un po' arse dal sole, avevano il colore del sidro dolce. I vaporosi favoriti sbucavano da ampi colletti rigidi, sostenuti da cravate bianche a farfalla, ben tese. Tutti i panciotti erano di velluto e sciallati. Tutti gli orologi portavano, all'estremità di un lungo nastro, un qualche sigillo ovale di corniola, e tenevano tutte le mani appoggiate sulle cosce, allargando con cura l'inforcatura dei pantaloni, il cui panno non trattato lucicava più del cuoio degli stivaloni. Le signore della buona società stavano dietro, sotto l'atrio, fra le colonne, mentre la gente qualunque si accalcava davanti, in piedi o seduta sulle sedie. L'estibudoa, infatti, aveva già sistemato lì tutte quelle che aveva portato via dal prato, e andava in su e in giù senza sosta a cercarne altre in chiesa, provocando, con quel suo traffico, un tale ingombro che a stento si riusciva a raggiungere la scaletta della tribuna. «Trovo», disse l'heureux, rivolgendosi al farmacista che stava andando a prendere posto, «che si sarebbero dovuti piantar là due dei pennoni alla veneziana, con qualcosa di un po' più severo e ricco che avesse un'aria di novità, sarebbe stato di grande effetto». «Certo», rispose Omé, «ma che volete, si è incaricato di tutto il sindaco, e non ha molto gusto quel povero Tuvash. Anzi, è assolutamente sprovvisto di quel che si chiama temperamento artistico». Intanto, Rodolphe era salito con Madame Bovary al primo piano del municipio, nella sala delle delibere, e poiché era vuota, aveva dichiarato che quello era il posto ideale per godersi comodamente allo spettacolo. Prese tre sgabelli dalla tavola ovale, sotto il busto del monarca, e li avvicinò ad una delle finestre. Si sedettero uno accanto all'altra. Una grande agitazione percorse la tribuna. Bisbigli, discussioni. Alla fine, il consigliere si alzò. Ormai si sapeva che il suo nome era Liouven, e quel nome veniva ripetuto di bocca in bocca tra la folla. Dopo aver riordinato alcuni foglietti, e averli avvicinati agli occhi per vederci meglio, attaccò. Signori, innanzitutto mi sia permesso, prima ancora di intrattenervi sull'oggetto della nostra odierna riunione, e questo sentimento, ne sono certo, sarà condiviso da tutti voi. Mi sia permesso, dicevo, rendere giustizia all'amministrazione centrale, al governo, al monarca, signori, al nostro sovrano, questo re amatissimo, al quale nessun ramo della pubblica o privata prosperità è indifferente, il quale regge compolso al tempo stesso saldo e saggio il carro dello Stato, tra gli incessanti pericoli d'un mare tempestoso, riuscendo nel contempo a far rispettare la pace come la guerra, l'industria, il commercio, l'agricoltura e le belle arti. Dovrei tirarmi un po' indietro, disse Rodolf. E perché mai? disse Emma. Ma in quel momento la voce del consigliere si alzò straordinariamente di tono. Declamava. Sono lontani i tempi in cui la discordia intestina insanguinava le nostre pubbliche piazze. Quando il proprietario, il commerciante, l'operaio stesso, la sera, addormentandosi di un placido sonno, tremavano all'idea di dover essere improvvisamente svegliati dai rintocchi delle campane a martello, quando le massime più sovversive minacciavano audacemente le basi. Perché qualcuno da sotto, continuò Rodolf, potrebbe vedermi e dopo dovrei passare quindici giorni a giustificarmi e con la mia cattiva reputazione... Oh, vi state calunniando, disse Emma. No, no, è davvero pessima, ve lo garantisco. Ma, signori, proseguiva il consigliere, se allontanando dal mio ricordo quelle fosche visioni riporto l'occhio sulla situazione attuale della nostra bella patria, che cosa vedo? Ovunque fioriscono il commercio e le arti. Ovunque, nuove vie di comunicazione, come altrettante nuove arterie del corpo dello Stato, creano nuovi rapporti. I nostri grandi centri manufatturieri hanno ripreso l'attività. Rinsaldata, la religione arride ad ogni cuore. I nostri porti sono pieni, rinasce la fiducia e finalmente la Francia respira. Del resto, aggiunse Rodolf, può darsi che dal loro punto di vista abbiano ragione. Ma che dite? Fece lei. Via, disse lui. Non sapete che ci sono anime continuamente tormentate. Hanno, di volta in volta, bisogno del sonno e dell'azione, delle passioni più pure e dei godimenti più furiosi. E così si lanciano in ogni sorta di fantasie, di pazzie. Allora lei lo guardò come si contempla un viaggiatore che abbia attraversato paesi favolosi. E aggiunse. Noi, povere donne, non abbiamo neppure queste distrazioni. Ben tristi distrazioni, poiché non vi si trova la felicità. Ma la si può mai trovare? Domandò lei. Sì, un giorno sì. Rispose lui. E voi tutti lo avete capito, questo? Diceva il consigliere. Voi agricoltori, lavoratori dei campi. Voi pacifici pionieri di una grande opera di civilizzazione. Voi, uomini del progresso e della moralità. Voi avete capito, vi dico, che le tempeste politiche sono ancora più temibili delle perturbazioni atmosferiche. La si può trovare un giorno, ripetè Rodolf. Un giorno, all'improvviso, quando ormai si disperava. Allora gli orizzonti si dischiudono. È come se una voce gridasse, eccola. E senti il bisogno di confidare a questa persona l'intera tua vita, di darle tutto, sacrificarle tutto. Non occorrono spiegazioni, ci si indovina. Ci si è intravisti nei sogni. E la guardava. Eccolo finalmente il tesoro tanto cercato. È lì, davanti a te. Risplende, scintilla. Eppure si dubita ancora. Non si osa crederci. Si rimane abbagliati, come quando dalle tenebre si esce alla luce. Al termine di questa frase, Rodolf aggiunse alle parole la mimica. Si passò la mano sul volto, come in preda a stordimento. Poi la lasciò cadere su quella di Emma. Lei ritrasse la propria. Ma il consigliere leggeva ancora. E perché stupirsi? Potrebbe farlo solo chi fosse tanto cieco, tanto immerso, non temo di dirlo, no. Tanto è immerso nei pregiudizi di un'altra epoca da misconoscere ancora lo spirito delle popolazioni agricole. Dove trovare, infatti, più patriottismo che nelle campagne, più dedizione alla causa pubblica, più intelligenza in una parola. E non mi riferisco a quell'intelligenza superficiale, vano orpello delle menti oziose, bensì a quell'intelligenza profonda ed equilibrata che si consacra, sopra ad ogni altra cosa, a perseguire fini utili, contribuendo così al bene di ciascuno, al comune progresso e al sostegno degli stati, frutto del rispetto delle leggi e dell'esercizio dei doveri. Uffa, disse Rodolf. Sempre i doveri, non ne posso più di questa parola. Un mucchio di vecchi imbecilli in panciotto di flanella e di bigotte con lo scaldino e il rosario che continuano a riempirti le orecchie. Il dovere, il dovere. Eh, per dimci, il dovere è sentire ciò che è grande, amare ciò che è bello e non accettare tutte le convenzioni sociali, con le ignominie che ci impongono. Eppure, eppure, obiettava Madame Bovary. Eh no, perché concionare tanto contro le passioni? Non sono forse l'unica cosa bella che esista sulla Terra. La fonte dell'eroismo, dell'entusiasmo, della poesia, della musica, delle arti, di tutto, insomma. Ma occorre pure, disse Emma, seguire un po' l'opinione pubblica e rispettarne la morale. Ah, ma ce ne sono due di morali, replicò lui. Quella piccola, convenzionale, quella degli uomini, quella che muta senza sosta e che sbraita, si agita in basso, terra terra, come questo mucchio di imbecilli che avete sotto gli occhi. Ma l'altra, quella eterna, sta tutto intorno e in alto, come il paesaggio che ci circonda e il cielo azzurro che ci illumina. Liuven si era appena asciugato la bocca col fazzoletto. Riprese. E a che mai servirebbe illustrarvi qui l'utilità dell'agricoltura? Chi provvede ai nostri bisogni? Chi ci fornisce la sussistenza? Non è forse l'agricoltore? L'agricoltore, signori, che seminando con mano laboriosa i fecondi solchi delle campagne, fa nascere il grano, il quale, tritato e ridotto in polvere per mezzo di ingegnosi apparecchi, diventa farina e trasportato nelle città viene velocemente recapitato al fornaio, il quale confeziona un alimento per il povero come per il ricco. Non è forse anche l'agricoltore che, per fornirci gli abiti, ingrassa le numerose greggi sui pascoli? Come ci vestiremmo? Come ci nutriremmo senza l'agricoltore? E poi perché andare a cercare esempi lontano? Chi non ha riflettuto spesso sulla grande importanza che riveste quell'umile animale, ornamento dei nostri cortili, che ci fornisce al contempo un soffice cuscino per il letto, una carne succulenta per la tavola e le uova? Ma non finirei mai, se dovessi enumerare, uno dopo l'altro, i vari prodotti che la terra ben coltivata, come una madre generosa, prodiga ai suoi figli. Qua la vigna, là i meli da sidro, altrove la colza, più oltre i formaggi, e il lino, signori, non dimentichiamo il lino, che in questi anni ha preso uno sviluppo considerevole e su cui richiamerò più particolarmente la vostra attenzione. Non aveva affatto bisogno di richiamarla, tutte le bocche erano spalancate a bere le sue parole. Etuvage, al suo fianco, lo stava ad ascoltare ad occhi sgranati, e più in là il farmacista, con il figlio Napoleon tra le gambe, teneva la mano a conchiglia dietro l'orecchio, per non perdere una sola sillaba. Gli altri membri del comitato dondolavano lentamente il mento sul panciotto, in segno di approvazione. I pompieri, ai piedi della tribuna, si riposavano appoggiati alle baionette. Ebine se ne stava immobile, il gomito alzato, la punta della sciabola all'aria. Forse sentiva qualcosa, ma certo non vedeva nulla, a causa della visiera dell'elmo che gli calava sul naso. Con l'elmo, il suo attendente, il figlio minore di Messertuvage, aveva esagerato ancora di più. Ne portava uno enorme, vacillante sulla testa, da cui usciva un lembo dal fazzoletto di Indiana. Sorrideva là sotto, con infantile dolcezza, e il suo visino pallido, grondante di sudore, aveva un'espressione di estasi, di prostrazione e di sonno. La piazza era gremita di gente fino alle case. Si vedevano persone affacciate a tutte le finestre, altre in piedi su tutte le soglie, e Justine, davanti alla vetrina della farmacia, appariva totalmente assorto nella contemplazione dello spettacolo. Nonostante il silenzio, la voce di Liouven si perdeva nell'aria. Giungeva a brandelli di frasi, interrotti ogni tanto dal rumore delle sedie tra la folla. Poi, ad un tratto, si sentiva venire da dietro un lungo mughiare di bue o i belati degli agnelli, che si rispondevano da un angolo all'altro delle strade. Infatti, vaccari e pastori avevano spinto le bestie fin là, e quelle ogni tanto mugivano, mentre con la lingua strappavano pezzetti di frasche che gli penzolavano sul muso. Rodolf si era avvicinato ad Emma e le diceva sotto voce, parlando rapidamente. Ma non vi disgusta questa congiura sociale? C'è un solo sentimento che non venga condannato. Gli istinti più nobili, le simpatie più pure, sono oggetto di persecuzione, di calunnia. E se finalmente si trovano due povere anime, tutto è organizzato perché non possano congiungersi. Ma loro ci proveranno, sbatteranno le ali, si chiameranno. E presto o tardi, dopo sei mesi o dieci anni, finiranno col riunirsi, si ameranno, perché è il destino che lo esige, perché sono nate l'una per l'altra. Stava con le braccia incrociate sulle ginocchia, e alzando il volto verso Emma la guardava da vicino, intensamente. In quegli occhi lei vedeva minuscoli raggi dorati irradiarsi intorno alle pupille nere, e sentiva persino il profumo della pomata che gli faceva brillare i capelli. Allora la prese un gran languore, ricordò il visconte che l'aveva fatta ballare alla Vobeissar, e la cui barba esalava, come quei capelli, un odore di vaniglia e limone. Senza rendersene conto socchiuse le palpebre per respirarlo meglio. Ma nel gesto di raddrizzarsi sulla sedia, scorse lontano, all'estremità dell'orizzonte, la vecchia diligenza, l'irondelle, che scendeva lento il colle dei Le, trascinandosi dietro un lungo pennacchio di polvere. Quante volte Leon era tornato da lei in quella carrozza gialla, e per quella strada se n'era andato per sempre. Ebbe come l'impressione di averlo di fronte, affacciato alla finestra. Poi tutto si confuse, passarono delle nuvole, le sembrò di volteggiare ancora nel walzer, sotto la luce dei lampadari, tra le braccia del visconte, e che Leon non fosse lontano, che stesse per arrivare. E intanto sentiva sempre, accanto alla sua, la testa di Rodolphe. Così la dolcezza di quella sensazione penetrava i desideri di un tempo, e questi, come granelli di sabbia sollevati dal vento, turbinavano nella sottile scia di profumo che le pervadeva l'anima. Dilatò più volte le narici, con forza, per aspirare il fresco delle edere attorno ai capitelli. Si tolse i guanti, si asciugò le mani, poi prese a sventolarsi con il fazzolettino, mentre attraverso il battito delle tempie sentiva il brusio della folla e la voce del consigliere che salmodiava le sue frasi. Continuate, perseverate, non prestate ascolto ai suggerimenti dell'abitudine, né ai consigli troppo frettolosi di un temerario empirismo. Applicatevi soprattutto alla bonifica del suolo, alle buone concimazioni, all'incremento delle razze equine, bovine, ovine e suine. Che questi comizi siano per voi pacifiche e arene, uscendo dalle quali il vincitore tenderà la mano al vinto e fraternizzerà con lui nella speranza di un miglior successo. E voi, venerabili servi, umili domestici, di cui nessun governo finora aveva preso in considerazione le pesanti fatiche, venite a ricevere il premio delle vostre silenziose virtù e siate convinti che ormai lo Stato fissa lo sguardo su di voi, vi incoraggia, vi protegge, accoglierà i vostri legittimi reclami e allevierà, per quanto gli sarà possibile, il fardello dei vostri penosi sacrifici. Liuven si rimise finalmente a sedere, si alzò de Roseret e cominciò un altro discorso. Il suo, forse, non fu tanto fiorito come quello del consigliere, ma si segnalava per lo stile più positivo, ovvero per conoscenze più specifiche e per qualche considerazione di più ampio respiro. Così l'elogio del governo vi trovava minor spazio, mentre ne occupavano di più la religione e l'agricoltura. Si vedevano i rapporti tra l'una e l'altra e come entrambe avessero sempre concorso alla civiltà. Rodolphe, con Madame Bovary, parlava di sogni, presentimenti, magnetismo. Risalendo agli albori delle società, l'oratore dipingeva quei tempi selvaggi in cui gli uomini vivevano di ghiande nel folto dei boschi. Poi avevano deposto le pelli degli animali e indossato tessuti, scavato solchi, piantato vigne. Era un bene, oppure in tale scoperta c'erano più inconvenienti che vantaggi. Questo è il problema che de Roseret si poneva. Dal magnetismo, a poco a poco, Rodolphe era arrivato alle affinità. E mentre il presidente citava cincinnato al suo aratro, Diocleziano che piantava i cavoli, e gli imperatori della Cina che salutavano l'anno nuovo con seminagioni, il giovanotto spiegava alla giovane signora che certe attrazioni irresistibili affondavano le radici in una qualche esistenza anteriore. «E noi?» diceva. «Perché ci siamo conosciuti? Quale caso l'ha voluto? Indubbiamente, attraverso la lontananza, le nostre singole inclinazioni ci spingevano l'uno verso l'altra, come due fiumi che scorrono per congiungersi. E le prese la mano. Lei non la ritrasse. «Qualità delle coltivazioni!» gridò il presidente. «Poco fa, per esempio, quando sono venuto a casa vostra?» «Al signor Bizet, di Quincampois!» «Sapevo forse che vi avrei accompagnata?» «Settanta franchi! Cento volte, anzi, ho pensato di andarmene, e vi ho seguita, sono rimasto!» «L'età mai!» «Come rimarrei stasera, domani, e gli altri giorni, per tutta la vita!» «Al signor Caron d'Argueil, una medaglia d'oro!» «Perché mai la compagnia di qualcuno mi ha talmente incantato!» «Al signor Pen, di Givri Saint-Martin!» «E così porterò in me il vostro ricordo!» «Per un montone merino!» «Ma voi mi dimenticherete! Sarò passato come un'ombra!» «Al signor Belot, di Notre-Dame!» «Oh, no, vero! Sarò qualcosa nel vostro pensiero, nella vostra vita!» «Razza Suina, premio ex equo! Ai signori Le Risse e Kulmburg, sessanta franchi!» Rodolphe le stringeva la mano e la sentiva tutta calda e fremente, come una tortorella prigioniera che vuol riprendere il volo. Ma sia che tentasse di liberarla, sia che davvero rispondesse a quella pressione, Emma mosse le dita. Lui esclamò «Oh, grazie! Non mi respingete! Siete buona! Lo capite che sono vostro? Lasciate che vi guardi, che vi contempli!» Una ventata proveniente dalle finestre increspò il tappeto del tavolo e giù nella piazza tutte le grandi cuffie delle contadine si sollevarono come ali svolazzanti di bianche farfalle. «Utilizzo di formelle di semi oleose?» continuò il presidente. Andava sempre più in fretta. «Concimi fiamminghi, coltivazione del lino, drenaggio, locazioni a lungo termine, prestazioni di domestici!» Rodolphe non parlava più. Si guardavano. Un estremo desiderio faceva fremere le loro labbra secche, e mollemente, spontaneamente, le loro dita si confusero. «A Catherine Nicaese Elisabeth Leroux, di Sestou la Guerrière, per 54 anni di servizio nella stessa fattoria, una medaglia d'argento, del valore di 25 franchi!» «Dov'è Catherine Leroux?» ripetè il consigliere. Costei non si faceva vedere e si udivano voci bisbigliare «Vai! No! A sinistra! Non aver paura! Quanta è stupida! Insomma, c'è o non c'è?» esclamò Tuvash. «Sì, eccola! Si avvicini, allora!» Ed ecco che si vide farsi avanti sulla tribuna una vecchietta dal contegno timoroso, che pareva rattrappirsi nei suoi poveri panni. Aveva ai piedi grossi zoccoli di legno e attorno ai fianchi un grembiulone azzurro. La faccia magra, incorniciata da una cuffia priva di orlo, era più grinzosa ad una mela renetta avvizzita, e dalle maniche della camiciola rossa uscivano due lunghe mani dalle articolazioni nodose. La polvere dei granai, la potassa dei bucati e l'unto delle lane le avevano talmente incrostate, screpolate, indurite, che sembravano sporche nonostante fossero state risciacquate in acqua pulita. E per aver troppo servito restavano semiaperte, quasi a presentare, da sole, l'umile testimonianza delle tante sofferenze patite. Una specie di rigidità monacale conferiva dignità all'espressione del suo viso. Niente di triste o di tenero addolciva quel suo pallido sguardo. A forza di stare con le bestie ne aveva preso il mutismo e la placidità. Era la prima volta che si ritrovava in mezzo a così tanta gente, e silenziosamente terrorizzata dalle bandiere, dai tamburi, dai signori in marsina, dalla croce d'onore del consigliere, rimaneva immobile, non sapendo se farsi avanti o fuggire, né perché la folla la spingeva e la giuria le sorrideva. Così stava, dinanzi a quei borghesi trionfanti, un mezzo secolo di servitù. «Avvicinatevi, veneranda Catherine Nichese Elizabeth Leroux», disse il consigliere, che aveva preso dalle mani del presidente la lista dei premiati. Ed esaminando ora il foglio di carta, ora la vecchia, ripeteva in tono paterno. «Avvicinatevi, su, avvicinatevi!» «Siete sorda?», disse Tuvash, scattando dalla poltrona, e si mise a gridarle nell'orecchio. «Cinquantaquattro anni di servizio! Una medaglia d'argento! Venticinque franchi! Per voi!» Quando ebbe finalmente la medaglia tra le dita, lei l'osservò. Allora le si diffuse su tutta la faccia un sorriso beato, e la sentirono porbottare mentre se ne andava. «La darò al nostro curato, perché mi dica delle messe!» «Che fanatismo!», esclamò il farmacista, chinandosi verso il notaio. La seduta era finita, la folla si disperse, ed ora che i discorsi erano stati letti, ognuno riprendeva il proprio rango e tutto rientrava nella normalità. I padroni maltrattavano i domestici, e questi picchiavano le bestie, che, indolenti trionfatrici, se ne tornavano alla stalla con una corona verde tra le corna. Intanto i militi della Guardia Nazionale erano saliti al primo piano del municipio, con delle ciambelle infilzate nelle baionette, mentre il tamburino del battaglione portava una cesta di bottiglie. Madame Bovary prese il braccio di Rodolphe, lui la riaccompagnò a casa, si separarono davanti alla porta, poi lui andò a passeggiare da solo nei prati, aspettando che arrivasse l'ora del banchetto. Il festino fu lungo, rumoroso, servito male. Stavano così pigiati che facevano fatica persino a muovere i gomiti, e le assi strette che fungevano da panche rischiarono di rompersi sotto il peso dei commensali. Mangiavano abbondantemente, ognuno consumava per quanto aveva pagato, le fronti grondavano di sudore, e sopra la tavola tra le lampade ad olio accese fluttuava un vapore biancastro, simile alla nebbiolina su un fiume in un mattino autunnale. Rodolphe, la schiena appoggiata al calicò della tenda, pensava ad Emma con tale intensità che non udiva nulla. Dietro di lui, sull'erba, i domestici ammucchiavano piatti sporchi, i suoi vicini parlavano, lui non rispondeva. Gli riempivano il bicchiere, e nella sua mente regnava il silenzio, nonostante il rumore crescente. Ripensava a quello che lei aveva detto, e alla forma delle sue labbra. Il volto di lei, come in uno specchio magico, splendeva sulle placche dei kepì. Le pieghe del suo abito scendevano lungo i muri, e giornate d'amore si susseguivano all'infinito nelle prospettive dell'avvenire. La rivide la sera, ai fuochi d'artificio, ma era con il marito, la signora Aumet e il farmacista, il quale si tormentava per il pericolo rappresentato dai razzi vaganti, e in ogni momento lasciava la compagnia per andare a fare raccomandazioni a Binet. Il materiale pirotecnico spedito all'indirizzo di Messer Tuvash era stato chiuso nella sua cantina, per eccesso di precauzione, cosicché la polvere umida non si accendeva facilmente, e il pezzo forte, che doveva raffigurare un drago nell'atto di mordersi la coda, fu un fiasco completo. Di tanto in tanto si levava in aria una misera candela romana. Allora la folla istasiata emetteva un clamore, al quale si mischiavano i gridolini delle donne soleticate sui fianchi nel buio. Emma, silenziosa, si ranicchiava dolcemente contro la spalla di Charles. Poi, col mento alzato, seguiva nel cielo nero lo zampillo luminoso dei razzi. Rodolphe la contemplava al chiarore dei lampioncini che ardevano. A poco a poco si spensero. Si accesero le stelle. Cominciò a cadere qualche goccia di pioggia. Emma si annodò lo scialle intorno alla testa scoperta. In quel momento la carrozza del consigliere uscì dalla locanda. Il cocchiere, ubriaco, si assopì di colpo. Da lontano si vedeva, oltre il mantice, tra i due fanali, la massa del suo corpo dondolare a destra e a sinistra, a seconda del beccheggio delle balestre. In verità, disse lo speziale, bisognerebbe essere severissimi con l'ubriachezza. Io vorrei che ogni settimana venissero scritti su un cartello ad hoc, affisso alla porta del municipio, i nomi di tutti quelli che durante la settimana si fossero intossicati di alcol. Oltretutto, sotto un profilo statistico, si avrebbero come degli annali di assoluta evidenza, che, in caso di necessità, ma scusate, e corse verso il capitano. Questi stava tornando a casa, andava a ritrovare il suo tornio. Forse non fareste male, gli disse Umi, a mandare uno dei vostri uomini, o magari ad andar voi stesso. Lasciatemi in pace, rispose l'esattore. Non c'è alcun pericolo. State tranquilli, disse lo speziale quando fu di nuovo tra i suoi amici. Binemi ha garantito che sono state prese tutte le misure del caso. Nessuna scintilla caduta. Le pompe sono piene. Andiamo a dormire. Finalmente, ne ho proprio bisogno, disse la signora Ome, che sbadigliava senza ritegno. Ma va bene così, per la nostra festa abbiamo avuto una magnifica giornata. Rodolfo ripetè sottovoce, con un'occhiata tenera. Oh sì, magnifica. E una volta scambiati i saluti, si voltarono le spalle. Due giorni dopo, sul Fanal de Rouen, c'era un grande articolo sui comizi. Lo aveva scritto Ome, di getto, fin dall'indomani. Perché quei festoni, quei fiori, quelle ghirlande? Dove correva quella folla, come i flutti d'un mare infuriato, sotto i torrenti d'un sole tropicale che diffondeva calore sulle nostre maggesi. Poi parlava della condizione dei contadini. Certo, il governo faceva molto, ma non abbastanza. Coraggio, lo incitava. Sono indispensabili mille riforme. Facciamole. Poi, a proposito dell'arrivo del consigliere, non dimenticava l'aria marziale della nostra milizia, né le nostre più frizzanti contadine, né i vecchi dalla testa calva, sorta di patriarchi, alcuni dei quali provenienti dalle nostre immortali farangi. Sentivano ancora battere il cuore al maschio rullar dei tamburi. Parlando dei membri della giuria, faceva il proprio nome tra i primi e ricordava persino, in una nota, che il signor Ome, farmacista, aveva mandato una memoria sul sidro alla società d'agricoltura. Quando arrivava alla distribuzione dei premi, dipingeva la gioia dei vincitori con toni di tirambici. Il padre abbracciava il figlio, il fratello il fratello, lo sposo la sposa. Più d'uno mostrava con orgoglio la sua umile medaglia e, senza dubbio, tornato a casa dalla sua brava massaia, l'avrà appesa, piangendo, alle discrete pareti del suo casolare. Verso le sei, un banchetto apparecchiato sul prato del signor Liejar ha riunito i principali partecipanti alla festa. Vi ha regnato senza posa la massima cordialità. Sono stati fatti vari brindisi. Il signor Liouven ha brindato al monarca, il signor Tuvash al prefetto, il signor De Roseret all'agricoltura, il signor Ome all'industria e alle belle arti, queste due sorelle. Il signor Leplichy ha il progresso. La sera, uno scintillante spettacolo di fuochi d'artificio ha improvvisamente illuminato l'aere. Lo si sarebbe detto un autentico kaleidoscopio, un vero scenario d'opera, e per un momento la nostra piccola località ha potuto credersi trasportata nel cuore di un sogno delle mille e una notte. Constatiamo che nessun evento sgradevole è venuto a turbare questa riunione di famiglia. E aggiungeva, è stata notata soltanto l'assenza del clero. Senza dubbio le sacristie intendono il progresso in tutt'altro modo. Affari vostri, signori di Loyola. Capitolo 9 Passarono sei settimane. Rodolf non tornò. Una sera, finalmente, ricomparve. All'indomani dei comizi si era detto, non torniamoci tanto presto, sarebbe un errore, e al termine della settimana era partito per la caccia. Dopo la caccia aveva pensato che fosse ormai troppo tardi. Poi fece questo ragionamento. Ma se mi ha amato fin dal primo giorno, per l'impazienza di rivedermi deve amarmi di più. Continuiamo dunque. E capì che il suo calcolo era stato esatto, quando, entrando nella sala, vide Emma in pallidire. Era sola, si faceva sera. Le tendine di mussola, lungo i vetri, scurivano le luci del crepuscolo, e la doratura del barometro, colpita da un raggio di sole, spandeva bagliori nello specchio tra le dentature del polipaio. Rodolf restò in piedi. Emma rispose appena alle sue prime frasi di cortesia. Sono stato impegnato, disse lui. E sono stato malato. Gravemente, esclamò lei. Beh, disse Rodolf, sedendosi su uno sgabello accanto a lei. No, è che non sono voluto ritornare. E perché? Non indovinate? La guardò ancora una volta, ma con tale intensità che lei abbassò la testa arrossendo. Riprese. Emma. Signore, fece lei scostandosi un po'. Ah, vedete? Lui replicò, con voce malinconica. Avevo ragione a non voler tornare. Questo nome, questo nome che mi riempie l'anima e che mi è sfuggito, voi me lo proibite. Madame Bovary. Eh, vi chiamano tutti così. E invece non è il vostro nome, è il nome di un altro. Ripetè, di un altro. E si nascosa il volto tra le mani. Sì, penso continuamente a voi. Il vostro ricordo mi fa disperare. Ah, perdonatemi, vi lascio. Addio. Me ne andrò lontano. Tanto lontano che non sentirete più parlare di me. Però, oggi, non so quale forza ancora mi ha spinto verso di voi. È che non si può lottare contro il cielo, non si resiste al sorriso degli angeli. Ci si lascia trascinare da ciò che è bello, adorabile, incantevole. Era la prima volta che Emma si sentiva dire cose simili. E il suo orgoglio, come chi si rilassi in un bagno turco, si stirava tutto, languidamente, al calore di quelle parole. Ma se non sono venuto, continuò lui, se non ho potuto vedervi. Ah, almeno ho contemplato tanto ciò che vi circonda. La notte, tutte le notti, mi alzavo, arrivavo sin qui. Guardavo la vostra casa, il tetto che scintillava sotto la luna, gli alberi del giardino che ondeggiavano davanti alla finestra, e una piccola lampada, un bagliore che splendeva attraverso i vetri, nell'ombra. Ah, voi non sapevate che, così vicino e così lontano, c'era un povero sventurato. Lei si girò verso di lui con un singhiozzo. Come siete buono, disse. No, vi amo, ecco tutto. E voi lo sapete. Ditemelo, una parola. Una sola parola. E insensibilmente, Rodolfo si lasciava scivolare dallo sgabello fino a terra. Ma si udì un rumore di zoccoli in cucina. La porta della sala, si accorse, non era chiusa. Sarebbe un gesto caritatevole, proseguì rialzandosi. Se voleste appagare una mia fantasia. Era quella di visitare la casa. Desiderava conoscerla. E poiché Madame Bovary non ci vedeva nulla di sconveniente, stavano entrambi alzandosi quando entrò Charles. Buongiorno, dottore, gli rispose Rodolfo. Il medico, lusingato da quel titolo inatteso, si profuse in complimenti, e l'altro ne approfittò per ricomporsi un po'. La signora, aggiunse, mi dava ragguagli sulla sua salute. Charles lo interruppe. Effettivamente aveva mille preoccupazioni. Sua moglie era di nuovo oppressa da difficoltà di respiro. Rodolfo chiese se andare a cavallo non avrebbe potuto giovarle. «Certo, ottimo, perfetto, questa sì che è un'idea, dovresti seguirla». E poiché lei obiettava di non avere un cavallo, Rodolfo ne offrì uno dei suoi. Lei rifiutò l'offerta, lui non insistè. Poi, per giustificare la visita, disse che il suo carrettiere, quello del salasso, aveva ancora dei capogiri. «Ci passerò», disse Bovary. «No, no, ve lo manderò, verremo noi per non scomodarvi». «Ah, benissimo, grazie». Non appena furono soli. «Perché non accetti le proposte del signor Boulanger, che sono così cortesi?» Lei prese un'aria imbronciata, cercò mille scuse, e alla fine dichiarò che la cosa poteva forse sembrare strana. «Ah, che mi importa», disse Charles cambiando tono. «La salute è prima di tutto, ti sbagli». «E come vuoi che monti a cavallo se non ho un completo da amazzone?» «Ne ordineremo uno», rispose lui. Il completo da amazzone fu decisivo. Una volta pronto, Charles scrisse al signor Boulanger che la moglie era a sua disposizione e che lui contava sulla sua cortesia. Il giorno dopo, a mezzogiorno, Rodolphe arrivò davanti alla porta di Charles con due cavalli da monta. Uno dei due aveva fiocchi rosa alle orecchie e una sella da donna in pelle di dino. Rodolphe aveva calzato stivali alti e flosci, dicendosi che senza dubbio lei non ne aveva mai visti di simili. In effetti Emma rimase incantata dal suo aspetto, quando lui le comparve davanti sul pianerottolo, con l'ampia giacca di velluto e i pantaloni di maglia bianchi. Era pronta, lo stava aspettando. Justine scappò fuori dalla farmacia per guardarla e si scomodò anche lo speziale. Faceva raccomandazioni al signor Boulanger. «È facile avere incidenti, fatti attenzione, i cavalli potrebbero essere focosi». Lei udì un rumore sopra la testa. Era Felicite che tamburellava sui vetri per svagare la piccola Bert. La bambina le mandò un bacio da lontano. La madre le rispose agitando il pomo del frustino. «Buona passeggiata», gridò Ome. «Soprattutto prudenza, prudenza». E sventolò il giornale, mentre li guardava allontanarsi. Non appena sentì la terra, il cavallo di Emma prese il galoppo. Rodolfo le galoppava accanto. Ogni tanto scambiavano qualche parola. Con la faccia leggermente china, la mano alzata e il braccio destro teso, lei si abbandonava alla cadenza del movimento che la cullava sulla sella. Ai piedi della salita, Rodolfo allentò le redini. Partirono insieme, in un sol balzo. Poi, in cima, i cavalli si fermarono di colpo e il gran velo azzurro di lei ricadde. Erano i primi di ottobre. C'era nebbia sulla campagna. I vapori si stendevano all'orizzonte lungo il contorno delle colline. Altrove, lacerandosi, salivano, si disperdevano. A volte, in uno squarcio delle nubi, sotto un raggio di sole, si scorgevano in lontananza i tetti di Yonville, con i giardini sulla sponda del fiume, i cortili, i muri e il campanile della chiesa. Emma socchiudeva le palpebre, per riconoscere la sua casa. E mai il misero paese in cui viveva le era sembrato tanto piccolo. Da quell'altezza, l'intera vallata pareva un immenso lago pallido, svaporante nell'aria. Le macchie di alberi spiccavano qua e là come nere rocce, e le alte file dei pioppi, che oltrepassavano la bruma, facevano l'effetto di spiagge battute dal vento. Vicino, sull'erba, fra gli abeti, circolava nell'atmosfera tiepida una luce bruna. La terra, rossastra come polvere di tabacco, smorzava il rumore dei passi, e, procedendo, i cavalli facevano rotolare con la punta dei ferri le pigne cadute a terra. Rodolfo ed Emma seguirono dunque il margine del bosco. Ogni tanto lei si girava per evitare lo sguardo di lui, e allora vedeva soltanto i tronchi degli abeti allineati, la cui successione continua le procurava un lieve capogiro. I cavalli ansimavano, il cuoio delle selle scricchiolava. Nel momento in cui entrarono nel bosco apparve il sole. «Dio ci protegge», disse Rodolfo. «Credete», fece lei. «Avanti, avanti», aggiunse lui. Fece schiocare la lingua. Le due bestie correvano. Lunghe felci, sul ciglio del sentiero, si impigliavano nella staffa di Emma. Continuando ad andare, Rodolfo si chinava e via via le toglieva. Altre volte, per scostare i rami, le passava vicino, ed Emma sentiva il suo ginocchio sfiorarle la gamba. Ora il cielo era azzurro, le foglie non si muovevano. C'erano grandi radure piene di eriche in fiore, e tappeti di violette si alternavano al folto degli alberi, grigi, fulvi o dorati, secondo la varietà del fogliame. Spesso si udiva frusciare un lieve battito d'ali tra i cespugli, o il grido rauco e dolce dei corvi che andavano a rifugiarsi nelle querce. Smontarono, Rodolfo legò i cavalli, andava avanti lei, sul muschio, tra i solchi. Ma il vestito troppo lungo la impacciava, per quanto ne tenesse sollevato lo strascico, e Rodolfo, camminandole dietro, contemplava tra quella stoffa nera e lo stivaletto nero la morbidezza della calza bianca, che adombrava come qualcosa della sua nudità. Lei si fermò. Sono stanca, disse. Via, ancora uno sforzo, disse lui. Coraggio. Poi, cento passi più in là, lei tornò a fermarsi, e attraverso il velo, che dal cappello maschile le scendeva obliquo sui fianchi, si coglieva il suo volto in una trasparenza bluastra, quasi nuotasse nell'azzurro. Ma dove andiamo? Lui non rispose. Lei respirava affannosamente. Rodolfo si guardava intorno e si mordicchiava ai baffi. Arrivarono in uno spazio più ampio, creato dal taglio del bosco. Si sedettero su un tronco abbattuto, e Rodolfo prese a parlarle del suo amore. Dapprima non la spaventò con galanterie. Fu calmo, serio, malinconico. Emma lo ascoltava a testa bassa, continuando a smuovere con la punta del piede i truccioli per terra. Ma la frase, non sono ormai uniti i nostri destini? Eh no, rispose. Lo sapete, è impossibile. E fece per alzarsi. Lui la ferrò per il polso, lei si fermò. Poi, dopo averlo considerato per qualche minuto, con occhi umidi e amorevoli, disse bruscamente. Ah, sentite, non ne parliamo più. Dove sono i cavalli? Rientriamo. Lui ebbe un gesto di collera e di fastidio. Lei insistette. Dove sono i cavalli? Allora, sorridendo ad uno strano sorriso, la pupilla fissa, i denti serrati, lui si fece avanti spalancando le braccia. Lei indietreggiò tremante. Balbettava. Mi fate paura, mi fate male, andiamo. Se è necessario, replicò lui cambiando faccia. E subito ridiventò rispettoso, carezzevole, timido. Lei gli dette il braccio. Si incamminarono. Lui diceva. Ma cosa avevate? Perché? Non ho capito. Forse avete frainteso. Nel mio animo voi siete come una madonna su un piedistallo. State in alto, in un posto saldo e immacolato. Ma ho bisogno di voi per vivere. Ho bisogno dei vostri occhi, della vostra voce, del vostro pensiero. Siate la mia amica, la mia sorella, il mio angelo. E intanto allungava il braccio e le cingeva la vita. Lei tentava debolmente di liberarsi. Lui la sorreggeva così, camminando. Ma sentirono i due cavalli che brucavano il fogliame. Oh, ancora? Disse Rodolf. Non andiamo via. Restate. La trascinò più lontano, presso un piccolo stagno, dove le lenticchie d'acqua formavano uno strato verde sulle onde. Immobili, tra i giunchi, stavano delle ninfee avvizzite. Al rumore dei loro passi sull'erba, qualche ranocchia saltava a nascondersi. Sbaglio, sbaglio, diceva lei. Sono pazza a starvi a sentire. Perché mai? Emma, Emma. Oh, Rodolf, fece lentamente la giovane, piegando il capo sulla spalla di lui. La stoffa del suo vestito aderiva al velluto della giacca. Rovesciò il collo bianco che si gonfiava di un respiro, e tutta in lacrime, sentendosi mancare, con un lungo fremito e nascondendosi il volto, si abbandonò. Calavano le ombre della sera. Il sole, filtrando in orizzonte tra i rami, la bagliava. Qua e là, intorno a lei, tra il fogliame o per terra, tremolavano chiazze luminose, come se dei colibri, volando, avessero sparpagliato le loro piume. Ovunque era silenzio, dagli alberi sembrava emanare qualcosa di soave. Sentiva il cuore che riprendeva a battere, e il sangue che circolava nella carne come un fiume di latte. Udi allora, lontano, di là dal bosco, sulle altre colline, un grido confuso e prolungato, una voce che si protraeva, e in silenzio l'ascoltava confondersi come una musica alle ultime vibrazioni dei suoi nervi in tumulto. Rodolf, sigaro tra i denti, riaggiustava con il temperino una briglia rotta. Tornarono a Yonville per la stessa strada. Rividero sul fango le orme dei cavalli, fianco a fianco, e gli stessi cespugli, gli stessi sassi nell'erba. Nulla era mutato intorno a loro, eppure per lei era accaduto qualcosa di più importante che se si fossero spostate le montagne. Rodolf ogni tanto si chinava e le prendeva la mano per baciarla. Era incantevole a cavallo. Dritta, con quella figura snella, il ginocchio piegato sulla criniera dell'animale, il viso leggermente colorito dall'aria aperta, nel riverbero della sera. Entrando a Yonville, caracollò sul selciato. La guardavano dalle finestre. Il marito, a tavola, le trovò una buona cera, ma lei parve non sentirlo quando si informò della passeggiata. Se ne stava con il gomito accanto al piatto, tra le due candele che ardevano. «Emma», disse lui, «cosa?» «Ecco, questo pomeriggio sono stato dal signor Alexandre. Ha una vecchia giumenta ancora bella, solo un po' spelata ai ginocchi, e che si potrebbe avere, ne sono certo, per un centinaio di scudi», aggiunse. «Ho pensato che ti facesse piacere. L'ho fermata. L'ho comprata. Ho fatto bene, che ne dici?» Lei mosse la testa in cenno di assenso. Poi, un quarto d'ora dopo. «Esci stasera?» chiese. «Sì, perché?» «Oh, niente, niente, caro». E appena si fu liberata di Charles, salì a rinchiudersi in camera. All'inizio fu come una vertigine. Rivedeva gli alberi, i sentieri, i fossati, Rodolphe, e sentiva ancora la stretta delle sue braccia, mentre le foglie fremevano e i giunchi si bilavano. Ma vedendosi allo specchio, si stupì del suo viso. Mai aveva avuto occhi così grandi, così neri, così profondi. Qualcosa di sottile, diffuso sulla sua persona, la trasfigurava. Si ripeteva «Oh, un amante, un amante!», deliziandosi all'idea come a quella di una nuova pubertà. Avrebbe finalmente posseduto quelle gioie dell'amore, quella febbre di felicità, di cui aveva perso ogni speranza. Entrava in qualcosa di meraviglioso, dove tutto sarebbe stato passione, estasi, delirio. La volgeva a un'immensità celeste, nei suoi pensieri scintillavano le vette del sentimento, e l'esistenza normale le appariva ormai lontana, laggiù in basso, nell'ombra, tra gli intervalli di quelle cime. Allora ricordò le eroine dei libri che aveva letto, e la lirica legione di quelle adultere cominciò a cantare nella sua memoria, con voci di sorelle, incantandola. Diventava lei stessa parte vera di quelle immaginazioni, e realizzava il lungo sogno della sua giovinezza, contemplandosi in quel tipo di amante che aveva tanto invidiato. D'altro canto, Emma assaporava la soddisfazione della vendetta. Non aveva forse sofferto abbastanza? Ma ora trionfava, e l'amore, così a lungo trattenuto, sgorgava intatto con gioiosa effervescenza. Lo assaporava senza rimorsi, senza inquietudini, senza turbamenti. La giornata seguente trascorse in una nuova dolcezza. Si scambiarono giuramenti. Lei gli raccontò le sue tristezze. Rodolphe la interrompeva con baci, e lei, contemplandolo con le palpebre socchiuse, gli chiedeva di chiamarla ancora per nome, e di ripeterle che l'amava. Erano nel bosco, come il giorno prima, sotto una capanna di zoccolai. Le pareti erano di paglia. Il tetto scendeva così basso che bisognava star curvi. Stavano seduti l'uno contro l'altra, su un letto di foglie secche. A partire da quel giorno, si scrissero regolarmente ogni sera. Emma portava la lettera in fondo al giardino, vicino al fiume, in una fenditura della terrazza. Rodolphe veniva a prenderla, e ce ne metteva un'altra, che a lei pareva sempre troppo breve. Una mattina che Charles era uscito, fin da prima dell'alba, fu presa dal capriccio di vedere subito Rodolphe. Avrebbe fatto in tempo ad arrivare velocemente alla Houchette, passarvi un'ora, ed essere di ritorno a Yonville quando ancora tutti dormivano. Questa idea la rese anelante di desiderio. Si trovò ben presto in mezzo ai prati, sui quali camminava a passi rapidi, senza voltarsi. Cominciava a spuntare il giorno. Emma riconobbe da lontano la casa dell'amante, con le due banderuole a coda di rondine che si stagliavano in nero sul pallore dell'erba. Dopo il cortile della fattoria, c'era un fabbricato che doveva essere il castello. Vi entrò, come se i muri, al suo avvicinarsi, si fossero spalancati. Una grande scala diritta saliva verso il corridoio. Emma girò la maniglia di una porta, ed improvviso vide in fondo alla camera un uomo che dormiva. Rodolf gettò un grido. «Sei tu, sei tu», ripeteva lui. «Come hai fatto a venire? Ah, hai il vestito bagnato». «Ti amo», rispose lei, buttandogli le braccia al collo. Visto che questa prima audacia le era riuscita, ora ogni volta che Charles usciva presto, Emma si vestiva in fretta e furia e scendeva a passi felpati i gradini che conducevano in riva al fiume. Ma quando la passerella per le vacche era alzata, bisognava seguire i muri che costeggiavano il fiume. La sponda era scivolosa. Per non cadere, si aggrappava con le mani ai ciuffi di rafani appassiti. Poi prendeva per i campi arati, in cui affondava, inciampava e si inzaccherava gli stivaletti. Il fular, annodato sul capo, si agitava al vento tra le erbe. Aveva paura dei buoi, si metteva a correre, arrivava senza fiato, con le guance rosa, e tutta la sua persona emanava un fresco profumo di linfa, di verdura, d'aria aperta. Rodolfo a quell'ora dormiva ancora. Era come se in camera gli entrasse un mattino di primavera. Le tende gialle, lungo le finestre, lasciavano appena filtrare una densa luce bionda. Emma avanzava a tentoni, sbattendo le palpebre. Le gocce di rugiada sospese alle bande dei capelli le facevano come una corona di topazzi intorno al viso. Ridendo, Rodolfo la tirava a sé e se la stringeva al cuore. Poi lei esaminava la stanza, apriva i cassetti dei mobili, si pettinava con il suo pettine, si guardava nel suo specchio da barba. Spesso metteva persino tra i denti la canna di una grossa pipa che stava sul comodino, tra limoni e zolette di zucchero, accanto ad una caraffa d'acqua. Per gli addii ci voleva un buon quarto d'ora. Emma allora piangeva. Avrebbe voluto non abbandonarlo mai. Qualcosa di più forte di lei la spingeva verso Rodolfo, tanto che un giorno, vedendola arrivare all'improvviso, lui aggrottò il volto, come fosse contrariato. «Che hai?» disse lei. «Ti senti male? Parla!» Alla fine lui si decise a dirle, con aria grave, che le sue visite diventavano imprudenti e che lei si stava compromettendo. Capitolo 10 A poco a poco quei timori di Rodolfo invassero anche lei. L'amore, all'inizio, l'aveva inebriata e non aveva pensato ad altro. Ma, adesso che era diventato indispensabile alla sua vita, temeva di poterne perdere qualcosa, o anche solo che qualcosa potesse turbarlo. Quando tornava dalla casa di lui, gettava intorno sguardi inquieti, spiando ogni forma che apparisse all'orizzonte ed ogni abbaino del paese da cui avrebbero potuto vederla. Stava in ascolto dei passi, delle grida, del rumore degli aratri, e si fermava più livida e tremante delle foglie dei pioppi che oscillavano sulla sua testa. Una mattina, che se ne tornava così, credete di distinguere a un tratto la lunga canna di una carabina puntata su di lei. Spuntava obliquamente dall'orlo di una piccola botte, mezzo sepolta, fra l'erba, ai margini di un fossato. Seppur prossima a svenire dalla paura, Emma continuò ad andare avanti, e dalla botte uscì un uomo, come quei diavoletti a molla che saltano su dal fondo di una scatola. Aveva gambali allacciati sino ai ginocchi, il berretto calcato fin sugli occhi, le labbra tremanti di freddo e il naso rosso. Era il capitano Binet, che faceva la posta alle anitre selvatiche. «Avreste anche potuto dare una voce?», protestò. «Quando si vede un fucile, bisogna sempre avvertire». L'esattore tentava così di dissimulare la paura che si era preso. Infatti, dato che un decreto prefettizio proibiva la caccia alle anitre se non in barca, Binet, con tutto il suo rispetto per la legge, si trovava in contravvenzione. Così si aspettava di sentire arrivare, da un momento all'altro, la guardia campestre. Ma tale inquietudine acuiva in lui il piacere, e tutto solo nella sua botte si congratulava con se stesso per la sua fortuna e la sua furbizia. Alla vista di Emma parve sollevato da un gran peso e attaccò subito a fare conversazione. «Certo che non fa caldo, punge, eh?» Emma non rispose, e lui proseguì. «Siete uscita di buon'ora?» «Sì», balbetto lei. «Sono stata dalla balia, dove ho la bambina». «Ah, benissimo, benissimo. Quanto a me, sono qui, come mi vedete, dalle prime luci. Ma il tempo è così infame, che a meno di non sbatterci il naso...» «Arivederci, signor Binet», lo interruppe lei, girandogli le spalle. «Servo vostro, signora», replicò lui seccamente, e rientrò nella sua botte. Emma si pentì di aver lasciato così bruscamente l'esattore. Avrebbe indubbiamente fatto supposizioni malevole. La storia della balia era la scusa peggiore, dato che lo sapevano tutti a Yonville che da almeno un anno la piccola Bovary era tornata a stare dai genitori. D'altra parte, nessuno abitava nei dintorni. Quel sentiero portava solo alla Houchette. Binet, dunque, aveva indovinato da dove veniva, e non sarebbe stato zitto. Avrebbe sicuramente chiacchierato. Stette fino a sera, a spremersi il cervello sulle menzogne che poteva escogitare, avendo sempre davanti agli occhi quell'imbecille con il suo carniere. Dopo cena, Charles, vedendola preoccupata, per distrarla pensò di portarla un po' dal farmacista. È la prima persona che vide nella farmacia fu ancora lui, l'esattore. Stava in piedi davanti al banco, illuminato dalla luce del barattolo rosso, e diceva «Mezza oncia di vetriolo, per favore». «Justine», gridò il farmacista, «portaci l'acido solforico». Poi ad Emma, che voleva salire nella stanza della signora Ome. «No, restate pure, non ne vale la pena, sta per scendere. Scaldatevi alla stufa, intanto. Scusatemi. Buonasera, dottore. Già che al farmacista piaceva molto pronunciare quella parola, dottore, come se, rivolgendola ad un altro, avesse fatto ricadere su di sé un po' della pomposità che le attribuiva. Ma sta attento a non rovesciare i mortai. Va piuttosto a prendere le sedie dalla saletta. Lo sai che non si devono spostare le poltrone del salotto». E Ome si stava precipitando fuori dal banco per rimettere a posto la sua poltrona, quando Binet gli chiese una mezza oncia di acido di zucchero. «Acido di zucchero?» Fece con sdegno il farmacista. «Non lo conosco, non so di che si tratti. Volete forse dell'acido ossalico? È l'acido ossalico, vero?» Binet spiegò che aveva bisogno di un corrosivo per preparare da solo un'acqua ramata con cui togliere la ruggine a vari arnesi da caccia. Emma trasalì. Il farmacista si mise a ridere. «Effettivamente il tempo non è propizio con questa umidità. Eppure...» Continuò l'esattore con aria furbesca. «C'è gente che non ci fa caso». Ad Emma mancava il respiro. «Datemi anche...» «Ma non se ne va mai», pensava lei. «Una mezza oncia di resina di pino e di trementina, quattro once di cera gialla e tre e mezza once di nero animale, per favore, per pulire il cuoio dell'attrezzatura». Il farmacista stava cominciando a tagliare la cera, quando comparve la signora Ome con Irma in braccio, Napoleone al fianco e Atalia al seguito. Lei andò a sedersi sul sedile di velluto, contro la finestra. Il ragazzo si appollaiò su uno sgabello. La sorella maggiore si aggirava intorno alla scatola delle giugiole, accanto al suo paparino. Costui riempiva imbuti e tappava flaconi, incollava etichette e confezionava pacchetti. Intorno a lui tutti tacevano. Si udiva solo di quando in quando il tintinio dei pesi sulla bilancia, insieme a qualche parola bisbigliata dal farmacista, che dava consigli al suo discepolo. «Come sta la vostra ragazzina?» chiese all'improvviso la signora Ome. «Silenzio», intimò il marito, che scriveva delle cifre su uno scartafaccio. «Perché non l'avete portata?» riprese quella sottovoce. «Zitta, zitta», disse Emma, indicando con il dito lo speziale. Mabiné, tutto assorto nella lettura del conto, probabilmente non aveva sentito nulla. Alla fine uscì. Sollevata, Emma fece allora un gran sospiro. «Che respiri profondi?» disse la signora Ome. «E perché fa caldo?» rispose. Il giorno dopo decisero dunque di dare un'organizzazione ai loro incontri. Emma voleva corrompere la cameriera con un regalo, ma sarebbe stato meglio scovare a Yonville una casa al riparo da sguardi indiscreti. Rodolphe promise di cercarla. Per tutto l'inverno, tre o quattro volte la settimana, arrivava in giardino a notte fonda. Emma aveva appositamente tolto la chiave dal cancello. Charles credette che fosse andata perduta. Per avvertirla, Rodolphe gettava una manciata di sabbia contro le persiane. Lei si alzava di soprassalto, ma a volte doveva aspettare, perché Charles aveva la mania di chiacchierare accanto al fuoco e non la finiva più. L'impazienza la divorava. Se avessero potuto, i suoi occhi l'avrebbero scaraventato dalla finestra. Alla fine cominciava a prepararsi per la notte. Poi prendeva un libro e continuava a leggere tutta tranquilla, come se la lettura la divertisse. Ma Charles, che era a letto, la chiamava perché venisse a coricarsi. «Vieni, Emma», diceva. «E ora?» «Sì, vengo», rispondeva lei. Intanto, disturbato dalla luce delle candele, lui si girava verso il muro e si addormentava. Lei scappava trattenendo il fiato, sorridente, palpitante, seminuda. Rodolphe aveva un ampio mantello, la volgeva tutta e cingendole la vita con un braccio, senza una parola, la trascinava in fondo al giardino. Stavano sotto la pergola, su quella stessa panca di legni marci, su cui un tempo Leon la guardava con tanto amore, nelle sere d'estate. A lui non pensava più adesso. Le stelle brillavano tra gli steli spogli dei gelsomini. Si sentiva scorrere il fiume alle loro spalle e di tanto in tanto un crepitio di canne secche sulla sponda. Qua e là, masse d'ombra si gonfiavano nel buio e, a volte, fremendo tutte in un unico slancio, si alzavano e si piegavano come immense onde nere che avanzassero per sommergerli. Il freddo della notte li spingeva a stringersi ancora di più. I sospiri delle labbra sembravano più forti. Gli occhi, che intravedevano appena, parevano loro più grandi e, nel silenzio, qualche parola appena bisbigliata cadeva sulla loro anima con sonorità cristallina e vi si ripercuoteva in molteplici vibrazioni. Se la notte era piovosa, andavano a rifugiarsi nell'ambulatorio, fra la rimessa e la scuderia. Lei accendeva uno dei candelieri della cucina, che teneva nascosto dietro i libri. Rodolf si installava come fosse a casa sua. La vista della biblioteca e dello scrittoio, di tutta la stanza, insomma, suscitava la sua allegria. Non poteva trattenersi dal fare sul conto di Charles delle battute che imbarazzavano Emma. Lei avrebbe desiderato vederlo più serio, magari più drammatico all'occasione, come quella volta in cui credette di udire nel vialetto un rumore di passi che si avvicinavano. «Arriva qualcuno», disse. Lui soffiò sul lume. «Hai le pistole?» «Perché?» «Ma per difenderti», replicò Emma. «Da chi? Da tuo marito, quel poveraccio». E Rodolf concluse la frase con un gesto che significava «Io potrei schiacciarlo come una pulce». Lei fu sbalordita dal suo coraggio, anche se avvertì una sorta di indelicatezza e di ingenua volgarità che la scandalizzò. Rodolf riflette parecchio su quella faccenda delle pistole. Se aveva parlato sul serio, era una cosa veramente ridicola, pensava, persino antipatica, dato che lui non aveva alcuna ragione di odiare quel bravo Charles, non essendo certamente divorato dalla gelosia. Anzi, a questo proposito Emma gli aveva fatto un gran giuramento, che trovava di altrettanto pessimo gusto. D'altra parte, lei stava diventando troppo sentimentale. Avevano dovuto scambiarsi miniature, tagliarsi ciocche di capelli, e ora chiedeva un anello, una vera fede nuziale, in segno di unione eterna. Spesso gli parlava delle campane della sera o di voci della natura, poi lo intratteneva su sua madre e sulla madre di lui. Rodolf l'aveva persa da vent'anni. Ciò non di meno, Emma lo consolava con un linguaggio lezioso, come se si rivolgessi ad un marmocchio abbandonato. E talvolta, guardando la luna, gli diceva anche, sono sicura che loro due lassù approvano il nostro amore. Ma era talmente bella, ne aveva avute ben poche di un candore simile. Quell'amore senza libertinaggio era per lui qualcosa di nuovo, che liberandolo delle facili abitudini, lusingava al tempo stesso il suo orgoglio e la sua sensualità. L'esaltazione di Emma, che il suo buonsenso borghese non apprezzava, in fondo in fondo gli pareva deliziosa, perché rivolta alla sua persona. Così, sicuro di essere amato, finì col non aver più troppi riguardi, e a poco a poco i suoi modi cambiarono. Non aveva più, come un tempo, quelle parole tanto dolci da farla piangere, né quelle carezze tanto appassionate da farla impazzire. Così il loro grande amore, in cui Emma viveva immersa, le parve estinguersi sotto di lei, come l'acqua di un fiume assorbita dal suo letto, e alla fine vide la melma. Non voleva crederci, raddoppiò le tenerezze, e Rodolf nascose sempre meno la propria indifferenza. Non sapeva più se rimpiangeva di avergli ceduto, o se invece desiderava amarlo ancora di più. L'umiliazione di sentirsi debole sfociava in un rancore contenuto dalla volutà. Non era affetto, era come una seduzione permanente. Lui la soggiogava, lei ne aveva quasi paura. Le apparenze, tuttavia, erano più che mai tranquille, poiché Rodolf era riuscito a condurre l'adulterio a suo piacimento, e in capo a sei mesi, quando arrivò la primavera, stavano l'uno di fronte all'altra, come due coniugi che tengano viva una tranquilla fiamma domestica. Era l'epoca in cui papà Ruò mandava il suo tacchino, in ricordo della gamba curata. Il regalo arrivava sempre insieme ad una lettera. Emma tagliò lo spago con cui era tenuta al cesto, e lesse queste righe. «Miei cari figlioli, spero che la presente vi trovi in buona salute, e che questa non sia da meno degli altri, dato che mi sembra un po' più tenera, oserei dire, e più in carne. Ma la prossima volta, per cambiare, vi manderò un gallo, a meno che non ci teniate proprio al tacchino, e rispeditemi la cesta, per favore, insieme alle due precedenti. Mi è capitato un guaio alla rimessa, una notte che c'era molto vento, il tetto è volato via tra gli alberi. Il raccolto, poi, non è stato eccezionale. Insomma, non so quando verrò a trovarvi. Mi è talmente difficile lasciarla a casa da quando sono solo, povera la mia Emma». A questo punto c'era uno spazio vuoto tra le righe, come se il brav'uomo avesse lasciato cadere la penna per fantasticare un po'. Quanto a me sto bene, a parte un raffreddore preso l'altro giorno alla fiera di Ivto, dove ero andato in cerca di un pastore, avendo mandato via il mio perché di palato troppo delicato. Siamo proprio da compatire, con tutti questi furfanti. Del resto era anche un disonesto. Da un venditore ambulante, il quale, viaggiando quest'inverno dalle vostre parti, si è fatto togliere un dente, ho saputo che Bovary lavora sempre sodo. Non mi stupisce, e lui mi ha fatto vedere il dente, abbiamo preso un caffè insieme. Gli ho chiesto se ti aveva vista, mi ha detto di no, che nella scuderia aveva visto due animali, da cui ricavo che il lavoro rende. Tanto meglio, cari figlioli, che Dio vi mandi ogni felicità immaginabile. Mi dispiace molto non conoscere ancora la mia diletta nipotina, Bert Bovary. Ho piantato per lei un bell'albero di susine precoci, in giardino, sotto la tua stanza, e non permetto a nessuno di toccarlo, salvo farle poi la marmellata, che conserverò nell'armadio per quando verrà qui. Vi saluto, figlioli cari, ti bacio figlia mia, e anche voi, genero mio, e la piccola, su tutte e due le guance. Resto, con tutta la mia considerazione, il vostro affezionato padre, Theodore Rouault. Restò qualche minuto a rigirare quella rozza carta tra le dita. Era tutto un intrecciarsi di errori d'ortografia, ed Emma inseguì i dolci pensieri che vi chiocciavano attraverso come una gallina seminascosta in una siepe di spini. Lo scritto era stato asciugato con la cenere del focolare, perché un poco di polvere grigia le scivolò dalla lettera sul vestito. Credete quasi di vedere suo padre chinarsi verso il focolare per afferrare le molle. Da quanto tempo non era più accanto a lui, sullo sgabello del camino, a far bruciare la punta di un legno alla gran fiamma crepitante di giunchi marini. Ricordò certe sere d'estate, piene di sole. I puledri nitrivano quando passava qualcuno, e galoppavano, galoppavano. C'era un alveare sotto la sua finestra, e a volte le api, volteggianti nella luce, sbattevano contro i vetri rimbalzando come pallottole d'oro. Che felicità ha quei tempi, che libertà, che speranza, che ricchezza di illusioni. Non ne restava nulla ormai. Le aveva sperperate in ogni avventura dell'anima, in ogni mutamento di condizione. La verginità, il matrimonio, l'amore. Le perdeva di continuo nel corso della vita, come un viaggiatore che lasci un poco della sua ricchezza in ogni locanda in cui sosta. Ma chi, dunque, la rendeva tanto infelice? In che consisteva la tremenda catastrofe che l'aveva travolta? Sollevò il capo, guardandosi intorno come per cercare la causa di ciò che la faceva soffrire. Un raggio d'aprile mandava riflessi cangianti sulle porcellane dello scaffale. Il fuoco ardeva. Sotto le pantofole sentiva la morbidezza del tappeto. La luce era limpida, l'aria tiepida, e le giungevano le risate della bambina. La piccola, infatti, si rotolava sul prato, in mezzo all'erba messa a seccare. Si era sdraiata bocconi su un mucchio. La domestica la teneva per la gonna. L'estibudoa era accanto che rastrellava, ed ogni volta che si avvicinava, lei si protendeva agitando le braccia. «Portatemela», disse sua madre, precipitandosi incontro per abbracciarla. «Quanto ti voglio bene, povera bambina mia! Quanto ti voglio bene!» Poi, accortasi che aveva la punta delle orecchie un po' sporca, suonò subito per avere dell'acqua calda e la pulì. Le cambiò la biancheria, le calze e le scarpe. Fece mille domande sulla sua salute, come al ritorno da un viaggio, e alla fine, baciandola di nuovo con qualche lacrima, la riconsegnò alla domestica, sbalordita da quella esplosione di tenerezza. La sera Rodolphe la trovò più seria del solito. «Le passerà?» Penso. «È un capriccio!» e mancò a tre appuntamenti di seguito. Quando si rifece vivo, lei si mostrò fredda, quasi scostante. «Ah, per di tempo, carina!» e fece finta di non notare i suoi sospiri malinconici, né quel fagiolettino sventolato. Fu allora che Emma cominciò a pentirsi. Arrivò a chiedersi perché detestasse Charles e se non fosse stato meglio riuscire ad amarlo. Ma lui non offriva molta presa a quei ritorni del sentimento, così che lei non sapeva cosa farne di quelle sue velleità di sacrificio, quando, opportunamente, venne a fornirle un'occasione lo speziale. Capitolo undici Aveva letto da poco l'elogio di un nuovo metodo per curare il piedetorto, ed essendo fautore del progresso, concepì la patriottica idea che Yonville, per mettersi alla pari, dovesse divenire sede di operazioni di strefopodia. «Perché?» diceva ad Emma. «Cosa si rischia?» Considerate, ed enumerava sulle dita i vantaggi dell'esperimento. Successo pressoché sicuro, sollievo e miglioramento estetico del malato, celebrità immediata per il chirurgo. Vostro marito, per esempio, non avrebbe voglia di mettere a posto quel povero Hippolyte del Lyon d'Or? Badate che lui non mancherebbe di raccontare la sua guarigione ad ogni viaggiatore di passaggio. E poi, Ome abbassava la voce e si guardava intorno. «Che mi impedirebbe di mandare al giornale una notiziola sulla vicenda? Buondio, un articolo circola? Se ne parla? Finisce col fare l'effetto valanga. E allora chissà, chissà». Effettivamente, Bovary poteva farcela. Nulla faceva pensare ad Emma che non ne fosse capace. E che soddisfazione per lei averlo condotto ad un passo che avrebbe fatto crescere la sua reputazione e le sue entrate. Aveva solo bisogno di un punto d'appoggio un po' più saldo dell'amore. Charles, sollecitato da lei e dallo speziale, si lasciò convincere. Fece venire da Rouen il testo del dottor Duval e ogni sera, prendendosi la testa fra le mani, si immergeva nella lettura. E mentre lui studiava il piede equino, il varismo e il valgismo, vale a dire la strefo catopodia, la strefo endopodia e la strefo exopodia, ossia, per essere più chiari, le diverse deviazioni del piede, all'ingiù, verso l'interno o verso l'esterno, nonché la strefipopodia e la strefanopodia, altrimenti dette torsione verso il basso e stiramento verso l'alto, Ome, con mille argomenti, cercava di convincere il ragazzo della locanda a farsi operare. Sentirai forse appena un doloretto leggero leggero e una semplice puntura, come un piccolo salasso, meno che togliersi un callo. Ippolit, pensieroso, ruotava due occhi stupidi. Del resto, riprendeva il farmacista, la cosa non mi riguarda, è per te, per pura umanità. Vorrei vederti liberato da questa orribile zuppia, con oscillazione della regione lombare, che è certamente, che che tu ne dica, ti deve danneggiare considerevolmente nell'esercizio del tuo mestiere. E allora Ome gli faceva immaginare come si sarebbe sentito, dopo, più gagliardo e più arzillo, e gli dava a credere anche che gli sarebbe stato più facile piacere alle donne, e il mozzo di stalla si metteva a sorridere goffamente. Poi lo attaccava sull'orgoglio. Diamine, sei o non sei un uomo? Come avresti fatto allora, se ti fosse toccato servire nell'esercito, andare a combattere dietro la bandiera. Ah, Hippolyte. E Ome si allontanava, dichiarando che non capiva questa testardaggine, questa cecità nel negarsi ai benefici della scienza. Il disgraziato cedette, fu una specie di congiura. Binet, che non si impicciava mai degli affari altrui, la signora Lefrançois, Artemis, i vicini, e persino il sindaco Tuvache, tutti lo esortavano, gli facevano la predica, lo svergognavano. Ma quel che alla fine lo fece decidere, fu che non gli sarebbe costato un quattrino. Bovary si assunse persino l'onere di fornire l'apparecchio per l'operazione. L'idea di questo gesto generoso era stata di Emma, e Charles via condiscese, dicendo in cuor suo che sua moglie era un angelo. Su consiglio del farmacista, e ricominciando tre volte, fece dunque costruire dal falegname, con l'aiuto del fabbro, una specie di scatola pesante circa otto libre, costituita da ferro, legno, latta, cuoio, viti e bulloni in abbondanza. Tuttavia, per capire quale tendine recidere a Hippolyte, bisognava prima sapere che tipo di piede torto aveva. Il piede faceva con la gamba una linea quasi retta, ciò che non gli impediva di essere rivolto verso l'interno, sicché poteva trattarsi di un equino misto ad un po' di varismo, oppure di un leggero varo tendente nettamente all'equino. Ma con quel piede equino, largo effettivamente come uno zoccolo di cavallo, la pelle rugosa, i tendini nodosi, gli alluci sporgenti, dove le unghie nere sembravano proprio i chiodi di un ferro, l'ostrefopode galoppava come un cervo, dalla mattina alla sera. Lo si vedeva continuamente in piazza, a saltellare tutto intorno ai carretti, buttando in avanti il suo disuguale supporto. Sembrava persino più vigorosa dell'altra, quella gamba. A forza di servire, aveva contratto quasi delle qualità morali, di pazienza ed energia, e su di essa, preferibilmente, si puntellava Ippolit, quando gli toccava un lavoro pesante. Ora, dal momento che si trattava di un equino, bisognava tagliare il tendine d'Achille, salvo volgersi più tardi al muscolo tibiale anteriore per risolvere il varismo. Il medico, infatti, non aveva il coraggio di rischiare due operazioni in un sol colpo, ed anzi già tremava di paura all'idea di aggredire una regione importante di cui non era pratico. Nea d'Ambroise Paré, quando praticava per la prima volta dopo Celso, a quindici secoli di distanza, la sutura diretta di un'arteria. Nea d'Upiutran, quando si disponeva a incidere un ascesso attraverso uno strato compatto di encefalo. Nea Gensul, quando compì la prima ablazione del mascellare superiore, il cuore palpitava talmente. La mano tremava tanto, la mente era così tesa, quanto a Bovary, nel momento in cui si avvicinava a Di Polite, il tenotomo fra le dita. E come negli ospedali, su una tavola accanto, stavano in bella mostra un mucchio di filaccia, fili cerati, molte bende, una piramide di bende, tutto quel che c'era di bende in farmacia. Era stato Omea ad organizzare, sin dal mattino, tutto quell'armamentario. Un po' per far colpo sulla gente, un po' per suggestionare se stesso. Charles incise la pelle, si udì un suono secco. Il tendine era reciso, l'operazione finita. I Polite non finiva di sorprendersi, si chinava sulle mani di Bovary per coprirle di baci. «Avanti, calmati», diceva lo speziale. «Ci sarà tempo per esprimere gratitudine al tuo benefattore» e scese a raccontare l'esito a cinque o sei curiosi, che stazionavano nel cortile e che si aspettavano di veder ricomparire I Polite che camminava correttamente. Dopodiché, Charles, rinchiuso il suo paziente nel meccanismo, se ne tornò a casa, dove Emma, ansiosa, la tendeva sulla porta. Lo abbracciò, si misero a tavola. Lui mangiò parecchio e volle anche, col dessert, prendersi una tazza di caffè, vizio che si permetteva solo la domenica se c'erano ospiti. La serata fu piacevole. Tutta un conversare e sognare a due. Parlarono della loro futura ricchezza, dei miglioramenti da introdurre nella vita familiare. Lui vedeva allargarsi la sua reputazione, aumentare il suo benessere, la moglie amarlo costantemente. Lei si scopriva felice di immergersi nella freschezza di un sentimento nuovo, più sano, migliore. Insomma, di provare una certa tenerezza per quel povero ragazzo che le voleva tanto bene. Il pensiero di Rodolphe, per un attimo, le attraversò la mente, ma i suoi occhi si riportarono su Charles. Notò persino, con sorpresa, che la sua dentatura non era affatto brutta. Erano a letto quando Ome, non curante della cuoca, irruppe d'un tratto nella camera, in mano un foglio di carta fresco di inchiostro. Era l'annuncio destinato al fanal de Rouen. Gli lo aveva portato a leggere. Leggetela voi, disse Bovary. Lui lesse. Malgrado la rete di pregiudizi che ancora ricopre una buona parte della superficie d'Europa, i lumi cominciano tuttavia a spandersi nelle nostre campagne. Avviene così che, martedì, la nostra cittadina di Yonville si è scoperta a teatro di un esperimento chirurgico che è, al tempo stesso, un gesto di nobile filantropia. Il signor Bovary, uno dei nostri medici più illustri? Ah, è troppo, è troppo, diceva Charles, soffocato dall'emozione. Ma no, niente affatto, ci mancherebbe. Ha operato di un piede torto. Non ho usato una terminologia scientifica perché, sapete, in un giornale non tutti magari capirebbero bisogna che le masse... Effettivamente, disse Bovary. Continuate. Riprendo, disse il farmacista. Il signor Bovary, uno dei nostri medici più illustri, ha operato di un piede torto il nominato Hippolyte Toten, da 25 anni mozzo di stalla dell'albergo Lyon d'Or, gestito dalla signora Lefrançois sulla piazza d'Armi. La novità del tentativo e l'interesse legato all'avvenimento avevano attirato un tale concorso di popolo che c'era un vero e proprio ingorgo all'ingresso dell'edificio. L'operazione, ad ogni modo, è stata eseguita come per incanto e, a malapena, poche gocce di sangue sono comparse sulla pelle, quasi a dare avviso che il tendine ribelle aveva infine ceduto agli sforzi dell'arte. Il paziente, fatto singolare, lo dichiariamo de visu, non ha accusato alcun dolore. Le sue condizioni attuali sono quanto di meglio si possa desiderare. Tutto lascia credere che la convalescenza sarà breve, e magari vedremo, alla prossima festa del paese, il nostro bravo Hippolyte esibirsi in danze bacchiche, in mezzo ad un coro di allegri buontemponi, dimostrando così, agli occhi di tutti, con il suo brio e le sue capriole, la sua completa guarigione. Onore dunque ai generosi scienziati. Onore a queste menti infaticabili che consacrano le loro veglie al miglioramento o al sollievo della loro specie. Onore, tre volte onore. Non è forse il caso di esclamare che i ciechi vedranno, i sordi sentiranno e gli storpi cammineranno? Ma ciò che il fanatismo prometteva un tempo ai suoi accoliti, la scienza ora lo realizza per tutta l'umanità. Terremo informati i nostri lettori degli sviluppi di questa straordinaria terapia. Tutto ciò non impedì che, cinque giorni dopo, la Lefrançois accorresse sconvolta gridando. Aiuto, muore, non so che fare. Charles si precipitò verso il Lyon d'Or e il farmacista, vedendolo attraversare la piazza senza cappello, abbandonò la farmacia. Raggiunse a sua volta la locanda, ansante, paonazzo, preoccupato, e a tutti quelli che salivano per la scala domandava «Allora che cos'ha il nostro prezioso strefopode?». Si contorceva lo strefopode in convulsioni atroci, tanto che l'apparecchio in cui era rinchiusa la gamba sbatteva contro la parete rischiando di sfondarla. Con mille precauzioni, per non spostare l'arto dalla sua posizione, venne tolta la cassetta metallica e apparve uno spettacolo pauroso. Le forme del piede scomparivano in una enfiagione tale che la pelle sembrava vicina a scoppiare, ed era coperta dai chimosi provocate dal famoso apparecchio. Hippolyte già da prima si era lamentato che gli faceva male, nessuno gli aveva dato retta. Ora fu giocoforza a riconoscere che non aveva del tutto torto e lo si lasciò libero per qualche ora. Ma l'edema si era appena un po' attenuato che i due scienziati giudicarono opportuno ricollocare l'arto nel meccanismo, stringendolo ancora di più per accelerare il processo. Finalmente, tre giorni dopo, poiché Hippolyte non ne poteva più, tolsero di nuovo l'apparecchio, e restarono molto stupiti dai risultati che videro. Una tumefazione livida si estendeva per tutta la gamba, punteggiata qua e là di pustole da cui colava un liquido nerastro. La faccenda prendeva una brutta piega. Hippolyte cominciava a spazientirsi, e la Lefrançois lo collocò in una stanzetta accanto alla cucina, perché almeno si distraesse un po'. Ma l'esattore, che pranzava proprio lì tutti i giorni, protestò vivacemente per tale compagnia. Hippolyte, allora, fu trasferito nella sala da biliardo. Se ne stava lì a gemere sotto le pesanti coperte, pallido, la barba lunga, gli occhi infossati, di tanto in tanto girando la testa sudata sull'urido cuscino che si copriva di mosche. Madame Bovary lo andava a trovare, gli portava dei panni per i cataplasmi, lo consolava, gli faceva coraggio. Del resto la compagnia non gli mancava, soprattutto nei giorni di mercato, quando intorno a lui i contadini facevano cozzare le palle del biliardo, incrociavano le stecche, fumavano, bevevano, cantavano, sbraitavano. «Come va?» dicevano, battendogli una mano sulla spalla. «Non sei soddisfatto, a quanto pare, ma è colpa tua, devi fare questo o devi fare quest'altro». Egli raccontavano storie di gente guarita, con cure del tutto diverse dalle sue. Poi, a mo' di consolazione, aggiungevano «Stai troppo a crogiolarti, alzati, te ne stai lì a coccolarti come un re, ma va là, vecchio imbroglione, lo sai che puzzi». La cancrena, effettivamente, si estendeva sempre di più. Bovary ne pativa quanto il malato. Veniva continuamente, ogni ora, ogni minuto. Hippolyte lo guardava con occhi spaventati e balbettava in singhiozzi. «Quando guarirò?» «Oh, salvatemi! Come sono disgraziato! Come sono disgraziato!» E Bovary se ne andava, sempre raccomandandogli la dieta. «Non gli dar retta, ragazzo mio!» ribatteva l'Alefrançois. «Ti hanno martirizzato fin troppo. Finirai con l'indebolirti ancora di più. Tieni, manda giù». Egli offriva una bella scodella di brodo, un cosciotto d'agnello, un tocco di lardo e qualche volta un bicchierino d'acquavite, che lui non aveva il coraggio di portarsi alle labbra. L'abate Bursinian, saputo che peggiorava, chiese di vederlo. Cominciò col commiserarlo del suo male, allo stesso tempo dichiarando che bisognava rallegrarsene perché era la volontà del Signore e approfittare subito dell'occasione per riconciliarsi col cielo. «Perché, insomma», diceva il sacerdote con tono paterno, «li hai trascurati un po' i tuoi doveri. Non ti si vedeva mai all'ufficio divino. Quanti anni sono che non ti accosti alla Santa Eucaristia?». «Lo capisco che il tuo lavoro, il trambusto del mondo, ti hanno tenuto lontano dalla cura della tua salvezza. Ma ora è il momento di pensarci. Non disperare, però. Ne ho conosciuti di grandi peccatori, che avvicinandosi al momento di comparire davanti al Signore, non è il caso tuo, lo so bene, avevano implorato la sua misericordia e che certamente sono morti in piena grazia di Dio. Speriamo che anche tu, proprio come loro, ci darai il buon esempio. Perciò, chi ti impedisce, per precauzione, di recitare mattina e sera un Ave Maria piena di grazia e un Padre nostro che sei nei cieli? Ma sì, fallo per me e per farmi un piacere. Che cosa ti costa? Me lo prometti?» Il povero diavolo promise. Il curato tornò i giorni seguenti. Chiacchierava con la locandiera e raccontava anche aneddoti, inframmezzati da barzellette e giochi di parole, che Hippolyte non afferrava. Poi, appena le circostanze lo permettevano, ritornava su argomenti religiosi, assumendo un'espressione compunta. Il suo zelo parve aver successo, già che ben presto lo strefopode manifestò il desiderio di andare in pellegrinaggio al Bon Secours, se fosse guarito. Al che, Padre Bursignan replicò che non ci vedeva niente di male. Meglio due precauzioni che una. Non si rischiava nulla. Lo speziale si indignò contro quelli che chiamava i maneggi del prete. Nuocevano, sosteneva, alla convalescenza di Hippolyte e ripeteva alla Lefrançois «Lasciatelo stare, lasciatelo stare, gli indebolite il morale col vostro misticismo». Ma la brava donna non gli dava più retta. Era lui la causa di tutto. Per spirito di contraddizione, collocò al capezzale del malato un'acquasantiera colma fino all'orlo, con un ramoscello di bosso. Tuttavia, la religione pareva non giovargli più della chirurgia e l'inguaribile putrefazione continuava a salire dalle estremità verso il ventre. Si aveva un bel variare le pozioni e cambiare i cataplasmi. I muscoli si rilasciavano ogni giorno di più e, alla fine, Charles diede un cenno affermativo, quando l'Alefrançois gli chiese se non poteva, perso per perso, far venire il dottor Canivet, di Neufchatel, una celebrità. Dottore in medicina, cinquantenne, buona posizione, sicuro di sé, il collega diede senza imbarazzo, in una sdegnosa risata, scoprendo quella gamba incancrenita sino al ginocchio. Poi, dichiarato seccamente che bisognava amputarla, se ne andò dal farmacista, a proferire insolenze contro gli asini che erano riusciti a ridurre un infelice in simile stato. Scuotendo ome per il bottone della redingote, vociferava nella farmacia. Queste sono le invenzioni parigine, eccole le idee di quei signori della capitale, come lo strabismo, il cloroformio e la litotripsia, un cumulo di mostruosità che il governo dovrebbe proibire. Ma vogliono fare i furbi, ti infliggono delle cure senza preoccuparsi delle conseguenze. Noi non siamo così bravi, noi altri. Non siamo scienziati, bellimbusti, zerbinotti. Siamo mediconsoli, guaritori e non ci metteremmo mai in testa di operare qualcuno che se la passa benissimo. Raddrizzare piedi torti. E quando mai si possono raddrizzare i piedi torti? È come se si volesse, per dire, rendere dritto un gobbo. Ome soffriva ascoltando questi discorsi e dissimulava il suo disagio sotto un sorriso cortigiano. Aveva bisogno, infatti, di tenersi buono il dottor Canivet, le cui ricette talvolta arrivavano sino a Yonville. Perciò non prese le difese di Bovary, non espresse alcuna riserva e, abbandonando i propri principi, sacrificò la sua dignità ai più importanti interessi del suo commercio. Un avvenimento straordinario per il paese, quella amputazione di gamba del dottor Canivet. Tutti gli abitanti si erano alzati, quel giorno, di buon'ora, e la Grand Rue, sebbene piena di gente, aveva qualcosa di lugubre, quasi si trattasse di una esecuzione capitale. Dallo speziale si discuteva della malattia di Hippolyte, le botteghe non vendevano nulla e la signora Tuvache, moglie del sindaco, non si muoveva dalla finestra, impaziente com'era di vedere arrivare il chirurgo. Arrivò nel calesse che lui stesso conduceva. Ma poiché la molla sul lato destro aveva a lungo andare ceduto sotto il peso della sua corpulenza, accadeva che il veicolo pendeva un po' nell'andare e si poteva scorgere sull'altro cuscino, accanto a lui, una grossa scatola rivestita di carta pecora rossa, i cui tre fermagli di rame brillavano maestosamente. Entrato come un turbine sotto il portico del Lyon d'Or, il dottore ordinò con voce stentorea che gli staccassero il cavallo, e poi si recò nella scuderia per controllare se la vena gli piaceva. Arrivando dai suoi pazienti, infatti, si occupava prima di tutto della giumenta e del calessino. Si soleva dire a questo proposito, ah, il dottor Canivè, un vero originale, e lo si apprezzava ancora di più in ragione di questa incontrollabile imperturbabilità. L'universo poteva esplodere con l'intera umanità. Lui non avrebbe rinunciato alla minima delle sue abitudini. Omessi fece avanti. Conto su di voi, fece il dottore. Siamo pronti e in marcia. Ma lo speziale, arrossendo, confessò che era troppo impressionabile per assistere ad un'operazione del genere. Quando si è semplici spettatori, diceva, l'immaginazione, lo sapete, viene eccitata, e poi il mio sistema nervoso è talmente… bah, interruppe Canivè. Mi sembrate predisposto, anzi, alla poplessia. E d'altronde non mi stupisce, già che voi altri, signori farmacisti, ve ne state sempre ficcati nei vostri retrobottega, e questo evidentemente finisce con l'alterarvi il carattere. Guardate me, invece. Mi alzo tutti i giorni alle quattro. Mi faccio la barba con l'acqua fredda. Non soffro il freddo. Mai. Non indosso flanella. E mai un raffreddore. La cassa è bella forte. Vivo una volta in un modo, una volta in un altro. Da filosofo, dove mi porta il caso. È per questo che non sono delicato come voi, e che per me è perfettamente la stessa cosa trinciare un cristiano o il primo pollo che capita. E poi, direte voi, l'abitudine. L'abitudine. Allora, senza alcun riguardo per i polite, che sudava d'angoscia sotto le lenzuola, i due personaggi impiantarono una conversazione in cui lo speziale paragonò il sangue freddo di un chirurgo a quello di un generale, e questo accostamento fu apprezzato da Canivè, che si dilungò sulle esigenze della propria professione. La considerava come un sacerdozio, benché gli ufficiali sanitari la disonorassero. Alla fine, volgendosi al malato, esaminò le bende fornite da Ome, le stesse predisposte per l'intervento sul piede torto, e chiese che qualcuno tenesse fermo l'arto. Si mandò a cercare l'estibudoa, e il dottor Canivè, rimboccate le maniche, entrò nella sala da biliardo, mentre lo speziale restava con Artemise e la locandiera, tutte e due più pallide dei loro grembiuli, l'orecchio teso contro la porta. Bovary, per tutto quel tempo, non aveva il coraggio di muoversi da casa. Se ne stava da basso, in sala, seduto accanto al cammino spento, il mento appoggiato sul petto, le mani giunte, lo sguardo fisso. Che disavventura! Pensava. Che delusione! Eppure aveva preso tutte le precauzioni immaginabili. Ci sarà messo di mezzo il fatto. Poco importa, se Hippolyte prima o poi fosse venuto a morte, sarebbe stato lui ad assassinarlo. E poi, che argomenti avrebbe potuto usare coi pazienti se l'avessero interrogato? Poteva darsi, tuttavia, che si fosse sbagliato in qualche cosa? Ci pensava, non scopriva nulla. Eppure, anche i più celebri chirurgi si sbagliavano. Ma questo, nessuno l'avrebbe preso in considerazione. Al contrario, tutti avrebbero riso e gridato allo scandalo. La voce sarebbe arrivata fino a Forge, fino a Neufchatel, sino a Rouen, dappertutto. Magari qualche collega avrebbe scritto contro di lui. Ne sarebbe seguita una polemica, avrebbe dovuto rispondere sui giornali. Hippolyte stesso poteva fargli causa. Si vedeva disonorato, rovinato, perduto. E la sua immaginazione, assalita da una moltitudine di ipotesi, era sballottolata in mezzo ad esse come un barile vuoto, trascinato dal mare che galleggia sui flutti. Emma, di fronte a lui, lo guardava. Non condivideva la sua umiliazione, ne provava un'altra. Quella di essersi immaginata che un uomo simile potesse valere qualcosa, come se non avesse già mille volte sperimentato a sufficienza la sua mediocrità. Charles passeggiava in lungo e in largo per la stanza. Gli stivali scricchiolavano sul pavimento. «Siediti», disse lei, «mi dai sui nervi». Lui si sedette di nuovo. Ma come aveva fatto, lei che era così intelligente, a ingannarsi ancora una volta? Nel resto, quale deplorevole follia aver rovinato così la sua esistenza in sacrifici continui. Riportò alla mente tutti i suoi bisogni di lusso, tutte le privazioni dell'anima, le meschinità del matrimonio, della vita familiare, i suoi sogni caduti nel fango come rondini ferite, tutto ciò che aveva desiderato, tutto ciò di cui si era privata, tutto ciò che avrebbe potuto avere. E perché? Perché? Al colmo del silenzio che gravava sul paese, un grido straziante attraversò l'aria. Bovary divenne pallido, come se svenisse. Lei aggrottò nervosamente le sopracciglia, poi ricominciò. Ed era per lui, per quell'essere, per quell'uomo che non capiva nulla, che non sentiva nulla. Già che se ne stava lì tranquillo, senza neanche sospettare che il ridicolo della sua fama avrebbe ormai insozzato anche lei. Aveva fatto ogni sforzo per amarlo, e si era pentita piangendo di aver ceduto ad un altro. «Ma che fosse un valgo!» esclamò improvvisamente Bovary, che stava meditando. All'impatto inatteso di quella frase, caduta sui suoi pensieri come una palla di piombo su un vassoio d'argento, Emma trasalendo alzò il capo, per scoprire cosa intendeva il marito, e si guardarono in silenzio, quasi sbalorditi di vedersi, tanto le loro coscienze li tenevano lontani l'uno dall'altra. Charles la osservava con lo sguardo torbido di un ubriaco, mentre ascoltava immobile le ultime grida dell'ambutato, che si susseguivano in modulazioni strascicate, interrotte da singulti striduli, come l'urlio lontano di una bestia sgozzata. Emma si mordeva le labbra ai sangui, e rotolando fra le dita uno stelo di polipaio che aveva spezzato, fissava su Charles la punta ardente delle sue pupille, come frecce di fuoco pronte a scoccare. Tutto di lui ora la irritava, la sua fisionomia, l'abito, quel che non diceva, la sua intera persona, la sua esistenza, insomma. Si pentiva, come di un delitto, della sua passata virtù, e ciò che ancora ne avanzava si sbriciolava ai colpi furiosi del suo orgoglio. Si compiaceva di tutte le malvagie ironie dell'adulterio trionfante. Il ricordo dell'amante le ritornava con attrattive vertiginose. In quel ricordo gettava l'anima, trasportata verso quell'immagine da un nuovo entusiasmo. E Charles le sembrava distaccato dalla sua vita, per sempre assente, impossibile e annientato, quasi stesse per morire, agonizzando sotto i suoi occhi. Ci fu un rumore di passi sul marciapiede. Charles guardò, e attraverso la persiana abbassata, scorse, accanto al mercato, in pieno sole, il dottor Canivet che si asciugava la fronte col fazzoletto. Homè, dietro di lui, aveva in mano uno scatolone rosso, e tutti e due si dirigevano verso la farmacia. Allora, fra subitanea tenerezza e sconforto, Charles si volse verso la moglie, dicendo, dammi un bacio, mia dolce amica. Lasciami, fece lei, tutta rossa di collera. Ma che hai? Che ti prende? Ripeteva lui stupefatto. Calmati, torna in te. Lo sai che ti amo. Vieni. Basta! Gridò lei, con una faccia terribile. E fuggendo dalla sala, Emma sbatté la porta così forte che il barometro si spiccò dalla parete e si frantumò a terra. Charles affondò nella poltrona, sconvolto, chiedendosi cosa le fosse preso, immaginando una malattia di nervi, e in lacrime sentiva fluttuare intorno a sé qualcosa di funesto e di incomprensibile. Quando la sera Rodolfo comparve in giardino, trovò l'amante che lo aspettava ai piedi della scalinata, sul primo gradino. Si abbracciarono, ed ogni rancore si sciolse come neve, al calore di quel bacio. Capitolo dodici Ricominciarono ad amarsi. Spesso, anche nel bel mezzo della giornata, Emma improvvisamente gli scriveva. Poi, attraverso i vetri, faceva un cenno a Justine, che, sfilatosi il grembiule, volava alla uscette. Rodolfo arrivava. Lei voleva solo dirgli che si annoiava, che suo marito era odioso e l'esistenza orrenda. «Ma io che ci posso fare?» esclamò lui un giorno, spazientito. «Ah, se tu volessi!» Era seduta per terra, tra le sue ginocchia, i capelli sciolti, lo sguardo perso. «Ma cosa?» fece Rodolfo. Sospirò. «Potremmo andare a vivere altrove, da qualche parte!» «Sei pazza, davvero?» disse lui ridendo. «Ti sembra possibile?» Emma tornò sull'argomento. Lui finse di non capire e cambiò discorso. Quel che non capiva era tanto affanno in una cosa semplice come l'amore. Ma lei aveva un motivo, una ragione, e come un ausilio alla sua affezione. Questo attaccamento, infatti, era alimentato giorno dopo giorno dalla ripugnanza per il marito. Più si abbandonava all'uno, più detestava l'altro. Mai Charles le era apparso tanto sgradevole, con le dita così tozze, la mente così ottusa e i modi così grossolani, come quando se lo ritrovava accanto dopo gli incontri con Rodolfo. Allora, mentre faceva la sposa virtuosa, ardeva al pensiero di quella testa dai capelli neri che si arricciavano sulla fronte abbronzata, di quella figura al tempo stesso così robusta ed elegante, di quell'uomo, insomma, che possedeva tanta esperienza nel ragionamento e tanto trasporto nel desiderio. Per lui si limava le unghie con la cura di un cesellatore e le pareva di non aver mai abbastanza cold cream sulla pelle e paciulli nei fazzoletti. Si copriva di braccialetti, anelli e collane. Quando lui doveva venire, riempiva di rose i due grandi vasi di vetro azzurro e preparava la stanza e la propria persona come una cortigiana in attesa di un principe. La domestica doveva stare in continuazione a lavare biancheria e per tutta la giornata Felicité non usciva dalla cucina, dove il piccolo Justine, che spesso le teneva compagnia, la guardava lavorare. Con il gomito appoggiato alla lunga asse da stiro, osservava avidamente tutti quegli indumenti femminili esposti al suo sguardo. Le sottogonne di basino, i fichu, i collarini, i mutandoni a piegoline ampi sui fianchi e stretti in basso. «A che serve?» domandava il ragazzo, posando la mano sulla crinolina o sui ganci. «Ma non hai mai visto nulla!» rispondeva ridendo Felicité. «Come se la tua padrona, la signora Ome, non portasse le stesse cose!» «Figuriamoci, la signora Ome!» e aggiungeva con aria pensierosa. «È forse una signora come madame?» Ma Felicité si spazientiva a vederselo sempre intorno. Aveva sei anni più di lui e Theodore, il domestico del signor Gouilloman, cominciava a farle la corte. «Lasciami in pace!» diceva, spostando il vasetto dell'amido. «Vattene a pestare le mandorle, piuttosto! Sei sempre a ficcare il naso tra le donne! Aspetta almeno di avere la barba, mociosetto!» «Su, via, non arrabbiatevi! Vi farò i suoi stivaletti!» Essenza Indugi prendeva dalla soglia le scarpe di Emma, tutte incrostate di fango. Il fango degli incontri, che si staccava sotto le dita e che, ridotto in polvere, lui guardava salire lentamente in un raggio di sole. «Come sei attento a non sciuparle?» diceva la cuoca, che non faceva tutti quei complimenti quando era lei a pulirle, perché madame, non appena il tessuto perdeva freschezza, gliele passava. Emma ne aveva un'enorme quantità nell'armadio e ne faceva spreco senza che Charles si permettesse mai la minima osservazione. Anzi, sborsò pure 300 franchi per una gamba di legno che lei ritenne opportuno regalare a Hippolyte. Il tronco era rivestito di sughero e le articolazioni erano a molla, un complicato meccanismo coperto da un pantalone nero e completato da uno stivale di vernice. Ma Hippolyte, non osando adoperare per tutti i giorni una gamba così bella, supplicò madame Bovary di procurargliene un'altra più ordinaria. Il medico, ovviamente, si assunse anche questa spesa. Così lo stalliere riprese poco a poco il suo lavoro. Lo si vedeva andare e venire per il paese come prima e quando Charles udiva da lontano il rumore secco del suo bastone sul selciato, cambiava rapidamente strada. Era stato Leroux, il negoziante, a occuparsi delle ordinazioni e questo gli offrì l'opportunità di frequentare Emma. Parlava con lei dei nuovi arrivi da Parigi, di mille curiosità femminili, si mostrava estremamente premuroso e non chiedeva mai denaro. Emma si abbandonava a quella possibilità di soddisfare tanto facilmente ogni suo capriccio. Così chiese di avere, per farne dono a Rodolphe, un bellissimo frustino esposto in un negozio di ombrelli di Rouen. La settimana dopo, Leroux glielo depose sul tavolo. Ma l'indomani si presentò a casa con una fattura di 270 franchi, senza contare i centesimi. Emma si trovò in serio imbarazzo. Tutti i cassetti dello scrittoio erano vuoti. Dovevano più di 15 giorni di paga all'estibudo, due trimestri alla domestica, più una quantità di altre cose, e Bovary aspettava con impazienza il saldo del signor de Roseret, che ogni anno soleva pagarlo intorno alla festa di San Pietro. Inizialmente riuscì a tenere a bada Leroux, ma alla fine questi perse la pazienza. Lo perseguitavano, mancava di liquidi. Se non avesse potuto recuperare qualcuno dei suoi crediti, sarebbe stato costretto a riprendersi tutta la sua roba. «Riprendetevela», disse Emma. «Oh, facevo per dire», replicò lui. «Mi dispiace solo per il frustino. Ma lo richiederò a vostro marito». «No, no», fece lei. «Ah, ti tengo», pensò Leroux. È sicuro della sua scoperta, se ne andò ripetendo a mezza voce con il solito sibilo. «Eh va bene, vedremo, vedremo». Lei rifletteva su come venire fuori da quell'impiccio, quando entrò la cuoca e appoggiò sul caminetto un piccolo rotolo di carta azzurra, da parte del signor de Roseret. Emma si precipitò ad aprirlo. C'erano quindici Napoleoni. Era il saldo. Sentì Charles salire le scale, buttò il denaro in fondo al cassetto e prese la chiave. Tre giorni dopo, Leroux si rifece vivo. «Ho da proporvi un accordo», disse. «Se al posto della somma convenuta voleste prendere... eccola», fece lei, mettendogli in mano quattordici Napoleoni. Il negoziante restò sbalordito. Allora, per mascherare il disappunto, si profuse in scuse e in offerte di servigi, che lei rifiutò categoricamente. Poi Emma indugiò qualche minuto a palpare, nella tasca del grembiule, i due pezzi da cento soldi avuti in resto. Si riprometteva di risparmiare, per poi restituire. «Bah», riflette, «se ne scorderà». Oltre al frustino col pomo d'argento dorato, Rodolphe aveva avuto in dono un sigillo con il motto «Amor nel cor», più una sciarpa e infine un portasigari in tutto simile a quello del Visconte, tanto tempo addietro raccolto da Charles in mezzo alla strada e custodito da Emma. Quei regali però lo umiliavano, ne rifiutò parecchi. Lei insistè e Rodolphe finì con l'accettare, trovandola tirannica e troppo invadente. Aveva anche strane idee. «Quando suonerà mezzanotte», diceva, «penserai a me». E se lui confessava di non averci pensato, era una pioggia di rimproveri, che si concludeva sempre con l'eterna frase «mi ami». «Ma sì, ti amo», rispondeva lui. «Molto, ma certo». «Non ne hai, amate altre, dimmi». «Non crederai di avermi preso vergine», esclamava lui ridendo. Emma piangeva, e lui cercava di consolarla, infiorettando le sue proteste di giochi di parole. «Oh, è perché ti amo», continuava lei. «Ti amo tanto da non poter fare a meno di te, lo sai? A volte ho una tale voglia di vederti che mi sento straziare da tutte le furie dell'amore. Mi chiedo, dov'è? Forse sta parlando ad altre donne. Gli sorridono e lui si avvicina. «Oh, no, vero? Non te ne piace nessuna. Ce ne sono più belle di me. Ma io, io so amare meglio. Io sono la tua schiava e la tua concubina. Tu sei il mio sovrano, il mio idolo. Sei buono, sei bello, sei intelligente e forte». Lui se l'era sentite dire tante volte quelle cose, che ormai non ci trovava più niente di originale. Emma assomigliava a tutte le sue amanti, e il fascino della novità, cadendo a poco a poco come una veste, mostrava nuda l'eterna monotonia della passione, che ha sempre le stesse forme e lo stesso linguaggio. Era incapace di distinguere, quell'uomo tanto esperto, la diversità dei sentimenti sotto l'identità delle espressioni. Poiché labbra libertine o venali gli avevano sussurrato frasi simili, non riusciva a credere davvero al candore di quelle di lei. «E' bene farla tara», pensava. «I discorsi esaltati nascondono affetti mediocri». Come se la pienezza dell'anima non traboccasse, a volte, attraverso le metafore più vuote. Perché nessuno mai può dare l'esatta misura dei propri bisogni, né dei propri pensieri, né dei propri dolori. E perché la parola umana è come un paiolo incrinato, su cui ritmiamo melodie per far ballare gli orsi, mentre vorremmo intenerire le stelle. Ma con quella superiorità di giudizio, propria di chi, in qualsiasi impegno, si tiene a distanza, Rodolphe intravide in quell'amore la possibilità di altri godimenti. Considerò fastidioso ogni pudore. La trattò senza riguardi. Ne fece qualcosa di malleabile e di corrotto. Era una sorta di attaccamento idiota, colmo d'ammirazione per lui, di volutà per se stessa. Una beatitudine paralizzante. La sua anima sprofondava in quell'ebrezza e vi annegava, rattrappita come il duca di Clarence nella sua botte di malvasia. Per semplice effetto delle nuove abitudini amorose, Madame Bovary mutò comportamento. I suoi sguardi diventarono più audaci, i suoi discorsi più liberi. Ebbe addirittura l'impudenza di andare a passeggio con Rodolphe, tenendo una sigaretta in bocca. Come per sfidare la gente. Alla fine, quelli che ancora nutrivano dubbi non ne ebbero più. Quando un giorno la videro scendere dall'irondelle, con la vita stretta in un gilet, come un uomo, e la signora Bovary madre, che dopo una spaventosa scenata con il marito era venuta a rifugiarsi dal figlio, non fu, tra le signore, la meno scandalizzata. Molte altre cose non le piacquero. Prima di tutto, Charles non aveva seguito i suoi consigli circa la proibizione dei romanzi. Poi non le piaceva il tono della casa. Si permise qualche osservazione e litigarono. Soprattutto una volta, a proposito di felicitè. La sera prima, attraversando il corridoio, la signora Bovary madre l'aveva sorpresa in compagnia di un uomo, uno con la barba scura, sulla quarantina, che al rumore dei suoi passi era scappato dalla cucina. Emma scoppiò a ridere, ma la brava donna si arrabbiò e dichiarò che, se non si voleva venire meno ai buoni costumi, si dovevano sorvegliare quelli della servitù. «Ma di che mondo siete?» disse la nuora, con uno sguardo tanto impertinente che la signora Bovary madre le chiese se non stesse difendendo la propria causa. «Fuori!» fece la giovane donna balzando in piedi. «Emma, mamma!» esclamava Charles per riconciliarle. Ma nella loro esasperazione erano fuggite entrambe. Emma pestava i piedi ripetendo «Che modi! Che contadina!» Lui corse dalla madre, era fuori di sé, balbettava «è un insolente, una svaporata, forse peggio!» e voleva andarsene immediatamente se l'altra non le avesse presentato le sue scuse. Charles tornò dalla moglie e la scongiurò di cedere, si mise persino in ginocchio. Lei finì per rispondere «E va bene, ci vado!» Effettivamente tese la mano alla suocera con la dignità di una marchesa, dicendo «Scusatemi, signora!» Poi, rientrata in camera, si gettò bocconi sul letto e pianse come un bambino, la testa affondata nel cuscino. Si erano messi d'accordo, lei e Rodolf, che nel caso di qualche fatto straordinario avrebbe attaccato alla persiana un pezzetto di carta bianca, in modo che, se per caso si trovava a Yonville, lui sarebbe accorso nel vicolo dietro casa. Emma fece il segnale. Aspettava da tre quarti d'ora, quando d'improvviso vide Rodolf all'angolo del mercato. Ebbe la tentazione di spalancare la finestra, di chiamarlo, ma era già scomparso. Ricadde, disperata. Poco dopo, però, le sembrò di sentire dei passi sul marciapiede. Era lui, senza dubbio. Scese le scale, attraversò il cortile. Era là fuori, si gettò fra le sue braccia. «Ma sta attenta!» disse lui. «Se tu sapessi!» lei replicò. E cominciò a raccontargli ogni cosa, in gran fretta e in maniera del tutto incoerente, esagerando i fatti, inventandone molti, e con una tale abbondanza di parentesi che lui non ci capiva nulla. «Su, angelo mio, coraggio! Calmati, pazienza!» «Ma sono quattro anni che porto pazienza e che soffro! Un amore come il nostro dovrebbe essere gridato al cielo! È una tortura! Non ne posso più! Salvami!» si stringeva a Rodolf. I suoi occhi pieni di lacrime scintillavano come fiamme sotto l'onda. Il suo petto palpitava ansimante. A lui non era mai piaciuta così tanto. Perse la testa e le disse «Cosa possiamo fare? Che vuoi?» «Portami via!» proruppe lei. «Rapiscimi! O te ne supplico!» e si gettò sulla sua bocca, come per afferrarvi l'inatteso consenso che ne esalava in un bacio. «Ma...» replicò Rodolf. «Che c'è ancora?» «E tua figlia?» Stette a riflettere qualche minuto, poi rispose «La porteremo con noi pazienza!» «Che donna!» lui si disse, mentre la guardava allontanarsi. Stava infatti scappando in giardino. La chiamavano. I giorni seguenti la signora Bovary, madre, fu molto stupita della metamorfosi della nuora. Emma, infatti, si mostrava più docile e spinse la deferenza fino a chiederle una ricetta per marinare i cetrioli. Era per ingannarli meglio, l'uno e l'altra? Oppure, per una sorta di stoicismo voluttuoso, voleva sentire fino in fondo l'amarezza delle cose che stava per abbandonare? Ma a questo non ci pensava. Al contrario, viveva come perduta nell'assaporare anticipatamente la futura felicità. Con Rodolphe era un continuo argomento di conversazione. Si appoggiava alla spalla. Mormorava «Ah, quando saremo sulla diligenza!» «Ci pensi? È mai possibile! Mi sembra che nel momento in cui sentirò mettersi in moto la vettura sarà come se salissimo in pallone, come se partissimo verso le nuvole. Sai che con i tuoi giorni? E tu?» Mai come in quel periodo fu così bella Madame Bovary. Aveva quell'indefinibile bellezza che risulta dalla gioia, dall'entusiasmo, dal successo, e che altro non è se non l'armonia fra il temperamento e le circostanze. Bramosie, dispiaceri, esperienza del piacere e perenni illusioni l'avevano a poco a poco fatta crescere, come fanno con i fiori, il concime, la pioggia, i venti e il sole, e ora finalmente sbocciava nella pienezza della sua natura. Le palpebre parevano tagliate apposta per i lunghi sguardi amorosi in cui la pupilla si smarriva, mentre un palpito profondo dilatava le narici sottili e sollevava l'angolo carnoso delle labbra, ombreggiate, alla luce, da una lieve nera peluria. Si sarebbe detto che ad attorcigliarle i capelli sulla nuca fosse stato un artista esperto in corruzioni. Si arrotolavano in una massa pesante, indolenti e docili ai capricci dell'adulterio che ogni giorno li scioglieva. La voce, adesso, prendeva inflessioni più languide, al pari del busto. Un caddy sottile e penetrante si sprigionava persino dalle pieghe del vestito e dalla curvatura del piede. Come ai primi tempi del matrimonio, Charles la trovava deliziosa e irresistibile. Quando rincasava a notte fonda, non osava svegliarla. Il lumino di porcellana proiettava sul soffitto un cerchio di luce tremante. Le tendine della culla, chiuse, facevano una specie di bianca capanna rigonfia nell'ombra, accanto al letto. Charles le guardava. Credeva di sentire il respiro leggero della bambina. Diventava grande ormai. Ogni stagione avrebbe portato un qualche rapido progresso. La vedeva già a tornare da scuola al calar della sera, tutta ridente, con il grembiulino macchiato d'inchiostro e il panierino sotto braccio. Poi bisognava metterla in collegio. Sarebbe stata una bella spesa. Come fare? E rifletteva. Pensava di prendere in affitto una piccola fattoria nei dintorni. Se ne sarebbe occupato lui stesso ogni mattina, nell'andare a far visita ai malati. Avrebbe accantonato la rendita, l'avrebbe messa alla cassa di risparmio. Poi avrebbe comprato delle azioni qualsiasi, non importa quali. Del resto la clientela sarebbe cresciuta. Ci contava, perché voleva che Bert avesse una buona educazione, brillasse per le sue doti, imparasse a suonare il piano. Ah, come sarebbe stata graziosa più tardi, a quindici anni, quando d'estate, somigliante alla madre, avrebbe portato come lei grandi cappelli di paglia. Da lontano le avrebbero scambiate per due sorelle. Se la immaginava intenta a lavoro la sera, vicina a loro, alla luce della lampada. Gli avrebbe ricamato delle pantofole, si sarebbe occupata della casa, l'avrebbe riempita della sua grazia e della sua allegria. E alla fine avrebbero pensato ad accasarla. Le avrebbero trovato un bravo ragazzo con una solida posizione. Lui l'avrebbe resa felice, sarebbe durato per sempre. Emma non dormiva, faceva finta di essere addormentata, e mentre lui si assopiva al suo fianco, si destava ad altri sogni. Al galoppo di quattro cavalli, da otto giorni veniva trascinata verso un paese nuovo, da cui non sarebbero mai più tornati. Andavano, andavano, l'uno nelle braccia dell'altra, senza parlare. Spesso, dall'alto di un monte, scorgevano all'improvviso qualche splendida città con cupole, ponti, navi, boschi di limoni e cattedrali di marmo bianco, nidi di cicogne sui campanili aguzzi. Procedevano al passo, per via dei lastroni, e a terra c'erano mazzi di fiori, offerti da donne in corsetto rosso. Si udiva il rintocco di campane, il nitrito di muli, il mormorio delle chitarre, e lo scroscio delle fontane, da cui si levava una nebbiolina che teneva freschi cumuli di frutta, disposti a piramide ai piedi delle pallide statue sorridenti sotto gli zampilli. Poi, una sera, arrivavano in un villaggio di pescatori, dove reti scure si asciugavano al vento, lungo la scogliera e le capanne. Lì si sarebbero fermati a vivere. Avrebbero abitato una casa bassa, dal tetto piatto, all'ombra di una palma, in fondo a un golfo, sulla riva del mare. Avrebbero fatto passeggiate in gondola, si sarebbero dondolati sull'amaca, e la loro esistenza sarebbe stata facile ed ampia, come le loro vesti di seta, calda e stellata, come le dolci notti che avrebbero contemplato. Sull'immensità di quell'avvenire che faceva sorgere davanti ai suoi occhi, non spiccava tuttavia alcun evento particolare. Tutti magnifici, i giorni si somigliavano come onde, e l'insieme fluttuava all'orizzonte, infinito, armonioso, azzurrino e inondato di sole. Ma la bambina nella culla si metteva a tossire, oppure Bovary russava più forte, ed Emma non prendeva sonno fino al mattino, quando l'alba imbiancava i vetri, e già il piccolo Justine, in piazza, apriva i battenti della farmacia. Aveva fatto venire l'heureux, e gli aveva detto, avrei bisogno di un mantello, un mantello grande, a collo alto, foderato. «Vi mettete in viaggio, madame?» chiese lui. «No, ma...» «Non importa, conto su di voi, vero? È presto!» Quello annui. «Mi occorrerebbe ancora?» continuò. «Un baule, non troppo pesante, comodo.» «Sì, sì, ho capito. Novantadue centimetri circa per cinquanta, come vanno ora. Con una borsa da notte.» «Decisamente», pensò l'heureux. «Qui, gatta, ci cova.» «Tenete», disse madame Bovary, estraendo l'orologio dalla cintura. «Prendetelo, pagatevi con questo.» Ma il negoziante protestò che non c'era bisogno, si conoscevano, avrebbe forse dubitato di lei. Che sciocchezza! Tuttavia, lei insistè, perché prendesse almeno la catena. L'heureux l'aveva già messa in tasca e si stava allontanando, quando lei lo richiamò. «Tenete tutto in negozio. Quanto al mantello...» ebbe l'aria di riflettere. «No, non portate neanche quello. Basterà che mi diate l'indirizzo del lavorante e che l'avvertiate di tenerlo a mia disposizione.» La fuga era fissata per il mese seguente. Lei sarebbe partita da Yonville come per andare a far commissioni a Rouen. Rodolphe avrebbe prenotato i posti, ritirato i passaporti e anche scritto a Parigi per avere a disposizione l'intera dirigenza sino a Marsiglia, dove avrebbero acquistato un calesse e da lì avrebbero proseguito senza soste per la strada di Genova. Lei avrebbe pensato a mandare da loro il suo bagaglio, che sarebbe stato portato direttamente all'irondelle, in modo da non destare sospetti. In tutto questo, mai una parola riguardo alla bambina. Rodolphe evitava di parlarne, magari lei non ci pensava più. Lui chiese di avere ancora due settimane per sistemare alcuni affari. Poi, in capo ad otto giorni, ne chiese altri quindici. Poi si dette malato. In seguito fece un viaggio, passò il mese d'agosto e, dopo tutti quei rinvii, stabilirono che sarebbe stato, irrevocabilmente, per il 4 settembre, un lunedì. Giunse finalmente il sabato, l'antivigilia. Rodolphe quella sera venne prima del solito. È tutto pronto? gli domandò lei. Sì. Allora fecero il giro di un'aiuola e andarono a sedersi vicino alla terrazza sull'orlo del muretto. Sei triste? disse Emma. No, perché? Però la guardava in modo strano, con un'espressione tenera. E perché stai per partire? Riprese. Lasciare i tuoi affetti? La tua vita? Ah, capisco. Ma io? Io non ho nulla al mondo. Tu sei tutto per me. Ed io sarò tutto per te. Sarò la tua famiglia, la tua patria. Avrò cura di te. Ti amerò. Come sei cara? disse lui, prendendola fra le braccia. Davvero? fece lei, ridendo di volutà. Mi ami? Giuralo allora. Se ti amo? Se ti amo. Ma io ti adoro, amore mio. La luna, rotonda e purpurea, si alzava a rasoterra, in fondo ai prati. Saliva veloce tra i rami dei pioppi, che ogni tanto la nascondevano, come un sipario nero, forato. Alla fine apparve, candida ed elegante, nel cielo vuoto, rischiarandolo. Allora, più lenta, lasciò cadere sul fiume una grande macchia, che faceva un'infinità di stelle, e quel bagliore d'argento pareva contorcersi sino al fondo, come un serpente senza testa, coperto di squame luminose. Assomigliava anche ad un mostruoso candelabro, da cui colassero, per tutta la lunghezza, gocce di diamante fuso. La notte li avvolgeva dolcemente. Pozze d'ombra attraversavano il fogliame. Gli occhi socchiusi, Emma aspirava con profondi sospiri l'alito fresco del vento. Non parlavano, troppo smarriti nel dilagare delle fantasticherie. Nel loro cuore tornava la tenerezza dei vecchi tempi, abbondante e silenziosa come il fiume che scorreva, languida come il profumo delle siringhe, e proiettava nei loro ricordi ombre più smisurate e malinconiche di quelle che i salici immobili allungavano sull'erba. A volte qualche bestia notturna, riccio o donnola, mettendosi in caccia, smuoveva le foglie, oppure si sentiva a tratti una pesca matura cadere dalla spalliera. Ah, che bella notte, disse Rodolf. Ne avremo altre, replicò Emma. È come parlando a se stessa. Sì, sarà bello viaggiare, ma perché mai ho questa tristezza in cuore? E il timore dell'ignoto, il fatto che si abbandonano le abitudini? O invece... no, è l'eccesso di felicità. Sono debole, vero? Perdonami. Siamo ancora in tempo, lui esclamò. Riflettici, potresti pentirtene. Mai, rispose lei con impeto. E riaccostandosi a lui. Quale disgrazia può mai succedermi? Non c'è deserto, non c'è dirupo né oceano che non attraverserei con te. Via via che vivremo insieme sarà come un abbraccio ogni giorno più forte, più completo. Nulla ci disturberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo. Saremo soli, tutti per noi, per l'eternità. Ma dimmi qualcosa, rispondimi. Lui rispondeva a intervalli regolari. Sì. Sì. Lei gli passava le dita tra i capelli e ripeteva con voce infantile, seppur tra i lacrimoni che le bagnavano il viso. Rodolf, Rodolf. Ah, Rodolf, caro piccolo Rodolf. Suonò la mezzanotte. Mezzanotte, disse. E per domani, ancora un giorno. Lui si alzò per andarsene, e come se quel gesto fosse il segnale della fuga, Emma, a un tratto, prendendo un'aria allegra. Le hai passaporti? Sì. Non dimentichi nulla? No. Sei sicuro? Certo. Mi aspetterai all'Hotel de Provence, d'accordo? A mezzogiorno? Lui annui. A domani, allora, disse Emma, con un'ultima carezza. E lo guardò che si allontanava. Lui non si voltava. Gli corse dietro, e curvandosi sull'acqua tra i rovi. A domani, gridò ancora. Rodolf era già dall'altra parte del fiume, e camminava in fretta sul prato. Dopo qualche minuto si fermò, e quando la vide, con quel suo abito bianco, svanire nell'ombra come un fantasma, il cuore gli batte talmente che dovette appoggiarsi a un albero per non cadere. Che imbecille che sono! Fece, bestemmiando terribilmente. Pazienza, era una splendida amante. E subito gli riapparve la bellezza di Emma, con tutti i piaceri di quell'amore. Dapprima si intenerì, poi si ribellò. In fin dei conti, esclamava gesticolando. Non posso mica espatriare, è con una bambina a carico. Si ripeteva queste cose per sentirsi più fermo nella sua decisione. E poi le seccature, le spese. Ah, no, no, mille volte no. Sarebbe stato troppo idiota. Capitolo 13 Appena arrivato a casa, Rodolf andò rapidamente a sedersi allo scrittoio, sotto la testa di cervo appesa a trofeo sulla parete. Ma quando ebbe la penna tra le dita, non gli riuscì di trovare niente, così che, appoggiatosi sui gomiti, si mise a riflettere. Emma gli pareva relegata in un passato ormai remoto, come se la decisione presa avesse improvvisamente messo tra loro un'immensa distanza. Per ritrovare qualcosa di lei, andò a cercare nell'armadio, al capezzale del letto, una vecchia scatola di biscotti di Rem, in cui era solito conservare le lettere delle sue donne. Ne uscì un odore di polvere umida e di rose appassite. Per prima cosa vide un fazzoletto, macchiato di pallide goccioline. Era un fazzoletto di lei, una volta che, durante una passeggiata, aveva perduto sangue dal naso. Non se ne ricordava più. Veniva poi, e sbatteva a tutti gli angoli, la miniatura regalatagli da Emma. L'abbigliamento gli sembrò pretenzioso, e quello sguardo in tralice di un effetto quanto mai pietoso. Poi, a forza di osservare quell'immagine e di evocare il ricordo del modello, i tratti di Emma finirono per confondersi nella sua mente, come se il volto reale e quello dipinto, sovrapponendosi l'uno all'altro, si fossero cancellati a vicenda. Alla fine, lesse delle lettere. Erano piene di indicazioni relative al viaggio, brevi, tecniche e puntigliose, come comunicazioni d'affari. Vole rivedere quelle lunghe, quelle d'una volta. Per trovarle in fondo alla scatola, Rodolfo buttò all'aria tutte le altre, e meccanicamente prese a frugare in quel mucchio di carte e di oggetti, rintracciandovi alla rinfusa mazzolini di fiori. Una giarrettiera, una mascherina nera, spille e ciocche di capelli. Capelli, bruni, biondi, alcuni anzi, impigliandosi nelle cerniere, si spezzavano quando la scatola veniva aperta. Vagando così in mezzo ai ricordi, esaminava le calligrafie e lo stile delle lettere, ognuno diverso dall'altro, come le ortografie. Erano tenere o allegre, facete, malinconiche, certune chiedevano amore, altre denaro. Una parola gli suggeriva un volto, certi gesti, il suono di una voce, ma a volte non ricordava niente. In effetti, accorrendo tutte insieme nella sua mente, quelle donne si disturbavano a vicenda, e vi si rimpicciolivano, come assimilate in un identico livello d'amore. E così, prendendo manciate di lettere a casaccio, si divertì per qualche minuto a farle piovere dalla mano destra nella sinistra. Alla fine, Rodolf, annoiato, assonnato, andò a riporre la scatola nell'armadio, dicendosi «quante frottole». E questo riassumeva esattamente il suo pensiero. Perché i piaceri, come scolari nel cortile di un collegio, avevano talmente scorazzato nel suo cuore che non vi cresceva più un filo d'erba, e tutto ciò che passava di lì, più sventato dei bambini, non vi lasciava neppure, come loro, il proprio nome inciso sul muro. Via, si disse. Cominciamo. Scrisse. «Coraggio, Emma, coraggio. Non voglio rovinare la vostra esistenza. Dopotutto è vero», pensò Rodolf. «Agisco nel suo interesse, sono onesto. Avete ben ponderato la vostra decisione? Sapete in quale abisso vi stavo trascinando, povero angelo? No, vero? Vi andavate fiduciosa e folle, credendo alla felicità, al futuro. Ah, che sciagurati siamo, che dissennati. Qui Rodolf si fermò per trovare qualche buona scusa. «Se le dicessi che tutto il mio patrimonio è andato perduto? Ah, no, e d'altra parte questo non sarebbe un ostacolo decisivo. Tra un po' ricomincerebbe. È mai possibile far ragionare donne come questa?» Riflettè, poi aggiunse. «Non vi dimenticherò mai, credetemi. Avrò sempre per voi una profonda dedizione. Ma un giorno, presto o tardi, quest'ardore, e il destino delle cose umane, si sarebbe indubbiamente attenuato. Saremmo stati sopraffatti dalla stanchezza, e forse avrei persino dovuto conoscere l'atroce dolore di assistere ai vostri rimorsi, e di provarli io stesso, essendone stato la causa. La sola idea delle pene che dovete patire mi tortura, Emma. Dimenticatemi. Perché mai vi ho conosciuta? Perché eravate così bella? È colpa mia? Oh, mio Dio. No, no, accusate soltanto il fato. Ecco una parola che fa sempre effetto. Si disse. Ah, se fosse stata una di quelle donne dal cuore frivolo, come ce ne sono tante, allora avrei potuto, per egoismo, tentare un'esperienza che non vi esponesse al pericolo. Ma quella deliziosa esaltazione che costituisce il vostro fascino e il vostro tormento insieme vi ha impedito di capire, adorabile donna che non siete altro, quanto sarebbe stata falsa la nostra posizione in futuro. Neppure io sulle prime ci avevo pensato. Mi riposavo all'ombra di quella felicità ideale come all'ombra del manzaniglio, senza pensare alle conseguenze. Forse penserà che rinuncio per avarizia. Che importanza ha? Non c'è altro da fare. Bisogna farla finita. La gente è crudele, Emma. Ovunque fossimo andati, ci avrebbe perseguitato. Avreste dovuto subire domande indiscrete. La calunnia. Il disprezzo. L'oltraggio, forse. L'oltraggio a voi. Oh, ed io che vorrei collocarvi su un trono. Io che porto via con me il pensiero di voi, come un talismano. Già che è con l'esilio che mi punisco di tutto il male che vi ho fatto. Parto. Per dove? Non lo so. Sono pazzo. Addio. Siate sempre buona. Serbate il ricordo dello sventurato che vi ha perduta. Insegnate il mio nome alla vostra bambina, che lo ripeta nelle sue preghiere. Lo stoppino delle due candele oscillava. Rodolfo si alzò per andare a chiudere la finestra e quando fu di nuovo seduto... Mi pare che sia tutto. Ah, c'è ancora qualcosa per evitare che torni all'attacco. Sarò lontano quando leggerete queste tristi righe. Ho voluto andarmene al più presto per evitare la tentazione di rivedervi. Niente debolezze. Tornerò e forse allora converseremo insieme, con distacco del nostro vecchio amore. Addio. E c'era un ultimo addio diviso in due parole. A-Dio. Una cosa che giudicò di ottimo gusto. E adesso come firmo? Si disse. Il vostro devotissimo? No. Il vostro amico? Si, così. Il vostro amico. Rilesse la lettera. Gli sembrò buona. Quella povera piccola donna. Pensò con tenerezza. Mi crederà più insensibile di una roccia. Ci sarebbe voluta qualche lacrima, ma io non so piangere. Non è colpa mia. Allora, versatasi un po' d'acqua in un bicchiere, Rodolfo vintinse un dito e lasciò cadere dall'alto una grossa goccia, che fece una pallida macchia sull'inchiostro. Poi, mentre cercava come sigillare la lettera, gli balzò sotto gli occhi il sigillo Amor nel cor. Non è proprio adatto alla circostanza. Bah, che importa? Dopodiché fumò tre pipe e andò a dormire. L'indomani, quando fu in piedi, verso le due circa, aveva dormito fino a tardi, Rodolfo fece cogliere un cestino di albicocche. Nascose la lettera nel fondo, sotto i pampini, e ordinò subito a Girard, il suo lavorante, di portarlo con la massima attenzione a Madame Bovary. Era il mezzo di cui si serviva per comunicare con lei, mandandole, a seconda della stagione, frutta o selvaggina. Se ti chiede mie notizie, disse, rispondi che sono partito per un viaggio. Devi consegnare il paniere a lei personalmente, metterlo nelle sue mani. Va e fa attenzione. Girard si mise la blusa nuova, annodò il fazzoletto intorno alle albicocche e, a gran passi pesanti, negli scarponcelli chiodati, si mise tranquillamente in marcia per Yonville. Quando arrivò, Madame Bovary, insieme a Felicité, stava sistemando un mucchio di biancheria sulla tavola di cucina. «Ecco», disse il domestico, «ve lo manda il padrone». Fu presa dall'ansia, e mentre cercava qualche spicciolo in tasca, osservava con aria stravolta il contadino, che da parte sua la fissava sbalordito, non riuscendo a capire come un simile regalo potesse produrre tanta agitazione. Alla fine se ne andò. Rimaneva Felicité. Emma non ce la faceva più. scappò in sala come per portarvi le albicocche, rovesciò il paniere, strappò via le foglie, trovò la lettera, l'aprì e, quasi avesse alle spalle un terribile incendio, si mise a correre verso la sua camera, terrorizzata. C'era Charles, lo intravide. Lui le disse qualcosa. Lei non sentì e continuò a salire rapidamente gli scalini, ansando, smarrita, ebbra, con in mano quell'orribile foglio di carta, che le frusciava tra le dita come una lastra di latta. Al secondo piano si fermò davanti alla porta del solaio, che era chiusa. Allora tentò di calmarsi. Si ricordò della lettera. Doveva finire di leggerla. Le mancava il coraggio. E dove, poi? Come? Potevano vederla. Ah no, qui, penso. Starò tranquilla. Spinse la porta ed entrò. Dal tetto di Ardesia cadeva a piombo un caldo pesante, che la ferrava alle tempie e la soffocava. Si trascinò fino all'abbaino chiuso, tirò il lucchetto, e di colpo la luce irruppe, accecante. Davanti, oltre i tetti, si stendeva a perdita d'occhio l'aperta campagna. In basso, sotto di lei, la piazza del paese era vuota, i ciottoli del marciapiede luccicavano, le banderuole delle case erano immobili. All'angolo della strada, da un piano inferiore, partì come un russare dalle modulazioni stridule. Era il tornio di Binet. Si era appoggiata al vano dell'abbaino e rileggeva la lettera con ghigni di collera. Ma più vi fissava l'attenzione, più le si confondevano le idee. Lo rivedeva, lo sentiva, lo stringeva tra le braccia, e i battiti del cuore, che le squassavano il petto come a colpi d'ariete, si facevano via via più accelerati, a intermittenze irregolari. Volgeva lo sguardo tutti intorno con un forte desiderio che la terra crollasse. Perché non farla finita? Chi la tratteneva? Era libera. Si sporse, guardò il selciato dicendosi. Via, via! Il raggio luminoso che saliva diritto dal basso attirava verso l'abisso la massa del suo corpo. Le pareva che il suolo oscillante della piazza si alzasse lungo i muri e che l'impiantito si inclinasse da una parte, alla maniera di un vascello che beccheggi. Stava proprio sull'orlo, quasi sospesa, immersa nello spazio. L'azzurro del cielo la invadeva, l'aria le circolava nella testa vuota, non aveva che da cedere, lasciarsi prendere, e il ronzio del torneo non si interrompeva, come una voce furiosa che la chiamasse. «Moglie! Moglie mia!» gridò Charles. Si fermò. «Ma dove sei? Vieni!» L'idea di essere appena sfuggita alla morte rischiò di farla svenire di paura. Chiuse gli occhi, poi trasalì al contatto di una mano sulla manica. Era felicitè. «Il signore vi aspetta, madame, la minestra è in tavola.» «E dovette scendere, dovette mettersi a tavola.» Tentò di mangiare. I bocconi la soffocavano. Allora spiegò il tovagliolo come per esaminarne i rammendi e volle davvero applicarsi in quell'operazione, contare i fili della tela. Improvvisamente riemersa il ricordo della lettera. «L'aveva perduta. Dove cercarla?» Ma sentiva una tale stanchezza mentale che non riuscì ad inventare un pretesto per alzarsi da tavola. Poi era diventata vile. Aveva paura di Charles. Senza dubbio sapeva. E in effetti, lui stranamente pronunciò queste parole. «Sembra che per qualche tempo non vedremo il signor Rodolphe.» «Chi te l'ha detto?» fece lei trasalendo. «Chi me l'ha detto?» replicò lui, piuttosto sorpreso da quel tono brusco. «Girà. L'ho incontrato poco fa sulla porta del café français. È partito per un viaggio. O sta per partire.» Lei ebbe un singhiozzo. «Perché ti stupisci? Ogni tanto se ne va in giro a distrarsi. È parola mia. Fa bene. Quando si hanno i soldi e si escapoli. Del resto, il nostro amico è uno che sa divertirsi. È un battacchione.» L'angloa mi ha raccontato. Tacque per rispetto delle convenienze, dato che entrava la domestica. Questa rimise nel cestino le albicocche sprapagliate sulla mensola. Charles, senza accorgersi che la moglie arrossiva, se le fece portare, ne prese una e la dentò. «Ottime!» disse. «Tieni, assaggia!» e le tese il cestino, che lei respinse debolmente. «Ma senti che profumo!» fece lui, passandoglielo a più riprese sotto il naso. «Mi manca il respiro!» gridò lei, alzandosi di scatto. Ma con uno sforzo di volontà, lo spasmo scomparve. Allora... «Non è nulla», disse. «Non è nulla. È solo un po' di nervoso. Siediti e mangia.» Temeva che si mettessero a farle domande, a curarla, che non la lasciassero più in pace. Charles, per ubbidirle, si era rimesso a sedere e sputava sulla mano i noccioli delle albicocche, che poi metteva nel piatto. Ad un tratto, un tilburi blu attraversò al gran trotto la piazza. Emma gettò un grido e cadde riversa per terra, a corpo morto. Dopo molte riflessioni, Rodolphe si era effettivamente deciso a partire per Rouen. E poiché dall'Auchet a Bouchy non ci sono altre strade oltre a quella di Yonville, era stato costretto ad attraversare il paese. Ed Emma lo aveva riconosciuto al bagliore dei fanali, che fendevano il crepuscolo come un lampo. A quel trambusto il farmacista accorse a vedere. La tavola, con tutti i piatti, era rovesciata. Salsa, carne, coltelli, saliera, oliera erano sparsi per la stanza. Charles invocava aiuto, Bert strillava spaventata e Felicité slacciava, con le mani tremanti, l'abito di madame, che si torceva in preda alle convulsioni. Corro in laboratorio, disse lo speziale, a prendere un po' d'aceto aromatico. E mentre lei riapriva gli occhi, aspirando dal flacone, ero certo, fece, risusciterebbe un morto. Parla, diceva Charles, dici qualcosa, torna in te, sono io il tuo Charles che ti ama, mi riconosci, tieni, ecco la tua bambina, dalle un bacio. La piccola tendeva le braccia verso la madre, per aggrapparsi al suo collo. Ma avvoltando la testa, Emma disse con voce rotta, no, no, nessuno. Svenne di nuovo, la portarono a letto. Giaceva distesa, la bocca aperta, le palpebre chiuse, le mani abbandonate, immobile e bianca come una statua di cera. Dagli occhi sgorgavano due rivoli di lacrime che scivolavano lentamente sul cuscino. Charles stava in piedi in fondo all'alcova, accanto a lui il farmacista osservava quel silenzio meditabondo che si addice ai momenti gravi della vita. Tranquillizzatevi, disse, dandogli di gomito. Credo che il parossismo sia passato. Sì, ora sta riposando, disse Charles, che la guardava dormire. Povera donna, povera donna, ha avuto una ricaduta. Allora Ome chiese come era avvenuto l'incidente. Charles rispose che si era sentita male all'improvviso, mentre mangiava delle albicocche. Straordinario, replicò il farmacista. Potrebbero essere state le albicocche a provocare la sincope. Ci sono nature talmente sensibili a determinati odori. Sarebbe anche un bel caso da studiare, sia sotto il profilo patologico che sotto quello fisiologico. Ne conoscono l'importanza ai preti, che hanno sempre mischiato a Romi e alle loro cerimonie, per neutralizzare l'intelletto e provocare l'estasi, cosa del resto facile da ottenere con il sesso debole, più delicato. Si citano esempi di svenimenti all'odore del corno bruciato, del pane fresco. «Attento a non svegliarla», disse Bovary sottovoce. «E non soltanto gli esseri umani», continuò lo speziale. Sono esposti a simili anomalie, anche gli animali. Non potete certo ignorare l'effetto singolarmente afrodisiaco prodotto dalla Nepeta cataria, volgarmente detta erbagatta, sulla razza felina. E d'altra parte, per citare un esempio della cui autenticità mi faccio garante, Vridu, un mio vecchio compagno di scuola, attualmente residente in Riumalpiu, possiede un cane che cade in convulsioni appena gli si mette davanti una tabacchiera. Lui spesso fa anche l'esperimento per gli amici nella sua villetta a Beau Guillaume. Chi penserebbe che un semplice starnutatoio possa provocare effetti così devastanti sull'organismo di un quadrupede? È davvero molto curioso, no? «Sì», disse Charles, che non lo stava a sentire. «Il che prova», continuò l'altro, con un sorriso di benevola sufficienza. Le infinite irregolarità del sistema nervoso. Per quanto riguarda Madame, vi confesso che mi è sempre sembrata una vera e propria sensitiva. Perciò non vi consiglierei mai, caro amico, nessuno di quei presunti farmaci che, con il pretesto di aggredire i sintomi, aggrediscono il temperamento. «No, niente medicinali superflui. Sarà sufficiente una dieta. Sedativi, emollienti, dolcificanti. E poi non trovate che sarebbe opportuno colpire l'immaginazione?» «Cosa? Come?», disse Bovary. «Ah, ecco il problema. Sta proprio qui il problema. That is the question», come leggevo recentemente sul giornale. Ma Emma, risvegliatasi, gridò. «È la lettera! È la lettera!» Credettero che avesse il delirio. Lo ebbe davvero. A partire dalla mezzanotte si era manifestata una febbre cerebrale. Per 43 giorni Charles non la lasciò mai. Abbandonò tutti i suoi malati. Non andava più a letto. Era sempre lì a tastarle il polso, ad applicarle senapismi in pacchi d'acqua fredda. Spediva Justine fino a Neufchatel a prendere il ghiaccio. Il ghiaccio si scioglieva per strada. Ce lo rispediva. Chiamò a consulto il dottor Canivet. Fece venire da Rouen il professor Larivière, il suo vecchio maestro. Era disperato. Soprattutto lo atterriva l'abbattimento di Emma. Perché lei non parlava più, non sentiva nulla e pareva persino non soffrire. Come se il corpo e l'anima insieme avessero trovato riposo da tutti i loro tumulti. Verso la metà di ottobre pote mettersi seduta sul letto, sostenuta da cuscini. Charles scoppiò in lacrime quando la vide mangiare la prima tartina con la marmellata. Le tornarono le forze. Si alzava qualche ora il pomeriggio e un giorno, che si sentiva meglio, lui tentò di farle fare, al suo braccio, una piccola passeggiata in giardino. La sabbia dei sentieri scompariva sotto le foglie morte. Camminava a piccoli passi, strascicando le pantofole, e appoggiandosi con la spalla a Charles continuava a sorridere. Arrivarono così fino in fondo, vicino alla terrazza. Lei si raddrizzò lentamente, si riparò gli occhi per guardare, guardò lontano, molto lontano. Ma all'orizzonte c'erano soltanto grandi falodi erbe, fumanti sulle colline. «Ti stancherai, tesoro», disse Bovary, e spingendola dolcemente per farla entrare sotto la pergola. «Siediti su questa panchina, starai bene». «Oh no, non lì», fece con voce flebile. Ebbe un mancamento. Da quella sera la malattia riprese, con andamento più incerto, è vero, e caratteri più complessi. Aveva dolori ora al cuore, ora al petto, ora al cervello, ora agli arti. Sopraggiunse il vomito. Charles, credete di vedervi i primi sintomi di un cancro. E quel poveretto, oltre a tutto questo, aveva anche preoccupazioni di denaro. Capitolo 14 Tanto per cominciare, non sapeva come sdebitarsi con Omé, per tutti i farmaci presi da lui. E anche se, in quanto medico, avrebbe potuto non pagarli, si vergognava un po' di dovergli qualcosa. Poi le spese di casa, ora che la cuoca faceva da padrona, diventavano esorbitanti. Piovevano conti da tutte le parti, i fornitori borbotavano, l'eroe, soprattutto, non dava tregua. Nel momento più critico della malattia di Emma, infatti, approfittando della circostanza per gonfiare il conto, costui aveva sveltamente consegnato il mantello, la borsa da notte, due bauli invece di uno, e una quantità d'altre cose. Charles ebbe un bel dire che non ne aveva bisogno. Il negoziante rispose con arroganza che tutti quegli articoli gli erano stati ordinati e che lui non se li sarebbe ripresi. D'altronde, la cosa avrebbe potuto turbare la convalescenza di madame. Il signore ci doveva riflettere, in sostanza, piuttosto che rinunciare ai propri diritti e riportarsi via la merce, era deciso a portarlo in tribunale. In seguito, Charles dette ordine di rispedirgli tutto al negozio. Felicité se ne dimenticò, e lui aveva ben altre preoccupazioni, non ci pensò più. L'eroe tornò alla carica, e ora minacciando, ora gemendo, condusse la cosa in modo che Bovary finì col sottoscrivere una cambiale, con scadenza a sei mesi. Ma non appena firmato, ebbe un'idea audace, chiedere all'eroe un prestito di mille franchi. Si informò dunque, con aria impacciata, se fosse possibile averli, aggiungendo che sarebbe stato per un anno e a qualunque interesse. L'eroe corse in bottega, tornò con gli scudi e dettò un'altra cambiale, con cui Bovary dichiarava di dover pagare a suo ordine, il primo settembre successivo, la somma di 1.070 franchi, il che, aggiunto ai 180 già appatuiti, faceva 1.250 tondi. Così, prestando al 6%, aumentato di un quarto per la commissione e guadagnando almeno un buon terzo sulle forniture, l'utile in dodici mesi sarebbe stato di 130 franchi. Sperava anche che la faccenda non finisse lì, che non sarebbe stato possibile pagare le cambiali, che sarebbe stato necessario rinnovarle, e che il suo povero denaro, ben nutrito in casa del medico come in un istituto di cura, gli sarebbe tornato un giorno considerevolmente rimpinguato e grasso da far scoppiare la borsa. Tutto del resto gli andava a gonfie vele. Aveva ottenuto l'appalto di una fornitura di sidro per le torbiere di Grumesnil, e contava di istituire un nuovo servizio di diligenze tra Argueil e Rouen, che in breve tempo avrebbe certamente mandato in rovina quella vecchia carretta del Lyon d'Or, e che, andando più veloce, costando meno e caricando più bagagli, avrebbe consegnato nelle sue mani l'intero commercio di Yonville. Charles si chiese più di una volta come avrebbe potuto restituire una simile somma all'anno seguente, e cercava, fantasticava i spedienti, per esempio di ricorrere al padre o di vendere qualcosa. Ma suo padre avrebbe fatto il sordo, e lui non aveva nulla da vendere. Allora scopriva di essere in un tale pasticcio che espelleva immediatamente dalla propria coscienza un argomento di riflessione tanto spiacevole. Si rimproverava di dimenticare Emma, come se ogni suo pensiero appartenesse a quella donna, e non pensare continuamente a lei significasse defraudarla di qualcosa. L'inverno fu duro, la convalescenza di Madame lunga. Quando faceva bel tempo spingevano la poltrona vicino alla finestra, quella che dava sulla piazza. Ora lei, infatti, aveva in antipatia il giardino, e le persiane da quella parte restavano costantemente chiuse. Volle che fosse venduto il cavallo, tutto ciò che un tempo le piaceva, ora le era sgradevole. Sembrava volersi occupare soltanto di sé stessa. Rimaneva a letto facendo piccoli spuntini. Chiamava la domestica per informarsi delle sue tisane, e per scambiare due parole. Intanto la neve sulle tettoie del mercato proiettava nella camera un riverbero bianco, immobile. Poi venne la pioggia. Ed Emma ogni giorno stava lì ad aspettare, con una sorta di ansia, l'immancabile ripetersi di avvenimenti minimi, che d'altra parte non le interessavano affatto. Il più notevole era l'arrivo serale dell'Irondel. Allora la locandiera si metteva a parlare ad alta voce, e altri rispondevano, mentre la lanterna di Hippolyte, andato a prendere i bagagli sul telone, faceva l'effetto di una stella nel buio. A mezzogiorno Charles rincassava, poi usciva di nuovo. Più tardi lei prendeva una tazza di brodo, e verso le cinque, al calar della sera, i ragazzi che rientravano da scuola, strascicando gli zoccoli sul marciapiede, battevano tutti il righello sul fermo delle persiane, senza saltarne una. A quell'ora veniva a trovarla a padre Bournissien. Si informava della sua salute, le portava notizie, e la esortava alla religione, con chiacchiere su a denti e non prive di una qualche piacevolezza. La sola vista della sua tonaca le dava conforto. Un giorno che, al culmine della malattia, si era creduta agonizzante, aveva chiesto la comunione. Via via che in camera facevano i preparativi per il sacramento, mentre il cassettone in gombro di sciroppi veniva adibito ad altare, e felicitè spargeva d'alie sul pavimento, Emma sentiva passare su di sé qualcosa di forte, che la liberava delle sue sofferenze, di ogni percezione, di ogni sentire. Alleviata, la sua carne non aveva più peso. Cominciava una nuova vita. Le parve che, salendo verso Dio, il suo essere andasse ad annullarsi in quell'amore, come un incenso che, bruciando, si dissolve in fumo. Le lenzuola vennero cosparse d'acqua benedetta. Il prete estrasse dal sacro ciborio la bianca ostia. E lei, sentendosi svenire di gioia celestiale, protese le labbra a ricevere il corpo del Salvatore, che le veniva offerto. Le tendine dell'alcova si gonfiarono mollemente tutto intorno, come nuvole, e i raggi dei due ceri accesi sul cassettone, le parvero divine aureole sfolgoranti. Allora lasciò ricadere la testa, credendo di sentire negli spazi il canto delle arpe serafiche, e di scorgere in un cielo azzurro, su un trono d'oro, circondato dai santi con in mano palme verdi, Dio Padre, tutto splendente di maestà, che con un cenno faceva scendere in terra angeli dalle ali fiammanti, perché la portassero via, tra le loro braccia. Questa magnifica visione le rimase in mente come la cosa più bella che fosse possibile sognare, così che adesso si sforzava di riafferrarne la sensazione, ancora perdurante, con una dolcezza altrettanto profonda, ma in maniera meno esclusiva. La sua anima, stremata d'orgoglio, riposava finalmente nell'umiltà cristiana, e assaporando il piacere di essere debole, Emma contemplava in sé stessa la distruzione della volontà, costretta a fare ampio spazio alle irruzioni della grazia. Esistevano dunque gioie ben più grandi della felicità terrena, un altro amore al di sopra di ogni altro amore, senza intermittenze e senza fine, capace di crescere in eterno. Intravide, fra le illusioni della sua speranza, uno stato di purezza sospeso sulla terra, confuso con il cielo, e anelò a starvi. Aspirò alla santità, acquistò rosari, indossò amuleti, desiderava avere in camera, al capezzale del letto, un reliquiario incastonato di smeraldi, per baciarlo ogni sera. Il curato si meravigliava di tali disposizioni d'animo, benché trovasse che la religione di Emma, per troppo fervore, poteva finire per sfiorare l'eresia, e anche la stravaganza. Ma non essendo molto versato in materia, oltre un certo limite, scrisse al signor Boulard, libraio di Monsignore, di mandargli qualcosa di straordinario per una signora ricca di intelligenza. Il libraio, con la stessa leggerezza con cui avrebbe spedito chincaglierie ai negri, mise insieme alla rinfusa tutto quanto si vendeva in quel momento come libri religiosi. Erano manualetti a domanda e risposta, libelli dal tono arrogante alla maniera di De Maestre, e romanzetti dalla copertina rosa e lo stile dolciastro, fabbricati da qualche seminarista trovatore o da qualche saccentona pentita. C'era il «Pensez bien», l'homme du monde au pied de Marie, par monsieur de «Décoré de plusieurs ordres», «Des erreurs de Voltaire», all'usage des jeunes gens, eccetera». Madame Bovary non aveva ancora la mente abbastanza limpida per impegnarsi seriamente in qualcosa. D'altra parte, intraprese quelle letture, con eccessiva precipitazione. Si irritò con le prescrizioni del culto, l'arroganza degli scritti polemici le dispiacque, per quel accanimento nel perseguire persone che non conosceva. E i racconti profani, con qualche orpello religioso, le parvero scritti in una tale ignoranza del mondo che, insensibilmente, l'allontanarono dalle verità di cui aspettava la prova. Tuttavia insistè, e quando il volume le cadeva di mano, si credeva in preda alla più sottile malinconia cattolica che un'anima eterea potesse concepire. Quanto al ricordo di Rodolphe, l'aveva ricacciato giù nel profondo del cuore. E lì stava, più solenne e immobile della mummia di un re in un sotterraneo. Da quel grande amore imbalsamato si levava un'esalazione, che, passando attraverso ogni cosa, profumava di tenerezza l'immacolata atmosfera in cui lei voleva vivere. Quando si piegava sul suo inginocchiatoio gotico, indirizzava al Signore le stesse parole soavi che un tempo aveva bisvigliato all'amante, nelle effusioni dell'adulterio. Lo faceva per darsi la fede, ma dai cieli non scendeva alcun diletto, e quando, le membra stanche, si rialzava, aveva la vaga sensazione di un immenso inganno. Quella ricerca, pensava, era un altro dei suoi meriti, e nell'orgoglio della sua devozione, Emma si paragonava a quelle grandi dame d'altri tempi, la cui Gloria aveva sognato su un ritratto di Mademoiselle de la Vallière, e che, portando con tanta maestà lo strascico scintillante delle lunghe vesti, si ritiravano in solitudine, per sparger via i piedi del Cristo, tutte le lacrime d'un cuore ferito dalla vita. Si abbandonò allora ad atti di carità eccessivi. Cuciva abiti per i poveri, mandava legna alle partorienti. Un giorno Charles, rientrando, trovò in cucina tre vagabondi seduti a tavola a mangiare una minestra. Emma fece tornare a casa la piccola, che il marito, durante la sua malattia, aveva di nuovo affidato alla balia. Decise di insegnarle a leggere. Berta aveva un bel piangere, lei non si arrabbiava più. Per un partito preso di rassegnazione, un'indulgenza universale. Di qualunque cosa parlasse, il suo linguaggio era pieno di espressioni idealizzate. Alla bambina diceva «Ti è passato il mal di pancia, angelo mio?». La signora Bovary madre non trovava più nulla da ridire, tranne forse per quella sua mania di sverruzzare camiciole per gli orfani, invece di rammendare gli strofinacci. Ma, stremata dai litigi coniugali, la brava donna stava volentieri in quella casa tranquilla. Anzi, vi rimase fin dopo Pasqua, per evitare i sarcasmi di papà Bovary, che ogni venerdì santo non mancava mai di ordinarsi un sanguinaccio. Oltre alla compagnia della suocera, che le dava forza con la sua rettitudine di giudizio e con i suoi modi austeri, quasi ogni giorno Emma aveva altre visite. La signora Langlois, la signora Caron, la signora Dubreuil, la signora Tuvache, e regolarmente, dalle due alle cinque, l'eccellente signora Homé, che non aveva mai voluto prestare ascolto, lei, alle chiacchiere sul conto della vicina. Venivano a trovarla anche i piccoli Homé, li accompagnava Justine. Saliva insieme a loro in camera e poi rimaneva in piedi vicino alla porta, senza muoversi né fiatare. Spesso, anzi, Madame Bovary, non facendo caso a lui, si occupava della sua toilette. Cominciava col togliersi il pettine, scuotendo la testa con un brusco movimento. E quando vide per la prima volta quella gran capigliatura, che le scendeva fino ai polpacci, srotolandosi in anelli neri, per il povero ragazzo fu come l'improvviso ingresso in qualcosa di straordinario e di nuovo, il cui splendore lo riempì di spavento. Emma probabilmente non notava le sue silenziose premure né le sue timidezze. Non sospettava minimamente che l'amore, scomparso dalla sua esistenza, palpitasse lì vicino a lei, sotto quella blusa di tela grezza, in quel cuore d'adolescente aperto all'effondersi della sua bellezza. Del resto tutto le appariva ora tanto indifferente. Aveva parole così affettuose e sguardi così alteri, modi così diversi, che l'egoismo non si distingueva più dalla carità, né la corruzione dalla virtù. Una sera, per esempio, si arrabbiò con la domestica che le chiedeva di uscire, e balbettando cercava un pretesto. Poi, d'improvviso, «Ma lo ami?» disse. E senza aspettare la risposta di felicitè che arrossiva, aggiunse con aria triste. «Allora corri, divertiti!» All'inizio della primavera fece mettere sottosopra il giardino, da cima a fondo, nonostante le riserve di Bovary. Questi fu però contenta di vederla finalmente manifestare una qualsiasi volontà. Ne manifestò altre, via via che riacquistava le forze. Prima di tutto trovò il modo di cacciare di casa a Mamma Role, la Balia, che durante la sua convalescenza aveva preso l'abitudine di venire troppo spesso in cucina, con i suoi due lattanti e il pensionante, più vorace d'un cannibale. Poi si liberò della famiglia Ome, congedò successivamente tutti gli altri visitatori, e cominciò inoltre a frequentare meno assiduamente la chiesa, ricevendo la calorosa approvazione del farmacista, che le disse amichevolmente, «Stavate diventando un po' bigotta!» Padre Bournisien continuava a venire tutti i giorni, all'uscita dal catechismo. Preferiva rimanere fuori, a prendere aria nella versura, come lui chiamava la pergola. Era l'ora in cui Charles rincassava. Avevano caldo, si facevano portare del sidro dolce e brindavano insieme alla completa guarigione di Madame. C'era Binet da quelle parti, cioè un po' più giù, contro il muro della terrazza, a pescare gamberi. Bovary li invitava a bere qualcosa, lui era bravissimo a stappare le bottiglie. «Bisogna», diceva, percorrendo con uno sguardo soddisfatto il paesaggio tutto intorno e fino all'orizzonte. Tener così la bottiglia a piombo sulla tavola, e dopo aver tagliato lo spago, spingere il sughero a colpettini, piano piano, come del resto fanno al ristorante con l'acqua di Seltz. Ma spesso, durante la dimostrazione, il sidro schizzava in piena faccia. E allora il prete, con un sorrisetto, non rinunciava mai a questa battuta. La sua bontà salta agli occhi. In realtà era un bravo uomo, e un giorno non si scandalizzò neppure che il farmacista consigliasse a Charles di portare Madame, per distrarsi, al teatro di Rouen, a sentire l'illustre tenore Lagardie. Stupito del silenzio del curato, Hommet chiese la sua opinione, e il prete dichiarò che considerava la musica meno pericolosa per i costumi, di quanto non lo fosse la letteratura. Ma il farmacista prese le difese delle lettere. Il teatro, proclamava, serviva a contestare i pregiudizi, e sotto la maschera del piacere insegnava la virtù. Castigat ridendo Mores, caro reverendo, guardate ad esempio la maggior parte delle tragedie di Voltaire. Sono abilmente disseminate di riflessioni filosofiche, che ne fanno una vera scuola di morale e di diplomazia per il popolo. Io, disse Binet, molto tempo fa ho visto una commedia intitolata Le gamme de Paris, in cui colpiva il carattere di un vecchio generale, veramente azzeccato. Rimette a posto un figlio di papà che aveva sedotto un operaia, che alla fine… certo, continuava Hommet, c'è la cattiva letteratura come c'è la cattiva farmacia, ma condannare in blocco la più importante delle arti mi sembra una balordaggine, un'idea medievale, degna di quegli abominevoli tempi in cui si metteva in prigione Galileo. Lo so, obiettò il curato, che esistono buone opere, buoni autori, però non fosse altro che per tutte quelle persone di sesso diverso riunite in un locale seducente, arricchito di fasti mondani, e poi con tutti quei travestimenti pagani, quel belletto, quei candelabri, quelle voci effeminate. Alla fine tutto questo in genera un certo libertinaggio dello spirito e alimenta pensieri disonesti, tentazioni impure. Almeno questa è l'opinione di tutti i padri della Chiesa. Infine, aggiunse, assumendo improvvisamente un'area mistica, mentre arrotolava sul pollice una presa di tabacco. Se la Chiesa ha condannato gli spettacoli, significa che aveva le sue ragioni, dobbiamo sottostare ai suoi decreti. Ma perché? Chiese lo speziale. La Chiesa scomunica gli attori. Un tempo essi partecipavano direttamente alle cerimonie del culto. Sì, stavano al centro del coro e recitavano, rappresentavano delle specie di farse e dette misteri, in cui spesso si offendevano le leggi della decenza. Il prete si limitò ad emettere un gemito, e il farmacista continuò. È come nella Bibbia, ci sono, lo sapete, particolari piccanti, cose davvero salaci. E ha un gesto irritato di padre Bournisia. Ammetterete che non è un libro da mettere in mano ad una giovinetta. Io mi arrabbierei se la mia ata lì. Ma sono i protestanti, non noi, a raccomandare la Bibbia. Esclamò l'altro spazientito. Non importa, disse Ome. Mi meraviglio che oggi, in un secolo di lumi, ci si ostine ancora a proscrivere uno svago intellettuale che è inoffensivo, moralizzatore e talvolta persino igienico. Vero, dottore? Può darsi, rispose il medico distrattamente. O perché, avendo le stesse idee, non voleva offendere nessuno, o perché di idee non ne aveva. La conversazione sembrava finita, quando il farmacista ritenne di dover lanciare un'ultima frecciata. Ne ho conosciuti di preti che si mettevano in borghese per andare a veder sculettare le ballerine. Andiamo, fece il curato. Eh sì, ne ho conosciuti. Escandendo le sillabe, Ome ripetè. Ne ho conosciuti. E va bene, sbagliavano, disse Bournisia, rassegnato a sentire di tutto. Perbacco, ne fanno anche di peggio, esclamò il farmacista. Signore, fece il prete, con uno sguardo così feroce che l'altro ne fu intimidito. Voglio dire soltanto, replicò allora in tono meno brusco, che la tolleranza è il mezzo più sicuro per attirare le anime alla religione. È vero, è vero, concesse il brav'uomo, rimettendosi a sedere. Ma non ci restò più di due minuti. Quando se ne fu andato, Ome disse al medico. Ecco quel che si chiama un battibecco. L'ho sistemato ben bene, avete visto? Insomma, credetemi, portate Madame allo spettacolo, se non altro per far arrabbiare almeno una volta in vita vostra uno di questi corvi, per dinci. Se qualcuno mi potesse sostituire, vi accompagnerei io. Sbrigatevi, Legardy darà un'unica rappresentazione, ha impegni importanti in Inghilterra. A quel che dicono è un gran volpone, sguazza nel loro. Si porta dietro tre amanti e il cuoco. Tutti questi grandi artisti non conoscono mezze misure, hanno bisogno di un'esistenza scandalosa, che ecciti un po' la fantasia. Però muoiono all'ospedale, perché da giovani non hanno avuto l'accortezza di mettere da parte qualche risparmio. Via, buon appetito, a domani. L'idea dello spettacolo germogliò rapidamente nella testa di Bovary. Ne parlo subito alla moglie, che dapprima rifiutò, adducendo la stanchezza, il disagio, la spesa. Ma per una volta Charles non cedette. Tanto era convinto che quella distrazione le giovasse. Impedimenti non ne vedeva. Sua madre gli aveva mandato 300 franchi, su cui non faceva più affidamento. I debiti correnti non erano enormi e la scadenza delle cambiali da pagare a Messerle Rue era ancora così lontana che non valeva la pena di pensarci. D'altronde, immaginando che lei rifiutasse per complimento, Charles insistè ancora di più. Così, assillata, lei finì per decidersi. E l'indomani, alle otto, si imbarcarono sull'Irondel. Il farmacista, che nulla tratteneva Ionville, ma che si sentiva obbligato a non lasciare il paese, sospirò nel vederli partire. Buon viaggio, disse loro, felici mortali. Poi, rivolgendosi ad Emma, che indossava un abito di seta azzurra con quattro falpalà. Vi trovo bella come un amorino? Farete furore a Rouen. La diligenza si fermava all'albergo della Croix-Rouge, su Place Beauoisine. Era una di quelle locande come ne esistono in tutti i soborghi di provincia, con grandi stalle e camere anguste, e dove in mezzo ai cortili si vedono i polli becchettare l'avena sotto i calessi inzaccherati dei commessi viaggiatori. Buoni vecchi ostelli dal balcone di legno tarlato, che scricchiolavano al vento delle notti invernali, sempre pieni di gente, di baccano e di roba da mangiare, con i tavoli neri appiccicosi di caffè corretti, i vetri spessi ingialliti dalle mosche, e macchie bluastre di vino sui tovaglioli umidi. Conservavano un'aria di paese, come garzoni di fattoria con abiti da borghesi, hanno un caffè sulla strada e, dalla parte della campagna, un orto di legumi. Charles si mise immediatamente in moto, scambiò il proscenio per la galleria, la platea per i palchi, chiese spiegazioni, non le capì, fu spedito dal controllore al direttore, tornò in albergo, riandò al botteghino, e percorse così parecchie volte la città in tutta la sua lunghezza, dal teatro al viale. Madame si comprò un cappellino, un paio di guanti, un mazzetto di fiori. Lui aveva una gran paura di perdere l'inizio, e senza neanche il tempo di mandar giù un brodo, si presentarono davanti alle porte del teatro, che erano ancora chiuse. Capitolo 15 La folla era in attesa lungo il muro, disposta simmetricamente fra le transenne. All'angolo delle strade vicine giganteschi manifesti ripetevano, in caratteri baroccheggianti, Lucia di Lammermoor, Lagardie, Operà, ecc. Il tempo era bello, c'era caldo, il sudore colava fra i riccioli, i fazzoletti, tutti tolti di tasca, asciugavano fronti arrossate, e ogni tanto un vento tiepido, che spirava dal fiume, agitava appena le frange dei tendoni in traliccio tesi sulle porte dei piccoli caffè. Un poco più in basso, però, veniva fresco da una corrente d'aria gelida che odorava di sego, di cuoio ed olio. Erano le esalazioni della Rue de Charette, una strada di grandi botteghe buie dove si rotolavano botti. Nel timore di apparire ridicola, Emma volle, prima di entrare, fare un giretto lungo il porto. Bovary, prudente, custodiva i biglietti con la mano, nella tasca dei pantaloni, appoggiata sul ventre. Già dall'atrio fu presa da batticuore. Sorrise involontariamente di vanità, vedendo la folla che si precipitava a destra verso l'altro passaggio, mentre lei saliva le scale del primo ordine. Godette di un piacere infantile, a spingere con le dita le grandi porte imbottite, aspirò a pieni polmoni l'odore di polvere dei corridoi, e, una volta seduta nel suo palco, inarcò il busto con una disinvoltura da duchessa. La sala iniziava a riempirsi. Si estraevano gli occhialini dagli astucci, e gli abbonati, riconoscendosi da lontano, si scambiavano saluti. Venivano a rilassarsi con le belle arti dalle ansie del commercio, ma, non in memori degli affari, piacchieravano ancora di cotoni, di alcoli o di indaco. Si vedevano teste di vecchi, inespressive e placide, che rassomigliavano, biancastre di capelli e di cute, a medaglie d'argento ossidate da vapori di piombo. I bei giovani si pavoneggiavano in platea, sfoggiando, nello scollo del panciotto, cravate rosa o verde mela, e Madame Bovary li ammirava dall'alto, la palma tesa e inguantata di giallo, poggiata sul pomo dorato dei bastoni. Intanto si accesero i lumini dell'orchestra, il lampadario discese dal soffitto, riversando, con lo scintillio dei suoi lustrini, una subitanea letizia sulla sala. Poi fecero il loro ingresso, uno dopo l'altro, gli orchestrali, e cominciò una interminabile cacofonia di bassi ronfanti, di violini stridenti, di pistoni strombazzanti, di flauti e ottavini pigolanti. Ma si udirono tre colpi sul palcoscenico, i timpani rurlarono, gli ottoni squillarono accordi, e il sipario, levandosi, scoprì un paesaggio. Era il crocevia di un bosco. Sulla sinistra, una fontana ombreggiata da una quercia. Contadini e gentiluomini, il plaid sulla spalla, cantavano in coro un canto di caccia. Poi sopraggiunse un capitano, che invocava l'angelo del male alzando le braccia al cielo. Comparve un altro personaggio. Se ne andarono, e i cacciatori riattaccarono. Emma si ritrovava nelle sue letture giovanili, in pieno Walter Scott. Le sembrava di udire, attraverso la nebbia, il suono delle cornamuse scozzesi che echeggiava nelle brughiere. D'altra parte, la memoria del romanzo le facilitava la comprensione del libretto, sicché poteva seguire l'intreccio battuta per battuta, mentre inafferrabili pensieri ricomparivano, per disperdersi subito sotto le raffiche della musica. Si abbandonava, lasciandosi cullare dalle melodie. Si sentiva anche lei vibrare con tutto il suo essere, come se gli archetti dei violini scorressero sui suoi nervi. Non le bastavano gli occhi per contemplare i costumi, le scene, i personaggi, gli alberi dipinti che tremolavano al passaggio degli attori, e i cappelli di velluto, i mantelli, le spade, tutte quelle fantasie che fluttuavano nell'armonia come nell'atmosfera di un altro mondo. Ma ecco farsi avanti una giovane donna che gettò una borsa ad uno scudiero verde. Rimasse sola, e si udì allora un flauto che faceva come un mormorio di fontana o un cinguettio di uccelli. Lucia attaccò con aria grave la sua cavatina in sol maggiore, gemeva d'amore, invocava ali. Emma avrebbe voluto volarsene via anche lei, in un abbraccio, in fuga dalla vita. Tutto a un tratto, comparve Edgardo Lagardì. Era pallido di un pallore fulgido, uno di quei pallori che danno una sorta di maestà marmorea alle razze focose del mezzogiorno. Il suo torso vigoroso era inguainato in un farsetto scuro. Un piccolo pugnale cesellato gli batteva sulla coscia sinistra. Roteava a languide occhiate, scoprendo i denti bianchi. Si raccontava che una principessa polacca, ascoltandolo cantare una sera, sulla spiaggia di Biarritz, dove lui lavorava a raddobbare barche, se ne fosse innamorata. Si era rovinata per lui. L'aveva mollata per altre donne, e quella fama sentimentale gli serviva per accrescere la sua reputazione artistica. Anzi, la corto istrione aveva sempre cura di insinuare nel materiale di propaganda una frase poetica sul suo fisico affascinante e sulla sua anima sensibile. Una bella voce, un'imperturbabile sicurezza, più temperamento che intelligenza, più enfasi che lirismo. Questi gli ulteriori tratti che davano spicco alla sua ammirevole natura di ciarlatano, a metà fra il parrucchiere e il torero. Scatenò l'entusiasmo, sin dalla prima entrata. Stringeva Lucia fra le braccia, la lasciava, tornava, sembrava disperato, aveva scatti di collera, subito dopo eleggia cirantoli di infinita dolcezza. E le note si sprigionavano dal suo collo nudo, colme di singhiozzi e di baci. Emma si chinava per guardarlo, graffiando con le unghie il velluto del palco. Si riempiva il cuore di quei melodiosi lamenti, che si prolungavano accompagnati dai contrabbassi, come grida di naufraghi nel fragore della tempesta. Riconosceva tutte le ebrezze e le angosce che l'avevano quasi condotta alla morte. La voce della cantante le sembrava null'altro che l'eco risonante della sua coscienza, e quell'illusione che l'affascinava parte della sua stessa vita. Mai nessuno al mondo l'aveva amata di un simile amore. Lui non piangeva come Edgardo quell'ultima sera al chiaro di luna, mentre si dicevano «A domani, a domani». La sala crepitava di applausi, fu fatto il bis dell'intera stretta del finale. Gli innamorati parlavano di fiori sulle loro tombe, di giuramenti, di esilio, di fatalità, di speranze. E quando lanciarono l'ultimo addio, Emma gettò un grido acuto, che si confuse col risuonare degli ultimi accordi. «Ma perché quel signore continua a perseguitarla?» domandò Bovary. «Ma no!» rispose lei. «È il suo amante!» E però giura vendetta alla sua famiglia, e invece l'altro, quello che è comparso poco fa diceva «Amo Lucia e credo che è la mammi», e d'altra parte se n'è andato con suo padre a braccetto. E suo padre, vero, quello brutto, piccolo, con una piuma di gallo sul cappello?» Malgrado le spiegazioni di Emma, dopo il recitativo A2, in cui Normanno espone al suo padrone Ashton i suoi abominevoli disegni, Charles, vedendo il falso anello di fidanzamento destinato a raggirare Lucia, credette trattarsi di un pegno d'amore mandato da Edgardo. Confessava, d'altra parte, di non seguire la storia, per via della musica che nuoceva parecchio alle parole. «Non importa», disse Emma, «sta zitto!» «E che mi piace rendermi conto», replicò lui, chinandosi sulla sua spalla. «Lo sai?» «Sta zitto, sta zitto!» fece lei spazientita. Lucia veniva avanti, semisorretta dalle sue ancelle, una corona di fiori d'arancio sui capelli, pallida più del raso bianco della sua veste. Emma riandava trassognata al giorno del suo matrimonio, e si rivedeva laggiù, in mezzo ai campi di grano, sul viottolo, in cammino verso la chiesa. Perché non aveva resistito, supplicato, come quella? Invece era contenta, non si rendeva conto dell'abisso in cui stava precipitando. Ah, se al tempo della sua fresca bellezza, prima delle lordure del matrimonio e delle delusioni dell'adulterio, avesse potuto investire la sua vita su un grande cuore saldo, allora virtù, tenerezza, volutà e doveri avrebbero fatto tutt'uno, e mai sarebbe scesa dalle altezze di quella felicità. Ma una gioia simile, senza dubbio, era una menzogna inventata per la delusione di ogni desiderio. Ora conosceva la meschinità delle passioni enfatizzate dall'arte. Sforzandosi perciò di distoglierne i pensieri, Emma decise di vedere in quella riproduzione dei suoi dolori nient'altro che una plastica fantasia, capace di ingannare la vista, e dentro di sé sentiva perfino nascere un sorriso di sdegnosa compassione, quando sul fondo della scena, sotto la portiera di velluto, apparve un uomo dal mantello nero. A un suo movimento il grande cappello alla spagnola cadde, e subito gli strumenti e i cantanti intonarono il sestetto. Edgardo, fiammeggiante d'ira, dominava tutti gli altri con la sua voce più chiara. Ashton gli lanciava con note gravi provocazioni assassine, Lucia alzava il suo accuto lamento, Arturo modulava in disparte suoni intermedi, e il timbro basso del ministro emetteva un ronfare d'organo, mentre le voci femminili ne ripetevano le parole, intonando un coro delizioso. Se ne stavano tutti in fila, allineati, a gesticolare, e la collera, la vendetta, la gelosia, il terrore, la misericordia e la meraviglia emanavano insieme dalle loro bocche socchiuse. L'amante oltraggiato brandiva la spada snudata, la gorgiera di Trina si sollevava a scatti, accompagnando i movimenti del torace, e lui si muoveva da destra a sinistra, a grandi passi, facendo risuonare sul tavolato gli speroni dorati dei suoi stivali flosci, svasati alla caviglia. Il suo amore doveva essere inesauribile, pensava Emma, se poteva riversarne sulla folla così intensi e flubi. Tutte le sue velleità denigratorie svanivano di fronte alla poesia di quel ruolo, che la possedeva, e trascinata verso l'uomo dalla finzione del personaggio, cercò di immaginarsi la sua vita, una vita sensazionale, straordinaria, splendida, che anche lei, però, avrebbe potuto condurre, se il destino l'avesse concesso. Si sarebbero conosciuti, si sarebbero amati. Assieme a lui avrebbe viaggiato attraverso tutti i reami d'Europa, di capitale in capitale, condividendo le sue fatiche e il suo orgoglio, raccogliendo i fiori che gli gettavano, ricamando lei stessa i suoi costumi. Poi, ogni sera, in fondo a un palco, dietro la griglia dorata, avrebbe raccolto a bocca aperta le espansioni di quell'anima, che avrebbe cantato solo per lei, l'avrebbe guardata dal palcoscenico, senza smettere di recitare. Ma un pensiero folle la afferrò. Non c'era dubbio, la stava guardando. Ebbe voglia di correre fra le sue braccia, per rifugiarsi nella sua forza, come fosse l'incarnazione stessa dell'amore, e di dirgli, di gridare, prendimi, portami via, partiamo. Per te sono per te tutte le mie brame, tutti i miei sogni. Calò il sipario. L'odore di gas si mescolava ai fiati, l'aria mossa dai ventagli rendeva l'atmosfera più opprimente. Emma volle uscire, la folla ingombrava i corridoi, e così ricade sulla poltrona in preda alle palpitazioni che le toglievano il respiro. Timoroso di vederla svenire, Charles corse alla bivette per procurarle un bicchiere di orsata. Fece fatica a riguadagnare il suo posto. Gli davano gomitate ad ogni passo, per via del bicchiere che teneva in mano. Anzi, ne versò tre quarti sulle spalle di una signora di Rouen in maniche corte, la quale, sentendo il liquido freddo colarle per la schiena, cominciò a gridare come un pavone, neanche la stessero assassinando. Il marito, che commerciava in tessuti, si infuriò contro il maldestro, e mentre lei col fazzoletto cercava di assorbire le macchie sul suo bel vestito di taffettà color ciliegia, borbottava con modi scorbutici, parole come indennità, spese, risarcimento. Finalmente, Charles giunse accanto alla moglie, dicendole trafelato. «In fede mia, ho pensato di rimanerci. C'è una folla, una folla!» e aggiunse. «Indovina un po' chi ho incontrato lassù. Il signor Leon». «Leon? Proprio lui, verrà subito a omaggiarti». E aveva appena finito di pronunciare queste parole che l'ex praticante di Yonville fece il suo ingresso nel palco. Tese la mano con mondana disinvoltura, e Madame Bovary, meccanicamente, porse la sua, obbedendo forse all'imperio di una volontà più forte. Non ne aveva più saputo nulla da quella sera di primavera, in cui pioveva sulle foglie verdi, quando s'erano detti addio, in piedi accanto alla finestra. Ma subito, riprendendo cognizione delle convenienze, si sforzò di dissipare il torpore dei ricordi, e cominciò a balbettare rapide frasi. «Ah, buonasera! Come mai qui?» «Silenzio!» gridò una voce dalla platea, poiché stava cominciando il terzo atto. «Siete a Rouen, dunque?» «Sì». «E da quando?» «Fuori, fuori!» La gente si voltava verso di loro. «Tacquero!» Ma da quel momento in poi, Emma non ascoltò più, e il coro dei convitati, la scena di Ashton e del suo maggiordomo, grande duetto in re maggiore, tutto passò per lei in lontananza, come se gli strumenti fossero divenuti meno sonori e i personaggi fossero indietreggiati. Si rammentava le partite a carte in casa del farmacista e la passeggiata dalla balia, le letture sotto il pergolato, i colloqui intimi davanti al fuoco, tutto quel misero amore così placido e lungo, così discreto, così tenero, e che lei tuttavia aveva dimenticato. Perché dunque riappariva? Quale combinazione di avventure lo riportava nella sua esistenza? Se ne stava dietro di lei, la spalla appoggiata contro il tramezzo, e di tanto in tanto avvertiva il brivido dell'alito tiepido delle sue narici che le scendeva sui capelli. «Vi divertite?» disse Léon, chinandosi su di lei, così da presso che la punta dei baffi le sfiorò la guancia. Rispose con non curanza. «Oh Dio mio, no, non molto». Allora lui propose di uscire dal teatro, per andare a prendere un gelato da qualche parte. «Oh no, non ancora, restiamo», disse Bovary. Lei ha i capelli sciolti, la cosa si fa tragica. Ma la scena della follia non suscitava in Emma alcun interesse, e la recitazione della cantante le parve esagerata. «Strella troppo», disse voltandosi verso Charles, che ascoltava. «Sì, forse, un po', rispose lui, indeciso fra il suo schietto apprezzamento e il rispetto che nutriva per le opinioni della moglie. Poi Léon disse, con un sospiro, «Fa un caldo! Insopportabile, davvero! Stai male?» domandò Bovary. «Sì, soffoco, andiamocene!» Léon poggiò delicatamente, sulle spalle di lei, il lungo scialle di trina, e tutti e tre se ne andarono a sedere sul porto, all'aperto, davanti alla vetrata di un caffè. Si parlò da prima della sua malattia, sebbene Emma interrompesse Charles di tanto in tanto, nel timore, diceva, di annoiare il signor Léon. E quest'ultimo raccontò che aveva trascorso a Rouen due anni in uno studio importante, per addestrarsi nelle pratiche, diverse in Normandia da quelle che si trattavano a Parigi. Poi si informò di Bert, della famiglia Homet, della Lefrançois. E poiché non avevano, di fronte al marito, nient'altro da dirsi, ben presto la conversazione si interruppe. Persone che uscivano dallo spettacolo passavano sul marciapiede, canticchiando o sbraitando a piena gola. «Oh, bell'alma innamorata!» Allora Léon, per sfoggiare la sua competenza, si mise a parlare di musica. Aveva visto tamburini, rubini, persiani, grisi. Rispetto a loro, Lagardie, con tutti i suoi acuti, non valeva niente. Eppure, interruppe Charles, che mandava giù a sorsetti il suo sorbetto al rum. «Dicono che nell'ultimo atto è davvero mirabile. Mi dispiace d'essere andato via prima della fine. Cominciavo a divertirmi». «In ogni caso», riprese Léon, «ci sarà presto un'altra rappresentazione». Ma Charles rispose che dovevano partire l'indomani. «A meno che», aggiunse, rivolgendosi alla moglie, «non voglia rimanere tu sola, amicetta». E il giovane, cambiando strategia di fronte all'occasione che si offriva, in attesa alle sue speranze, si lanciò nell'elogio di Lagardie nel pezzo finale. Era qualcosa di superbo, di sublime. Allora Charles insistette. «Tornerai domenica. Avanti, deciditi. Ti sbagli. Se appena ti sembra che ti possa far bene…» Nel frattempo, i tavolini tutti intorno si svuotavano. Un cameriere venne con discrezione ad appostarsi vicino a loro. Charles capì e tirò fuori il portafoglio. Il giovane lo trattenne per un braccio, e non mancò persino di lasciare, in più del conto, due pezzi d'argento, che fece tintinnare sul marmo. «Mi dispiace davvero», mormorò Bovary, «per il denaro che…» L'altro fece un gesto di non curanza, pieno di cordialità, e prendendo il cappello… «D'accordo allora, domani alle sei?» Charles protestò ancora una volta che non poteva star via più a lungo, ma niente impediva che Emma… «E che…» balbettava lei, con un sorriso curioso. «Non sono sicura!» «E va bene, ci penserai. Vedremo, la notte porta consiglio». Poi a Leon che li accompagnava. «Ora che siete tornato dalle nostre parti, verrete, spero, ogni tanto a cena da noi». Il giovane dichiarò che non avrebbe mancato, tanto più che aveva bisogno di recarsi a Yonville per un affare dello studio. Essi separarono davanti al Passage Saint-Herbland, mentre dalla cattedrale suonavano le undici e mezza. Parte terza. Capitolo 1. Mentre portava avanti gli studi di legge, Léon aveva frequentato abbastanza spesso la Chaumière, riscuotendo anche un buon successo con le sartine, che gli trovavano l'aria distinta. Era il più a modo fra gli studenti. Non portava i capelli troppo lunghi, ma neanche troppo corti. Non si mangiava il primo del mese il denaro dell'intero trimestre e manteneva buoni rapporti con i professori. Quanto agli eccessi, se ne era sempre astenuto, sia per pusillanimità che per riservo. Spesso, quando se ne stava a leggere in camera, o la sera, seduto sotto i tigli del Luxembourg, lasciava cadere a terra il codice e riandava col ricordo ad Emma. Ma a poco a poco, quel sentimento si affievolì sotto il cumulo di altre bramosie, attraverso le quali, tuttavia, continuava a esistere. Perché Léon non perdeva ogni speranza. Per lui c'era un'incerta promessa oscillante nell'avvenire, come un frutto d'oro appeso ad una fantastica vegetazione. Poi, nel rivederla dopo tre anni di assenza, la sua passione si risvegliò e pensò che doveva risolversi a far la sua. D'altra parte, la sua timidezza si era consunta al contatto di frivole compagnie, ed egli tornava in provincia colmo di disprezzo, per quanto non calpestasse con scarpe di vernice l'asfalto del boulevard. Accanto ad una parigina tuttatrine, nel salotto di qualche illustre dottore, una personalità con decorazioni e carrozza, il povero praticante notaio avrebbe indubbiamente tremato come un bambino. Ma lì, a Rouen, sul porto, davanti alla moglie di quel medicastro, si sentiva a proprio agio, sicuro in partenza di far colpo. La padronanza di sé dipende dagli ambienti in cui viene a collocarsi. Al mezzanino non si parla, come al quarto piano, e la donna ricca sembra avere intorno a sé, a difesa della propria virtù, tutti i suoi biglietti di banca, come una corazza nella fodera del bustino. La sera prima, separatosi dai coniugi bovary, Léon li aveva seguiti a distanza, lungo la strada. Poi, quando li aveva visti fermarsi alla Croix-Rouge, aveva girato i tacchi e aveva passato la notte a meditare un piano. L'indomani, dunque, verso le cinque, entrò nella cucina della locanda, la gola serrata, le guance pallide e con quella risolutezza dei vili che niente può fermare. «Il signore non c'è», rispose un cameriere. La cosa gli sembrò di buon auspicio. Salì. Lei non si turbò alla sua vista. Si scusò, invece, per aver dimenticato di dirgli dov'erano alloggiati. «Oh, l'ho indovinato», replicò Léon. «E come?», sostenne di essere arrivato da lei casualmente, guidato da un istinto. Lei fece un sorriso e subito dopo, per riparare a quella sciocchezza, Léon raccontò di aver passato la mattinata a cercarla in tutti gli alberghi della città, uno dopo l'altro. «Vi siete dunque decise a restare?», aggiunse. «Sì», disse lei, «e ho fatto male. Non bisogna abituarsi a piaceri che non sono alla nostra portata, quando le esigenze sono tante?». «Oh, immagino!» «Eh no, non siete una donna voi!» Ma anche gli uomini avevano i loro dispiaceri, e così la conversazione prese avvio con qualche riflessione filosofica. Emma si dilungò molto sulla miseria degli affetti terreni e sull'eterno isolamento in cui il cuore rimane sepolto. Per farsi valere, o per un'ingenua imitazione di quella malinconia che provocava la sua, il giovane dichiarò di essersi straordinariamente annoiato per tutto il tempo degli studi. La procedura lo irritava, altre erano le sue vocazioni, e non c'era lettera in cui sua madre non lo tormentasse. Precisando sempre meglio i motivi del loro rispettivo dolore, ognuno dei due, nel parlare, tendeva ad esaltarsi in quella progressiva confidenza. Ma talvolta esitavano a esporre compiutamente il loro pensiero, e cercavano allora ad immaginare una frase che potesse tuttavia tradurlo. Lei non confessò la sua passione per un altro, lui non disse che l'aveva dimenticata. Lui forse non ricordava più le cene dopo il ballo con donnine in maschera, e lei, indubbiamente, non aveva più memoria alcuna degli appuntamenti di un tempo, quando al mattino correva tra l'erba verso il castello dell'amante. I rumori della città arrivavano appena sino a loro, e la camera sembrava piccola, quasi fatta apposta per recingere la loro solitudine. Emma, con indosso una vestaglia di basino, appoggiava lo chignon contro lo schienale della vecchia poltrona. La carta da parati gialla le faceva come uno sfondo dorato, e la sua testa scoperta si riproduceva nello specchio, con la scriminatura bianca in mezzo e i lobi delle orecchie che uscivano da sotto alle due bande. Ma perdonatemi, disse, che villana, vi sto annoiando con i miei eterni lamenti. No, mai, mai. Se sapeste, riprese, alzando al soffitto i begli occhi da cui scorreva una lacrima. Tutto quel che avevo sognato. Ed io allora? Oh, quanto ho sofferto! Spesso uscivo, andavo in giro, bighellonavo lungo il fiume, a stordirmi nella folla, senza potermi liberare dall'ossessione che mi perseguitava. In un negozio di stampe del boulevard c'è un'incisione italiana che rappresenta una musa. È drappeggiata in una tunica e guarda la luna. Nella chioma sciolta ha dei non ti scordar di me. Qualcosa mi spingeva continuamente là. Ci sono rimasto per ore ed ore. Poi, con voce tremante, vi assomigliava un po'. Madame Bovary girò la testa, affinché lui non vedesse sulle sue labbra l'irresistibile sorriso che vi sentiva sbocciare. Spesso, riprese lui. Vi scrivevo lettere che poi stracciavo. Emma non rispondeva. Lui continuò. A volte fantasticavo che un caso qualunque vi portasse qui. Ho creduto di riconoscervi agli angoli delle strade. Rincorrevo tutte le carrozze, dalla cui portiera sventolava uno scialle, un velo simile al vostro. Lei sembrava decisa a lasciarlo parlare senza interromperlo. Con le braccia incrociate e il volto chino, contemplava i fiocchi delle pantofole e di tanto in tanto muoveva le dita del piede sotto il raso. Tuttavia sospirò. La cosa più penosa è trascinare, come faccio io, un'esistenza inutile. Non credete? Se le nostre sofferenze potessero servire a qualcuno, ci si consolerebbe col pensiero del sacrificio. Lui si mise a decantare la virtù, il dovere e le tacite immolazioni, avendo a sua volta un incredibile bisogno di dedizione che non riusciva ad appagare. Vorrei tanto, disse lei, essere suora in un ospedale. Ahimè, replicò lui. Gli uomini non hanno di queste sante missioni. In nessun luogo vedo una professione, tranne, forse, quella del medico. Con una leggera alzata di spalle, Emma lo interruppe per lamentarsi della malattia di cui aveva rischiato di morire. Che peccato, ora non soffrirebbe più. Leon si gettò immediatamente sulla pace del sepolcro. Una sera aveva persino fatto testamento, raccomandando di venire seppellito in quel bel tappetino a strisce di velluto che aveva ricevuto in dono da lei, perché era così che avrebbero voluto essere stati, ed entrambi si costruivano un ideale su cui ora aggiustavano la loro vita passata. Del resto, la parola è un laminatoio che sempre affina i sentimenti. Ma quella trovata del tappetino, perché mai? chiese lei. Perché? Lui esitava. Perché vi ho tanto amata? E congratulandosi con se stesso per aver superato l'ostacolo, Leon spiò con la coda dell'occhio l'espressione di lei. Fu come in cielo, quando una raffica di vento scaccia le nuvole. Il cumulo di pensieri tristi che li incupiva, parve ritrarsi dai suoi occhi azzurri. Tutto il viso si fece radioso. Lui aspettò. Alla fine lei rispose. Avevo sempre avuto il sospetto. Allora si raccontarono i piccoli fatti di quell'esistenza lontana, di cui avevano appena riassunto, con una sola parola, piaceri e malinconie. Lui ricordava il pergolato di clematide, i vestiti che lei aveva indosso, i mobili della sua stanza, tutta la casa. E i nostri poveri cactus che fine hanno fatto? Le ha uccisi il gelo quest'inverno. Ah, sapeste quanto ci ho pensato? Spesso li rivedevo, come allora, quando il sole batteva sulle imposte nelle mattine d'estate. E intravedevo le vostre braccia nude muoversi tra i fiori. Povero amico mio! Fece lei tendendogli la mano. Leon vi impresse immediatamente le labbra. Poi, dopo un profondo respiro. A quel tempo eravate per me una qualche forza sconosciuta che teneva prigioniera la mia vita. Una volta, per esempio, sono venuto a casa vostra, ma forse non ricordate. Sì, disse lei. Continuate. Eravate giù, in anticamera, pronta per uscire, sull'ultimo gradino. Avevate anche un cappello con dei fiorellini azzurri, e senza che voi mi invitaste, mio malgrado, vi ho accompagnata. Eppure ogni istante mi rendevo sempre più conto della mia stupidità, e continuavo a camminare al vostro fianco, senza decidermi a seguirvi francamente e senza riuscire a lasciarvi. Quando entravate in un negozio, restavo in strada, vi guardavo attraverso i vetri, sfilarvi i guanti e contare il denaro sul banco. Poi avete suonato dalla signora Tuvash, vi hanno aperto, ed io sono rimasto lì, come un idiota, davanti al pesante portone che si era richiuso dietro di voi. Ascoltandolo, Madame Bovary si stupiva di essere tanto vecchia. Tutte quelle cose che riemergevano le sembravano dilatare la sua esistenza. Erano come tuffi all'indietro nelle immensità del sentimento, e ogni tanto diceva, sottovoce e con le palpebre socchiuse, «Sì, è vero, è vero, è vero». Udirono suonare le otto ai diversi orologi del quartiere Beauvoisin, che è pieno di collegi, di chiese, di antichi palazzi abbandonati. Non parlavano più, ma, guardandosi, sentivano un brusio nelle loro teste, come se una voce fosse passata dall'uno all'altra attraverso le pupille sbarrate. Le loro mani si erano ricongiunte, e il passato, il futuro, le reminescenze e i sogni… tutto si confondeva nella dolcezza di quell'estasi. La notte si addensava sulle pareti, dove ancora luccicavano, semi-affogati nell'ombra, i colori vivaci di quattro stampe, rappresentanti altrettante scene della Tour de Nesle, con sotto una didascalia in spagnolo e in francese. Attraverso la finestra a ghigliottina si scorgeva un angolo di cielo nero, tra i tetti a guzzi. Lei si alzò per accendere due candele sul cassettone, poi tornò a sedersi. «Ebbene», fece Leon. «Ebbene», replicò lei. Lui cercava il modo di riprendere il dialogo interrotto, quando lei gli disse «Ma perché nessuno mai, finora, mi ha manifestato sentimenti simili?». Il giovane proclamò che le nature spirituali erano difficili da capire. Lui l'aveva amata al primo sguardo e si disperava, pensando a quale sarebbe stata la loro felicità, se, col favore del destino, si fossero incontrati prima e si fossero indissolubilmente legati l'uno all'altra. «Ci ho pensato a volte», disse lei. «Che sogno!», mormorò Leon. E giocherellando delicatamente con il bordo azzurro della sua lunga cintura bianca, aggiunse. «Chi ci impedisce di ricominciare?». «No, amico mio», replicò lei. «Sono troppo vecchia. Siete troppo giovane. Dimenticatemi. Altre vi ameranno. Voi le amerete». «Mai quanto voi», protestò lui. «Siete proprio un bambino. Via, siamo ragionevoli. Datemi ascolto». Gli spiegò che il loro amore era impossibile e che dovevano rispettare, come in passato, il limite di una fraterna amicizia. Parlava seriamente? Non lo sapeva con certezza neanche lei, presa com'era dal fascino della seduzione e dalla necessità di resisterle, e contemplando il giovane con uno sguardo tenero, respingeva dolcemente le timide carezze azzardate da quelle mani frementi. «Ah, scusatemi», disse lui ritraendosi. Ed Emma fu presa da un vago sgomento, davanti a quella timidezza, per lei più pericolosa dell'audacia di Rodolf, quando le andava incontro a braccia aperte. Mai un uomo le era parso così bello. Uno squisito candore emanava dal suo contegno. Le lunghe ciglia fini e ricurve erano abbassate. Le guance dalla pelle soave arrossivano per desiderio di lei, pensava Emma, e provava una voglia irresistibile di posarvi le labbra. Allora, girandosi verso la pendola, come per guardare l'ora? «Come è tardi, Dio mio», disse. «Che chiacchieroni!» Lui capì l'allusione e cercò il cappello. «Ho persino dimenticato lo spettacolo, e il povero Bovary che mi aveva lasciata qui apposta! Mi ci doveva portare il signor Lormeux, di Rio Grande-Pont, assieme alla moglie!» E l'occasione era persa, perché lei sarebbe partita il giorno dopo. «Davvero?» domandò Leon. «Sì, ma bisogna che vive da ancora», replicò lui. «Dovevo dirvi... cosa?» «Una cosa... grave, seria!» «Eh, no, del resto non ve ne andrete, è impossibile! Se sapeste, sentite! Non avete dunque capito, non avete indovinato!» «Eppure siete uno che sa parlare», disse Emma. «Ah, vi prendete gioco di me! Basta, basta! Per pietà, lasciate che vi riveda! Una volta, una sola!» «E va bene!» si fermò, poi, come ripensandoci... «Oh, non qui!» «Dove vorrete!» «Volete...» parve riflettere, poi tagliando corto... «Domani alle undici nella cattedrale!» «Ci sarò!» esclamò lui afferrandole le mani, che lei ritrasse. E poiché erano entrambi in piedi, lui alle spalle di lei, che stava a capochino, Leon si curvò sul suo collo e le baciò a lungo la nuca. «Ma siete pazzo! Siete davvero pazzo!» diceva lei con risatine eccitate, mentre i baci si moltiplicavano. Allora, protendendo la testa sulle spalle di lei, Leon sembrò cercare un consenso nei suoi occhi, ma su di lui cade uno sguardo maestosamente glaciale. Fece tre passi indietro, per andarsene. Si fermò sulla soglia, poi bisbigliò con voce tremante. «A domani!» Lei rispose con un cenno della testa e volò via nella stanza accanto. Quella sera Emma gli scrisse un'interminabile lettera, in cui annullava l'appuntamento. Ormai era tutto finito e, per la loro stessa felicità, non dovevano più vedersi. Ma quando la lettera fu chiusa, si trovò in grande imbarazzo, perché non conosceva l'indirizzo di Leon. «Gliela consegnerò personalmente», si disse. «Tanto verrà!» L'indomani, Leon, spalancata alla finestra, canticchiando sul balcone, si lucidò gli scarpini personalmente e a più passate. Si infilò un paio di pantaloni bianchi, calzini fini, una giacca verde, sparse sul fagioletto tutti i profumi in suo possesso. Poi, dopo essersi fatto arricciare i capelli, li allisciò di nuovo, per conferire alla sua capigliatura un'eleganza più naturale. «E' ancora troppo presto», pensava, guardando l'orologio a cucù del parrucchiere, che segnava le nove. Lesse un vecchio giornale di mode, uscì, fumò un sigaro, risalì tre vie, pensò che aveva fatto l'ora e si incamminò lentamente verso il sagrato di Notre-Dame. Era una bella mattina d'estate. Nelle botteghe degli orafi gli argenti luccicavano e la luce che batteva obliqua sulla cattedrale depositava scintillanti striature nell'intaglio delle pietre grigie. Uno stormo di uccelli volteggiava nel cielo azzurro, intorno alle guglie a trifoglio. La piazza, echeggiante di grida, aveva l'odore dei fiori che orlavano il selciato. Rose, gelsomini, garofani, narcisi e tuberose, intervallati da ciuffi umidi di verde, erba gatta e mordigallina per gli uccelli. Al centro la fontana gorgogliava, e sotto gli ombrelloni, tra piramidi di angurie, venditrici a capo scoperto avvolgevano nella carta mazzi di violette. Leone prese uno. Era la prima volta che comprava fiori per una donna, e nell'aspirarne il profumo il petto gli si gonfiò di orgoglio, come se quell'omaggio che destinava a un'altra ricadesse su di lui. Temeva però di essere visto. Entrò risolutamente in chiesa. Il guardiano in quel momento stava sulla soglia, in mezzo al portale di sinistra, sotto la Marianne d'Anson. Pennacchio sulla testa, spadone al polpaccio, mazza in pugno, più maestoso di un cardinale, esplendente come il sacro ciborio. Si fece incontro a Leone, e gli disse, con quel sorriso bonario e insinuante, che assume la gente di chiesa quando interroga i bambini. Forse il signore non è di queste parti? Il signore desidera vedere le attrazioni della chiesa? No, disse l'altro. E per prima cosa fece il giro delle navate laterali. Poi tornò a guardare in piazza. Emma non arrivava. Risalì fino al coro. Nelle acqua santiere colme si specchiava la navata centrale, con l'inizio delle ogive e parte delle vetrate. Ma il riflesso dei vetri dipinti, infrangendosi sul bordo del marmo, continuava più oltre, sui lastroni del pavimento, come un tappeto variopinto. La piena luce dell'esterno si allungava dentro la chiesa, in tre enormi raggi, attraverso i tre portali aperti. Ogni tanto, in fondo passava un sacrestano, facendo davanti all'altare l'obliqua genuflessione dei devoti frettolosi. I lampadari di cristallo pendevano immobili. Nel coro ardeva una lampada d'argento, e dalle cappelle laterali, dagli angoli bui della chiesa, uscivano a tratti come esalazioni di sospiri, insieme al suono di una grata che ricadeva, echeggiando sotto le alte volte. Leon camminava lungo i muri con passo grave. Mai la vita gli era parsa così bella. Tra poco lei sarebbe arrivata, affascinante e inquieta, spiando alle proprie spalle sguardi che la seguissero. Con quel suo vestito a balze, l'occhialino d'oro, gli stivaletti sottili, con tutte quelle raffinatezze che lui non aveva mai gustato, e con l'ineffabile seduzione della virtù, pronta a soccombere. La chiesa si disponeva intorno a lei come un gigantesco boudoir. Le volte si chinavano per raccogliere nell'ombra la confessione del suo amore. Le vetrate splendevano per illuminare il suo volto, e gli incensieri avrebbero arso, perché lei apparisse come un angelo, tra i vapori profumati. Però non arrivava. Si sedette, e il suo sguardo incontrò una vetrata azzurra, su cui erano raffigurati dei pescatori carichi di ceste. La guardò a lungo, con attenzione, contando le squame dei pesci e i bottoni dei farsetti, mentre la sua mente vagava alla ricerca di Emma. Il guardiano, in disparte, si indignava dentro di sé contro quell'individuo che si permetteva di ammirare da solo la cattedrale. Gli sembrava un comportamento mostruoso, come se lo derubasse, quasi commettesse un sacrilegio. Ma un fruscio di seta sul pavimento, l'ala di un cappello, una mantiglia nera, era lei. Leon si alzò e le corse incontro. Emma era pallida, camminava in fretta. «Leggete», disse tendendogli un foglio. «Oh no!» e bruscamente ritrasse la mano, per entrare nella cappella della Vergine, dove, inginocchiandosi contro una sedia, si immerse nella preghiera. Il giovane si irritò per quel capriccio da bigotta. Poi, tuttavia, restò affascinato nel vederla, in pieno appuntamento, perdersi in orazioni come una marchesa andalusa. Ma non tardò ad annoiarsi, perché lei non la finiva più. Emma pregava, o meglio, si sforzava di pregare, sperando che le scendesse dal cielo un'ispirazione improvvisa, e per sollecitare l'aiuto divino, si riempiva gli occhi degli splendori del tabernacolo. Aspirava il profumo delle violacciocche bianche spampanate nei grandi vasi, tendeva l'orecchio al silenzio della chiesa, il quale non faceva che accrescere il tumulto del suo cuore. Si stava alzando, e stavano entrambi per andarsene, quando il guardiano si precipitò, dicendo «Forse la signora non è di queste parti? La signora desidera vedere le attrazioni della chiesa?» «No», proruppe Leon. «Perché no?», rispose lei. Si aggrappava, infatti, con la sua virtù vacillante, alla Vergine, alle sculture, alle tombe, ad ogni pretesto. Allora, per procedere nell'ordine, il guardiano li condusse sino all'entrata, vicino alla piazza, dove, indicando con la mazza un gran cerchio di pietre nere senza iscrizioni né cesellature, ecco, fece solennemente, la circonferenza della bella campana di Amboise. Pesava 40.000 libre, non aveva pari in tutta Europa. L'operaio che l'affusa è morto di gioia. «Andiamo», disse Leon. Il brav'uomo si rimise in marcia. Poi, tornato alla cappella della Vergine, allargò le braccia in un gesto di sintetica dimostrazione, e è più orgoglioso di un proprietario terriero che mostri i propri frutteti. «Questa nuda pietra copre Pierre de Bresy, signore della Varenne di Brissac, gran maresciallo di Poitou e governatore di Normandia, morto nella battaglia di Montelry, il 16 luglio 1465. Leon si mordeva le labbra, scalpitando. E a destra, quel gentiluomo tutto bardato di ferro, su un cavallo che si impenna, è suo nipote, Louis de Bresy, signore di Brevale di Montchauffet, conte di Molevrie, barone di Moni, ciambellano del re, cavaliere dell'ordine, e anche lui governatore di Normandia. Morto il 23 luglio 1531, una domenica, come dice l'iscrizione. Sotto, l'uomo che sta per scendere nella tomba raffigura esattamente la stessa persona. È forse possibile trovare una più perfetta rappresentazione del nulla? Madame Bovary prese l'occhialino. Leon la guardava immobile, non osava più dire una sola parola. Fare un sol gesto. Tanto si sentiva scoraggiato, davanti a quel duplice partito preso di chiacchiere e di indifferenza. La guida continuava inarrestabile. Vicino a lui, questa donna in ginocchio e in lacrime, è la sua sposa, Diana di Poitiers, contessa di Bresy, duchessa di Valentinois. Nata nel 1499, morta nel 1566. E, a sinistra, quella con un bambino in braccio e la Santa Vergine. Adesso giratevi da questa parte. Ecco le tombe d'Amboise. Sono stati tutte e due cardinali e arcivescovi di Rouen. Quello lì era un ministro di Luigi XII. Ha fatto molto bene alla cattedrale. Nel suo testamento sono stati trovati 30.000 scudi d'oro per i poveri. E senza fermarsi, continuando a parlare, li sospinse in una cappella in gombra di banchi. Ne spostò qualcuno. Scoprì una specie di blocco, che poteva anche essere stato una statua malfatta. Un tempo, disse con un lungo gemito, ornava la tomba di Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra e duca di Normandia. Sono stati calvinisti a ridurla in questo stato. Per pura malvagità l'avevano seppellita nella terra sotto il seggio episcopale di Monsignore. Questa è la porta che varca Monsignore per raggiungere il suo alloggio. Ed ora passiamo a vedere le vetrate della garguille. Ma Leone, bruscamente, estrasse di tasca una moneta e afferrò Emma per un braccio. Il guardiano restò sbalordito. Non capiva quella munificenza intempestiva, quando al forestiero restavano ancora tante cose da vedere. Perciò, richiamandolo, «Eh, signore, la guglia, la guglia!» «Grazie», disse Leone. «Guardi che sbaglia!» «È alta a 440 piedi, nove e meno della grande piramide d'Egitto. È tutta di ghisa, e...» Leone fuggiva. Gli sembrava, infatti, che il suo amore, da quasi due ore immobilizzato nella chiesa come una pietra, stesse per dissolversi in fumo attraverso quella specie di tubo tronco, di gabbia oblunga, di comignolo traforato, che si avventura grottescamente sopra la cattedrale, come lo stravagante tentativo di qualche fantasioso calderaio. «Ma ora dove andiamo?», diceva lei. Senza rispondere, lui continuava a camminare a passi rapidi, e già Madame Bovary immergeva il dito nell'acqua benedetta, quando sentirono alle loro spalle l'alitare di un pesante respiro, interrotto dai colpi regolari di una mazza. Leone si girò. «Signore!» «Cosa?», riconobbe il guardiano, che portava sotto braccio, e ora in equilibrio sulla pancia, una ventina di grossi volumi rilegati. Erano le opere che trattavano della cattedrale. «Imbecille!», borbottò Léon, slanciandosi fuori dalla chiesa. Un monello giocherellava sul sagrato. «Va a cercarmi una carrozza!» Quello filò via come uno schioppo per la rue des quattro vent. Allora rimassero qualche minuto soli, faccia a faccia, e un po' a disagio. «Ah, Léon! Veramente! Io non so se debbo…» Era tutta smancerie. Poi, con aria seria. «Lo sapete che è molto sconveniente? Perché?», replicò lui. «A Parigi si fa così!» E quella parola fu decisiva, come un argomento irresistibile. La carrozza, però, tardava ad arrivare. Léon aveva paura che Emma rientrasse in chiesa. Finalmente la carrozza comparve. «Uscite almeno dal portone a nord!», urlò il guardiano fermo sulla soglia. «Per vedere la resurrezione, il giudizio universale, il paradiso, il re Davide e i reprobi tra le fiamme dell'inferno». «Il signore dove va?», domandò il vetturino. «Dove volete?», disse Léon, e spinse Emma dentro la carrozza. La pesante vettura si mosse. Discese la rue Grand Pont, attraversò la Place des Arts, il Quai Napoléon, il Pôle Neuf, e si fermò di colpo davanti alla statua di Pierre Corneille. «Continuate!», fece una voce dall'interno. La vettura ripartì, e lasciandosi trascinare dalla discesa, subito dopo il carrefour Lafayette, entrò a gran carriera nella stazione ferroviaria. «No, sempre dritto!», gridò la stessa voce. La carrozza uscì dai cancelli, e arrivata ben presto sul corso, prese a trottare dolcemente fra i grandi olmi. Il vetturino si asciugò la fronte, si mise il cappello di pelle tra le gambe, e spinse la carrozza fuori dai controviali, in riva all'acqua, vicino all'erba. Andò avanti lungo il fiume, sull'argine lastricato di sassi duri, e per un bel pezzo, dalla parte di Oyssel, oltre le isole. Ma a un tratto, si lanciò d'un balzo attraverso Casremar, Sotteville, le Grand Chaussée, la Rue del Boeuf, e si fermò per la terza volta davanti al Jardin des Plantes. «Continuate!», gridò quella voce, sempre più furiosa. E subito riprendendo la corsa, la carrozza passò da Saint-Sever, per il Quai des Courandiers, per il Quai aux Meules, ancora una volta per il ponte, per la Place du Champ de Mar, e dietro i giardini dell'ospedale, dove i vecchietti in giacca nera passeggiavano al sole lungo una terrazza tutta verde d'edera. Risali il boulevard Breveille, percorse il boulevard Cachoise, poi tutto il Mont Riboudet sino al Colle di Deville. Tornò indietro, e a quel punto andò errando, senza programmi né direzione. Fu vista a Saint-Paul, all'Eschieu, a Mont-Gargan, alla Rouge-Mar, e in Place des Gaillapois. Rue Maladrerie, Rue d'Inandrerie, davanti a Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nichez, davanti alla Dogana, alla Vieille Tour Passa, alle Trois-Pips e al Cimitero Monumentale. Ogni tanto il vetturino, dall'alto della cassetta, lanciava sguardi disperati alle osterie. Non capiva quale furore locomotorio inducesse i suoi passeggeri a non fermarsi mai. A volte ci provava, e subito sentiva levarsi alle sue spalle esclamazioni di collera. Allora frustava con maggiore violenza le sue due rozze coperte di sudore, ma senza badare ai sobalzi, sbattendo da una parte all'altra, indifferente a tutto, demoralizzato e quasi piangente di sete, stanchezza e tristezza. E sul porto, in mezzo ai carri e alle botti, nelle strade e alle cantonate, i borghesi spalancavano gli occhi, sbalorditi di fronte a un fatto talmente straordinario in provincia. Una carrozza con le tendine abbassate, che ricompariva di continuo, chiusa come una bara, sballottata come un vascello. A un certo punto, a metà giornata, in piena campagna, nel momento in cui il sole dardeggiava più forte contro i vecchi fanali argentati, una mano nuda sbucò da sotto le tendine di tela gialle e buttò via dei pezzetti di carta che si dispersero al vento, e andarono a posarsi lontano, come candide farfalle, su un campo fiorito di trifoglio rosso. Poi, verso le sei, la carrozza si fermò in una stradina del quartiere Beauvoisin, e ne scese una donna che camminava con la veletta abbassata, senza voltare la testa. Capitolo 2 Arrivando alla locanda, Madame Bovary si stupì di non vedere la diligenza. Iver, che l'aveva aspettata per cinquantatré minuti, alla fine se n'era andato. Non c'era nulla che l'obbligasse a partire, ma aveva dato la parola di tornare quella sera. D'altra parte, Charles la aspettava, e lei si sentiva già in cuore quella vile remissività, che, per molte adultere, ha lo stesso tempo, castigo e redenzione. Rapidamente fece i bagagli, pagò il conto, prese un calesse nella corte, e facendo fretta al cocchiere, spronandolo, chiedendo ogni minuto l'ora e i chilometri percorsi, riuscì a raggiungere l'irondelle all'altezza delle prime case di Quincampois. Appena seduta nel suo angolo, chiuse gli occhi, e li riaprì in fondo alla discesa, quando riconobbe da lontano Felicité, di vedetta davanti alla casa del Maniscalco. Ivert trattenne i cavalli, e la cuoca, hissandosi sino al finestrino, disse con aria di mistero, «Madame, dovete andare subito dal signor Homé, una cosa urgente». Il paese era silenzioso come sempre. Ad ogni cantone si vedevano fumare nell'aria piccoli mucchi color di rosa, era la stagione delle marmellate, e tutti a Yonville confezionavano la propria scorta nel medesimo giorno. Ma davanti alla farmacia si poteva scorgere un mucchio molto più grande, superiore agli altri, con la preminenza che spetta ad un laboratorio rispetto ai fornelli casalinghi, a un bisogno generale rispetto ai capricci individuali. Entro. La grande poltrona era rovesciata, eppure il fanal de Rouen giaceva a terra aperto, fra due pestelli. Spinse la porta del corridoio, e nel bel mezzo della cucina, fra orci scuri colmi di chicchi di ribes, di zucchero in polvere, di zucchero a zollette, bilance sui tavoli, paioli sul fuoco, vide gli Homé al completo, grandi e piccoli, tutti con grembiuli che li coprivano sino al mento, ed enormi forchette in mano. Giustine se ne stava in piedi, a testa bassa, e il farmacista urlava, «Chi ti aveva detto di andare a cercarlo nel caparnao!» «Cosa c'è? Che succede?» «Che succede?» rispose lo speziale. «Stiamo facendo la marmellata, sta cuocendo, ma bolliva troppo forte e rischiava di traboccare, e ho chiesto un altro paiolo. E lui, indolente e pigro con me, non va a prendere nel laboratorio, appesa al chiodo, la chiave del caparnao!» Lo speziale dava questo nome ad uno stanzino sotto i tetti, pieno di utensili e prodotti inerenti alla sua professione. Passava spesso lì dentro lunghe ore, solo, a etichettare, a travasare, a rimpacchettare, e considerava quel luogo non come un semplice deposito, ma come un vero e proprio santuario, da cui emergevano successivamente, elaborate dalle sue mani, pillole, pastiglie, tisane, lozioni e pozioni di ogni genere, destinate a diffondere la sua fama nei dintorni. Nessuno al mondo doveva metterci piede, tanto assoluto era il divieto che provvedeva a lui stesso alle pulizie. Insomma, se la farmacia, aperta al primo venuto, era il luogo in cui ostentare il proprio orgoglio, il caparnao era il rifugio in cui, concentrandosi egoisticamente, omessi e immergeva nelle sue occupazioni predilette. Perciò la storditezza di Giustin gli pareva un tratto di mostruosa irriverenza, e Paonazzo più del Ribes continuava a ripetere. Del caparnao proprio, la chiave che mette al sicuro gli acidi e gli alcali caustici. Andare a prendere un paiolo di riserva, un paiolo coperto, che magari non avrei mai utilizzato. Ogni cosa ha la sua importanza nelle delicate operazioni della nostra professione. Ma, diavolo, bisogna stabilire delle distinzioni, non destinare a usi più o meno domestici ciò che serve a scopi farmaceutici. Sarebbe come trinciare una pollastra con uno scalpello, come se un magistrato... Ma calmati, diceva la signora Omè. E Atalì, tirandolo per la redingote, Papà! Papà! No, lasciatemi, ripeteva lo speziale. Lasciatemi, diamine! Tanto valeva fare il droghiere, parola mia. Ma sì, fai pure. Non aver paura. Rompi, sfascia, lascia scappare le sanguisughe, brucia la bismalva, nei barattoli mettici a marinare i cetrioli, le bende, strappale. Ma mi avevate... Cominciò Emma. Subito. Ma lo sai a cosa andavi incontro? Non hai visto nulla nell'angolo, a sinistra, sul terzo ripiano? Parla, rispondi, spiccica qualcosa. Ma io... non so... balbettò il ragazzo. Ah, tu non sai. Ebbene, lo so io. L'hai vista una bottiglia di vetro azzurro, sigillata con cera gialla, contenente una polvere bianca, una bottiglietta su cui avevo scritto pericolo. E lo sai che cosa c'era dentro? Arsenico. E tu vai a toccare questa roba, a prendere un paiolo lì accanto. Accanto? gridò la signora Ome giungendo le mani. Arsenico? Potevi avvelenarci tutti! E i bambini cominciarono a strillare. Quasi già avvertissero nelle viscere atroci dolori. Oppure avvelenare un malato? Continuò lo speziale. Volevi mandarmi alla sbarra come criminale? In corte d'assise? Vedermi trascinato al patibolo? Non sai l'attenzione che ci metto a manipolare i prodotti, anche se ormai ci sono totalmente abituato. Io stesso mi spavento continuamente, pensando alle responsabilità che ho. Perché il governo ci perseguita, e l'assurda legislazione che ci regola è una vera spada di Damocles sospesa sulla nostra testa. Emma aveva smesso di chiedere che cosa volevano da lei, e il farmacista continuava, con frasi affannate. Questa è la riconoscenza per tutto quel che faccio per te. Così mi ricompensi delle cure paterne che ti prodigo. Perché senza di me dove saresti? Cosa faresti? Chi è che ti fornisce cibo, educazione, vestiario, e tutti i mezzi per figurare un giorno in società, dignitosamente? Ma per arrivare a questo bisogna sudare duro sui reni, farsi i calli alle mani, come si dice, fabbricando fitfaber agequodagis. Citava in latino, tanto era esasperato. Avrebbe citato in cinese e in groenlandese, se avesse conosciuto quelle lingue, poiché stava attraversando una di quelle crisi in cui l'anima intera mostra senza distinzioni tutto ciò che racchiude. Come l'oceano, che nelle tempeste si schiude dalle alghe della riva sino alla sabbia degli abissi. E riprese. Comincio a pentirmi terribilmente ad essermi fatto carico di te. Avrei fatto senz'altro meglio se a quell'epoca ti avessi lasciato marcire nella tua miseria e nell'erciume in cui sei nato. Non sarai mai capace di fare altro che il guardiano di vacche. Non hai nessuna attitudine per la scienza. A malapena sai appiccicare un'etichetta. E te ne stai qui, a casa mia, come un papa, come un pascià, a far la bella vita. Ma Emma, girandosi verso la signora Omè. Mi avete fatto chiamare? Ah, Dio mio! Interruppe con aria contrita la buona donna. Non so come farò a dirvelo. Una disgrazia. Non finì la frase. Lo speziale tuonava vuotalo, lustralo, portalo via, sbrigati insomma. E scuotendo Giustine per il bavero del camiciotto, gli fece cadere un libro dalla tasca. Il ragazzo si chinò. Omè fu più veloce e raccattato il volume lo contemplava, gli occhi sgranati, la mandibola spalancata. L'amore coniugale, disse lentamente, staccando le due parole. Ma bene, benissimo, perfetto. E con illustrazioni. Ah, questo è troppo. La signora Omè si fece avanti. No, non toccare tu. I ragazzi chiesero di vedere le figure. Uscite, fece lui imperiosamente. E quelli uscirono. Cominciò da prima a camminare in lungo e in largo, a grandi passi, tenendo il volume aperto fra le mani, roteando gli occhi, soffocato di indignazione, tumefatto, apoplettico. Poi venne dritto verso il suo allievo e piantandoglisi davanti con le braccia concerte. Ma ce li hai proprio tutti, i vizi, piccolo sciagurato. Sta' attento, sei su una brutta china. Non ci hai pensato che poteva cadere, questo libro infame, nelle mani dei miei bambini? Far scoccare una scintilla nel loro cervello, offuscare la purezza di Atalì, corrompere Napoleone. È già formato come un uomo. Sei ben sicuro, almeno, che non l'abbiano letto? Me lo garantisci? Ma insomma, signor Omè, fece Emma. Avevate da dirmi? Ah sì, è vero, signora, è morto vostro suocero. Difatti, Messer Bovaripadre era deceduto due giorni prima, improvvisamente, per un attacco apoplettico alzandosi da tavola. E Charles, con precauzione eccessiva per la sensibilità di Emma, aveva pregato Omè di comunicarle la terribile notizia con ogni possibile riguardo. Lui aveva meditato la frase, l'aveva tornita, levigata, arritmata. Ne era venuto fuori un capolavoro di prudenza e di gradualità, di fine costruzione e di delicatezza. Ma la collera aveva travolto la retorica. Emma, rinunziando a chiedere particolari, si allontanò dalla farmacia, già che Omè aveva ridato fiato ai suoi vituperi. Ora tuttavia si stava calmando e andava borbottando con tono paterno, sventagliandosi con il suo berretto greco. Non è che disapprovi completamente questo testo, è opera di un medico. Non manca di aspetti scientifici che per un uomo non è poi male conoscere. Anzi, oserei dire, è necessario conoscere. Ma più tardi, più tardi. Aspetta almeno ad essere uomo anche tu, che il tuo sviluppo sia compiuto. Non appena Emma bussò alla porta, Charles, che l'attendeva, si avanzò a braccia aperte e le disse, con le lacrime in gola, «Ah, amore mio caro!» e si chinò teneramente per baciarla. Ma al contatto delle sue labbra, lei fu assalita dal ricordo dell'altro e si passò la mano sul viso con un brivido. Tuttavia rispose, «Ho saputo, ho saputo!» Lui le mostrò la lettera in cui sua madre narrava l'accaduto, senza alcuna ipocrisia sentimentale. Solamente le dispiaceva che suo marito non avesse ricevuto i conforti della religione, dal momento che era morto a Doudville, per strada, sulla porta di un caffè, dopo una cena patriotica di ex ufficiali. Emma restituì la lettera, a tavola, per educazione, affettò una certa ripugnanza del cibo. Ma quando lui la imitò esagerando, cominciò risolutamente a mangiare, mentre Charles, di fronte a lei, restava immobile, in positura affranta. Ogni tanto, sollevando il capo, le lanciava un lungo sguardo colmo di sconforto. Una volta sospirò, «Avrei voluto rivederlo». Lei continuava a tacere. Alla fine, capendo che bisognava dire qualcosa, «Quanti anni aveva tuo padre?» «Cinquantotto». «Ah!» E fu tutto. Un quarto d'ora dopo, lui aggiunse «Povera madre mia, che fine farà ora?» Lei fece un gesto ignaro. A vederla così taciturna, Charles la immaginava afflitta, ed era indotto a non dire nulla, per non acuire quel dolore che lo commuoveva. Tuttavia, scuotendosi dal suo «Ti sei divertita ieri?» chiese. «Sì». Sparecchiata la tavola, Bovary non si alzò. Emma nemmeno. E più lo contemplava, più la monotonia di quello spettacolo allontanava dal suo cuore ogni compassione. Le appariva meschino, debole, uno zero. Insomma, in tutti i modi, un pover'uomo. Come fare a liberarsene. Che serata interminabile! Qualcosa di allucinante, come un vapore doppio, la intorpidiva. Udirono nell'ingresso il rumore secco di un bastone sul pavimento. Era Hippolyte, che portava i bagagli di Madame. Per depositarli, descrisse faticosamente un quarto di giro con la gamba di legno. «Nemmeno ci pensa più», si diceva lei, osservando il povero diavolo, la cui spessa capigliatura rossa gocciolava di sudore. Bovary cercava una moneta in fondo al suo borsellino, e senza mostrar di capire quanto fosse umiliante per lui la sola presenza di quell'uomo, che se ne stava lì come un rimprovero personificato della sua irrimediabile pochezza. «Oh, guarda che bei fiori», disse, notando sul caminetto le violette di Leon. «Sì», fece lei con indifferenza. «Le ho comprati poco fa, da una mendicante». Charles prese le violette, e come per rinfrescarsi gli occhi rossi di lacrime, Leon usava delicatamente. Lei gliele tolse bruscamente di mano e andò a sistemarle in un bicchiere d'acqua. L'indomani arrivò la signora Bovary in madre. Lei e suo figlio piansero in abbondanza. Emma, con la scusa di ordini da dare, scomparve. Il giorno dopo ci fu da organizzarsi per il lutto. Con i cestini da lavoro si andarono a sedere in riva al fiume, sotto il pergolato. Charles pensava al padre e si stupiva di provare tanto affetto per un uomo che sino ad allora aveva creduto di amare assai superficialmente. La signora Bovary madre pensava al marito. I giorni peggiori di un tempo ora le apparivano invidiabili. Tutto era cancellato dal rimpianto istintivo di una così lunga consuetudine. E ogni tanto, mentre spingeva l'ago, una grossa lacrima le colava lungo il naso, restando per un attimo sospesa. Emma pensava che appena 48 ore prima erano insieme, lontani dal mondo, ebri di felicità, a contemplarsi l'un l'altra senza fine. Si sforzava di recuperare i più impercettibili particolari di quel giorno ormai dileguatosi. Ma la presenza della suocera e del marito le dava fastidio. Avrebbe voluto non sentir nulla, non veder nulla, per non disturbare la concentrazione sul suo amore, che, per quanto lei facesse, si andava smarrendo sotto le sensazioni esterne. Stava scucendo la fodera di un vestito e le sfilacciature le si sparpagliavano intorno. La signora Bovary madre, senza sollevare gli occhi, sforbiciava. E Charles, con le sue pantofole di cimosa e la vecchia redingote scura che gli serviva da vestaglia, se ne stava in silenzio, con le mani in tasca. Accanto a loro, Bert, in grembiulino bianco, raschiava con la paletta la sabbia dei vialetti. D'un tratto, videro entrare dal cancelletto loro il negoziante di stoffe. Veniva a mettersi a disposizione, riguardo alla fatale circostanza. Emma rispose che le pareva non ci fosse bisogno di nulla. Il negoziante non si dette per vinto. Mille scuse, disse. Vorrei parlarvi in privato. Poi a voce bassa. Per quella faccenda, vi ricordate? Charles si fece cremisi sino alle orecchie. Ah sì, certo. E volgendosi alla moglie, turbato. Ti dispiacerebbe, cara? Lei parve capire, già che si alzò, e Charles disse alla madre. Non è nulla, sarà una faccenduola di casa. Voleva evitare assolutamente che venisse a sapere della cambiale, temendo i suoi rimproveri. Rimasti soli, l'eroe cominciò, in termini espliciti, a congratularsi con Emma per l'eredità. Poi a chiacchierare di cose banali, dei frutteti, della raccolta e della propria salute. Sempre così così, fra il gniff e il gnaff. In effetti, sfacchinava come un mulo, e cavandone appena quanto bastava per vivere, che che si dicesse in giro. Emma lo lasciava parlare. Non faceva che annoiarsi incredibilmente negli ultimi due giorni. Vi vedo pienamente ristabilita, no? Continuava lui. Devo dire che ho visto vostro marito in un bel pasticcio. È un bravo giovane, anche se c'è stato qualche screzio fra noi. Emma domandò quale screzio. Charles, infatti, le aveva nascosto la contestazione delle forniture. Ma lo sapete, fece l'eroe. Era per i vostri capricci, i bauli da viaggio. Il cappello calato sulla fronte, le mani dietro la schiena, sorridente e zuffolante, la guardava in faccia, d'uno sguardo insostenibile. Che sospettasse qualcosa. Andava smarrendosi in ogni sorta di preoccupazioni. Alla fine, però, lui soggiunse. Abbiamo fatto pace. Venivo appunto a proporgli un accomodamento. Si trattava di rinnovare la cambiale che Bovary aveva firmato. Il signore, ad ogni modo, poteva decidere come credeva. Non doveva darsi pena, ora soprattutto che aveva di fronte un mucchio di problemi. Anzi, farebbe bene a scaricarne qualcuno. Su di voi, per esempio, con una procura sarebbe comodo e potremmo fare qualche affaruccio, voi ed io. Lei non capiva. Lui tacque. Poi, tornando ai suoi interessi di bottega, Leroux dichiarò che madame non poteva esimersi dal prendere qualche cosa. Le avrebbe mandato una pezza di lanetta nera, dodici metri, per farne un abito. Quello che indossate va bene per casa. Ce ne vuole un altro per andare in visita. Io me ne sono accorto subito entrando. Non mi sfugge nulla. Non gliela mandò la stoffa. Gliela portò. Poi ritornò per le misure, e ancora con altri pretesti, cercando ogni volta di rendersi gradito, servizievole, infeudandosi, avrebbe detto Ome, e sempre insinuando ad Emma qualche suggerimento circa la procura. Della cambiale non parlava, e lei non ci pensava. Charles, all'inizio della sua convalescenza, le aveva sì raccontato qualcosa, ma tante inquietudini avevano agitato alla sua mente, che non se ne ricordava più. D'altra parte, lei evitava di toccare questioni finanziarie. La signora Bovary Madre ne fu sorpresa, e attribuì il cambiamento d'umore alle tendenze religiose sviluppate durante la malattia. Ma dopo la sua partenza, Emma non tardò a stupire Charles per il suo buonsenso pratico. Bisognava procurarsi delle informazioni, verificare le ipoteche, vedere se c'era la possibilità di una licitazione o di una liquidazione. Proferiva termini tecnici, a caso, pronunciava parole importanti come ordine, avvenire, previdenza, e continuamente esagerava i problemi della successione. Sinu a quando, un giorno, gli presentò il facsimile di un'autorizzazione generale per gestire e amministrare affari in suo interesse, contrarre prestiti, firmare e girare cambiali, pagare somme, eccetera. Aveva tratto profitto dalle lezioni di loro. Charles, candidamente, le chiese da dove veniva quella carta. «Dal signor Guillaumà», e con impareggiabile sangue freddo aggiunse. «Non me ne fido mica tanto. I notai hanno una pessima fama. Bisognerebbe forse consultare... Noi conosciamo soltanto... ma... nessuno. A meno che Leon». Ma era difficile intendersi per corrispondenza. Così lei si offrì di fare il viaggio. Lui rifiutò ringraziandola. Lei insistette. Fu un duello di cortesia. Alla fine lei esclamò, affettando ostinazione, «No, te ne prego, vado io». «Come sei buona», disse lui baciandola sulla fronte. Già dal giorno dopo, lei prese posto sull'irondelle per andare a Rouen a consultare il signor Leon. E ci rimase tre giorni. Capitolo 3 Furono tre giorni pieni, deliziosi, splendidi, una vera luna di miele. Stavano all'hotel de Boulogne, sul porto, e vivevano lì, persiane chiuse, porte sbarrate, fiori sparsi sul pavimento, bevendo granite sciroppate che ordinavano al mattino. Verso sera affittavano un barcone coperto e andavano a cena su un'isola. Era l'ora in cui, dai cantieri, si sentono risuonare i mazzuoli dei calafati sugli scafi delle navi. Il fumo del catrame si perdeva tra gli alberi e sul fiume comparivano larghe chiazze di grasso, che galleggiavano disordinatamente, fluttuando nel sole purpureo, come lastre di bronzo fiorentino. Discendevano fra barche ormeggiate, come gomene oblique che sfioravano appena la parte superiore della barca. I rumori della città si allontanavano gradatamente. Il rotolio dei carri, il subbuglio delle voci, il guaire dei cani sul ponte delle navi. Emma slegava il nastro del cappello e attraccavano alla loro isola. Si sistemavano nella sala al pianterreno di una tavernetta, sulla cui porta pendevano reti nere. Mangiavano frittura di sperlani, panna e ciliegie. Si sdraiavano sull'erba, si appartavano sotto i pioppi per baciarsi e avrebbero voluto, come due Robinson, vivere perpetuamente in quel luogo minuscolo, che nella loro beatitudine appariva il più splendido della terra. Non era la prima volta che vedevano alberi, cielo azzurro, prati, che sentivano l'acqua scorrere e la brezza soffiare tra le foglie, ma forse in nessuna occasione avevano ammirato tutto ciò, come se la natura non fosse mai esistita prima, o come si avesse cominciato ad essere bella solo dopo l'appagamento dei loro desideri. Al calar della notte ripartivano. La barca costeggiava le isole. Restavano sdraiati sul fondo, tutte e due nascosti dal buio, senza parlare. Il suono dei remi squadrati entro gli scalmi di ferro scandiva nel silenzio un battito come di metronomo, mentre a poppa il cavo d'ormeggio mollato non cessava il suo dolce e lieve sciabordio. Una volta comparve la luna, e per l'occasione non mancarono frasi enfatiche. L'astro fu trovato malinconico e pieno di poesia. Lei si mise anche a cantare «Una sera, rammenti, si vogava». La sua voce flebile e armoniosa si perdeva sui flutti, e il vento portava via i gorgheggi che Leon ascoltava passare, come battiti d'ala attorno a lui. Emma gli stava di fronte, appoggiata alla paratia del barcone, dove da uno dei portelli aperti entrava la luna. Il suo abito nero, il cui drappeggio si allargava a ventaglio, la sottigliava, la faceva più alta. Teneva la testa sollevata, le mani giunte, gli occhi al cielo. A tratti l'ombra dei salici la nascondeva tutta, poi eccola improvvisamente ricomparire, come una visione al lume della luna. Leon, a terra accanto a lei, si trovò in mano un nastro di seta rosso fiamma. Il barcaiolo lo esaminò, e alla fine disse «Ah, deve appartenere a un gruppo che ho accompagnato l'altro giorno. Erano una combriccola di mattacchioni, uomini e donne, avevano dolci, champagne, trombette, tutto l'armamentario. Ce n'era uno in particolare, un gran bell'uomo, coi baffetti, davvero divertente. E tutti dicevano «Avanti, raccontaci qualcosa, Adolf, Dodolf, mi pare». Lei ebbe un fremito. «Ti senti male?» fece Leon avvicinandosi. «Oh, non è nulla, il fresco della notte, forse». Uno a cui non mancavano le donne, neanche a lui, aggiunse sotto voce il marinaio, pensando di fare un complimento al forestiero. Poi si sputò sulle mani e riprese i remi. E tuttavia fu necessario separarsi. Gli addii furono tristi. Lui doveva mandare le lettere presso la roulette. Emma gli fece raccomandazioni precise a proposito della doppia busta, tanto da suscitare in lui grande ammirazione per la sua astuzia amorosa. «Allora mi garantisci che va tutto bene?» disse dandogli l'ultimo bacio. «Sì, certamente. Ma perché mai ci tiene tanto a questa procura?» Penso lui più tardi, tornandosene solo per le vie. Capitolo 4 Ben presto, Leon prese davanti ai colleghi un'aria di superiorità. Si astenne dalla loro compagnia e trascurò completamente le pratiche. Aspettava le sue lettere. Le rileggeva. Le scriveva. La evocava con tutta la forza del desiderio e dei ricordi. Invece di attenuarsi con la lontananza, questa voglia di rivederla sacrebbe, tanto che un sabato mattina se la svignò dallo studio. Quando, dall'alto del colle, scorse nella vallata il campanile della chiesa con la banderuola di latta che girava nel vento, provò quel piacere misto di vanità trionfante e di egoistica commozione che devono avere i milionari quando tornano a rivedere il loro paese. Andò a girellare attorno alla casa di lei. C'era una luce accesa in cucina. Cercò di cogliere la sua ombra dietro le tendine. Non apparve nulla. La Lefrançois, vedendolo, diede in grandi esclamazioni e lo trovò cresciuto e snellito. Artemis lo trovò invece irrobustito e abbronzato. Mangiò nella saletta, come una volta, ma solo, senza l'esattore, perché Binet, stanco di stare ad attendere l'irondelle, aveva definitivamente anticipato di un'ora il suo pasto, ed ora cenava alle cinque in punto, continuando il più delle volte a sostenere che il vecchio catorcio era in ritardo. Leon alla fine si decise e andò a bussare alla porta del medico. Madame era nella sua stanza e scese solo un quarto d'ora dopo. Bovary parve felice di rivederlo, ma non si mosse da casa per tutta la serata e per tutto il giorno seguente. Sola la vide la sera, molto tardi, dietro il giardino, nel vicolo. Nel vicolo, come con l'altro. C'era un temporale e parlavano sotto un ombrello alla luce dei lampi. Stare lontani diventava insopportabile. «Meglio morire», diceva Emma. Si torceva al braccio di lui, in lacrime. «Addio, addio, quando ti rivedrò». Tornarono sui loro passi, si baciarono ancora una volta, e fu allora che lei gli promise di trovare al più presto, non importa come, il modo opportuno e stabile di incontrarsi liberamente, almeno una volta a settimana. Emma ci contava, ed era, d'altra parte, tutta speranzosa. Le doveva arrivare del denaro. Allora si comprò per camera sua un paio di tendine gialle a strisce larghe, che loro garantiva essere regalate. Desiderava tanto un tappeto, e loro, dichiarando che non voleva poi la luna, le fece la cortesia di impegnarsi a procurargliene uno. Non poteva più fare a meno dei suoi servigi, lo mandava a chiamare venti volte al giorno, e lui mollava immediatamente i suoi affari, senza la minima protesta. Non si riusciva a capire perché la Rolet venisse a mangiare da lei tutti i giorni, e la venisse anche a trovare in privato. Fu più o meno in quel periodo, era l'inizio dell'inverno, che Emma parve afferrata da una grande passione musicale. Una sera che Charles stava ad ascoltarla, ricominciò quattro volte di seguito lo stesso pezzo, ogni volta con moti di stizza, mentre lui, senza accorgersi delle differenze, esclamava «Brava, benissimo, perché ti arrabbi? Continua!» «Eh no, è un disastro, ho le dita arrugginite!» L'indomani lui la pregò di suonargli ancora qualcosa. «Ma se è per farti piacere!» E Charles amise che era un pochino meno sciolta. Sbagliava le note, pasticciava, poi fermandosi di colpo, «Ah, basta, dovrei andare a lezione, ma...» Si morse le labbra e aggiunse, «venti franchi all'ora, è troppo caro!» «Sì, effettivamente, un po' caro», disse Charles con un risolino un po' idiota. «Però penso che si potrebbe trovare a meno, ci sono artisti meno conosciuti che spesso valgono più delle celebrità». «E tu procurameli», disse Emma. L'indomani, tornando a casa, le lanciò un'occhiata furbetta, e alla fine non poteva trattenersi da questa dichiarazione. «Sei proprio testarda, certe volte. Sono stato a Barfecher stamani». Ebbene, la signora Liejar mi ha assicurato che le sue tre signorine, che sono alla misericordia, prendevano lezioni spendendo cinquanta soldi all'ora e da una maestra famosa per di più. Lei scosse le spalle e non riaprì più lo strumento. Ma ogni volta che ci passava vicino, se Bovary era nei pressi, sospirava «il mio povero piano». E a chi veniva a trovarla non mancava mai di spiegare che aveva abbandonato la musica e non era in grado di riprenderla, per ragioni di forza maggiore. Allora la si compativa. Che peccato, con quel talento! Qualcuno ne parlò anzi a Bovary. Lo rimproveravano, soprattutto il farmacista. Fate male, non bisogna mai lasciare incolte le inclinazioni naturali. D'altro canto, pensateci, amico mio, se investite per far studiare madame, risparmierete più tardi sull'educazione musicale di vostra figlia. Secondo me sono le madri che devono istruire i figli in prima persona. È un'idea di Rousseau, magari ancora un po' nuova, ma che finirà per affermarsi, ne sono sicuro, come l'allattamento materno e la vaccinazione. Allora Charles tornò ancora una volta su questa faccenda del piano. Emma rispose acida che tanto valeva venderlo. Quel povero pianoforte, che le aveva procurato tante orgogliose soddisfazioni, vederlo andar via, a Bovary pareva l'indefinibile suicidio di una parte di lei. Se ti andasse, diceva, una lezione di tanto in tanto non ci manderebbe in rovina, dopo tutto. Ma le lezioni, replicava lei, fruttano solo se prese regolarmente. Fu in questo modo che riuscì ad ottenere dal marito il permesso di andare in città, una volta alla settimana, a trovare l'amante. Qualcuno osservò persino, in capo a un mese, che aveva fatto notevoli progressi. Il giorno fissato era il giovedì. Si alzava e si vestiva silenziosamente per non svegliare Charles, che le avrebbe fatto delle osservazioni, vedendola prepararsi troppo presto. Poi cominciava ad andare su e giù. Si metteva alla finestra e contemplava la piazza. Le prime luci del mattino si diffondevano sotto i portici del mercato, e la casa del farmacista, con le imposte chiuse, lasciava intravedere nel colore pallido dell'aurora le maiuscole dell'insegna. Quando la pendola segnava le sette e un quarto, se ne andava all'Iondor, la cui porta, Artemis sbadigliando, aveva appena aperto. Era lei che riattizzava per Madame i carboni nascosti sotto la cenere. Emma restava sola in cucina. Ogni tanto usciva. Iver aggiogava senza fretta, dando ascolto nel frattempo alla Lefrançoise, la quale, sporgendo la testa in cuffia di cotone attraverso uno sportello, gli affidava delle commissioni, dando gli spiegazioni che avrebbero confuso chiunque. Emma batteva la suola degli stivaletti sui ciottoli della corte. Finalmente, dopo aver inghiottito la sua broda, indossato il mantello, acceso la pipa e impugnato il frustino, Iver si installava con tutta calma a cassetta. L'irondelle partiva al piccolo trotto e, per i primi tre quarti di lega, si fermava di tanto in tanto per raccogliere viaggiatori che la aspettavano in piedi, a bordo strada, davanti al cancelletto delle corti. Molti che avevano preavvisato il giorno prima si facevano attendere. Qualcuno persino se ne stava ancora a letto in casa. Iver chiamava, urlava, bestemmiava. Poi scendeva da cassetta e andava a picchiare gran colpi alle porte. Il vento soffiava attraverso i finestrini incrinati. Ma poi i quattro sedili si riempivano, la carrozza andava, i meleti in filare si succedevano e la strada, fra due lunghi fossati colmi d'acqua gialla, continuava a restringersi verso l'orizzonte. Emma la conosceva metro per metro. Sapeva che dopo quel pascolo veniva un palo, poi un olmo, un fienile o la capanna di un cantoniere. Qualche volta, anzi, per farsi una sorpresa, chiudeva gli occhi, ma non perdeva mai la cognizione precisa della distanza da percorrere. Finalmente si avvicinavano le case in mattoni. Il suolo rimbombava sotto le ruote. L'irondelle scivolava fra giardini in cui si intravedevano, attraverso un graticcio, delle statue, un percolato, tassi ben potati e un'altalena. Poi, improvvisamente, appariva la città. Adagiata ad anfiteatro sul pendio e immersa nella nebbia, si allargava disordinatamente al di là dei ponti. Più avanti saliva con andamento uniforme l'aperta campagna, sino a toccare in lontananza la base indistinta del cielo pallido. Visto così dall'alto, il paesaggio appariva immobile come un quadro. Le navi stavano stipate all'ancora in un angolo, l'ansa del fiume si incurvava ai piedi delle colline verdi, e le isole, di forma oblunga, sembravano grandi pesci neri immobilizzati sull'acqua. Le ciminiere delle fabbriche sputavano immensi pennacchi scuri, che dalla punta si alzavano in cielo. Si udiva il ronzare delle fonderie misto al nitido scampanio delle chiese, alte nella caligine. Gli alberi spogli dei viali formavano fra le case macchie di rovi viola, e i tetti, lucidi di pioggia, scintillavano più o meno intensamente, secondo l'altezza dei quartieri. Ogni tanto, un colpo di vento spingeva le nuvole verso il colle Saint-Catherine, come aeree e i flutti che si infrangessero silenziosamente contro una scogliera. Emma sentiva emanare da quelle esistenze ammassate una sorta di vertigine, e il cuore le si gonfiava a dismisura, come se le 120.000 anime che palpitavano in quel luogo avessero tutte insieme esalato l'alito delle passioni che lei indovinava in loro. Il suo amore si ingrandiva a fronte di quegli spazi, e vi tumultuavano i brusii indistinti che salivano nell'aria. Lo riversava fuori di sé quell'amore, sulle passeggiate, sui lungo fiume, sulle vie, e la vecchia città normanna si spalancava al suo sguardo come un'immensa capitale, come una Babilonia in cui stesse facendo il suo ingresso. Si sporgeva dal finestrino appoggiandosi sulle due mani. Respirava la brezza. I tre cavalli galoppavano. Le pietre scricchiolavano nel fango, la diligenza oscillava, e Iver, da lontano, lanciava grida ai carretti sulla strada, mentre i paesanni che avevano passato la notte a Vau Guillaume scendevano senza fretta dal pendio nelle loro carrozzelle private. Si fermavano al dazio. Emma si slacciava le soprascarpe, si cambiava i guanti, riaggiustava lo scialle, e, venti passi più in là, usciva dalla irondelle. La città si andava risvegliando. Commessi in berretto greco strofinavano le vetrine dei negozi, e donne e compagnieri appoggiati all'anca lanciavano a intervalli un grido acuto dagli angoli delle strade. Lei camminava sfiorando i muri, lo sguardo a terra, e sorrideva di compiacimento sotto la veletta nera abbassata. Per paura d'essere vista, non faceva normalmente il percorso più breve. Si infilava in vicoli oscuri, e sbucava tutta sudata in fondo alla Riune Sionale, vicino alla fontana. Era il quartiere del teatro, dei piccoli caffè e delle donnine. Spesso le passava accanto un carro carico di qualche attrezzatura di scena traballante. Camerieri in grembiule gettavano sabbia sui ciottoli, in mezzo ad arbusti verdi. C'era odore di assenzio, di sigaro e di ostriche. Girava un angolo, e lo riconosceva dai riccioli che spuntavano sotto il cappello. Leon continuava a camminare sul marciapiede. Lei lo seguiva sino all'albergo. Lui saliva, apriva la porta, entrava. Che abbraccio! Poi i fiumi di parole seguivano ai baci. Si raccontavano i dispiaceri della settimana, i presentimenti, le preoccupazioni per le lettere, ma ora tutto era dimenticato. Stavano uno di fronte all'altra, e si guardavano scambiandosi risatine voluttuose e teneri appellativi. Il letto era un gran letto di mogano, a barca. Le cortine di levantina rossa, che scendevano dal baldacchino, si raccoglievano troppo in basso, vicino al capezzale svasato. E niente al mondo era più bello della sua testa bruna e della sua pelle bianca che si stagliavano su quello sfondo purpureo, quando, con un gesto pudico, incrociava le braccia nude coprendosi il volto con le mani. La stanza, ben riscaldata, col suo tappeto sobrio, la bizzarra decorazione e l'illuminazione soffusa, era l'ideale per le intimità della passione. Le aste con la punta a freccia, i ganci di rame e i grossi lobi degli alari brillavano improvvisamente, quando entrava il sole. Sul camino c'erano, fra i candelabri, due di quelle grandi conchiglie rosa, in cui, se le si accosta all'orecchio, si sente il rumore del mare. Che delizia quella loro cara camera! Così Gaia, malgrado il suo splendore un po' appassito, ritrovavano i mobili sempre al loro posto, e talvolta ritrovavano anche uno spillone per capelli, dimenticato da lei il giovedì precedente, sotto il basamento della pendola. Mangiavano accanto al fuoco, su un tavolinetto rotondo incrostato, di palissandro. Emma tagliava i bocconi e glieli metteva sul piatto, in un gran profluvio di moine, e rideva di un riso squillante e libertino, quando la spuma dello champagne traboccava dal bicchiere sottile sugli anelli che portava alle dita. Erano così completamente persi, ognuno nel possesso dell'altro, che in quella stanza si credevano come a casa propria, destinati a viverci sino alla morte, come due eterni sposini. Dicevano «la nostra stanza», «il nostro tappeto», «le nostre poltrone». Allo stesso modo lei diceva le mie pantofole, un suo capriccio, regalo di Leon. Erano pantofole di saten rosa, orlate di cigno. Quando si sedeva sulle ginocchia di lui, la sua gamba, troppo corta, penzolava in aria, e la vezzosa calzatura, priva di laccio alla caviglia, restava appesa solo alla punta del suo piede nudo. Leon assaporava per la prima volta la indescrivibile finezza delle eleganze femminili. Mai aveva conosciuto quella grazia di linguaggio, quella discrezione nel vestire, quelle pose di colomba assopita. Ammirava l'esaltazione del suo spirito e i merletti della sua gonna. D'altronde, non era forse una donna di mondo e una donna sposata? Insomma, una vera amante. Con le variazioni del suo umore, volta a volta, mistico o allegro, ciarliero, taciturno, irascibile, non curante, Emma ridestava in lui mille desideri, suscitava impulsi o reminescenze. Era l'innamorata di ogni romanzo, l'eroina di ogni dramma, la lei indefinita di ogni volume diversi. Ritrovava sulle sue spalle il colore ambrato dell'audalisca al bagno. Portava il corsetto allungato come le castellane medievali. Assomigliava anche alla donna pallida di Barcellona. Ma era, soprattutto, un angelo. Spesso, nel guardarla, aveva l'impressione che la sua anima, slanciandosi verso Emma, si spandesse come un'onda attorno al volto di lei, per scendere poi, irresistibilmente attratta, nel bianco del suo seno. Si sedeva a terra, davanti a lei, e la contemplava, i gomiti sulle ginocchia, sorridente, la fronte protesa. Lei si chinava verso di lui e mormorava, senza respiro, per l'ebrezza. Oh, non muoverti, non parlare, guardami, c'è qualcosa di così dolce che mi arriva dai tuoi occhi, e che mi fa tanto bene. Lo chiamava Bambino. Bambino, mi ami? E la risposta si perdeva nella fuga delle labbra che cercavano la sua bocca. C'era sopra la pendola un piccolo cupido di bronzo, che ammiccava curvando le braccia sotto una ghirlanda dorata. Ne avevano riso tante volte, ma quando era il momento di separarsi, tutto sembrava drammatico. Immobili l'uno di fronte all'altra si ripetevano, a giovedì, a giovedì. Tutto a un tratto lei gli prendeva il volto fra le mani, gli dava un rapido bacio sulla fronte, esclamando, addio, e si slanciava per le scale. Andava in rio della comedia, da un parrucchiere, a farsi sistemare la pettinatura a bande. Scendeva la sera, nella bottega si accendeva il gas. Sentiva la campanella di scena che chiamava i teatranti alla rappresentazione, e si vedeva passare davanti uomini dal volto bianco e donne in abiti stazzonati, che entravano dalla porta del palcoscenico. Faceva caldo in quella stanzetta troppo bassa, dove la stufa borbottava in mezzo a parrucche e pomate. L'odore dei ferri, con quelle mani unte che le manipolavano la testa, la stordiva un po' e finiva con l'assopirsi sotto l'accappatoio. Spesso il lavorante, mentre la pettinava, le offriva dei biglietti per il ballo in maschera. Poi se ne andava. Risaliva il quartiere, arrivava alla Croix Rouge, recuperava le soprascarpe, che aveva nascoste la mattina sotto una panca, e si rannicchiava al suo posto fra i viaggiatori impazienti. Qualcuno scendeva ai piedi del colle. Finiva col rimanere sola nella carrozza. Ad ogni curva si vedevano sempre meglio tutte le luci della città, che formavano una larga nebbia luminosa sopra la massa confusa delle case. Emma si inginocchiava sui cuscini e lasciava vagare lo sguardo su quel barbaglio. Si inghiozzava, chiamava Leon, gli indirizzava parole dolci e baci che si perdevano nel vento. C'era sul colle un povero diavolo che vagabondava col bastone in mezzo alle diligenze. Un ammasso di cenci gli copriva le spalle e un vecchio berretto sfondato di castoro, allargandosi a conca, gli nascondeva il viso. Ma quando se lo toglieva, scopriva, in luogo delle palpebre, due orbite spalancate iniettate di sangue. La carne si sfilacciava a rossi brandelli e ne colavano liquidi che si rapprendevano in galle verdi, fin sotto le narici nere, da cui tirava su frenetiche fiatate. Per parlare alla gente, gettava indietro la testa con un riso idiota. E allora le sue pupille bluastre, roteando ininterrottamente, andavano a battere, verso le tempie, sull'orlo della piaga viva. Correva dietro alle carrozze, cantando una canzoncina. Molto spesso l'estivo calore fa sognare le fanciulle d'amore, e c'erano poi, nella continuazione, uccelli, sole e foglie. A volte compariva improvvisamente dietro ad Emma, a capo scoperto. Lei si ritraeva con un grido. Iver lo canzonava. Lo incoraggiava ad esibirsi alla fiera di San Romà. Oppure gli domandava, ridendo, come stava la sua amichetta. Spesso, con la diligenza in moto, il suo cappello entrava con un brusco movimento dal finestrino, mentre lui con l'altro braccio si teneva aggrappato alla predella, fra gli schizzi fangosi delle ruote. La sua voce, dapprima flebile e lagnosa, si faceva stridula, e cheggiava lungamente nella notte, come un gemito confuso di indefinito sgomento. E attraverso il tintinnio dei sonagli, il frusciare degli alberi e il cigolio dell'abitacolo vuoto, aveva qualcosa di remoto che turbava profondamente Emma. Le discendeva in fondo all'anima come un turbine in un abisso e la trascinava fra gli spazi di una melanconia infinita. Ma Iver si accorgeva di un contrappeso nella carrozza e mollava al cieco violente frustate. La sferza si abbatteva sulle piaghe e lui cadeva nel fango, cacciando un urlo. Poi i viaggiatori degli rondelle finivano per addormentarsi. Gli uni a bocca aperta, altri a mento basso, appoggiandosi alla spalla del vicino. Oppure, col braccio infilato nella cinghia, oscillando ritmicamente al dondolio della carrozza e il riflesso della lanterna che ballonzolava fuori, sulla groppa dei cavalli, penetrando nell'interno attraverso le tendine di calicò color cioccolato, posava ombre sanguinolente su tutti quegli individui immobili. Emma, ubriaca di tristezza, rabbrividiva sotto il vestito e sentiva crescere il freddo ai piedi, con la morte nell'anima. Charles l'aspettava a casa. L'irondelle era sempre in ritardo il giovedì. Finalmente, madame arrivava. A malapena abbracciava la bambina. La cena non era pronta. Che importa? La cuoca era scusata. Le era permesso tutto ormai, a quanto pareva. Spesso il marito, notando il suo pallore, le chiedeva se non si sentisse male. No, diceva Emma. Ma, replicava lui, sei così strana stasera. Ma no, non è nulla, non è nulla. Certi giorni, appena tornata, saliva in camera. E Justine, che era lì, girellava silenzioso, ingegnandosi a servirla meglio di una perfetta camerista. Metteva a posto i fiammiferi, la candela, un libro, sistemava la camicia da notte, preparava il letto. Via, diceva lei. Va bene così, vai pure ora. Già che lui restava lì, in piedi, le braccia pendenti e gli occhi spalancati, come avvolto negli innumerevoli fili di un'estemporanea fantasticheria. La giornata seguente era terribile. E le successive rese ancora più intollerabili dall'impazienza di Emma di riafferrare la sua felicità. Una bramosia acre, accesa da immagini note, e che, il settimo giorno, divampava senza freni nelle carezze di Leon. Quanto a lui, i suoi ardori venivano nascosti sotto effusioni di meraviglia e di riconoscenza. Emma assaporava quell'amore in modo discreto e assorto. Lo nutriva con tutti gli artifici della sua tenerezza. E tremava un poco all'idea che fosse destinato a svanire. Spesso, diceva a Leon, con voce dolcemente malinconica, tu mi lascerai, ti sposerai, farai come gli altri. Lui chiedeva, quali altri? Gli uomini, tutti, rispondeva lei. Poi aggiungeva, allontanandolo con un gesto languido, siete tutti mascalzoni. Una volta che conversavano filosoficamente sulle disillusioni terrene, le scappò detto, per saggiare la gelosia di lui, o cedendo forse ad un eccessivo bisogno di sfogo, che un tempo, prima di lui, aveva amato una persona. Non come te, aggiunse subito, spergirando sulla testa di sua figlia, che non era successo niente. Il giovane le credette, e non di meno la interrogò per sapere che cosa faceva quello lì. Era capitano di vascello, mio caro. Non era un modo astuto per prevenire ogni indagine, e porsi allo stesso tempo su un piedistallo assai alto, attraverso l'asserito fascino esercitato su una persona che si doveva immaginare di natura marziale e adusa agli omaggi? Il praticante notaio si rese allora conto della sua infima condizione. Desiderò spalline, decorazioni e titoli. Tutte cose che dovevano piacerle, a giudicare dalle sue abitudini dispendiose. E tuttavia Emma taceva di numerose sue stravaganze, come il desiderio di avere, per farsi portare a Rouen, un Tilbury Blu, tirato da un cavallo inglese e condotto da un groom con stivali a risvolto. Era stato Justine, scongiurandola di assumerlo come suo valletto, a ispirarle quella fantasia. E se la sua mancata realizzazione non diminuiva ad ogni incontro il piacere dell'arrivo, certamente incrementava l'ammarezza dei ritorni. Spesso, quando parlavano fra loro di Parigi, lei finiva col mormorare «Ah, lì sì che si vivrebbe bene!» «Non siamo già felici?» ribattete neramente il giovane, passandole una mano sui capelli. «Sì, hai ragione, sono proprio matta. Baciami!» Con il marito era più carina che mai. Gli preparava creme al pistacchio e dopo cena gli suonava dei walzer. Lui si riteneva dunque il più fortunato dei mortali, ed Emma viveva senza preoccupazioni, quando una sera, improvvisamente… «E la signorina Lampereur, non è vero, che ti fa lezione?» «Sì!» «Beh, l'ho vista stamane, a casa della signora Liegear. Le ho parlato di te, non ti conosce!» Fu un fulmine. Tuttavia rispose con naturalezza. «Bah, evidentemente non si ricorda come mi chiamo!» «Ma ci sono magari a Rouen?» disse il medico. «Diverse signorine Lampereur che danno lezioni di piano?» «È possibile!» Poi bruscamente. «Ad ogni modo ho le sue ricevute, sai? Guarda!» Andò allo scrittoio, frugò in tutti i cassetti, mischiò le carte, e riuscì così bene a mostrarsi agitata, che Charles le raccomandò, convinto, di non darsi tanta pena per quelle stupide quietanze. «Oh, ma le troverò!» disse lei. Accadde infatti che già il venerdì successivo, Charles, mentre si infilava uno stivale nello stanzino, in cui erano conservati i suoi abiti, avvertisse un foglio di carta fra il cuoio e il calzino. Lo prese e lesse. Ricevò per tre mesi di lezione, più forniture diverse, la somma di Franchi 65, Felicile Lampereur, insegnante di musica. «Come diavolo è finita dentro i miei stivali? Deve essere caduta da quella vecchia cartella di fatture sull'orlo della mensola?» A partire da quel momento, la sua esistenza non fu altro che un cumulo di bugie, in cui avvolgeva il suo amore come in un velo, per nasconderlo. Era diventato un bisogno, una mania, un piacere. Al punto che, se diceva di essere passata il giorno prima per il lato destro di una strada, c'era da credere che fosse passata dal sinistro. Un mattino che era andata via, come di consueto, vestita piuttosto leggera, cominciò improvvisamente a nevicare. E Charles, mentre contemplava il tempo dalla finestra, vide padre Bournissian nel boc di Messer Tuvache, in partenza per Rouen. Scese allora per affidare al sacerdote uno scialle pesante, da consegnare a madame appena arrivato alla Croix-Rouge. Giunto alla locanda, Bournissian chiese se c'era la moglie del medico di Yonville. L'albergatrice rispose che si faceva vedere assai di rado nel loro esercizio. Così, quella sera, incontrando madame Bovary nell'irondelle, il curato le raccontò il suo imbarazzo, senza peraltro aver l'aria di darvi importanza, perché attaccò subito l'elogio di un predicatore che in quei giorni incantava tutti alla cattedrale e che tutte le signore correvano ad ascoltare. Tuttavia, se lui non aveva domandato spiegazioni, altri in seguito potevano mostrarsi meno discreti. Così Emma giudicò utile scendere ogni volta alla Croix-Rouge, in modo che i suoi buoni compaesani, incontrandola per quelle scale, non sospettassero di niente. Un giorno però la incontrò L'Eureux, mentre usciva dall'hotel de Boulogne al braccio di Léon. E lei ebbe paura, si figurò che avrebbe chiacchierato. Non era così sprovveduto. Ma tre giorni dopo entrò nella stanza di lei, chiuse la porta e disse «Avrei bisogno di denaro». Lei dichiarò di non essere in condizione di darglielo. L'Eureux si profuse in lamentele, ricordandole tutti i piaceri che le aveva fatto. In effetti, delle due cambiali sottoscritte da Charles, Emma sino al momento ne aveva onorata una sola. Quanto alla seconda, su sua richiesta, lui aveva consentito a sostituirla con altre due, le quali anche erano state rinnovate a scadenza assai lunga. Poi tirò fuori di tasca una lista delle forniture non saldate, vale a dire le tende, il tappeto, la stoffa per le poltrone, parecchi abiti e diversi articoli da toilette, del valore complessivo di circa 2000 franchi. Emma chinò la testa, lui riprese. «Ma se non avete liquidi, avete dei beni al sole». E nominò una catapecchia di poco valore sita a Barneville, vicino a Humal, che non rendeva granché. Un tempo dipendeva da una piccola fattoria venduta da papà Bovary, già che Leroy sapeva tutto, dal numero degli ettari al nome dei confinanti. «Io al vostro posto me ne sbarazzerei e mi avanzerebbe anche un po' di denaro». Lei obiettò la difficoltà di trovare un acquirente. Lui le diede speranze di scovarne uno. Emma però chiese come avrebbe potuto fare per vendere. «Non avete la procura?» replicò lui. Quella parola fu come un soffio d'aria fresca. «Lasciatemi il conto!» disse Emma. «Oh, non ne vale la pena!» rispose Leroy. Tornò la settimana seguente e si vantò d'avere alla fine scoperto, a forza di indagare, un certo Langlois che da molto tempo aveva messo gli occhi su quella proprietà, senza peraltro fare prezzi. «A qualsiasi prezzo!» esclamò lei. Bisognava invece prendere tempo, verificare le intenzioni di quel tipo. La faccenda valeva la pena di un viaggio e poiché lei quel viaggio non poteva farlo, si offriva a lui di recarsi sul posto per abboccarsi con Langlois. Una volta tornato, annunciò che l'acquirente offriva 4.000 franchi. Emma si illuminò. «Francamente?» aggiunse lui. «È un buon prezzo!» Emma riscosse subito metà della somma e quando fece per saldare il conto dal merciaio, quest'ultimo le disse «Mi dispiace proprio, parola d'onore, che dobbiate privarvi in un sol colpo di una somma così importante!» Lei contemplò allora le banconote e pensando al numero infinito di incontri amorosi che quei 2.000 franchi rappresentavano. «Ma come, come?» balbettò. «Oh!» riprese lui ridendo bonariamente. «Sulle fatture si può mettere qualche si vuole. Credete che non sappia come vanno le cose nelle famiglie?» E la guardava fissamente, tenendo in mano due lunghi fogli che faceva scivolare fra le unghie. Finalmente aprì il portafogli e depose sul tavolo quattro cambiali all'ordine, da 1.000 franchi ciascuna. «Firmatemi queste e tenetevi tutto!» Emma protestò scandalizzata. «Ma se vi do la rimanenza?» rispose sfacciatamente il re. «È un piacere che vi faccio, no?» E prendendo una penna scrisse sotto la nota «Ricevo da Madame Bovary 4.000 franchi». «Che cosa vi preoccupa? Dal momento che entro sei mesi incasserete il saldo della vostra baracca e che io vi metto la scadenza dell'ultima cambiale in data successiva a quel pagamento». Emma si confondeva un po' nei calcoli e aveva un tintinio nelle orecchie come se delle monete d'oro, cadendo dai sacchi sfondati, risuonassero attorno a lei sul pavimento. Infine L'Oreux spiegò che aveva un amico, Vincard, banchiere a Rouen, il quale poteva scontare le quattro cambiali, dopodiché lui stesso avrebbe provveduto a rimettere a Madame la differenza del debito reale. Ma invece di 2.000 franchi ne portò solo 1.800, già che l'amico Vincard, come era giusto, ne aveva trattenuti 200 per spese di commissione e tasso di sconto. Poi chiese, affettando indifferenza, una ricevuta. «Voi capite, nel commercio, qualche volta…» «E la data, per favore, la data!» Un panorama di fantasia realizzabili si spalancò davanti ad Emma. Fu abbastanza prudente da mettere da parte mille scudi, con i quali vennero estinte le prime tre cambiali alla scadenza. Ma la quarta, per caso, capitò in casa di giovedì, e Charles, sconvolto, attese pazientemente il ritorno della moglie per avere spiegazioni. Se non l'aveva messo a parte di quella cambiale, era per risparmiargli seccature casalinghe. Si sedette sulle sue ginocchia, lo accarezzò, tubò, fece un lungo elenco di tutte le cose indispensabili prese a credito. «Dopotutto, sarai d'accordo che, vista la quantità, non è troppo caro!» Charles, accorto di idee, fece ricorso ben presto al solito Loro, il quale assicurò che avrebbe messo tutto a posto se il signor Bovary gli avesse firmato due cambiali pagabili a tre mesi, di cui una da 700 franchi. Per mettersi in condizioni di pagare, lui scrisse una lettera patetica alla madre, la quale, invece di mandare la risposta, venne di persona. E quando Emma voleva sapere se ne aveva ricavato qualcosa? «Sì», rispose Charles, «ma vuole vedere la fattura». L'indomani, appena giorno, Emma accorse da Loro, pregandolo di preparare un altro conto, che non superasse i mille franchi, perché per esibire quello da 4.000, bisognava dire che ne aveva pagato i due terzi, confessare in conseguenza la vendita dell'immobile, operazione ben condotta dal negoziante, che fu effettivamente scoperta solo in seguito. Malgrado il prezzo assai contenuto di ciascun articolo, la signora Bovary madre non mancò di giudicare eccessiva alla spesa. Non si poteva fare a meno di un tappeto? Perché mai cambiare il rivestimento alle poltrone? Ai miei tempi, nelle case ce n'era una sola di poltrona, per le persone anziane. Perlomeno era così da mia madre, che era una persona per bene, ve lo assicuro. Non si può essere tutti ricchi, nessun patrimonio regge agli sprechi. Arrossirei a prendermi i lussi che vi prendete voi. Eppure sono vecchia io, ho bisogno di cure. Ma guarda, guarda quanti fronzoli, quante arie. Come, seta per fodere a due franchi, quando si trova della gioconetta a dieci soldi, anche a otto, che va benissimo. Emma, riversa sul divano, replicava con la maggior calma possibile. Basta, signora, basta! L'altra seguitava a predicare, vaticinando che sarebbero finiti all'ospizio. D'altra parte, la colpa era di Bovary. Per fortuna, aveva promesso di annullare quella procura. Cosa? Ah, me l'ha giurato, rispose la brava donna. Emma aprì la finestra, chiamò Charles, e il poveraccio fu costretto ad ammettere l'impegno strappatogli dalla madre. Emma scomparve e rientrò subito porgendo con gesto maestoso un grande foglio di carta. Mi ringrazio, disse la vecchia, e gettò nel fuoco la procura. Emma scoppiò a ridere di una risata stridula, squillante, ininterrotta. Era in preda ad una crisi di nervi. Oh, Dio mio, esclamò Charles. Anche tu, però, esageri. Venire a farle certescenate. La madre, scuotendo le spalle, diceva che era tutta una commedia. Ma Charles, ribellandosi per la prima volta in vita sua, prese le difese della moglie, tanto che la signora Bovary madre decise di andarsene. Partì sin dall'indomani, e sulla porta, a lui che tentava di trattenerla, replicò, «No, no, tu l'ami più di me, e fai bene, è nell'ordine delle cose. Quanto al resto, tanto peggio, lo vedrai. Buona fortuna, perché non tornerò tanto presto, come dici tu, a farle delle scenate». Non per questo, Charles fu meno mortificato di fronte ad Emma, che si guardava bene dal nascondere il suo rancore per la mancanza di fiducia. Ci vollero molte preghiere per farla consentire a riprendersi la procura, e lui l'accompagnò persino dal signor Guillauman, per farne una seconda, del tutto identica. «Capisco», disse il notaio. «Un uomo di scienza non può perdere tempo con i dettagli pratici della vita quotidiana». E Charles si sentì confortato da questa melliflua considerazione, che dava alla sua debolezza le lusinghevoli apparenze di una preoccupazione superiore. «Quali eccessi il giovedì successivo, in albergo, nella loro camera, con Leon. Rise, pianse, cantò, ballò, fece portare dei gelati, fumò sigarette. A lui parve stravagante, ma adorabile, splendida. Non sapeva quale reazione di tutto il suo essere la spingesse via più a tuffarsi nelle gioie della vita. Stava diventando irritabile, ghiotta, voluttuosa, e andava a spasso con lui per le strade, a testa alta, senza timore, diceva, di compromettersi. A volte, tuttavia, Emma trasaliva all'idea improvvisa di incontrare Rodolphe, poiché, sebbene si fossero separati per sempre, le pareva di non essersi del tutto emancipata dalla sua soggezione. Una notte non tornò a Yonville. Charles dava i numeri, e la piccola Bert, che non voleva andare a letto se non c'era la mamma, si inghiozzava da squassare il petto. Justine vagava a casaccio per la strada. Ome aveva abbandonato la farmacia. Alla fine, alle undici, Charles non ce la faceva più. Aggiogò il cavallo, saltò sul calesse, sferzò l'animale e giunse verso le due del mattino alla Croix Rouge. Nessuno. Pensò che il praticante forse poteva averla vista, ma dove abitava? Fortunatamente si rammentò l'indirizzo del suo principale. Corse lì. Cominciava ad alveggiare. Riuscì a distinguere delle targhe al di sopra di una porta. Bussò. Qualcuno, senza aprire, gli urlò l'informazione richiesta, non senza aggiungere pesanti ingiurie contro quelli che disturbano la gente di notte. La casa in cui abitava Yon non aveva né campanello, né batacchio, né portiere. Charles diede gran pugno alle imposte. Passò un agente di polizia. Allora lui ebbe paura e se ne andò. Sono proprio pazzo, allora diceva fra sé. Sarà stata magari trattenuta a cena dal signor Lormeux. La famiglia Lormeux non viveva più a Rouen. Sarà rimasta ad assistere la signora Dubreuil. Ah, la signora Dubreuil è morta da dieci mesi. Ma dov'è allora? Gli venne un'idea. Chiesse in un caffè, l'Annouer, e cercò velocemente il nome della signorina L'Empereur, che risultò abitare in rio dell'Arnelle de Marocchin, 74. Nel momento in cui imboccava quella via, comparve Emma in fondo alla stessa. Più che abbracciarla, si gettò su di lei, esclamando, «Da chi sei rimasta ieri?» «Sono stata male!» «E di che cosa? Dove? Come?» Lei si passò una mano sulla fronte e rispose, «Dalla signorina L'Empereur!» Ne ero certo, ci stavo andando. «Oh, non serve», disse Emma. «È appena uscita, ma in avvenire cerca di stare tranquillo. Non mi sento libera, capisci? Se so che il minimo ritardo ti fa agitare così». Era una specie di permesso che dava a se stessa di non avere scrupoli durante le sue scappate. Infatti ne approfittò a suo piacimento, abbondantemente. Quando le veniva voglia di vedere Leon, partiva con una scusa qualsiasi, e dal momento che lui quel giorno non l'aspettava, andava a cercarlo nel suo studio. Le prime volte fu una grande gioia, ma presto lui non le pote nascondere la verità, e cioè che il suo principale si lamentava molto del disturbo di quelle visite. «Avanti, vieni via», diceva lei, e lui se la svignava. Volle che si vestisse tutto di nero e si lasciasse crescere un pizzetto sul mento, per assomigliare ai ritratti di Luigi XIII. Vole vedere il suo alloggio e lo trovò modesto. Lui se ne vergognò, lei non ci fece caso, e gli suggerì di comprarsi delle tendine uguali alle sue. E alle sue obiezioni sulla spesa… «Ah, li tieni da conto, i tuoi soldini?» disse ridendo. Leon doveva raccontarle ogni volta tutto quello che aveva fatto, dall'ultimo incontro. Gli chiese dei versi, dei versi per lei, un componimento amoroso in suo onore. Lui non riuscì a trovare la rima per il secondo verso, e finì col copiare un sonetto trovato in un keepsake. Non lo fece tanto per vanità, quanto semplicemente per compiacerla. Non discuteva le sue idee, accettava tutti i suoi gusti. Stava diventando lui la sua amante, più del contrario. Lei aveva paroline dolci e baci travolgenti. Da dove le veniva quella depravazione, quasi immateriale, a furia di essere profonda e dissimulata? Capitolo 6 Nei viaggi che faceva per vederla, Leon aveva spesso pranzato a casa del farmacista, e così si era sentito obbligato, per cortesia, a ricambiare l'invito. Volentieri, aveva risposto Ome. Dal resto ho proprio bisogno di ritemprarmi un po', perché qui mi fossilizzo. Andremo a teatro, al ristorante, faremo follie. Ma caro, mormorò teneramente la signora Ome, spaventata dai pericoli che lui avrebbe corso. Che c'è? Ti pare che non mi rovini abbastanza la salute con tutto quello che respiro in farmacia? Ecco come sono fatte le donne, gelose della scienza, si oppongono però alle più legittime distrazioni. Non fa niente, contate su di me. Uno di questi giorni piombo a ruo e ci divertiremo a spendere e spandere. In passato lo speziale si sarebbe ben guardato dall'usare simili espressioni, ma adesso indulgeva ad un genere stravagante e parigino che trovava di ottimo gusto. E come la sua vicina, Madame Bovary, interrogava incuriosito il praticante notaio su usi e costumi della capitale. Arrivava persino a parlare in argot, per far colpo sui borghesi, dicendo topaia, bazar, sciccoso, scicchettone, breda street e me la batto per me ne vado. Così un giovedì Emma ebbe la sorpresa di incontrare nella cucina del Lyon d'Or o me in tenuta da viaggio, vale a dire avvolto in un vecchio mantello che nessuno gli aveva mai visto, mentre con una mano portava una valigia e con l'altra la borsa a scaldapiedi della farmacia. Non aveva confidato i suoi progetti a nessuno, nel timore che la clientela si preoccupasse per la sua assenza. Evidentemente, l'idea di rivedere i luoghi in cui aveva trascorso la giovinezza lo galvanizzava, perché non smise mai di chiacchierare per tutto il tragitto. Poi, appena arrivato, saltò immediatamente giù dalla carrozza per andare in cerca di Lyon, e nonostante le resistenze del praticante, o me lo trascinò verso il grande Café de Normandie, dove fece un solennio ingresso senza togliersi il cappello. Dato che riteneva molto provinciale scoprirsi in un luogo pubblico. Emma aspettò Leon per tre quarti d'ora. Alla fine corse al suo studio, e poi, persa in ogni sorta di congetture, accusando lui di indifferenza e rimproverando se stessa per la propria debolezza, passò il pomeriggio con la fronte incollata ai vetri. Alle due erano ancora a tavola, seduti uno di fronte all'altro. L'ampia sala si stava svuotando. Il tubo della stufa a forma di palmizio allargava sul soffitto bianco la sua chioma dorata. E vicino a loro, oltre la vetrata, in pieno sole, un esile zampillo gorgogliava in una vasca di marmo. Dove, tra crescioni e asparagi, tre aragoste intorpidite si allungavano fino a toccare delle quaglie coricate di fianco una sull'altra. Ome era estasiato. Sebbene si inebriasse di lusso, ancor più che di buoni cibi, il vino di Pomar stimolava comunque le sue facoltà mentali. Alla comparsa dell'omelette al rum espose teorie immorali sulle donne. Era soprattutto sedotto dallo chic. Adorava una toilette elegante in un salotto ben ammobiliato e, in quanto alle qualità fisiche, non disdegnava un bel bocconcino. Léon contemplava la pendola disperato. Lo speziale beveva, mangiava, parlava. Certo che a ruone dovete sentire la mancanza, disse all'improvviso. Comunque i vostri amori non stanno lontano. E poiché l'altro arrossiva. Via, siate sincero con me, vorreste negare che a Ionville… Il giovane si mise a balbettare. Da Madame Bovary, non corteggiavate forse? E chi mai? La domestica. Non scherzava affatto, ma poiché la vanità le bevinta sulla prudenza, Leon suo malgrado protestò. E poi a lui piacevano soltanto le brune. Vi approvo, disse il farmacista. Hanno più temperamento. E, chinandosi all'orecchio dell'amico, enumerò i sintomi attraverso cui si poteva capire se una donna aveva temperamento. Si lanciò persino in una digressione etnografica. La tedesca era vaporosa, la francese libertina, l'italiana appassionata. E le negre? Chiese il praticante. Gusti da artista, disse Ome. Cameriere, due mezze tazze. Ce ne andiamo? Riprese alla fine Leon spazientito. Yes! Ma prima di andar via chiese di vedere il padrone del locale e gli fece le sue congratulazioni. Allora il giovane, per restare solo, dichiarò che aveva qualcosa da fare. Ah, vi farò da scorta, disse Ome. E mentre percorreva le strade al suo fianco, gli parlava della moglie, dei figli, del loro avvenire e della farmacia, raccontava in quale stato di decadenza l'avesse trovata e a quale grado di perfezione l'avesse portata. Arrivato davanti all'hotel de Boulogne, Leon lo lasciò bruscamente, salì di corsa alle scale e trovò l'amante in grande agitazione. Al nome del farmacista lei si arrabbiò. Eppure lui aduceva ragioni valide. Non era colpa sua. Forse che non conosceva Ome. Poteva credere che preferisse la sua compagnia a quella di lei. Ma lei si scostava, la trattenne e, gettandosi in ginocchio, le circondò la vita con le braccia, in una languida posa di concupiscenza e di supplica. Lei era in piedi. I suoi grandi occhi ardenti lo guardavano con una serietà quasi terribile. Poi si incupirono di lacrime, le palpebre rosa si abbassarono, le mani si abbandonarono e Leon le stava portando alla bocca quando sopraggiunse un cameriere per avvertire che il signore era atteso. Tornerai, disse lei. Sì. Ma quando? Subito. È stato un trucco, disse il farmacista non appena vide Leon. Ho voluto interrompere questa visita che mi sembrava vi infastidisse. Andiamo da Bridou a berci un bicchiere di garus. Leon giurò che doveva rientrare allo studio. Allora lo speziale si mise a scherzare sulle scartoffie, sulla procedura. Su via, lasciate per un po' Cujas e Bartol, che diamine! Chi ve lo impedisce? Coraggio, su, andiamo da Bridou. Vedrete il suo cane. È davvero una strana bestia. E poiché il praticante continuava a resistere, vengo con voi, leggerò un giornale aspettandovi o sfoglierò un codice. Stordito dalla collera di Emma, dal gran parlare di Ome e probabilmente anche dalla pesantezza del pasto, Leon se ne stava indeciso e come ipnotizzato dal farmacista, che ripeteva, andiamo da Bridou e a due passi, in rium al più. Allora, per viltà, per stoltezza, per quell'inqualificabile impulso che ci trascina verso le azioni più antipatiche, si lasciò portare da Bridou. Lo trovarono nel suo cortiletto, intento a sorvegliare tre inservienti, che ansimando facevano girare la grande ruota di una macchina per fare l'acqua di Seltz. Ome dette loro qualche consiglio, abbracciò Bridou. Bevero il Garus. Per una ventina di volte, Leon tentò di andarsene, ma l'altro lo tratteneva per il braccio e gli diceva, «Un attimo, vengo. Andiamo al Fanal de Rouen a far visita a quei signori. Vi presenterò a Tomasson». Alla fine riuscì a liberarsene. Corse d'un sol fiato sino all'albergo. Emma non c'era più. Se n'era appena andata, esasperata. Adesso lo odiava. Il non aver tenuto fede all'appuntamento le sembrava un oltraggio e cercava altre ragioni ancora per staccarsi da lui. Era un uomo incapace d'eroismo, debole e banale, più molle d'una donna, avaro del resto e pusillanime. Poi, calmandosi, finì per scoprire che forse lo aveva calunniato. Ma denigrare quelli che amiamo ci allontana sempre un po' da loro. Non si devono toccare gli idoli, l'adoratura resta sulle dita. Pian piano arrivarono a parlare con maggiore frequenza di cose indifferenti al loro amore. E nelle lettere che Emma gli inviava, si parlava di fiori, diversi, della luna e delle stelle, ingenue risorse di una passione affievolita che per riaccendersi non disdegnava alcun soccorso esterno. Lei continuava a ripromettersi per il viaggio successivo una gioia profonda. Poi doveva confessare a se stessa di non aver provato niente di straordinario. Questa delusione svaniva presto, dietro ad una nuova speranza, ed Emma tornava a lui più ardente, più avida. Si spogliava con furia brutale, strappandosi il sottile laccio del corsetto, che le sibilava intorno ai fianchi come una biscia strisciante. Scalza andava in punta di piedi a verificare ancora una volta che la porta fosse chiusa. Poi, d'un sol gesto, faceva cadere tutto ciò che indossava. E pallida, muta, seria, si abbatteva sul suo petto in un lungo fremito. Eppure su quella fronte imperlata di gocce fredde, su quelle labbra balbettanti, in quelle pupille smarrite, nella stretta di quelle braccia c'era qualcosa di estremo, di indefinito e di lugubre, che pareva a Leon insinuarsi sottilmente tra loro, come per separarli. Non osava fare domande, ma nello scoprirla così esperta, si diceva che doveva essere passata per tutte le prove della sofferenza e del piacere. Ciò che un tempo l'affascinava, ora lo spaventava un po'. D'altra parte, si ribellava nell'avvertire che la sua personalità veniva risucchiata ogni giorno di più. Provava risentimento verso Emma per quella sua perenne vittoria. Si sforzava persino di esserle meno affezionato. Poi, allo scalpiccio dei suoi stivaletti, si sentiva vile, come gli ubriaconi alla vista dei liquori forti. Lei, è vero, non mancava di prodigargli ogni sorta di attenzioni, dalle ricercatezze della tavola alle civetterie del vestire e ai languori dello sguardo. Veniva da Yonville con delle rose sul seno e gliele gettava sul viso. Si preoccupava della sua salute, lo consigliava su come comportarsi, e, per tenerlo più legato a sé, nella speranza di un aiuto dal cielo, gli mise attorno al collo una medaglietta della Vergine. Come una madre giudiziosa, si informava dei suoi compagni. Gli diceva, non andare con loro, non uscire, pensa soltanto a noi, amami. Avrebbe voluto poter sorvegliare la sua vita, e lei ebbe l'idea di farlo pedinare per strada. Vicino all'albergo c'era sempre una specie di vagabondo che avvicinava i viandanti e che non avrebbe rifiutato. Ma il suo orgoglio si ribellò. «Oh, pazienza, mi inganni pure che me ne importa, ci tengo davvero!» Un giorno che si erano lasciati presto e lei risaliva da sola il boulevard, vide i muri del suo convento. Allora sedette su una panchina, all'ombra degli olmi. Che pace a quel tempo! Che voglia di quegli ineffabili sentimenti amorosi che cercava di raffigurarsi attraverso le letture. I primi mesi di matrimonio, le cavalcate nel bosco, il visconte che ballava e la gardì che cantava, tutto le passò di nuovo davanti agli occhi, e Leon le apparve improvvisamente lontano, come tutti gli altri. «Eppure lo amo», si diceva. Ma che importanza aveva? Non era felice, non lo era mai stata. Da dove veniva, dunque, quella insufficienza di vita, quella istantanea marcescenza delle cose a cui si appoggiava. Ma se da qualche parte esisteva un essere forte e bello, una natura valorosa, ricca al tempo stesso di slancio e di delicatezza, un cuore di poeta, tutto sembianze d'angelo, l'ira dalle corde di bronzo che indirizzava al cielo e pitalami elegiaci, perché mai lei, per un favore del caso, non avrebbe potuto incontrarlo? Che cosa impossibile! D'altronde, nulla valeva la pena di una ricerca, tutto era menzogna. Ogni sorriso nascondeva uno sbadiglio di noia, ogni gioia una maledizione, ogni piacere il disgusto, e i migliori baci non lasciavano sulle labbra che l'irrealizzabile desiderio di una volutà più alta. Un rantolo metallico si trascinò nell'aria e rintoccarono quattro colpi alla campana del convento. Le quattro. Le pareva di essere su quella panchina da un'eternità, ma come una folla in uno spazio ristretto, in un solo minuto può essere contenuto un infinito di passioni. Emma viveva tutta presa dalle proprie e del denaro se ne preoccupava quanto un'arciduchessa. Una volta, però, si vide entrare in casa un uomo dall'aria di messa, la faccia paonazza, calvo, che dichiarò di essere stato mandato dal signor Vincar di Rouen. Si tolse le spille che chiudevano la tasca laterale dell'allungare d'ingote verde, se le appuntò sulla manica e porse cortesemente una carta. Era una cambiale di settecento franchi, sottoscritta da lei, che loro, malgrado tutte le sue assicurazioni, aveva girata all'ordine di Vincar. Spedì la domestica da lui, non poteva venire. Allora lo sconosciuto, che era rimasto in piedi lanciando a destra e a manca occhiate curiose dissimulate dalle folte sopracciglia bionde, chiese con aria ingenua. «Qual è la risposta per il signor Vincar?» «Beh», rispose Emma. «Ditegli che non ne ho. Sarà per la prossima settimana. Che aspetti? Sì, la settimana prossima». L'uomo se ne andò senza una parola. Ma il giorno dopo, a mezzogiorno, arrivò un protesto e la vista della carta bollata su cui spiccava, ripetutamente e a grossi caratteri, Areng, ufficiale giudiziario a Bouchy, la spaventò talmente che corse in tutta fretta dal negoziante di stoffe. Lo trovò nella sua bottega intento a fare un pacco. «Servo vostro», disse. «Sono subito da voi». L'oreux si guardò bene dall'interrompere il lavoro, in cui lo aiutava una ragazza sui tredici anni, leggermente gobba, che gli serviva al tempo stesso da commessa e da cuoca. Poi, facendo risuonare gli zoccoli sul tavolato della bottega, salì, precedendo la signora, al primo piano. Ella introdusse in un minuscolo ufficio, dove una grossa scrivania d'abete sorreggeva alcuni registri, bloccati trasversalmente da una sbarra di ferro inchiavardata. Contro la parete, sotto scampoli di cotonina, si intravedeva una cassaforte, ma di tali dimensioni che doveva contenere ben altro che cambiali e denaro. L'oreux, infatti, faceva prestiti su pegno, e lì dentro aveva riposto la catena d'oro della signora Bovary, insieme agli orecchini del povero vecchio Teglier, il quale, costretto a vendere, alla fine, aveva comprato a Kinkampua un misero fondo di drogheria, dove stava morendo di catarro, in mezzo a candele meno gialle della sua faccia. L'oreux si sedette nell'ampia poltrona di vimini, e disse, «Che c'è di nuovo?» «Ecco!» e gli mostrò il foglio. «Beh, che ci posso fare?» Allora lei andò in collera, ricordandogli la promessa di non mettere in circolazione le cambiali. Lui ammetteva. «Ma anch'io sono stato costretto, avevo il coltello alla gola». «E ora che cosa succede?» disse lei. «Oh, è molto semplice, una sentenza del tribunale, e poi il sequestro, fine della festa». Emma si doveva trattenere per non picchiarlo. Gli domandò con apparente calma se non ci fosse un mezzo per tener buono il signor Vinsar. Figuriamoci, tener buono Vinsar? Proprio non lo conoscete, è più feroce di un arabo. Eppure bisognava che lui, l'oreux, facesse qualcosa. Statemi a sentire, finora mi pare di essere stato piuttosto generoso con voi. E aprendo uno di quei registri? Guardate!» Poi risaliva la pagina con il dito. «Vediamo, vediamo. Il 3 agosto, 200 franchi. Al 17 giugno, 150. 23 marzo, 46. In aprile…» si fermò, quasi per timore di commettere qualche sciocchezza. «E non dico nulla delle cambiali firmate dal signor Bovary. Una di 700 franchi, un'altra di 300. Quanto ai vostri piccoli acconti, agli interessi, non si finisce più. C'è da perderci la testa. Non voglio più saperne!» Lei piangeva. Arrivò persino a chiamarlo mio buon signor Leroux. Ma lui tornava sempre su quel briccone di un Vinsar. D'altra parte non aveva un centesimo. Nessuno in quel momento che lo pagasse. Lo spennavano vivo. Un povero bottegaio come lui non poteva far anticipi. Emma taceva, e Leroux, che mordicchiava la nappa di una penna, forse si preoccupò per quel silenzio, perché riprese. «Se avessi almeno qualche entrata in questi giorni, potrei…» «Del resto», disse lei. «Non appena avrò il saldo di Barneville». «Come?» Nell'apprendere che Langlois non aveva ancora pagato, lui parve molto sorpreso. Poi, con voce mielata, «E che cosa stabiliamo, secondo voi?» «Oh, quel che volete!» Allora lui chiuse gli occhi per riflettere, scrisse qualche cifra, e dichiarando che ne avrebbe avuto un gran danno, che la cosa era scabrosa e che si svenava per lei, detto quattro cambiali da 250 franchi a un mese di scadenza l'una dall'altra. «Purché Vinsar mi dia ascolto. Ad ogni modo, siamo intesi. Io non sto a cincischiare. Sono sincero come il vino buono». Poi, con aria indifferente, le mostrò parecchia mercanzia appena arrivata, ma nulla, a suo avviso, era degno di madame. «Quando penso che questo è un vestito da sette soldi al metro, colore garantito. Eppure la bevono, eh? Nessuno gli dice la verità, figuriamoci». E, confessando di imbrogliare gli altri, intendeva finire di convincerla della propria onestà. Poi la chiamò indietro per mostrarle tre aune di pizzo che aveva appena trovato ad una svendita. «Ma che bellezza», diceva l'Horeux. «Ora lo si usa molto sugli schienali delle poltrone. È l'ultima moda». E, più rapido di un prestigiatore, avvolse il pizzo in una carta azzurra e lo mise tra le mani di Emma. «Posso sapere almeno…» «C'è tempo», replicò lui, e girò i tacchi. La sera stessa, lei sollecitò Bovary a scrivere alla madre perché mandasse al più presto il resto dell'eredità. La suocera rispose che non aveva più nulla. A liquidazione conclusa, restavano, oltre Barneville, 600 franchi di rendita, che avrebbe puntualmente versato. Allora madame spedì il conto a due o tre clienti, e ben presto fece ampio uso di quel mezzo, che dava buoni risultati. Aveva sempre cura di aggiungere come poscritto «Non dite niente a mio marito, sapete quanto è orgoglioso. Scusatemi, la vostra umilissima…» Non mancò qualche protesta, lei la intercettò. Per fare un po' di soldi si mise a vendere vecchi guanti, vecchi cappelli, ferri vecchi, e mercanteggiava con rapacità, spinta al guadagno dal suo sangue contadino. Poi, nei viaggi in città, avrebbe trovato sulle bancarelle qualche cianfrusaglia, che, se non altri, almeno loro le avrebbe certamente preso. Si comprò piume di struzzo, porcellane cinesi e cofanetti. Si faceva prestare soldi da Felicité, dalla signora Lefrançois, dalla locandiera della Croix-Rouge, da tutti e dappertutto. Con il denaro di Barneville, quando finalmente lo ricevette, pagò due cambiali. Gli altri 1.500 franchi sfumarono in un attimo. Fece nuovi debiti, e via di nuovo. A volte, è vero, cercava di fare un po' di conti, ma quello che veniva fuori era talmente esorbitante che non riusciva a crederci. Allora ricominciava da capo, ma subito si imbrogliava, piantava tutto e non ci pensava più. Com'era triste la casa, ora. Se ne vedevano uscire i fornitori con facce furiose. C'erano fazzoletti dimenticati sui fornelli, e la piccola Bert, con grande scandalo della signora Aumé, portava calze bucate. Se Charles azzardava qualche timida osservazione, lei rispondeva bruscamente che non era colpa sua. Perché tali scatti d'ira? Lui spiegava tutto con quella vecchia malattia di nervi, e rimproverandosi di aver scambiato per difetti i suoi mali, si accusava di egoismo e aveva voglia di correre ad abbracciarla. Ma no, si diceva, le darei fastidio. E restava dov'era. Dopo pranzo faceva una passeggiatina da solo in giardino, prendeva la piccola Bert sulle ginocchia, apriva il suo giornale di medicina e cercava di insegnarle a leggere. La bambina, che non studiava mai, gli piantava subito in faccia due occhioni tristi, e si metteva a piangere. Allora lui la consolava, andava a riempire l'annaffiatoio per fare dei ruscelletti sulla sabbia, o spezzava i rami di ligustro per piantare degli alberelli nelle aiuole. Cosa che sciupava poco il giardino, già tutto in vaso d'erbacce. Quante giornate dovevano ormai all'estibudoa? Poi la piccola aveva freddo e chiedeva della madre. Chiama la tata, diceva Charles. Lo sai, piccolina, che non bisogna disturbare la mamma. Cominciava l'autunno e già cadevano le foglie, come due anni prima, quando lei era malata. Ma quando sarebbe finito tutto questo? E continuava ad andare in su e in giù, le mani dietro la schiena. Madame se ne stava in camera. Nessuno saliva da lei. Passava lì tutta la giornata, intorpidita, semivestita. A far bruciare di tanto in tanto certi aromi orientali comprati a ruo nella bottega di un algerino. Per non avere accanto a sé la notte quell'uomo sdraiato a dormire, a forza di smorfie riuscì a relegarlo al secondo piano. E leggeva fino alla mattina libri stravaganti, pieni di scene orgiastiche e di situazioni cruente. Spesso era presa da terrore, lanciava un grido. Charles accorreva. «Ah, vattene!» diceva lei. Altre volte, invece, più che mai arsa da quell'intima fiamma che l'adulterio ravvivava, ansante, sconvolta, tutta un desiderio, apriva la finestra, aspirava all'aria fredda, scioglieva al vento la massa opulenta dei suoi capelli. E, guardando le stelle, sognava amori principeschi. Pensava a lui, a Leon. Avrebbe allora dato qualsiasi cosa per uno solo di quegli incontri che la pagavano. Erano i suoi giorni di gala. Li voleva splendidi. E quando lui non ce la faceva coprire tutte le spese, lei pagava generosamente la differenza, cosa che succedeva più o meno ogni volta. Lui cercò di farle capire che sarebbero stati ugualmente bene anche in un altro posto, in un albergo più modesto. Ma lei trovò di che obiettare. Un giorno tirò fuori dalla borsa sei cucchiaini d'argento dorato, il regalo di nozze di papà Ruo, e lo pregò di portarli per lei al Monte di Pietà, subito. Leon Ubbidi, sebbene quella commissione non gli piacesse, temeva di compromettersi. Poi, ripensandoci, trovò che la sua amante cominciava ad avere comportamenti stravaganti. E forse non aveva torto chi cercava di allontanarlo da lei. Infatti, qualcuno aveva spedito a sua madre una lunga lettera anonima per informarla che lui si perdeva con una donna sposata. E la brava signora, intravedendo l'eterno spauracchio delle famiglie, vale a dire la vaga creatura fatale, la sirena, il mostro che nella fantasia abita le profondità dell'amore, scrisse subito al notaio, scrisse subito al notaio Dubokage, il suo principale, il quale fu perfettamente all'altezza della situazione. Ebbe con lui un colloquio di tre quarti d'ora, deciso ad aprirgli gli occhi, avvertirlo del baratro. Una relazione simile avrebbe più tardi nuociuto alla sua posizione. Lo supplicò di rompere, e se non gli riusciva di fare quel sacrificio nel proprio interesse, lo facesse almeno per lui, Dubokage. Alla fine, Leon aveva giurato di non rivedere più Emma, e si rimproverava di non aver mantenuto la parola, considerando tutti i fastidi e le chiacchiere che quella donna avrebbe ancora potuto procurargli, senza contare le battute dei colleghi, la mattina intorno alla stufa. D'altra parte, stava per diventare aiuto notaio, era il momento di mettere giudizio. Rinunciava dunque al flauto, agli eccessi sentimentali, all'immaginazione, perché ogni borghese, nei bollori della giovinezza, non fosse che per un giorno, per un attimo, si è creduto capace di immense passioni, di alte imprese. Il più squallido libertino ha sognato sultane, ogni notaio porta dentro di sé le macerie di un poeta. Adesso si infastidiva quando Emma, tutta un tratto, gli singhiozzava sul petto, e il suo cuore, come chi non può tollerare più di una certa dose di musica, scivolava in un torpore di indifferenza, al frastuono di un amore di cui non distingueva più le raffinatezze. Si conoscevano ormai troppo, per provare quello stupore del possesso che ne centuplica la gioia. Lei ne aveva abbastanza di lui, come lui era stanco di lei. Emma ritrovava nell'adulterio tutte le piattezze del matrimonio. Ma come liberarsene? E poi, nonostante si sentisse umiliata dalla bassezza di una simile felicità, lei ci teneva, per abitudine o per depravazione. Ogni giorno vi si accaniva di più, e per volerlo troppo grande, inaridiva ogni piacere. Attribuiva a Leon la colpa delle proprie speranze deluse, come se lui l'avesse tradita. Ed arrivava ad auspicare una catastrofe che li costringesse a separarsi, visto che non aveva il coraggio di prendere la decisione. Continuava, tuttavia, a scrivergli lettere d'amore, per quell'idea che una donna deve sempre scrivere al suo amante. Ma nello scrivergli vedeva un altro uomo, un fantasma ha fatto dei suoi ricordi più ardenti, delle sue letture più belle, delle sue bramosie più accese. E alla fine diventava così vero e accessibile da farla palpitare di meraviglia, anche se non riusciva a immaginarlo con nitidezza, tanto si perdeva come un dio sotto il profluvio dei suoi appellativi. Abitava quella celeste contrada in cui scale di seta addondolano ai balconi, nell'effluvio dei fiori, al chiero di luna. Lo sentiva vicino, stava per arrivare, l'avrebbe presa, interamente rapita in un bacio. Poi crollava, a pezzi. Quegli slanci di amore astratto la stancavano, infatti, più di qualsiasi orgia. Provava ormai una specie di sfinimento, incessante e generalizzato. Spesso riceveva intimazioni, carte bollate che guardava appena. Avrebbe voluto smettere di vivere o dormire continuamente. Il giorno di mezza quaresima non rientrò a Yonville. La sera andò al ballo in maschera. Indossò pantaloni di velluto e calze rosse, una parrucca con il codino e un tricorno sulle ventitré. Saltellò tutta la notte al suono furioso dei tromboni. Si era formato un cerchio intorno a lei, e la mattina si ritrovò nel peristilio del teatro, fra cinque o sei maschere, donne da porto o marinai, amici di Yon, che parlavano di andare a mangiare. I caffè dei dintorni erano pieni. Scovarono sul porto una trattoria veramente modesta, il cui padrone aprì per loro una stanzetta al quarto piano. Gli uomini si misero a visbigliare in un angolo, senza dubbio si consultavano sulla spesa. C'erano un praticante notaio, due studenti in medicina e un commesso. In che bella compagnia si ritrovava? Quanto alle donne, Emma si rese ben presto conto, dal tono delle loro voci, che dovevano essere quasi tutte d'infimo rango. Allora si spaventò, indietreggiò con la sedia e abbassò gli occhi. Gli altri presero a mangiare. Lei non toccò cibo. Aveva la fronte infuocata, un'irritazione alle palpebre e la pelle fredda ghiacciata. Sentiva nella testa sobbalzare ancora il pavimento della sala da ballo, sotto lo scalpicciare ritmato di mille piedi danzanti. Poi l'odore del punch, misto al fumo dei sigari, la stordì. Stava per svenire. Fu portata davanti alla finestra. Cominciava a spuntare il giorno. Una gran chiazza purpurea si espandeva nel cielo pallido, dal lato di Saint-Catherine. Livido, il fiume rabrividiva al vento. Sui ponti non c'era nessuno. I fanali si spegnevano. Nel frattempo tornò in sé e si trovò a pensare a Bert, che dormiva laggiù nella camera della domestica. Ma passò un carretto pieno di lunghi nastri di ferro, che gettava contro i muri delle case un'assordante vibrazione metallica. Si allontanò bruscamente, si tolse il costume, disse a Leon che doveva tornare a casa. E finalmente rimase sola all'Hôtel de Boulogne. Trovava insopportabile ogni cosa, e se stessa. Avrebbe voluto prendere il volo come un uccello e andare a raggiungere la sua giovinezza da qualche parte, molto lontano, negli spazi immacolati. Uscì, attraverso il boulevard, plache-cochoise, i soborghi, fino ad una strada scoperta che dominava i giardini. Camminava in fretta, l'aria aperta la calmava. A poco a poco le facce della folla, le maschere, le quadriglie, i lampadari, la cena, quelle donne, tutto spariva come nebbia portata via dal vento. Poi, di ritorno alla Croix-Rouge, si buttò sul letto, in quella cameretta del secondo piano con le stampe della Tour de Nesle. La svegliò Iver alle quattro del pomeriggio. Rientrata a casa, Felicité le mostrò una carta grigia dietro la pendola. Lesse, in conformità alla sentenza esecutiva di giudizio. Quale giudizio? La sera prima, effettivamente, avevano portato un'altra carta, di cui ignorava tutto. Così rimase stupefatta da queste parole. Intimazione in nome del re, della legge e della giustizia, a Madame Bovary. Saltò parecchie righe e vide, entro il termine perentorio di ventiquattro ore. Ma che cosa? Pagare la somma complessiva di ottomila franchi. E più sotto c'era anche, vi sarà obbligata con ogni mezzo legale, segnatamente con il sequestro esecutivo dei mobili e degli effetti personali. Che fare? Entro ventiquattro ore, l'indomani. Le re, pensò, voleva magari spaventarla ancora. Di colpo indovinò tutte le sue manovre, lo scopo delle sue condiscendenze. A rassicurarla era soltanto l'enormità della somma. Però, a forza di comprare e di non pagare, di prendere a prestito, di firmare cambiali e di rinnovarle, sempre più gravose ad ogni nuova scadenza, aveva realmente finito col procurare a Messerlore un capitale, che quello aspettava con impazienza per le sue speculazioni. Si presentò da lui con aria disinvolta. Sapete che cosa mi capita? Devo pensare che sia uno scherzo. No? Come sarebbe a dire? Lui si voltò lentamente e le disse incrociando le braccia. Pensavate davvero, Madame, che sarei stato il vostro fornitore e banchiere sino alla consumazione dei secoli? Per puro amore di Dio? Bisognerà anche che rientri nelle spese. Siamo giusti. Lei protestò per l'ammontare. Ah, non ci posso fare niente. E quanto riconosciuto dal tribunale, c'è una sentenza, ve l'hanno notificata. E del resto non sono stato mica io, è stato Vinsar. E non potreste? Oh, niente da fare. Ma, eppure, ragioniamo. E cominciò a divagare. Non aveva saputo nulla, era stata colta di sorpresa. Ah, di chi la colpa? Disse Leroux, con un ironico inchino. Mentre io me ne sto qui a sgobbare come un negro, voi vi date alla bella vita. Ah, niente prediche. Non fa mai male, replicò lui. Lei fu vile, lo supplicò. Arrivò persino ad appoggiare la graziosa mano bianca e sottile sulle ginocchia del merciaio. Lasciatemi via, si direbbe che mi volete sedurre. Siete un miserabile, lei gridò. Oh, come correte, replicò lui ridendo. Farò sapere chi siete, dirò a mio marito. Bene, anch'io ho qualcosa da far vedere a vostro marito. E Leroux tirò fuori dalla cassaforte una ricevuta di 1800 franchi, che lei gli aveva rilasciato al momento in cui Vinsar aveva scontato le cambiali. Credete, aggiunse, che non capirai il vostro furtarello, quel povero bravo uomo? Si accasciò, più stordita che se avesse ricevuto una mazzata. Lui andava in su e in giù, dalla finestra alla scrivania, ripetendo. Ah, gliela farò vedere, gliela farò vedere. Poi si avvicinò di nuovo, e con voce addolcita. Lo so, non è piacevole, ma dopo tutto, non è mai morto nessuno, e dato che è il solo mezzo che vi resta per restituirmi il denaro. Ma dove potrò mai trovarlo? Disse Emma, torcendosi le mani. Bah, quando si hanno gli amici che avete voi. E la fissava in modo così indiscreto e terribile, che lei rabbrividì fino alle viscere. Vi prometto, disse, firmerò. Ne ho abbastanza delle vostre firme. Venderò ancora. Ma via, fece lui con un'alzata di spalle. Non avete più nulla. E gridò nello spioncino che dava sulla bottega. Annette, non dimenticare i tre scampoli del numero quattordici. Comparve la domestica, Emma capì e chiese quanto denaro occorreva per fermare tutti gli atti esecutivi. Troppo tardi. Ma se vi portassi parecchie migliaia di franchi? Un quarto della somma? Un terzo? Quasi tutto? Eh no, è inutile. La spingeva pian piano verso le scale. Mi scongiuro, signor Leureux. Ancora qualche giorno, si inghiozzava. Su via, le lacrime. Mi portate alla disperazione. Per quel che mi interessa, disse lui chiudendo la porta. Capitolo 7 Fu stoica il giorno dopo, quando Areng, l'ufficiale giudiziario, si presentò con due testimoni per estendere il verbale del sequestro. Cominciarono dallo studio di Bovary e non registrarono la testa frenologica, che fu considerata attrezzatura professionale, ma enumerarono, in cucina, i piatti, le pentole, le sedie, i candelieri e, in camera da letto, tutte le carabattole sullo scaffale. Esaminarono i suoi abiti, la biancheria, lo spogliatoio e la sua esistenza fu dissezionata come un cadavere, squadernata fino ai recessi più intimi davanti allo sguardo di quei tre. Areng, abbottonato in uno streminzito abito nero, cravatta bianca, elastici dei sottopiedi tirati al massimo, continuava a ripetere «permettete, madame? Permettete?». Spesso dava in esclamazioni «delizioso, molto bello». Poi si rimetteva a scrivere, intingendo la penna nel calamaio di corno che teneva con la mano sinistra. Quando ebbero finito con le stanze, salirono nel solaio. Ci teneva un leggio dove erano chiuse le lettere di Rodolf. Fu necessario aprirlo. «Ah, un carteggio», disse Areng, con un sorriso di discrezione. «Ma permettete, mi devo assicurare che non ci sia nient'altro». E inclinò i fogli, con mano leggera, come per farne cadere dei napoleoni. Allora, a vedere quella manotozza, dalle dita rosse e molli come lumache, posarsi su quelle pagine dove aveva battuto il suo cuore, fu afferrata dagli indignazioni. Se ne andarono, finalmente. Tornò Felicité. L'aveva mandata in vedetta per tenere lontano Bovary, e insieme, in fretta, installarono nel sottotetto il custode dei beni pignorati, che promise di non muoversi da lì. Charles, durante la serata, le parve preoccupato. Emma lo scrutava con sguardo angosciato, credendo di cogliere delle accuse nelle rughe del viso. Poi, quando i suoi occhi si volgevano al caminetto, ornato di ventole cinesi, agli ampi tendaggi, alle poltrone, a tutti quegli oggetti, insomma, che avevano alleviato l'amarezza della sua esistenza, un rimorso la prendeva, o meglio, un rimpianto immenso, che, in luogo di spegnerla, eccitava la passione. Charles attizzava placidamente il fuoco, i piedi poggiati sugli alari. Ci fu un momento in cui il custode, che forse si annoiava nel suo nascondiglio, fece un po' di rumore. «C'è qualcuno di sopra?» disse Charles. «No», replicò lei, «è qualche lucernario rimasto aperto e mosso dal vento». L'indomani, domenica, partì per Rouen, in cerca di tutti i banchieri che aveva sentito nominare. Erano in campagna o in viaggio. Non si scoraggiò, e a quelli che riuscì a vedere chiese denaro, assicurando che gliene occorreva, che l'avrebbe reso. Alcuni le risero in faccia. Tutti rifiutarono. Alle due corse da Leon e bussò alla porta. Nessuno aprì. Alla fine lui comparve. «Come mai? Ti disturbo? No, ma...» e confessò che il padrone di casa non gradiva che lui ricevesse donne. «Ho bisogno di parlarti», aggiunse lei. Lui allora prese la chiave. Lei lo fermò. «Oh no, giù da noi!» e andarono in camera loro all'hotel de Boulogne. Bevve, appena giunta, un gran bicchiere d'acqua. Era pallidissima. Disse, «Leon, mi devi fare un piacere!» E, afferrandogli strettamente le mani e scuotendole, aggiunse, «Ascolta, ho bisogno di 8000 franchi! Ma tu sei impazzita!» «Non ancora!» E subito, raccontando la storia del sequestro, gli spiegò la sua disperata situazione. Perché Charles ignorava tutto. La suocera la detestava. Papà Ruo non poteva fare nulla. Ma lui, Léon, doveva mettersi in moto per trovare quella indispensabile somma. «Come vuoi che...» «Che vigliacco che sei!» esclamò Emma. Allora lui disse, come un ebete. «Esageri certamente. Magari con un migliaio di scudi il tuo uomo si placerebbe». Ragione di più per tentare qualche passo. Non era possibile che non si trovassero 3000 franchi. D'altra parte, Léon poteva muoversi al posto suo. «Vai, provaci, è necessario! Corri! Oh, cerca, cerca! Ti amerò tanto!» Lui uscì, tornò in capo a un'ora e disse con aria solenne, «Ho visto tre persone, niente da fare». Restarono allora seduti l'uno di fronte all'altra, ai due angoli del caminetto, immobili, muti. Emma alzava alle spalle, battendo i piedi. Lui la sentì mormorare, «Se fossi io al tuo posto, saprei dove trovarli». «E dove?» «Nel tuo studio». E lo fissò. Promanava dalle sue pupille infuocate un'audacia infernale, e le palpebre si stringevano in modo lascivo e incoraggiante, al punto che il giovane si sentì vacillare sotto il muto volere di quella donna che gli suggeriva un crimine. Allora ebbe paura, e per evitare ogni ulteriore delucidazione, si batte la fronte esclamando, «Stanotte deve tornare Morel. Lui non me li negherà, spero. Era un suo amico, figlio di un commerciante molto ricco. E ti porterò tutto domani». Concluse. Emma non mostrò di accogliere questa prospettiva con la contentezza che aveva immaginato. Sospettava la bugia? Lui continuò arrossendo. «Ad ogni modo, se non mi vedi entro le tre, non mi aspettare più, tesoro. Ora devo andare. Scusami. Addio». Le strinse la mano, ma la sentì inerte. Emma non aveva più la forza di alcun sentimento. Suonarono le quattro. Si alzò per tornarsene a Yonville, obbedendo come un automa all'impulso delle abitudini. Era una bella giornata, una di quelle giornate di marzo, chiare e rigide, quando il sole splende in un cielo interamente bianco. Gli abitanti di Rouen, vestiti a festa, passeggiavano con aria felice. Giunse alla Place du Parvis. C'era l'uscita dal vespro. La folla scorreva attraverso i tre portali, come un fiume attraverso i tre archi di un ponte. E al centro, immobile come una roccia, stava il guardiano. Allora si ricordò di quel giorno in cui, ansiosa e piena di speranza, era entrata in quella grande navata che si estendeva davanti a lei, meno profonda del suo amore. E continuò a camminare, piangendo sotto la veletta, stordita, barcollante, prossima a svenire. «Attenzione!» gridò una voce proveniente da una porta a cocchiera che si apriva. Si fermò per lasciar passare un cavallo nero, scalpitante fra le stange di un tilbury condotto da un gentleman in pelliccia di zibellino. Ma chi era? Lo conosceva? La vettura accelerò e disparve. Ma era lui, il Visconte! Si volse indietro, la strada era deserta, e si sentì così affranta, così triste, che si appoggiò ad un muro per non cadere. Poi pensò d'essersi ingannata. Del resto non sapeva più nulla. Tutto l'abbandonava, dentro e fuori di lei. Si sentiva persa, trascinata senza meta in abissi indefinibili. E fu quasi con gioia che vide, arrivando alla Croix-Rouge, il buon omè che guardava caricare sull'irondelle uno scatolone pieno di forniture farmaceutiche. In mano teneva, avvolti in un fular, sei sceminò per sua moglie. Alla signora omè piacevano molto quei panini pesanti, a forma di turbante, che si mangiano in tempo di quaresima con burro salato. Ultimo scampolo di cibi gotici, risalente forse al tempo delle crociate, e di cui si ingozzavano un tempo i robusti normanni, pensando di vedere sulla tavola, al chiarore delle torce gialle, fra brocche di vino aromatizzato e gigantesche salsicce, teste di saraceni da divorare. La moglie dello speziale li sgranocchiava come loro, eroicamente, malgrado le pessime condizioni della sua dentatura. Così, ogni volta che omè faceva il viaggio in città, non mancava mai di portargliene, comprandoli dallo specialista famoso in Rio Massacre. «Felice di vedervi!» disse, offrendo la mano ad Emma per aiutarla a salire sull'irondel. Poi appese gli sceminò alle cinghie della redicella e se ne stette, a capo scoperto e a braccia incrociate, in atteggiamento meditabondo e napoleonico. Ma quando il cieco, come al solito, fece la sua apparizione ai piedi del pendio, esclamò, «Non capisco come l'autorità possa ancora tollerare attività così vergognose. Bisognerebbe rinchiuderli questi disgraziati, obbligarli a qualche lavoro. Il progresso, parola mia, marcia a passo di lumaca, sguazziamo in piena barbarie». Il cieco tendeva il cappello, che sballottolava al bordo della portiera come una tasca staccata dalla tappezzeria. «Trattasi», disse il farmacista, di un'affezione scrofolosa. E sebbene conoscesse benissimo quel povero diavolo, pense di vederlo per la prima volta. Mormorò le parole «cornea», «cornea opaca», «sclerotica», «facies» e infine gli chiese con tono paterno «Eda tanto, amico, che hai questa spaventosa infermità? Invece di andarti a ubriacare all'osteria, faresti bene a seguire una dieta». Gli prescriveva buon vino, buona birra, buoni arrosti. Il cieco continuava la sua canzone. Sembrava, del resto, quasi del tutto idiota. Finalmente Ome aprì la borsa. «Tieni, ecco un soldo, dammi due centesimi di resto. E non dimenticare le mie raccomandazioni, te ne troverai bene». Iver si permise qualche dubbio ad alta voce sulla loro efficacia, ma lo speziale assicurò il cieco che l'avrebbe curato lui stesso, con una pomata antiflogistica di sua composizione e diede il proprio indirizzo. «Signor Ome, vicino al mercato, piuttosto conosciuto». «Allora, per il disturbo?» disse Iver. «Ci devi fare il teatrino». Il cieco si accucciò sui garretti e, rovesciata la testa, roteando gli occhi verdastri e mostrando la lingua, si grattava lo stomaco a due mani, lanciando allo stesso tempo una sorta di ululato cupo, come un cane affamato. Emma, disgustata, gli gettò da sopra la spalla un pezzo da cinque franchi. Era tutta la sua ricchezza. Le sembrava bello buttarla via così. La carrozza era ripartita, quando improvvisamente Ome si sporse dal finestrino e gridò «Niente farinacei, né latticini! Portare lana sulla pelle ed esporre le parti infette al fumo di bacche di ginepro». Lo spettacolo di oggetti consueti che sfilavano davanti ai suoi occhi dissoglieva Emma, a poco a poco, dal suo attuale dolore. Un'intollerabile stanchezza la accasciava. Giunse a casa inebetita, scoraggiata, quasi addormentata. «Avvenga quel che può», diceva fra sé. «E poi, chissà, perché non poteva accadere, da un momento all'altro, qualcosa di straordinario. Loro stesso poteva morire». Fu svegliata, alle nove del mattino, da un rumore di voci sulla piazza. C'era un assembramento attorno al mercato per leggere un grande manifesto affisso ad uno dei pilastri, e vide Justine che saliva su un cippo per strappare il manifesto. Ma in quel momento stesso la guardia campestre lo afferrò per il bavero. Ome uscì dalla farmacia, e la Lefrançois, in mezzo alla folla, aveva l'aria di concionare. «Madame, madame!» esclamò Felicité entrando. «Che vergogna!» E la povera ragazza, agitatissima, le tese un foglio giallo che aveva strappato dalla porta. Emma allesse con una sola occhiata che tutto il suo mobilio era in vendita. Allora si guardarono in silenzio. Non avevano, serva e padrona, alcun segreto l'una per l'altra. Alla fine Felicité con un sospiro disse «Se fossi in voi, madame, andrei dal signor Guillaumà». «Credi?» E questa domanda voleva dire «Tu che conosci la casa attraverso il domestico, sai se il padrone ha parlato qualche volta di me?» «Sì, andateci, farete bene». Emma si vestì, indossò l'abito nero con il cappuccio a lustrini, e per non farsi vedere, c'era sempre molta gente sulla piazza, passò da fuori paese per il sentiero lungo il fiume. Arrivò trafelata davanti al cancello del notaio. Il cielo era scuro e cadeva un poco di neve. Al suono del campanello, Theodor, in panciotto rosso, comparve sulla scalinata. Venne ad aprirle quasi familiarmente, come a una persona conosciuta, e la fece entrare in sala da pranzo. Una grande stufa di porcellana ronzava sotto un cactus che occupava la nicchia. E in cornici di legno nero erano appese contro la tapezzeria di carta legno, la esmeralda di Stobain e la moglie di Putifar di Chopin. La tavola apparecchiata, due scaldavivande d'argento, le maniglie delle porte in cristallo, il pavimento e i mobili, tutto splendeva di una meticolosa pulizia, all'inglese. Le vetrate erano adornate, a ciascun angolo, da decorazioni policrome. «Questa sì che è una sala da pranzo», pensava Emma. «Come piacerebbe a me». Entrò il notaio, col braccio sinistro teneva stretta contro il corpo una vestaglia con motivi di palme, mentre con l'altra mano si toglieva e rimetteva frettolosamente in testa il tocco di velluto marrone, poggiato con pretenziosa eleganza sul lato destro della testa, dove ricadevano le estremità di tre ciuffi biondi, che, partendo dallo cipite, contornavano il cranio calvo. Dopo averle offerto una sedia, si mise a tavola, profondendosi in scuse per la scortesia. «Signor Guillaumà», disse lei, «vorrei pregarvi». «Di cosa, madame? Dite pure». Emma prese a esporre la sua situazione. Il notaio Guillaumà ne era a conoscenza, essendo legato da una segreta intesa al negoziante di stoffe, il quale gli procurava prontamente i capitali per i prestiti ipotecari, che era chiamato a stipulare. Perciò sapeva già, e meglio di lei, la lunga storia di quelle cambiali, insignificanti all'inizio, intestate a nomi diversi, dilazionate a lunghe scadenze e continuamente rinnovate, sino al giorno in cui, messi insieme tutti i protesti, il negoziante aveva incaricato l'amico Vinsar di fare lui le azioni giudiziarie opportune, non volendo passare per sciacallo presso i suoi compaesani. Lei inframmezzava il racconto di recriminazioni contro loro, recriminazioni al cui il notaio dava ogni tanto riscontro con qualche parola insignificante. Mangiando la sua cotoletta e bevendo tè, affondava il mento nella cravatta celeste, su cui erano appuntate due spille di diamante unite da una catenina d'oro. E sorrideva di uno strano sorriso, dolciastro e ambiguo. Però, accorgendosi che lei aveva i piedi bagnati, ma avvicinatevi alla stufa, più in alto contro la porcellana. Lei aveva paura di sporcarla. Il notaio ribatte galantemente, le cose belle non sciupano niente. Allora Emma cercò di commuoverlo ed emozionandosi lei stessa, prese a esporre le grettezze della sua situazione familiare, le tensioni, le necessità. Lui capiva benissimo, una donna della sua finezza. E senza smettere di mangiare, si era girato del tutto verso di lei, sino a sfiorare col ginocchio il suo stivaletto, la cui suola si incurvava fumante sulla stufa. Ma quando lei gli domandò mille scudi, strinse le labbra. Poi si dichiarò molto dispiaciuto di non avere avuto a suo tempo l'incarico di curare il patrimonio di lei, perché c'erano mille facili modi, anche per una signora, di far fruttare il proprio denaro. Sarebbe stato possibile, sia sulle torbiere di Grumesnil, sia sui terreni di Loeuvre, rischiare quasi a colpo sicuro eccellenti speculazioni. E la lasciò a divorarsi di rabbia, all'idea delle fantastiche somme che avrebbe certamente lucrato. «Come mai?» riprese. «Non mi avete cercato?» «Non so che dirvi», rispose lei. «Perché mai? Vi facevo tanta paura? Sono io, viceversa, che dovrei lamentarmi. Ci conosciamo appena. E tuttavia io vi sono amico devoto, spero che non ne dubitiate». Tese la mano, prese la sua, la coprì di un bacio vorace, poi la posò sul proprio ginocchio e giocherellava delicatamente con le dita di lei, nel contempo mormorando una quantità di galanterie. La sua voce scialba sussurrava come lo scorrere di un ruscello. Dal fondo dell'occhio, attraverso il lucichio delle lenti, sprizzava una scintilla, e le mani avanzavano nella manica di Emma, palpandole il braccio. Sentiva sulla gota l'ansito di un respiro eccitato. Quell'uomo la metteva orribilmente a disagio. Si alzò di scatto e disse «Signore, sto aspettando». «Che cosa?» fece il notaio, divenuto improvvisamente pallidissimo. «Questo denaro?» «Ma...» Poi, cedendo all'insorgere di un desiderio troppo forte... «Ma sì, d'accordo», si trascinava sulle ginocchia verso di lei, senza riguardi per la sua vestaglia. «Restate, vi prego, io vi amo!» la afferrò per la vita. Un fiotto purpureo montò al volto di Madame Bovary. Si tirò indietro furibonda, esclamando «Voi approfittate impudentemente della mia disperazione, signore! Sono in miseria, ma non in vendita!» E uscì. Il notaio arrestò l'isbalordito, lo sguardo fisso sulle sue belle pantofole damascate. Erano un regalo d'amore. Quella vista, infine, lo consolò. D'altra parte, pensava, un'avventura come quella l'avrebbe esposto troppo. «Che miserabile! Che villanzone! Che infamia!» diceva Emma fra sé, fuggendo nervosamente sotto i pioppi della strada. La delusione per l'insuccesso rafforzava l'indignazione del pudore oltraggiato. Le sembrava che la provvidenza si accanisse a perseguitarla, e in un sussulto d'orgoglio, si accorse che mai aveva avuto come allora tanta stima di sé e tanto disprezzo per gli altri. Era travolta da un impulso bellicoso. Avrebbe voluto picchiare gli uomini, sputar loro in faccia, stritolarli tutti. E continuava a procedere in fretta, pallida, fremente, furiosa, esplorando con lo sguardo lacrimoso l'orizzonte vuoto, e quasi compiacendosi dell'odio che la soffocava. Quando vide la sua casa, si sentì paralizzata. Non riusciva ad andare avanti, e tuttavia bisognava. D'altra parte, dove fuggire? Felicité la tendeva sulla porta. Allora? No, disse Emma. E per un quarto d'ora, tutte e due passarono in rassegna i diversi abitanti di Yonville, che potevano essere disposti ad aiutarla. Ma ogni volta che Felicité nominava qualcuno, Emma replicava. Quando mai? Non vorranno di certo. È il signore che sta per tornare. Lo so benissimo, lasciami sola. Le aveva tentate tutte. Ormai non c'era più niente da fare, sicché al ritorno di Charles gli avrebbe detto. Togliti di lì. Il tappeto su cui cammini non è più nostro. Nella tua casa tu non possiedi più un mobile, una spilla, una pagliuzza. E sono io che ti ho rovinato, povero te. Dopodiché, gran singhiozzi. Lui avrebbe pianto abbondantemente, e infine, superata la sorpresa, avrebbe perdonato. Sì, mormorava stringendo i denti. Lui mi perdonerà. Lui, cui non basterebbe offrirmi un milione per farsi perdonare ed avermi incontrata. Mai, mai. Quest'idea della superiorità di Bovary su di lei la esasperava. Ma poi, confessasse lei o non confessasse. Subito, più tardi, domani. La catastrofe la doveva comunque venire a sapere. Dunque bisognava aspettarsela, quell'orribile scena, e subire il peso della sua magnanimità. Le venne l'idea di ritornare da loro. A che pro? Di scrivere a suo padre. Era troppo tardi. E forse si cominciava a pentire ora di non aver ceduto a quell'altro, quando udì il trotto di un cavallo sul viale. Era lui, stava aprendo il cancelletto. Era livido più del muro di calcina. Precipitandosi giù per le scale, Emma fuggì rapidamente attraverso la piazza, e la moglie del sindaco, che chiacchierava davanti alla chiesa con l'estibudua, la vide entrare in casa dell'esattore. Corse subito a dirlo alla signora Carun. Le due signore salirono in solaio, e, nascoste dalla biancheria stesa ad asciugare, si appostarono comodamente, in modo da tenere per intero, sotto osservazione, l'interno della casa di Binet. Quest'ultimo era solo nella sua mansarda, assorto nell'impresa di riprodurre in legno uno di quegli indescrivibili oggetti d'avorio, composti da mezzelune e da sfere cave l'una dentro l'altra. Il tutto, dritto come un obelisco, e privo di qualsiasi utilità. E stava attaccando l'ultimo pezzo, ce l'aveva fatta. Nella penombra del laboratorio, il biondo pulviscolo si alzava dal suo utensile, come un pennacchio di scintille sotto i ferri di un cavallo al galoppo. Le due ruote giravano, stridevano. Binet sorrideva, il mento chinato, le narici aperte, e sembrava insomma smarrito in una di quelle felicità assolute, pertinenti esclusivamente a imprese mediocri. A quelle imprese che svagano l'intelligenza con facili difficoltà, e la appagano in una realizzazione al di là della quale non c'è alcun sogno. «Ah, eccola!» fece la signora Tuvash. Ma per via del tornio non era possibile capire nulla di quel che diceva. Alla fine le signore credettero di percepire la parola a franchi, e la signora Tuvash bisbigliò sottovoce. «Gli sta chiedendo una proroga per le tasse!» «Così pare!» rispose l'altra. La videro andare avanti e indietro, esaminare lungo le pareti i portatovaglioli, i candelieri, i pomi da ringhiera, mentre Binesi accarezzava la barba con aria soddisfatta. «Che sia venuta ad ordinargli qualcosa!» disse la signora Tuvash. «Ma se non venne niente!» obiettò l'altra. L'esattore sembrava stare in ascolto, sgranando gli occhi come se non capisse. Lei continuava, patetica, supplichevole. Si avvicinò, il petto ansante. Avevano smesso di parlare. «Non ci starà mica provando quella lì?» disse la signora Tuvash. Binet era rosso sino alle orecchie. Lei gli prese le mani. «Ah, questa poi!» Non c'erano dubbi che gli stava proponendo qualcosa di abominevole, perché l'esattore, eppure era coraggioso, aveva combattuto a Boston e a Lutzen, aveva fatto la campagna di Francia, era stato persino proposto per la legion d'onore. Tutto a un tratto, quasi alla vista di un serpente, indietreggiò decisamente esclamando «Madame, come potete pensare?» «Oh, andrebbero frustate donne come quella!» disse la signora Tuvash. «Ma dov'è finita?» si domandò la signora Caron. Perché durante questi discorsi lei era scomparsa, e dopo, scorgendola che infilava la Grand Rue e girava a destra in direzione del cimitero, si perdettero in congetture. «Mamma Rolet!» disse arrivando dalla balia. «Soffoco! Slacciatemi, per favore!» cade sul letto, in singhiozzi. La Rolet la coprì con una sottana e restò in piedi accanto a lei. Poi, dal momento che non rispondeva, la buona donna si allontanò, prese l'arcolaio e si mise a filare il lino. «Oh, smettetela!» mormorò lei, poiché le pareva di sentire il tornio di Binet. «Chi è che la fa agitare così?» si domandava la balia. «Perché viene da me?» Era accorsa da lei, spinta da una sorta di terrore che la teneva lontana da casa sua. Sdraiata sul dorso, immobile, gli occhi fissi, distingueva a malapena gli oggetti, benché vi ponesse ogni attenzione, con una sorta di idiota insistenza. Contemplava le scrostature delle pareti, due tizioni fumanti l'uno vicino all'altro, e un lungo ragno che camminava sopra la sua testa nella fessura della trave. Alla fine raccolse le idee. Ricordava un giorno con Leon. Oh, com'era lontano! Il sole splendeva sul fiume e le clematidi profumavano. Allora, trasportata dai ricordi come in un torrente che ribolle, giunse ben presto a rammentare la giornata della vigilia. «Che ora è?» chiese. La role uscì, alzò le dita della mano destra verso il lato più chiaro del cielo e rientrò lentamente dicendo «Quasi le tre!» «Ah, grazie!» Perché lui stava per arrivare. Era certo. Aveva trovato del denaro, ma sarebbe andato laggiù, non sapendo che lei era qui, e ordinò alla balia di correre a casa e condurlo da lei. «Sbrigatevi!» «Ma sì, madame, vado, vado!» Si meravigliava adesso di non aver pensato subito a lui. Aveva dato la sua parola ieri e non l'avrebbe tradita, e si vedeva già dal rue a sbattergli sul tavolo i tre biglietti di banca. Poi bisognava inventare una storia per spiegare la cosa a Bovary. Quale storia? Intanto la balia ci metteva un po' a tornare, ma poiché non c'erano orologi in quella baracca, Emma pensava di esagerare magari il tempo trascorso. Cominciò a fare giretti in giardino, passo passo, si incamminò sul sentiero lungo la siepe e tornò rapidamente indietro, con la speranza che la brava donna sarebbe tornata da un'altra strada. Alla fine, stanca di aspettare, assalita da sospetti che si sforzava di allontanare, non sapendo più se era lì da un secolo o da un minuto, si sedette in un angolo e chiuse gli occhi, si tappò le orecchie. Il cancelletto cigolò, lei diede un balzo, ma prima che potesse aprir bocca, la rolele aveva detto «Non è venuto nessuno a casa vostra». «Come?» «No, nessuno, e il signor Bovary piange, vi chiama, tutti vi cercano». Emma non rispose. Ansimava, roteando gli occhi intorno, mentre la contadina, spaventata dal suo aspetto, si tirava istintivamente indietro, credendola impazzita. Tutto un tratto si batte la fronte e gettò un grido, perché il ricordo di Rodolf, come un gran lampo in una notte scura, le aveva attraversato l'anima. Era così buono, così delicato, così generoso. E d'altra parte, se avesse esitato a farle questo piacere, avrebbe ben saputo costringerlo lei, rievocando con un sol batter di palpebre il loro perduto amore. Si mosse dunque verso la uscette, senza capire che stava correndo a offrirsi a quel che l'aveva un tempo, così duramente esacerbata, e meno che mai rendendosi conto di questo suo prostituirsi. Capitolo 8 Strada facendo si chiedeva, che dirgli, da dove cominciare? E via via che procedeva, riconosceva i cespugli, gli alberi, i giunchi marini sul colle, e il castello là in fondo. Si ritrovava immersa nelle sensazioni di quella dolcezza di un tempo, e il suo povero cuore oppresso vi si dilatava amorosamente. Un vento tiepido le soffiava sul volto, la neve, sciogliendosi, cadeva goccia a goccia dalle gemme sull'erba. Entrò, come un tempo, dalla porticina del parco, poi arrivò al cortile d'onore, cinto da una doppia fila di folti tigli. Dondolavano i lunghi rami, sibilando. Nel canile tutti i cani si misero ad abbaiare, e il clamore delle loro voci e cheggiava senza che comparisse alcuno. Salì l'ampia scala diritta con le balaustre di legno, che conduceva al corridoio pavimentato di lastre polverose su cui si apriva una lunga fila di camere, come nei monasteri o nelle locande. Quella di lui era proprio in fondo, a sinistra. Al momento di appoggiare le dita sulla serratura, si sentì improvvisamente mancare le forze. Aveva paura che lui non ci fosse. Lo desiderava quasi, eppure era la sua sola speranza, l'ultima possibilità di salvezza. Si raccolse un attimo, e chiamando a raccolta le proprie forze, nella consapevolezza delle sue presenti necessità, entrò. Lui stava davanti al fuoco, i piedi sul bordo del caminetto, e fumava la pipa. Ma guarda, siete voi, disse alzandosi bruscamente. Sì, sono io. Vorrei chiedervi un consiglio, Rodolf. E nonostante tutti i suoi sforzi, non riusciva ad articolare una sillaba. Non siete affatto cambiata, sempre deliziosa. Oh, replicò lei amaramente. Tristi delizie, amico caro, poiché le avete rifiutate. Lui allora cominciò a fornire spiegazioni della propria condotta, adducendo vague scuse, nell'incapacità di inventare qualcosa di meglio. Lei si lasciò catturare dalle sue parole, ancor più dalla sua voce e dal suo aspetto, tanto che fece finta di credere, o forse credette davvero, al pretesto della rottura. Si trattava di un segreto da cui dipendevano l'onore e persino la vita di una terza persona. Comunque, fece guardandolo tristemente. Io ho sofferto tanto. Lui rispose filosoficamente. Così è la vita. Almeno per voi, riprese Emma. È stata bella dopo la nostra separazione? Oh, né bella né brutta. Forse sarebbe stato meglio non lasciarsi. Sì, forse. Credi? Disse lei avvicinandosi. E sospirò. Oh, Rodolf, se tu sapessi! Quanto ti ho amato! A questo punto gli prese la mano e rimassero per un po' con le dita incrociate, come quel primo giorno, ai comizi. Per istintivo orgoglio, lui resisteva alla tenerezza da cui si sentiva invadere. Ma lei, lasciandosi andare contro il suo petto, gli disse. Come volevi che vivessi senza di te. Non è possibile disabituarsi alla felicità. Ero disperata. Ho creduto di morire. Ti racconterò tutto, vedrai. E tu, tu mi fuggivi. Da tre anni, infatti, lui l'aveva accuratamente evitata, per quella innata vigliaccheria che contraddistingue il sesso forte. Ed Emma insisteva, scuotendo graziosamente il capo, più carezzevole di una gatta in amore. Ami altre donne, confessalo. Oh, le capisco, sai? E le scuso. Le avrai sedotte come avevi sedotto me. Sei un uomo, tu. Hai tutto quel che ti occorre per farti desiderare. Ma noi ricominceremo, vero? Ci ameremo. Ecco, rido. Sono felice. Di qualcosa, insomma. Ed era incantevole a vedersi, con quello sguardo in cui tremava una lacrima, come acqua di un temporale in una corolla azzurra. Lui se la tirò sulle ginocchia e si mise ad accarezzarle con il dorso della mano le bande lisce dei capelli, su cui, alla luce del crepuscolo, brillava come una freccia d'oro un ultimo raggio di sole. Lei era a frontechina, finì per baciarla sulle palpebre, lievemente, con la punta delle labbra. Ma tu hai pianto? Disse. Perché? Lei scoppiò in singhiozzi. Rodolfo pensò a un'esplosione d'amore. Poiché lei taceva, scambiò quel silenzio per un residuo di pudore ed esclamò. Ah, perdonami, mi piaci tu sola. Sono stato stupido e malvagio. Ti amo, ti amerò sempre. Che hai, dimmelo. Era ai suoi piedi. Ebbene, sono rovinata, Rodolfo. Mi devi prestare 3.000 franchi. Ma, ma, disse lui rialzandosi lentamente. Sai, continuava lei febbrilmente, mio marito aveva affidato tutti i suoi beni ad un notaio, che è scappato. Abbiamo preso denaro a prestito, i pazienti non pagavano. Peraltro non abbiamo ancora la liquidazione dell'eredità, l'avremo tra poco. Ma oggi, per 3.000 franchi che ci mancano, ci sequestrano tutto. Ora, in questo preciso momento, sono venuta da te contando sulla tua amicizia. Ah, pensò Rodolfo, impallidito di colpo. Per questo è venuta. Infine, disse con molta calma, non li ho, madame. Non mentiva affatto. Se li avesse avuti, magari glieli avrebbe dati, per quanto in genere sia spiacevole compiere così belle azioni. Di tutte le tempeste che si abbattono sull'amore, una richiesta di denaro è infatti la più gelida e devastante. Da prima lei stette qualche minuto a guardarlo. Non li hai? Ripetè più volte. Non li hai? Avrei dovuto risparmiarmi quest'ultima vergogna. Non mi hai mai amata. Tu non vali più degli altri. Si tradiva, si perdeva. Rodolfo li interruppe, affermando che anche lui era in difficoltà. Mi fai pena, disse Emma. Sì, proprio pena. E posando lo sguardo su una carabina damascata che luccicava nella panuclia. Ma quando uno è così povero, non investe soldi in un calcio di fucile. Non compra una pendola intarsiata, continuò indicando l'orologio di Bull. Ne fischietti dorati per i frustini. E li toccava, né ciondoli per l'orologio. Oh, non si fa mancare niente lui, nemmeno un portali cuori in camera. Perché ti vuoi bene, vivi bene, hai un castello, fattorie, boschi, fai battute di caccia, viaggi a Parigi. Eh, basterebbe questo, esclamò prendendo sul caminetto i suoi gemelli da polso. Il più piccolo di questi gingilli. Se ne può ricavare denaro. Oh, non li voglio, te li puoi tenere. E scagliò lontano i gemelli, la cui catenina d'oro si ruppe, urtando la parete. Io però ti avrei dato tutto, avrei venduto tutto, avrei lavorato con queste mani, avrei menticato per un tuo sorriso, per un tuo sguardo, per sentirti dire grazie. E tu te ne stai tranquillo in poltrona, come se non mi avessi già fatto soffrire abbastanza. Lo sai che senza di te avrei potuto vivere felice? Che ti obbligava? Lo hai fatto per scommessa? Eppure mi amavi, o almeno dicevi di amarmi. E ancora, un attimo fa, avresti fatto meglio a scacciarmi. Ho le mani calde dei tuoi baci, e proprio in questo punto, sul tappeto, mi giuravi in ginocchio eterno amore. Mi ci hai fatto credere. Per due anni mi hai trascinato nel più splendido e soave dei sogni. Eh? Te li ricordi i nostri progetti di viaggio? Oh, la tua lettera, la tua lettera! Mi ha strappato il cuore. E poi, quando torno da lui, lui che è ricco, felice, libero, per implorare un aiuto che anche il primovenuto mi darebbe, e lo supplico, e gli porto di nuovo tutta la mia tenerezza, lui mi respinge, perché gli verrebbe a costare tremila franchi. Non li ho, rispose Rodolf, con quella perfetta calma dietro cui si riparano, quasi fosse uno scudo, le collere rassegnate. Lei uscì. I muri tremavano, il soffitto la schiacciava, e ripercorse il lungo viale, inciampando nei mucchi di foglie morte disperse dal vento. Finalmente arrivò al fossato davanti al cancello. Si spezzò le unghie contro la serratura, per la fretta di aprirla. Poi, cento passi più in là, senza più fiato sul punto di cadere, si fermò. E allora, voltandosi, ripercorse un'ultima volta con lo sguardo l'impassibile castello, con il parco, i giardini, i tre cortili e tutte le finestre della facciata. Restò smarrita, stupefatta, cosciente di sé unicamente per il pulsare delle arterie, che le sembrava riempire la campagna come una musica assordante. Sotto i suoi piedi, il terreno era più molle di un'onda, e i solchi le apparvero come immensi, oscuri frangenti. Tutto quello che si trovava nella sua testa di riminescenze, di idee, esplodeva in mille pezzi, tutto insieme d'un sol colpo, come un fuoco d'artificio. Vide suo padre, l'ufficio di L'Oreux, la loro camera laggiù, un altro paesaggio. Stava per impazzire, ebbe paura e riuscì a riprendersi, seppur confusamente. Non ricordava, infatti, la causa di questa sua orrenda condizione, vale a dire la questione dei soldi. Soffriva soltanto del suo amore, e attraverso quel ricordo sentiva l'anima abbandonarla, come i feriti, agonizzanti, sentono la vita andarsene attraverso la piaga sanguinante. Cadeva la notte, volavano cornacchie. D'un tratto le parve che dei corpuscoli color fuoco esplodessero nell'aria, come pallottole fulminanti, appiattendosi, e poi ruotassero, ruotassero, per andare a sciogliersi nella neve, tra i rami degli alberi. Al centro di ciascuno compariva la faccia di Rodolf. Si moltiplicarono, e si avvicinavano, la penetravano. Tutto scomparve, riconobbe le luci delle case che brillavano lontano nella nebbia. Allora la sua situazione le apparve chiara, come un abisso. Ansimava da farsi scoppiare il petto. Poi, in un impeto di eroismo che la rendeva quasi allegra, corse giù per il colle, attraversò la passerella delle mucche, il sentiero, il viale, il mercato, e arrivò davanti alla bottega del farmacista. Non c'era nessuno. Stava per entrare, ma poteva venire qualcuno, al suono della campanella. Allora, scivolando attraverso le sbarre, trattenendo il respiro, tastando i muri, arrivò fino alla soglia della cucina, dove una candela ardeva sul fornello. Justine, in maniche di camicia, portava via un vassoio. «Ah!» pensò. «Stanno cenando! Aspettiamo!» Justine tornò. Lei picchiò contro il vetro, lui uscì. «La chiave è quella di sopra, dove sono i…» «Come?» Lui la guardava, sbigottito dal pallore di quel viso, che si stagliava tutto bianco sullo sfondo nero della notte. Gli apparve straordinariamente bella e maestuosa, come un fantasma. Senza capire che cosa volesse, intuiva qualcosa di terribile. Ma lei ripetè con fermezza, a voce bassa, una voce dolce e sua dente. «La voglio! Dammela!» Poiché il tramezzo era sottile, si udiva il ticchettio delle forchette nella sala da pranzo. Sostenne che doveva ammazzare i topi che le impedivano di dormire. «Dovrei avvertire il signor o me!» «No, sta fermo!» Poi, con aria indifferente. «Non ne vale la pena! Glielo dirò io più tardi! Su, fammi luce!» Entrò nel corridoio su cui si apriva la porta del laboratorio. Sulla parete c'era una chiave con la targhetta «Cafarnao!» «Justine!» gridò lo speziale, che si spazientiva. «Saliamo!» Lui la seguì. La chiave girò nella serratura e lei andò direttamente verso il terzo ripiano. Tanto era nitido il ricordo, afferrò il barattolo azzurro, tirò via il tappo, ci ficcò dentro la mano, la ritirò piena di una polvere bianca e se la cacciò in bocca. «Fermatevi!» gridò il ragazzo gettandosi su di lei. «Zitto! Potrebbero venire!» Lui si disperava, voleva chiamare. «Non dir nulla, la colpa ricadrebbe sul tuo padrone!» Poi tornò a casa, improvvisamente placata, quasi con la serenità di un dovere compiuto. Quando Charles, sconvolto dalla notizia del pignoramento, era tornato a casa, Emma ne era appena uscita. Gridò, pianse, svenne, ma lei non tornò. Dove poteva essere? Mandò felicité da Ome, dal signor Tuvache, dall'heureux, all'Iondor, dappertutto, e nelle intermittenze dell'angoscia vedeva il suo nome rovinato, i suoi averi perduti, il futuro di Bert spezzato. E per quale ragione? Non una parola. Aspettò fino alle sei. Poi, non potendo più resistere e pensando che fosse partita per Ruon, andò sulla strada maestra, fece una mezzalega, non incontrò nessuno, aspettò ancora e tornò indietro. Era rientrata. «Ma che c'era? Perché? Mi spieghi?» Lei andò allo scrittoio e scrisse una lettera. La sigillò lentamente, aggiungendo la data e l'ora. Poi disse con tono solenne «La leggerai domani. Fino ad allora, ti prego, non farmi domande. Nessuna domanda!» «Ma… oh, lasciami in pace!» e si sdraiò lunga distesa sul letto. La svegliò un sapore acre che si sentiva in bocca. Intravide Charles e richiuse gli occhi. Si spiava con curiosità per capire se stava soffrendo. Ma no, ancora nulla. Sentiva il tic-tac della pendola, il crepitio del fuoco e il respiro di Charles, in piedi accanto al suo giaciglio. «Ah, è davvero poca cosa la morte!» pensava. «Mi addormenterò e sarà tutto finito!» Beve una sorsata d'acqua e si girò verso la parete. rimaneva quel disgustoso sapore d'inchiostro. «Oh, sete! Oh, che sete!» sospirò. «Ma che hai?» disse Charles, tendendole un bicchiere. «Niente. Apri la finestra, soffoco!» e le prese una nausea così improvvisa che fece appena in tempo ad afferrare il fazzoletto sotto il cuscino. «Portalo via!» disse stava immobile per timore che la minima agitazione la facesse vomitare. Intanto sentiva un freddo di ghiaccio salirle dai piedi fino al cuore. «Ah, ecco che comincia!» mormorò. «Che dici?» girava la testa lentamente con un gesto d'angoscia e aprendo di continuo le mascelle come se avesse sulla lingua qualcosa di molto pesante. Alle otto riprese il vomito. Charles osservò che nel fondo del catino c'era una specie di sabbia bianca appiccicata alle pareti della porcellana. «È molto strano, veramente singolare!» ripetè. Ma lei disse alzando la voce «No, ti sbagli!» Con delicatezza, quasi accarezzandola, lui allora le passò una mano sullo stomaco. Lei lanciò un grido acuto. Lui sobalzò di spavento. Poi lei cominciò a gemere, dapprima debolmente. Un grande brivido le scuoteva le spalle, diventava più pallida del lenzuolo in cui affondava le dita contratte. Il polso, irregolare, era adesso quasi impercettibile. Gocce di sudore sgorgavano dal volto bluastro, che sembrava come irrigidito nelle esalazioni di un vapore metallico. Batteva i denti, gli occhi dilatati ruotavano intorno vacui, e ad ogni domanda la risposta era solo uno scuotimento di testa. sorrise persino, due o tre volte. A poco a poco i gemiti si fecero più forti. Le sfuggì un urlo soffocato. Sosteneva di star meglio e che tra poco si sarebbe alzata. Ma fu assalita dalle convulsioni. Gridò «Ah, è atroce! Dio mio!» Lui si buttò in ginocchio contro il letto. «Dimmi, che cosa hai mangiato? Rispondi, nome del cielo!» E la guardava con uno sguardo di tenerezza tale che lei non gli aveva mai visto. «Ma sì, là, là!» disse con un filo di voce. Lui balzò allo scrittoio, ruppe il sigillo e lesse ad alta voce. «Nessuno deve essere accusato!» Si fermò, si passò la mano sugli occhi, lesse di nuovo. «Come? Aiuto! Correte!» Riusciva solo a ripetere una parola. «Avelenata! Avvelenata!» Felicite corse Daomé, chiedette in esclamazioni in piena piazza. L'Ale François lo sentì da Lyon d'Or. Alcuni si alzarono per dirlo ai vicini, e il paese rimane desto per tutta la notte. Smarrito, balbettante, sul punto di crollare, Charles girava per la stanza. Urlava contro i mobili, si strappava i capelli. E mai il farmacista aveva creduto che uno spettacolo così spaventoso fosse possibile. Tornò in bottega per scrivere a Canivet e al professor Larivière. Perdeva la testa. Fece più di quindici stesure. Hippolyte partì per Neufchatel e Justine spronò talmente il cavallo di Bovary che lo lasciò sul pendio di Boiguillon, sfinito e pressoché scoppiato. Charles volle sfogliare il dizionario medico. Non riusciva a vedere, le righe ballavano. Calma, disse lo speziale. Basta somministrare qualche potente antidoto. Che veleno è? Charles gli mostrò la lettera. Era arsenico. Allora, disse Ome, andrebbe analizzato. Sapeva infatti che in caso di avvelenamento occorre un'analisi. L'altro, che non capiva, rispose è. Fate, fate, salvatela. Poi, tornato vicino alla moglie, si accasciò a terra, sul tappeto, e appoggiata la testa sulla sponda del letto, se ne stava a singhiozzare. Non piangere, disse lei. Presto non ti tormenterò più. Ma perché? Che ti ha costretta? Lei replicò. Era necessario, caro. Non eri felice. È colpa mia. Eppure ho fatto tutto il possibile. Sì, è vero. Sei buono tu. E gli passava la mano tra i capelli, lentamente. La dolcezza di quella sensazione ravvivava la tristezza di Charles. Sentiva tutto il suo essere crollare di disperazione, all'idea di doverla perdere. Proprio quando lei gli confessava più amore che in passato. E non trovava nulla, non sapeva, non osava, ulteriormente sconvolto dall'urgenza di una decisione immediata. Era finita, pensava lei, con tutti quei tradimenti, quelle bassezze e quelle innumerevoli bramosie che la torturavano. Non odiava nessuno, adesso. Sulla sua mente calava una confusione crepuscolare. E di tutti i rumori terreni, Emma sentiva ormai soltanto l'intermittente lamento di quel suo povero cuore, dolce e indistinto, come l'ultima eco d'una sinfonia che si allontana. «Portatemi la piccola», disse, sollevandosi sul gomito. «Non stai peggio, vero?», chiese Charles. «No, no». La bambina arrivò in braccio alla domestica, nella lunga camicia da notte da cui sbucavano i piedi nudi, seria, ancora sonnacchiosa. Guardava con stupore la camera tutta in disordine e sbatteva le palpebre, abbagliata dai candelieri che ardevano sui mobili. Le ricordavano probabilmente quelle mattine di capodanno o di mezza quaresima, quando, svegliata di buon'ora alla luce delle candele, veniva nel letto della madre a prendere i regali. Infatti disse, «Mamma, dov'è?». E siccome tutti tacevano, «Ma non vedo la mia scarpina!». Felicitè la tendeva verso il letto, mentre lei continuava a guardare dalla parte del caminetto. «L'ha presa la tata?», domandò. A quella parola che la riportava al ricordo dei suoi adulteri e delle sue sciagure, Madame Bovary distolse la faccia, come se le tornasse in bocca il disgusto di un altro, più forte veleno. Intanto Bert era rimasta appoggiata sul letto. «Oh, come sono grandi i tuoi occhi, mamma! Come sei pallida! Come sudi!». La madre la guardava. «Ho paura!», disse la piccola tirandosi indietro. Emma le prese la manina per baciarla. Lei si dibatteva. «Basta, portatela via!», gridò Charles, singhiozzante nell'alcova. Poi, per un momento, i sintomi cessarono. Sembrava meno agitata e ad ogni parola insignificante, ad ogni respiro un po' più calmo, lui riacquistava speranza. Quando finalmente entrò Canivè, gli si buttò tra le braccia piangendo. «Ah, siete voi? Grazie, siete buono. Ma va tutto meglio, ecco, guardatela!». Il collega non fu affatto di quell'opinione e, volendo andare per le spicce, per usare le sue parole, prescrisse un emetico al fine di liberare completamente lo stomaco. Lei non tardò a vomitare sangue. Le labbra si strinsero ancora di più. Aveva le membra contratte, il corpo ricoperto da chiazze brune, e sotto le dita il polso si perdeva come un filo teso, come la corda di un'arpa in procinto di spezzarsi. Cominciava poi a emettere orribili grida. Ma le diceva il veleno, lo ingiuriava, lo supplicava di fare in fretta, e respingeva con le braccia irrigidite tutto quel che Charles, più agonizzante di lei, tentava di farle bere. Lui stava in piedi, il fazzoletto sulle labbra, in lacrime, rantolante, soffocato dai singhiozzi che lo scuotevano fino ai talloni. Felicité correva su e giù per la stanza, Ome, immobile, emetteva gran sospiri, e Canivè, pur conservando la sua aria imperturbabile, cominciava a sentirsi preoccupato. Diavolo, eppure è stata purgata, e venendo meno la causa... Deve cessare l'effetto, disse Ome, è evidente. Ma salvatela, esclamava Bovary. Così, senza prestare ascolto al farmacista, che azzardava ancora l'ipotesi, forse un parossismo benefico, Canivè stava per somministrare dell'ateriaca, quando si udì lo schiocco d'una frusta. Tutti i vetri vibrarono, e una berlina da posta, tirata a gran forza da tre cavalli inzaccherati fino alle orecchie, sbucò di colpo dall'angolo del mercato. Era il professor Larivière. L'apparizione di un dio non avrebbe prodotto una maggiore emozione. Bovary alzò le mani, Canivè si fermò di botto, e Ome si tolse il berretto greco ancora prima che il professore fosse entrato. Apparteneva alla grande scuola chirurgica uscita dal camice di Bichat, a quella generazione ormai scomparsa di ospedalieri filosofi, che, amando la loro arte fino al fanatismo, la esercitavano con entusiasmo e sagacia. Quando andava in collera, tutto l'ospedale tremava, e i suoi allievi lo veneravano al punto che, appena cominciavano a esercitare, si sforzavano di imitarlo il più possibile, così che nelle città dei dintorni si ritrovavano su di loro il suo lungo soprabito di merlino e l'ampia marsina dai risvolti sbottonati, che nascondevano parte delle mani carnose, mani molto belle, mai coperte da guanti, come per essere più pronte a tuffarsi nelle miserie. Incurante di decorazioni, titoli e accademie, ospitale, liberale, paterno con i poveri e capace di praticare la virtù pur senza crederci, avrebbe potuto passare quasi per un santo se l'arguzia del suo spirito non l'avesse fatto temere come un demonio. Lo sguardo, più tagliente dei suoi bisturi, ti scendeva dritto nell'anima e smontava ogni menzogna occultata da pretesti e pudori. E viveva così, pieno di quella buonaria maestà conferitagli dalla consapevolezza di un grande talento, di una consistente ricchezza e di quarant'anni di esistenza laboriosa e irreprensibile. Agrotò le sopracciglia fin dalla soglia, vedendo l'aspetto cadaverico di Emma, supina, a bocca aperta. Poi, con l'aria di ascoltare Canivè, si passava l'indice sotto il naso e ripeteva «Bene, bene», ma si strinse lentamente nelle spalle. Bovary l'osservò. Si guardarono e quell'uomo, pur così abituato allo spettacolo del dolore, non seppe trattenere una lacrima che andò a scendere sullo sparato. Chiese di passare con Canivè nella stanza accanto. Charles lo seguì. «Sta molto male, vero? Se si applicasse qualche senapismo? O che so io, trovate qualcosa voi che avete salvato tante persone!» Charles gli cingeva il corpo con entrambe le braccia e, semi svenuto sul suo petto, lo fissava a sgomento, supplichevole. «Su, ragazzo mio, fatevi coraggio, non c'è più nulla da fare!» E il professor Larivère si girò. «Vene andate! Torno subito!» Uscì, come per dare un ordine al cocchiere insieme a Canivè, che non teneva affatto, neppure lui, a vedersi morire Emma tra le mani. Il farmacista li raggiunse in piazza. Per carattere era incapace di separarsi dalle persone famose. Scongiurò dunque il professor Larivère di fargli l'insigne onore di accettare il suo invito a pranzo. In tutta fretta furono mandati a prendere dei piccioni al Lyon d'Or. Tutte le costolette disponibili in macelleria, la panna da Tuvash, le uova dall'Estiboudoua, e lo speziale in persona aiutava a fare i preparativi, mentre la signora Ome diceva, stiracchiando i lacci della camicciola, «Mi vorrete scusare, signore, ma in questo disgraziato paese, se non si è avvisati il giorno prima…» «I calici!» Sibilò Ome. «Se fossimo in città potremmo almeno ricorrere agli zamponi farciti!» «Zitta! A tavola, professore!» Dopo i primi bocconi giudicò opportuno fornire qualche particolare sulla catastrofe. «Abbiamo avuto dapprima un senso di secchezza faringeo, poi dolori intollerabili all'epigastrio, vomito convulso o coma. Ma come si è avvelenata?» «Non lo so, professore, e non so neanche dove abbia potuto procurarsi quell'acido arsenioso!» Justine, che stava portando una pila di piatti, fu assalito da tremito. «Che hai?» disse il farmacista. Il giovane, a quella domanda, lasciò cadere tutto a terra, con gran fracasso. «Imbecille!» gridò Ome. «Pasticcione! Incapace! Asinaccio!» «Ma dominandosi immediatamente?» «Ho voluto, professore, tentare un'analisi, e, primo, ho delicatamente introdotto in un tubo…» «Sarebbe stato meglio?» disse il chirurgo. «Introdurre due dita in gola!» Il suo collega taceva, avendo discretamente ricevuto poco prima una bella ramanzina a proposito dell'emetico, cosicché il buon canivè, tanto arrogante e verboso al momento del piede torto, se ne stava adesso tutto compunto, non smetteva di sorridere in segno di approvazione. Ome era raggiante nel suo orgoglio d'anfitrione, e, per un egoistico confronto con se stesso, il doloroso pensiero di Bovary contribuiva vagamente al suo piacere. Poi la presenza del professore lo esaltava. Faceva sfoggio della sua erudizione, citava la rinfusa a cantaridi, upas, menzaniglio, vipera. Ho anche letto che diverse persone si sono ritrovate intossicate, e come fulminate da sanguinacci eccessivamente affumicati. Così almeno diceva una bellissima relazione stesa da uno dei nostri vertici della farmacia, uno dei nostri maestri, l'insigne cadet de Gassincourt. Ricomparve la signora Ome, portando uno di quegli arnesi vacillanti che si scaldano a spirito. Ome, infatti, teneva a preparare il caffè a tavola, dopo aver del resto provveduto personalmente alla tostatura, alla porfirizzazione e alla miscelatura. «Saccarum, professore», disse offrendo lo zucchero. Poi fece scendere i figli, curioso del parere del chirurgo sulla loro costituzione. La riviera stava infine per andarsene, quando la signora Ome lo consultò sul marito. A furia di addormentarsi sulla digestione, ogni sera, gli poteva salire il sangue alla testa. «Non mi pare proprio che la testa possa dargli fastidio». E accennando ad un sorriso per quell'impercettibile doppio senso, il professore aprì la porta. Ma la farmacia rigurgitava di gente e durò fatica a liberarsi di Messer Tuvache, che temeva una flusione di petto per la moglie, avendo costei l'abitudine di sputare sulla cenere. Poi del signor Binet, che ogni tanto era preso da attacchi di fame. Della signora Caron, che sentiva dei pizzicori. Di L'Oreux, che aveva le vertigini, di L'Estiboudois, che aveva i reumatismi. Della signora Lefrançois, che soffriva di acidità di stomaco. Alla fine i tre cavalli filarono via, e tutti osservarono che non si era mostrato affatto disponibile. A distrarre l'attenzione pubblica fu la comparsa di padre Bournisien, che passava sotto i portici del mercato con l'olio santo. Ome, per tenere fede ai propri principi, paragonò i preti e i corvi, attratti dall'odore dei morti. La vista di un sacerdote gli era personalmente sgradita, perché la tonaca gli evocava il sudario, e se esacrava la prima, era in parte per paura del secondo. Tuttavia, per non indietreggiare di fronte a quella che chiamava la sua missione, tornò da Bovary insieme a Canivè, che La Rivière, prima di partire, aveva energicamente esortato in tal senso, e senza le rimostranze della moglie avrebbe portato con sé anche i figli, per abituarli alle circostanze gravi, convinto che sarebbe stata una lezione, un esempio, una scena solenne, destinata a rimanere impressa. Quando entrarono, la camera era immersa in una lugubre solennità. Sul tavolino da lavoro, coperto da un tovagliolo bianco, c'erano cinque o sei batufoli di cotone dentro un piatto d'argento, accanto ad un gran crocifisso, tra due candelieri accesi. Emma, con il mento contro il petto, spalancava le palpebre, e le sue povere mani vagavano sulle lenzuola, con quell'orrendo e dolce gesto degli agonizzanti, che sembrano volersi già coprire con il sudario. Pallido come una statua, e con gli occhi rossi come tizzoni ardenti, Charles stava, senza piangere, davanti a lei, ai piedi del letto, mentre il prete, appoggiato a un ginocchio, borbottava parole sommesse. Lentamente lei voltò la faccia, e parve rapita di gioia nel vedere improvvisamente la stola viola, ritrovando, forse in una straordinaria pacificazione, la perduta volutà dei suoi primi slanci mistici, e, insieme, le prime visioni di beatitudine eterna. Il prete si rialzò per prendere il crocifisso. Allora lei protese il collo, come chi abbia sete, e, incollando le labbra sul corpo dell'uomo Dio, vi depose con le poche forze che le restavano il più grande bacio d'amore che avesse mai dato. Poi il prete recitò il miseratur e l'indulgentiam, immerse il pollice destro nell'olio, e cominciò le unzioni. Prima sugli occhi, che avevano tanto bramato tutti i fasti terreni. Poi sulle narici, avide di tiepide brezze e di effluvi amorosi. Poi sulla bocca, che si era aperta per la menzogna, che l'orgoglio aveva fatto gemere e la lussuria gridare. Poi sulle mani, che si erano deliziate di dolci contatti. E infine sulla pianta dei piedi, così rapidi un tempo, quando correva verso l'appagamento dei suoi desideri, e che ora non avrebbero mai più camminato. Il prete si asciugò le dita, buttò nel fuoco i batuffoli di cotone imbevuti d'olio, e tornò a sedersi accanto alla moribonda per dirle che adesso doveva unire le sofferenze a quelle di Gesù Cristo, e abbandonarsi alla misericordia divina. Finite le sue esortazioni, tentò di metterle in mano un cero benedetto, simbolo delle glorie celesti di cui tra poco sarebbe stata circondata. Troppo debole, Emma non riuscì a chiudere le dita, e senza l'intervento di padre Bournisien, il cero sarebbe caduto a terra. Nel frattempo non era più tanto pallida, e il suo volto aveva un'espressione serena, come se il sacramento l'avesse guarita. Il prete non mancò di farlo notare, a Bovary spiegò anche che talvolta il Signore prolungava l'esistenza delle persone, quando lo giudicava opportuno per la loro salvezza. E Charles ricordò quel giorno in cui, come ora prossima a morire, aveva ricevuto la comunione. Forse non si doveva perdere ogni speranza. Penso. In effetti lei si guardò intorno, lentamente, come chi si ridesti da un sogno. Poi, con voce chiara, chiese lo specchio e vi restò china per qualche minuto, fino al momento in cui dagli occhi colarono grosse lacrime. Allora rovesciò la testa con un sospiro e ricade sul cuscino. Subito il petto le prese a palpitare in fretta. La lingua le uscì completamente dalla bocca, gli occhi roteavano e impallidivano al pari di due globi di lampada che si spengano. Da crederla già morta, senza quella tremenda accelerazione delle costole, scosse da un ansimare furioso, come se l'anima desse dei balzi per staccarsi. Felicite si inginocchiò davanti al crocifisso, e lo stesso farmacista piegò leggermente i garretti, mentre Canivè lasciava vagare lo sguardo sulla piazza. Padre Burnissian si era rimesso a pregare, il volto piegato verso il giaciglio, la lunga tonaca nera che strusciava sul pavimento. Charles stava in ginocchio dall'altro lato, le braccia tese verso Emma. Le aveva preso le mani, gliele stringeva, trasalendo ad ogni battito del suo cuore come al contraccolpo di un crollo di macerie. Via via che il rantolo aumentava d'intensità, il sacerdote accelerava le sue preghiere, si mescolavano i singhiozzi soffocati di Bovary, e talvolta tutto pareva sparire nel sordo mormorio delle sillabe latine, che risuonavano come rintocchi funebri. D'improvviso si udì sul marciapiede un rumore di pesanti zoccoli, insieme allo strascicare di un bastone. Poi si levò una voce, una voce roca che cantava «Molto spesso l'estivo calore fa sognare le fanciulle d'amore». Emma si sollevò come un cadavere galvanizzato, i capelli sciolti, la pupilla fissa e dilatata. Per legare le spighe ben strette che la falce affilata ha tagliato, si chinò la mia bella Nanette verso i solchi che le han donato. «Il cieco!» gridò. E scoppiò a ridere, d'un riso atroce, frenetico, disperato, credendo di vedere la ripugnante faccia di quel miserabile ergersi come uno spauracchio nelle tenebre eterne. Ma un gran vento quel giorno soffiò e la corta sua gonna si alzò. Una convulsione la rovesciò sul materasso. Tutti si avvicinarono. Non esisteva più. Capitolo 9 C'è sempre, dopo la morte di una persona, una sorta di stupefazione. Tanto è difficile da capire questo sopraggiungere del nulla e rassegnarsi a credervi. Ma quando tuttavia si rese conto della sua immobilità, Charles si gettò sopra di lei, gridando, «Addio! Addio!» Ome e Canivè lo trascinarono fuori dalla camera. «Calmatevi!» «Sì», diceva lui dibattendosi. «Sarò ragionevole, non farò niente di male, ma lasciatemi, voglio vederla! È mia moglie!» E piangeva. «Piangete!» riprese il farmacista. «Date sfogo alla natura, vi farà bene!» Più debole di un bambino, Charles si lasciò portare giù, in sala, e Ome ben presto se ne tornò a casa sua. In piazza fu avvicinato dal cieco, il quale, trascinatosi fino a Yonville nella speranza della pomata antiflogistica, domandava ad ogni passante dove stava di casa lo speziale. «Allora, via! Come se non avessi altre gatte da pelare! Peggio per te, ripassa più tardi!» Ed entrò precipitosamente nella farmacia. C'era da scrivere due lettere, da fare una pozione calmante per Bovary, da inventare una bugia per nascondere l'avvelenamento e redigerla in forma di articolo per il fanal, senza contare tutta la gente che l'aspettava per avere notizie. E dopo che tutti gli abitanti di Yonville ebbero sentita la sua storia di arsenico scambiato per zucchero nel preparare una crema alla vaniglia, Ome tornò ancora una volta a casa di Bovary. Lo trovò solo. Il dottor Canivè era appena andato via, seduto in poltrona vicino alla finestra, che contemplava con uno sguardo ebete le mattonelle della sala. «Adesso bisognerebbe», disse il farmacista, «che fissaste voi stesso l'ora della cerimonia». «Perché? Quale cerimonia?» Poi, balbettante, con voce impaurita, «Oh no, vero! No, voglio che resti con me!» Ome, per darsi un contegno, prese una caraffa dallo scaffale per innaffiare i gerani. «Ah, grazie!» fece Charles. «Come siete buono!» E non terminò, schiacciato sotto la quantità di ricordi che il gesto del farmacista evocava. Allora, per distrarlo, Ome giudicò opportuno conversare un po' di orticoltura. Le piante avevano bisogno di umido. Charles chinò la testa in segno di assenso. «Del resto ora torneranno le belle giornate!» «Ah!» fece Bovary. Lo speziale, accorto di idee, cominciò a scostare delicatamente le tendine della finestra. «Guarda, ecco il signor Tuvash che passa!» Charles ripeté meccanicamente «Tuvash che passa!» Ome non ebbe il coraggio di riportare il discorso sulle disposizioni per il funerale. Fu il sacerdote che alla fine riuscì a convincerlo. Si rinchiuse nel suo studio, prese una penna e, dopo aver singhiozzato un po', scrisse. «Voglio che sia sepolta nella sua veste nuziale, con scarpe bianche, una ghirlanda. Le si dovranno sciogliere i capelli sulle spalle, tre bare, una di quercia, una di mogano, una di piombo. Nessuno mi dica nulla, mi farò forza. Il tutto sia coperto da un grande drappo di velluto verde. Lo voglio. Fatelo!» I presenti si stupirono assai delle idee romanzesche di Bovary e subito il farmacista cominciò a dire «Questo velluto mi sembra una superfettazione. La spesa, poi…» «Sono affari vostri?» gridò Charles. «Lasciatemi, andatevene. Voi non l'amavate!» Il sacerdote lo prese sotto braccio per fargli fare un giretto in giardino. Discorreva sulla vanità delle cose terrene. Dio era grande, buono, bisognava sottomettersi senza protestare alla sua volontà. Anzi, ringraziarlo. Charles sbottò in bestemmie. «Lo detesto, il vostro Dio!» «Lo spirito ribelle è ancora dentro di voi!» sospirò il prete. Bovary si era allontanato. Camminava a grandi passi, lungo il muro, vicino al filare di meli, ed igrignava i denti, alzava al cielo occhiate di esecrazione, ma non si mosse una foglia. cadeva una pioggerellina. Charles, che aveva la camicia aperta, fu preso da brividi. Tornò a sedersi in cucina. Alle sei si udì sulla piazza un rumore di ferraglia. Era l'irondelle che arrivava, e lui restò con la fronte ai vetri, a veder scendere uno dopo l'altro tutti i viaggiatori. Felicité gli stese un materasso in salotto, vi si gettò sopra e si addormentò. Sebbene filosofo, Homé aveva rispetto per i morti. Così, senza rancore verso il povero Charles, tornò la sera per vegliare il cadavere, portando con sé tre libri e un tacuino per prendere appunti. C'era già padre Bournisian, e due grandi ceri ardevano al capezzale del letto, che era stato estratto dall'alcova. Lo speziale, a disagio nel silenzio, non tardò a pronunciare qualche formula di compianto per quella giovane sfortunata, e il prete rispose che ormai non restava che pregare per lei. Però, replicò Homé, delle due l'una, o è morta in stato di grazia, come dice la Chiesa, e allora non ha alcun bisogno delle nostre preghiere, oppure è deceduta impenitente, mi pare sia questa la definizione ecclesiale, e in questo caso... Bournisian lo interruppe, ribattendo con tono burbero che bisognava pregare comunque. Ma, obiettò il farmacista, se Dio conosce tutti i nostri bisogni, a che serve la preghiera? Come? Fece il sacerdote. La preghiera. Non siete cristiano? No, scusatemi, disse Omi. Io apprezzo il cristianesimo. In primo luogo ha affrancato gli schiavi, ha introdotto nel mondo una morale. Non si tratta di questo. Tutti i testi? Oh, quanto ai testi, leggete la storia. Si sa bene che sono stati falsificati dai gesuiti. Entrò Charles, e accostandosi al letto, scostò lentamente le cortine. Emma aveva la testa reclinata sulla spalla destra. L'angolo della bocca, rimasta aperta, faceva come un buco nero nella parte inferiore del viso. I pollici erano ripiegati entro le palme, le ciglia erano cosparse da una specie di polvere bianca, e gli occhi tendevano a sparire in un pallore vischioso, simile ad una tela sottile, come fili di ragno tesi sul volto. Il lenzuolo si incavava fra i seni e le ginocchia, sollevandosi poi alla punta degli alluci, e a Charles pareva che su di lei gravasse il peso immane di innumerevoli macigni. L'orologio della chiesa batte le due. Si udiva il mormorio grave del fiume che scorreva nelle tenebre, ai piedi della terrazza. Padre Bournisien si soffiava ogni tanto rumorosamente il naso, e la penna di Hommet strideva sulla carta. «Coraggio, amico mio», disse quest'ultimo. «Andate a riposarvi, questa visione straziante». Una volta allontanatosi Charles, il farmacista e il curato ripressero il loro dibattito. «Leggete Voltaire», diceva il primo. «Leggete Dolbach, leggete l'Encyclopédie». «Leggete le lettres de quelques juifs portugais», diceva l'altro. «Leggete la raison du christianisme», di Nicolas, un ex magistrato. Si accaloravano, diventavano rossi. Ognuno parlava senza dare ascolto all'altro. Bournisien si scandalizzava di siffatta impudenza, Hommet si meravigliava di tanta stupidità, ed erano sul punto di passare alle ingiurie quando improvvisamente ricomparve Charles. Era una specie di sortilegio che lo attirava, costringendolo a risalire la scala in continuazione. Si metteva di fronte a lei per vederla meglio, e si smarriva in quella contemplazione, tanto profonda da non essere neanche più dolorosa. Rammentava storie di catalessi, i miracoli dell'ipnosi, e si diceva che con la forza estrema della volontà poteva forse riuscire a risuscitarla. A un certo punto persino si chinò su di lei, e chiamò a bassa voce «Emma! Emma!» ansimava talmente che il suo fiato faceva tremolare contro la parete la fiammella dei ceri. Sul far del giorno giunse la signora Bovary madre. Charles, abbracciandola, ebbe un nuovo sgorgo di pianto. Anche lei provò, come aveva fatto il farmacista, a fare qualche osservazione sulle spese per il funerale. Lui si arrabbiò talmente che subito tacque, e anzi si incaricò di recarsi immediatamente in città per acquistare quel che occorreva. Charles restò solo per tutto il pomeriggio. Bert era stata portata dalla signora Omey. Felicitès se ne stava di sopra, nella stanza, con l'Ale François. La sera ebbe visite. Si alzava, stringeva le mani senza riuscire a parlare, poi si sedeva accanto agli altri, che formavano un ampio semicerchio davanti al camino. A capochino, il polpaccio sul ginocchio, dondolavano la gamba, emettendo a intervalli un profondo sospiro. Tutti si annoiavano terribilmente, e tuttavia facevano a gara a non andarsene. Omey, quando alle nove tornò, da due giorni non si vedeva che lui passare sulla piazza. Era carico di una provvista di canfora, di benzoino e di erbe aromatiche. Portava anche un vasetto di cloro, per scacciare i cattivi odori. In quel momento, la domestica, l'Ale François e la Bovary Madre si davano da fare intorno ad Emma, finendo di vestirla. Abbassarono il lungo velo rigido, che la ricoprissino alle scarpe di raso. Felicité si inghiozzava. Ah, povera padrona mia, povera padrona mia! Guardatela, disse la locandiera con un sospiro. Come ancora graziosa, da pensare che stia per alzarsi da un momento all'altro. Poi si chinarono su di lei per metterle la coroncina. Fu necessario sollevarle un po' la testa, e allora un fiotto di liquido nero le sgorgò come un vomito dalla bocca. Dio mio, il vestito! Attenzione! Esclamò l'Ale François. Aiutateci, insomma! Diceva al farmacista. Non avrete mica paura? Paura? Io? Replicò lui con un'alzata di spalle. Ah, davvero? Ne ho viste ben altre all'ospedale, quando studiavo farmacia. Ci facevamo il pancio nell'anfiteatro delle dissezioni. Il nulla non spaventa un filosofo. Intendo addirittura, l'ho detto più di una volta, lasciare il mio cadavere agli ospedali, perché serva a suo tempo alla scienza. Il curato, sopraggiungendo, chiese come stava il medico, e alla risposta dello speziale continuò. Il colpo è ancora troppo recente, si capisce. A quel punto, Ome si congratulò con lui, non esposto, come tutti, a perdere una compagna amata, donde seguì una discussione sul celibato dei preti. Perché, diceva il farmacista, non è nella natura dell'uomo fare a meno delle donne? Ci sono stati delitti? Ma corpo di bacco! Esclamò il sacerdote. Come volete che faccia un individuo, in regime matrimoniale, a conservare, per esempio, il segreto della confessione? Ome immediatamente attaccò la confessione. Burnissian la difese. Si dilungò sulle conversioni che procurava. Citò diversi aneddoti di ladri divenuti d'un tratto onesti. A certi militari, che si erano accostati al tribunale della penitenza, era caduto il velo dagli occhi. A Friburgo c'era un ministro. Il suo interlocutore si era addormentato. Si sentiva un po' soffocare nell'atmosfera troppo greve della stanza. Così andò ad aprire la finestra, il che risvegliò il farmacista. «Una presa di tabacco su via?» disse. «Accettatela, serve a distrarsi». Una bagliare ininterrotto risuonava in lontananza, chissà dove. «Lo sentite l'ululato di un cane?» disse il farmacista. «Si dice che sentano i morti?» rispose il sacerdote. «E' come con le api, quando qualcuno muore volano via dall'alveare». Homè non rilevò queste superstizioni perché si era riaddormentato. Padre Bournisien, più resistente, continuò per qualche tempo a muovere le labbra sottovoce. Poi, piano piano, chinò il mento, abbandonò il suo librone nero e cominciò a ronfare. Stavano uno di fronte all'altro, pancia avanti, il volto gonfio, l'aria ingrugnita, ritrovandosi infine, dopo tanti contrasti, nella medesima umana debolezza, e non si muovevano più del cadavere accanto a loro, che pareva dormire. Charles non li svegliò entrando. Era l'ultima volta. Veniva a dirle addio. Le erbe aromatiche fumigavano ancora, e volute di vapori azzurrini, montando verso il riquadro della finestra, si mescolavano con la nebbia che entrava. C'era qualche stella. Era una notte mite. Grosse lacrime di cera gocciavano sulle lenzuola dalle candele. Charles le guardava ardere, affaticando gli occhi contro il raggiare della fiamma gialla. Riflessi ondulati tremolavano sull'abito di raso, bianco come il chiaro di luna. Emma vi scompariva dentro. A Charles le sembrava effondersi fuori di sé, sfumando confusamente nelle cose circostanti, nel silenzio, nella notte, nel vento che soffiava, negli odori umidi che affluivano. Poi, di colpo, la rivedeva nel giardino di Tost, sulla panchina, appoggiata alle siepi di pruni, oppure a Rouen, per le strade, sulla soglia della loro casa, nella corte dei Bertot. Gli pareva di udire ancora il riso allegro dei giovani che ballavano sotto i meli, il profumo dei suoi capelli riempiva la stanza, e la sua veste nuziale gli crepitava fra le braccia con un rumore di scintille. Quella veste, la stessa. Rimase a lungo, così, a rievocare tutte le gioie svanite, i suoi atteggiamenti, i suoi gesti, il timbro della sua voce. Una disperazione seguiva l'altra, senza posa, instancabilmente, come le onde di una marea dilagante. Fu colto da una spaventosa curiosità. Lentamente, con la punta delle dita, fremendo, le sollevò il velo, ma gettò un grido di orrore che svegliò gli altri due. Lo trascinarono di sotto, in sala. Poi venne Felicitè a dire che lui voleva dei capelli. «Tagliatene un po', rispose lo speziale. E siccome lei non ne aveva il coraggio, si mosse lui, le forbici in mano. Tremava tanto che punse diverse volte la pelle delle tempie. Alla fine, irrigidendosi per superare l'emozione, ome menò due o tre gran colpi a casaccio, lasciando chiazze bianche nel nero di quella bella capigliatura. Il farmacista e il curato si rituffarono nelle loro occupazioni, non senza dormichiare di tanto in tanto, cosa di cui si rimproveravano reciprocamente ad ogni nuovo risveglio. Allora padre Bournisien aspergeva la camera ad acqua benedetta e ome spargeva un po' di cloro per terra. Felicitè si era premurata di mettere per loro sul cassettone una bottiglia d'acquavite, un formaggio e una grossa brioche. Così lo speziale, che non ce la faceva più, verso le quattro del mattino sospirò. Non mi dispiacerebbe mettere qualcosa sotto i denti. Il sacerdote non si fece pregare, uscì per andare a dir messa, tornò, quindi mangiarono e sbevazzarono, ridacchiando un po' senza sapere perché, eccitati da quella curiosa allegria che ci prende dopo spettacoli di tristezza. E all'ultimo bicchierino il prete disse al farmacista, battendogli sulla spalla. Finiremo con l'intenderci noi due. Da basso, nel vestibolo, incontrarono gli inservienti che stavano arrivando. Charles, per due ore, dovette subire il supplizio del martello che picchiava sulle tavole. Poi Emma venne calata nella cassa di quercia, che fu rinchiusa nelle altre due. Ma siccome la bara era troppo larga, fu necessario riempire gli interstizi con la lana di un materasso. Finalmente, quando i tre coperchi furono piallati, inchiodati, saldati, fu esposta davanti alla porta. La cassa fu spalancata e gli abitanti di Yonville cominciarono ad affluire. Giunse il vecchio ruo. Svenne sulla piazza nello scorgere il drappo nero. Capitolo 10 La lettera del farmacista gli era arrivata solo 36 ore dopo l'evento. Inoltre Ome, per riguardo verso la sua sensibilità, l'aveva redatta in maniera tale che era impossibile capire cos'era realmente accaduto. Al pover'uomo venne quasi un colpo apoplettico da prima. Poi capì che non era morta. Ma poteva esserlo. Alla fine si era infilato una blusa, aveva preso il cappello, attaccato uno sperone alla scarpa, ed era partito ventre a terra, e lungo tutta la strada il vecchio ruo, col fiato in gola, si macerò d'angoscia. A un certo punto fu persino obbligato a scendere da cavallo. Non ci vedeva più, sentiva delle voci, gli pareva di impazzire. Si fece giorno. Vide tre galline nere appollaiate a dormire su un albero. Trasalì, impaurito dal presagio. Allora promise alla Santa Vergine tre pianete per la parrocchia, e fece voto di andare a piedi, scalzo, dal cimitero dei Bertot alla cappella di Vassonville. Arrivò alla locanda di Marom, chiamando a gran voce gli inservienti. Sfondò la porta con una spallata, si precipitò sul sacco d'avena, versò nella mangiatoia una bottiglia di sidro dolce, e inforcò di nuovo il ronzino, che correva per difiato. Diceva a se stesso che forse l'avrebbero salvata. I medici avrebbero trovato una cura, ne era sicuro. Rammentò tutte le miracolose guarigioni di cui aveva sentito dire. Poi però la vedeva morta. Era lì, davanti a lui, supina, in mezzo alla strada. Tirava le redini e l'allucinazione scompariva. A Kinkampua, per tirarsi su, beve tre caffè uno dopo l'altro. Immaginò che ci fosse stato un errore di persona nel messaggio. Si cercò in tasca la lettera, ce la trovò, ma non ebbe il coraggio di aprirla. Arrivò a supporre che fosse stato magari uno scherzo. La vendetta di qualcuno, una stravaganza d'ubriaco. D'altra parte, se fosse morta, si dovrebbe vedere, no? Ma che? La campagna non aveva niente di straordinario. Il cielo era azzurro, gli alberi si agitavano al vento. Passò un greggio di pecore. Avvistò il paese, lo videro arrivare di corsa a prono sul cavallo, che colpiva con furiose nervate. Le cinghie dell'animale grondavano sangue. Quando riprese conoscenza, cadde in lacrime nelle braccia di Bovary. «Mia figlia, Emma, la mia bambina, mi spiegate?» E l'altro rispose singhiozzando. «Non lo so, non lo so. È una maledizione!» Lo speziale li separò. «Inutile scendere in orribili particolari. Ne informerò io il Signore. Viene gente, un po' di dignità, di amine, un po' di filosofia». Il povero Charles volle mostrarsi forte e ripetè più volte «sì, ci vuole coraggio». «Ebbene sì, tuonò il bravo uomo. Ne avrò di coraggio, sangue di Dio. La accompagnerò fino alla fine». La campana rintoccava. Era tutto pronto. Bisognava andare. Seduti uno accanto all'altro, in uno stallo del coro, si videro passare e ripassare di fronte i tre cantori salmodianti. Il suonatore di serpentone soffiava a pieni polmoni. Padre Bournissian, imparimenti da cerimonia, cantava con voce acuta, salutava il tabernacolo, innalzava le mani, apriva le braccia. L'Estiboudois andava in giro per la chiesa con la sua canna di balena. Accanto al pulpito era poggiata la bara, circondata da quattro file di ceri. A Charles veniva voglia di alzarsi e andarli a spegnere. Si sforzava, tuttavia, di infervorarsi nella devozione, di slanciarsi nella speranza di una vita futura in cui l'avrebbe rivista. Faceva finta di credere che fosse partita, per un viaggio lontano, da tanto tempo. Ma quando pensava che stava lì sotto e che era tutto finito, che stava per essere condotta nella terra, era preso da una rabbia feroce, nera e disperata. A tratti gli pareva di non sentir più nulla e assaporava questo mitigarsi del dolore, pur rimproverandosi d'essere un debole. Si udì sulle piastrelle il rumore secco come di un bastone ferrato che le colpisse a uguali intervalli. Veniva dal fondo della chiesa e si interruppe d'improvviso nella navata laterale. Un uomo vestito di una pesante giacca scura si inginocchiò faticosamente. Era Hippolyte, l'inserviente del Lyon d'Or. Si era messo la gamba nuova. Uno dei cantori cominciò il giro della navata per la questua e le pesanti monete, una dopo l'altra, tintinnavano sul vassoio d'argento. «Ma volete sbrigarvi? Io sto soffrendo!» esclamò Bovary, gettandogli tuttavia irosamente un pezzo da cinque franchi. Il chierico lo ringraziò con un profondo inchino. Fra cantare, inginocchiarsi, rialzarsi, non la finivano più. Rammentò che una volta, nei primi tempi, avevano assistito insieme alla messa e si erano sistemati dall'altra parte, a destra, contro il muro. Suonò di nuovo la campana. Ci fu un gran movimento di sedie. I portatori fecero scivolare tre bastoni sotto la bara e cominciò l'uscita dalla chiesa. Sulla soglia della farmacia apparve in quel momento Justine. Rientrò precipitosamente, pallido e barcollante. La gente stava alle finestre per veder passare il corteo. Charles, davanti a tutti, inarcava il busto. Ostentava un'aria coraggiosa e salutava con un cenno coloro che, sbucando dai vicoli o dalle porte, si infilavano nella calca. I sei portatori, tre da ciascun lato, camminavano a passi brevi, un po' ansanti. I preti, i cantori e i due chierichetti recitavano il De Profundis e le loro voci si perdevano nella campagna, alternativamente crescendo e diminuendo. A momenti scomparivano dietro una curva, ma la grande croce d'argento si ergeva sempre fra gli alberi. Seguivano le donne, avvolte in mantelle nere col cappuccio abbassato, recavano in mano un grosso cero acceso, e Charles si sentiva venir meno in questo susseguirsi continuo di preghiere e di fiammelle, fra quegli odori snervanti di cera e di chiesa. Soffiava un venticello fresco, verdeggiavano la segale e la colza, gocce di rugiada tremavano ai bordi della strada, sulle siepi di pruno. L'orizzonte risuonava di rumori gioiosi d'ogni genere, gli schiocchi e il rotolio di un barroccio su lontane carreggiate, il grido ripetuto di un gallo o la galoppata di un puledro in fuga sotto i meli. Il cielo limpido era chiazzato di nuvolette rosa, una fioritura di giaggioli copriva le capanne di vaporosità azzurrine. Charles, passando, riconosceva le corti. Rammentava mattinate simili a quella, quando, dopo la visita ad un malato, usciva per tornare da lei. Il drappo nero, punteggiato di lacrime bianche, sventolava di tanto in tanto scoprendo la bara. I portatori rallentavano, stanchi, e la bara stessa avanzava a scossoni continui, come una scialuppa beccheggiante sui flutti. Arrivarono. I portatori continuarono, scendendo sino ad uno spiazzo erboso dove era stata scavata la fossa. Le persone si dispersero in circolo e, mentre il prete parlava, la terra rossa, ammonticchiata sui margini, scivolava dagli angoli della fossa, senza rumore, in continuazione. Poi, disposte le quattro corde, la bara venne calata. Charles la guardò scendere, non smetteva mai di scendere. Si udì alla fine un tonfo, le corde risalirono stridendo. Allora, Burnissian prese la vanga che gli porgeva l'estibudoa. Con la mano sinistra, senza peraltro smettere di aspergere con la destra, gettò vigorosamente una larga palata. E il legno del feretro, colpito dai ciottoli, fece quel rumore terribile che ci fa pensare al rimbombo dell'eternità. Il sacerdote passò l'aspersorio al vicino. Questi era Ome, che lo agitò solennemente. Poi lo porse a Charles, il quale si accasciò affondando sino alle ginocchia nella terra, e ne gettava a piene mani, senza smettere di gridare «Addio». Le mandava baci, si trascinava verso la fossa per farsene inghiottire insieme a lei. Lo portarono via, e non tardò a calmarsi, vagamente soddisfatto, come forse tutti gli altri, che fosse finita. Il vecchio Ruo, al ritorno, si mise tranquillamente a fumare la pipa, cosa che Ome, dentro di sé, giudicò un po' sconveniente. Osservò parimenti che Binet non s'era fatto vedere, che Tuvash se l'era filata dopo la messa, e che Theodor, il domestico del notaio, portava un abito blu, come se fosse impossibile rimediare un abito nero, dal momento che questo è l'uso, che diamine. E per comunicare le sue osservazioni, passava da un crocchio all'altro. Tutti lamentavano la morte di Emma, specialmente il Ruo, che non aveva mancato di venire al funerale. «Quella povera cara signora, che dolore per il marito!» Lo speziale continuava «Se non ci fossi stato io, sappiatelo, sarebbe arrivato a qualche gesto inconsulto contro sé medesimo». «Una così brava persona, e pensare che ancora sabato scorso l'ho vista nella mia bottega». «Non ho avuto il tempo», disse Omé, «di preparare qualche parola da lanciare sulla sua tomba». Rientrato a casa, Charles si spogliò, e il vecchio Ruo indossò di nuovo la sua blusa azzurra. Era nuova, e siccome durante il viaggio lui si era più volte asciugato gli occhi con la manica, aveva finito con lo stringergli sulla faccia, e lo strato di polvere che la insudiciava era rigato dalla traccia dei pianti. C'era anche la signora Bovary-Madre, con loro. Tacevano tutti e tre. Alla fine il brav'uomo sospirò. «Ve lo ricordate, amico mio, che sono venuto a Tost una volta, quando avevate appena perso la vostra prima moglie e buonanima? Vi consolavo allora, sapevo cosa dirvi, ma ora…» Poi con un lungo gemito che gli gonfiò il petto. «Ah, è la fine per me, credete? Ho visto andarsene mia moglie, poi mio figlio. Ed ecco, oggi, mia figlia!» Volle tornarsene subito a Ibertò, dicendo che non ce l'avrebbe fatta a dormire in quella casa. Rifiutò persino di vedere la nipotina. «No, no, sarebbe uno strazio insopportabile. Però l'abbraccerete forte per me. Addio, siete una brava persona. E poi questo non me lo dimenticherò mai», disse battendosi una manata sulla coscia. «Non abbiate paura, vi arriverà sempre la vostra tacchinella». Ma, giunto in cima al colle, si volse come in altri tempi si era voltato sulla strada di San Victor, separandosi da lei. Le finestre del paese erano tutte in fiamme, sotto i raggi obliqui del sole che tramontava nella pianura. Mise una mano davanti agli occhi e vide all'orizzonte una cinta di muri dove gruppi di alberi, qua e là, formavano boschetti neri in mezzo a delle pietre bianche. Poi riprese il viaggio al piccolo trotto, perché il suo ronzino zoppicava. Charles e la madre, malgrado la stanchezza, restarono a lungo a discorrere quella sera. Parlarono del passato e dell'avvenire. Lei sarebbe venuta a stare a Yonville, si sarebbe occupata della casa, non si sarebbero lasciati più. Si mostrò attenta e amorevole, rallegrandosi dentro di sé di recuperare un affetto che da tanti anni le sfuggiva. Suonò la mezzanotte. Il paese era silenzioso come al solito, e Charles, sveglio, pensava sempre ad Emma. Rodolphe, il quale, per distrarsi, aveva battuto il bosco tutto il giorno, dormiva tranquillamente nel suo castello. E anche Leon, laggiù, dormiva. Ce n'era un altro che non dormiva a quell'ora. Inginocchiato sulla fossa, fra gli abeti, un ragazzo piangeva, e il petto, ansante nella tomba, era squassato dai singhiozzi, sotto l'urgere di una pena immensa, più dolce della luna e più insondabile della notte. A un tratto il cancelletto cigolò. Era l'estibudois. Veniva a riprendersi la vanga che aveva dimenticato il pomeriggio. Riconobbe Justine che scavalcava il muro, e capì allora a chi doveva pensare, circa il mascalzone che gli rubava le patate. Capitolo undici L'indomani, Charles fece tornare la piccola. Lei chiese della mamma. Le fu risposto che era via, che le avrebbe portato dei giocattoli. Bert ci tornò sopra parecchie volte. Poi, a lungo andare, non ci pensò più. L'allegria della bambina affliggeva Bovary, costretto per di più a subire le insopportabili consolazioni del farmacista. Ben presto ricominciarono i problemi di quattrini, avendo l'heure nuovamente aizzato il suo amico Vinsar, e Charles prese impegni per somme esorbitanti, perché già mai avrebbe consentito a far vendere il più piccolo dei mobili appartenuto a lei. Sua madre era furiosa. Lui si irritò più di lei. Era proprio cambiato, e lei lasciò la casa. Allora tutti cominciarono ad approfittarsene. La signora L'Empereur reclamò sei mesi di lezioni, anche se Emma non ne aveva presa neanche una, nonostante quella quietanza che aveva fatto vedere a Bovary. Era un accordo fra loro due. Il bibliotecario reclamò tre anni di abbonamento al prestito. La Rolet reclamò il porto di una ventina di lettere, e poiché Charles domandava spiegazioni, ebbe la delicatezza di rispondere «Ah, non ne so nulla, erano cose sue». A ogni debito che pagava, Charles pensava che fosse l'ultimo. Se ne scoprivano subito altri, in continuazione. Provò a esigere l'arretrato di vecchie visite. Gli furono mostrate le lettere della moglie. Fu costretto a chiedere scusa. Felicité portava ora gli abiti di madame. Non proprio tutti, perché alcuni lui se li era tenuti, e si rinchiudeva nel suo spogliatoio per contemplarli. La domestica era pressa poco della taglia di lei. Spesso Charles, scorgendola di spalle, era colpito da un'illusione ottica, e ripeteva «Oh, fermati, fermati». Ma il giorno della Pentecoste lei se la svignò da Ionville, rapita da Theodore, rubando tutto ciò che restava del guardaroba. Fu verso quell'epoca che la vedova Dupuy ebbe il piacere di partecipargli il matrimonio del figlio Leon Dupuy, notaio a Ifto, con la signorina Leuca di Leboeuf di Bondville. Charles, nel biglietto di auguri che gli spedì, scrisse questa frase «Come ne sarebbe stata felice la mia povera moglie». Un giorno, che vagabondando senza scopo per la casa, era salito fino al solaio, sentì sotto la pantofola una pallina di carta sottile. La svolse e lesse «Coraggio, Emma, coraggio. Non voglio rovinare la vostra esistenza». Era la lettera di Rodolph, caduta a terra fra le casse, e sospinta verso la porta dal vento che entrava dall'abbaino. E Charles rimase immobile, a bocca aperta, in quello stesso luogo dove un tempo, ancora più pallida di lui, Emma, disperata, aveva desiderato la morte. Scoprì, infine, una piccola R in fondo alla seconda pagina. Che cosa voleva dire? Rammentò l'assiduità di Rodolph, la sua sparizione improvvisa e la sua aria compunta quando l'aveva incontrato di nuovo due o tre volte. Ma il tono rispettoso della lettera lo illuse. «Sarà stato, magari, un amore platonico», disse fra sé. D'altronde, Charles non era di quelli che vanno al fondo delle cose. Arretrò davanti alle prove e la sua incerta gelosia si perse nell'immensità del dolore. Dovevano averla adorata, pensava. Tutti gli uomini, senza alcun dubbio, l'avevano desiderata. Quindi le apparve ancora più bella e concepì un desiderio costante, furioso, che infiammava la sua disperazione e che si espandeva senza limiti nella misura in cui era ormai irrealizzabile. Per piacerle, come se fosse ancora viva, adottò le sue propensioni, i suoi gusti, si comprò stivali di vernice, prese la mania delle cravate bianche, si impomatava i baffi e, come lei, cominciò a firmare cambiali. Emma lo corrompeva dall'oltretomba. Fu costretto a vendere l'argenteria, pezzo per pezzo, in seguito vendette i mobili del salotto. Tutte le stanze si svuotarono, ma la camera, la sua camera, era rimasta immutata, come un tempo. Charles vi saliva dopo cena, spingeva davanti al fuoco il tavolino rotondo e avvicinava la sua poltrona. Lui si sedeva di fronte. Una fiammella ardeva in uno dei candelieri dorati. Bert, accanto a lui, colorava delle figure. Gli dispiaceva, pover uomo, di vederla così malmessa, con gli scarponcini senza lacci e i vestitini strappati dal giro manica sino ai fianchi, sicché la domestica non se ne curava minimamente. Ma era così dolce, così garbata, e la sua testolina si chinava così graziosamente, lasciando cadere la bella chioma bionda sulle guance rosa, che lui era invaso da una delizia infinita, un piacere intriso d'amarezza, come quei vini mal riusciti che sanno di resina. Le aggiustava i giocattoli, le fabbricava pupazzetti di cartone, o ricuciva il ventre squarciato delle sue bambole. Poi, se gli cadeva lo sguardo sulla scatola da lavoro, su un nastro che ne pendeva, o anche su uno spillo caduto in una fessura del tavolino, prendeva a fantasticare, e aveva un'aria così triste che anche la bambina si intristiva con lui. Non veniva più nessuno a trovarli. Justine se n'era andato a Rouen, dove faceva il commesso in una drogheria, e i bambini dello speziale frequentavano sempre di meno la piccola, dal momento che Ome non ci teneva, stante la differenza di condizione sociale, a che quella familiarità continuasse. Il cieco, niente affatto guarito dalla famosa pomata, se n'era tornato sul pendio di Boaguillon, dove raccontava ai viaggiatori il fallimento del farmacista, tanto che Ome, quando si recava in città, si celava dietro le tendine dell'Irondel per evitare l'incontro. Lo detestava, e a difesa della propria reputazione, deciso a toglierselo di torno con ogni mezzo, organizzò contro di lui un fuoco di fila occulto, che rivelava la profondità del suo acume, non meno della sua perfida vanità. Per sei mesi consecutivi si lessero infatti sul fanal de Rouen dei trafiletti così concepiti. Tutti coloro che si dirigono verso le fertili contrade della Picardia avranno senza dubbio notato, sulla salita di Boaguillon, a girarsi un disgraziato afflitto da orribile piaghe facciali. Egli vi importuna, vi perseguita e preleva una vera e propria tassa sui viaggiatori. Siamo forse ancora ai tempi abominevoli del Medioevo, quando era permesso ai vagabondi di esibire nei luoghi pubblici la lebra e la scrofolosi contratte alla crociata? Oppure, malgrado le leggi contro il vagabondaggio, i dintorni delle nostre grandi città continuano ad essere infestati da bande di mendicanti. Se ne vedono altri che circolano isolati e che non sono, forse, i meno pericolosi. Che cosa fanno i nostri assessori? Poi Ome inventava delle storie. Ieri sul pendio di Boaguillon, un cavallo ombroso, eseguiva il racconto di un incidente provocato dalla presenza del cieco. Tanto fece che fu messo in carcere, ma lo rilasciarono. Lui ricominciò e anche Ome ricominciò. Era una battaglia, e la vinse, perché il suo avversario fu condannato alla reclusione a vita in un ospizio. Questo successo lo imbalda Nzanì, e da allora non ci fu più nel circondario un cane investito, un fienile incendiato, una donna picchiata, di cui lui immediatamente non desse notizie al pubblico, sempre guidato dall'amore del progresso e dall'odio per i preti. Proponeva dei paragoni fra le scuole elementari e i frati ignorantelli. A sfavore di questi ultimi, evocava la notte di San Bartolomeo, a proposito di un sussidio di cento franchi conferito alla chiesa. Denunciava abusi, lanciava frecciatine. Era il suo linguaggio. Ome sapeva mordere, stava diventando pericoloso. Tuttavia ci stava stretto, nei limiti asfittici del giornalismo, e ben presto capì che ci voleva il libro. L'opera. Allora compose una Statistique générale du canton de Yonville, suivi d'observation climatologique. E la statistica lo spinse verso la filosofia. Si fece carico dei grandi problemi. Questione sociale, moralizzazione delle classi inferiori, pescicoltura, cauciù, ferrovie, ecc. Giunse a vergognarsi d'essere un borghese. Ostentava il tipo artista. Fumava. Comprò due statuine pompadure assai chic per adornarne il salotto di casa. Non trascurava affatto la farmacia. Al contrario, si teneva aggiornato sulle ultime scoperte. Seguiva la grande espansione del cioccolato. E lui, il primo ad importare nel dipartimento della Seine Inferiure il Ciocià e la Revalencia. Si entusiasmò per le catene idroelettriche Pulvermarché. Lui stesso ne portava una. E la sera, quando si toglieva il panciotto di flanella, la signora Omer restava abbagliata davanti alla spirale d'oro sotto cui scompariva il marito. E sentiva raddoppiare la sua passione per quell'uomo strizzato in catene più di un'uscita e splendente come uno dei re magi. Ebbe delle buone idee a proposito della tomba di Emma. Suggeri dapprima un tronco di colonna drappeggiato, poi una piramide, poi un tempio di vesta, una specie di rotonda, oppure un cumulo di rovine. E in tutti questi progetti, Omer non faceva mai mancare il salice piangente, che considerava simbolo obbligato della tristezza. Lui e Charles fecero insieme un viaggio a Rouen, per vedere dei sepolcri da un impresario di pompe funebri, accompagnati da un pittore, un certo Wolfrillard, amico di Bridou, e che per tutto il tempo non fece che snocciolare battute di spirito. Alla fine, dopo aver esaminato un centinaio di disegni, ordinato un preventivo e fatto un secondo viaggio a Rouen, Charles si decise per un mausoleo che doveva mostrare sulle due facciate un genio recante una torcia spenta. Quanto all'iscrizione, Omer non trovava niente di più bello di «Sta avviator» e lì si fermava, spremendosi la fantasia. Continuava a ripetere «Sta avviator». Alla fine trovò «Amabilem congiungem calcas», che fu adottato. Fatto strano, Bovary, pur continuando a pensare ininterrottamente ad Emma, cominciava a dimenticarla, e si disperava accorgendosi che l'immagine di lei sfuggiva dalla sua memoria, nonostante gli sforzi che faceva per trattenerla. La sognava, tuttavia, ogni notte, sempre lo stesso sogno. Le andava incontro, ma al momento di stringerla lei si disfaceva putrefacendosi fra le sue braccia. Fu visto, per una settimana, entrare in chiesa la sera. Padre Bournissian lo andò a trovare anche lui un paio di volte, poi lasciò perdere. D'altronde il buon parroco tendeva ormai all'intolleranza, al fanatismo, diceva Omer. Lanciava fulmini contro la mentalità del secolo e non mancava mai, nella predica quindicinale, di raccontare l'agonia di Voltaire, il quale, come tutti sanno, morì divorando i propri escrementi. Malgrado le economie cui si costringeva, Bovary era ben lungi dalla possibilità di estinguere i vecchi debiti. Loro si rifiutò di rinnovare alcuna delle cambiali. Il sequestro era ormai imminente. Allora pensò di ricorrere alla madre, la quale acconsentì a fargli accendere un'ipoteca sui suoi beni, ma facendogli una quantità di recriminazioni contro Emma. Inoltre chiedeva, in cambio del suo sacrificio, uno Charles scampato alle razzie di Felicitè. Charles glielo negò. Litigarono. Fu lei a fare le prime aperture per una riconciliazione, offrendosi di prendere in casa la piccola, che l'avrebbe aiutata nelle faccende. Charles la consentì, ma al momento del distacco gli mancò il coraggio. Allora fu rottura completa e definitiva. Man mano che i suoi affetti sparivano, si rinchiudeva più strettamente nell'amore per la figlia, che però lo preoccupava, perché ogni tanto tossiva e aveva chiazze rosse sulle guance. Proprio di fronte a lui poteva contemplare, florida e gioiosa, la famiglia del farmacista, uomo alla cui soddisfazione ogni cosa al mondo pareva contribuire. Napoleon lo aiutava in laboratorio, Atalì ricamava per lui un berretto greco, Irma ritagliava tondi di carta per tappare le marmellate e Franklin recitava tutta ad un fiato la tavola pitagorica. Era il più felice dei padri, il più fortunato dei mortali. Errore! Una sorda ambizione lo rodeva. Homè aspirava alla legione d'onore. I titoli non gli mancavano. Primo, essersi segnalato all'epoca del colera per una abbenegazione senza limiti. Secondo, aver pubblicato, e a mie spese, diversi lavori di pubblica utilità, come… E citava la sua memoria intitolata «Diusidre de sa produzione et des esefés». Più le sue osservazioni sul pidocchio della lana, inviate all'Academy, il suo volume di statistica e fin anche la sua tesi di laurea in farmacia. Senza considerare che sono membro di diverse società scientifiche. E lo era di una sola. Infine, esclamava cambiando argomentazione. Non bastasse come mi distingo in caso di incendio. Homè inclinava allora verso il potere. Rese segretamente importanti favori al prefetto durante le elezioni. Si vendette, insomma, si prostituì. Indirizzò persino una petizione al sovrano, in cui lo supplicava di rendergli giustizia. Lo chiamava «Il nostro buon re» e lo paragonava ad Enrico IV. E ogni mattina lo speziale si gettava sul giornale, nella speranza di leggervi la sua nomina. Non arrivava mai. Alla fine non si teneva più. E fece disegnare nel suo giardino una aiuola in forma di stella della legion d'onore, con due piccoli torciglioni d'erba che partivano dalla cima per imitare il nastro. Ci passeggiava intorno a braccia concerte, meditando sull'inettitudine del governo e l'ingratitudine umana. Per un senso di rispetto, o per una sorta di sensualità che lo induceva a rallentare le sue indagini, Charles non aveva ancora aperto lo scomparto segreto di uno scrittoio di palissandro adoperato abitualmente da Emma. Alla fine, un giorno, ci si sedette davanti, girò la chiave e fece scattare la molla. C'erano tutte le lettere di Leon. Più nessun dubbio stavolta. Le divorò una per una, frugò in ogni angolo, in ogni immobile, in ogni cassetto, dietro le pareti, singhiozzando, urlando, sconvolto, folle. Scoprì una cassetta, la sfondò con un calcio. Dallo scompiglio delle lettere d'amore emerse, balzandogli davanti agli occhi, il ritratto di Rodolf. Il suo avvilimento stupì. Non usciva più, non riceveva nessuno, rifiutava persino le visite ai malati. Qualcuno allora sostenne che si chiudeva in casa a bere. Talvolta tuttavia, un curioso, issandosi al di sopra della siepe del giardino, scorgeva sbalordito quell'uomo dalla barba lunga, coperto da abiti sordidi, che si aggirava con aria torva piangendo disperatamente. In estate, la sera, prendeva con sé la bambina e la portava al cimitero. Ne tornavano a notte fonda, quando l'unica luce accesa sulla piazza era l'abbaino di Binet. Tuttavia, la volutà del suo dolore era incompleta, perché non aveva attorno a sé nessuno con cui condividerlo. Per poter parlare di lei, andava a trovare la Lefrançois, ma la locandiera lo ascoltava con un orecchio solo, avendo anche lei le sue afflizioni. Perché L'Oreux, alla fine, aveva inaugurato le Favorites du Commerce e Iver, che godeva di grande prestigio per via delle commissioni, chiedeva un aumento di stipendio e minacciava di passare alla concorrenza. Un giorno, che era andato al mercato di Argueil per vendere, ultima risorsa, il cavallo, incontrò Rodolf. Impallidirono entrambi, vedendosi. Rodolf, che si era limitato a mandare un biglietto da visita, balbetto dapprima qualche parola di scusa, poi si fece coraggio e spinse la sua disinvoltura, era agosto, faceva molto caldo, sino ad invitarlo a prendere una birra al caffè. Seduto di fronte a lui, i gomiti sul tavolo, masticava il suo sigaro senza smettere di conversare, e Charles si perdeva in fantasticherie davanti a quel volto che lei aveva amato. Gli pareva di rivedere qualcosa di lei, era affascinato. Avrebbe voluto essere quell'uomo. L'altro continuava a parlare di agricoltura, di bestiame, di concimi, bloccando con frasi banali tutti gli interstizi da cui poteva insinuarsi un'allusione. Charles non lo ascoltava. Rodolphe se ne rendeva conto, e coglieva il passaggio dei ricordi sui mutamenti del suo viso. Questo si andava pian piano imporporando, le narici palpitavano, le labbra fremevano. Ci fu anche un istante in cui Charles, al colmo di uno scuro furore, fissò lo sguardo su Rodolphe, il quale, preso da un certo spavento, si interruppe. Ma ben presto ricomparve su quel volto la solita funerea stanchezza. «Non ce l'ho con voi», disse. Rodolphe era ammutolito, e Charles, la testa fra le mani, riprese con voce spenta e con il tono rassegnato dei dolori infiniti. «No, non ce l'ho più con voi», e aggiunse anche una parola solenne, la sola che abbia mai pronunciato. «È colpa del fato». Rodolphe, che quel fato l'aveva guidato, giudicò tanta buonarietà per una persona in quella situazione, persino comica e un poco vile. L'indomani, Charles andò a sedersi sulla panchina, sotto il pergolato. Passavano luci attraverso il traliccio, i pampini disegnavano la loro ombra sulla sabbia, il gelsomino profumava, il cielo era azzurro, ronzavano con le otteri attorno ai gigli in fiore, e Charles, come un adolescente, si sentiva soffocare dai vaghi effluvi amorosi che gonfiavano il suo cuore afflitto. Alle sette, la piccola Bert, che non l'aveva visto per tutto il pomeriggio, venne a chiamarlo per la cena. Aveva il capo riverso contro il muro, gli occhi chiusi, la bocca aperta, e stringeva nella mano una lunga ciocca di capelli neri. «Papà, vieni, su!» disse la bambina. E, pensando che scherzasse, gli diede una spintarella. Cadde a terra. Era morto. Trentasei ore dopo, chiamato dallo speziale, accorse il dottor Canivè. Lo aprì e non trovò niente. Dopo che fu venduto tutto, rimasero dodici franchi e quindici centesimi, che servirono per pagare il viaggio della signorina Bovary sino a casa della nonna. La buona donna morì quello stesso anno, e poiché il vecchio Ruo era paralizzato, toccò ad una zia prendersi cura della bambina. È povera e la manda per guadagnarsi il pane in una filanda di cotone. Dopo la morte di Bovary, tre medici si sono succeduti nella condotta di Yonville senza riuscire a sfondare, tutti subito battuti in breccia da Ome. Si è fatto una clientela incredibile, le autorità lo rispettano e l'opinione pubblica lo protegge. Gli è stata appena conferita la legion d'onore. Fine